Benvenuti o bentornati da Videodrome in via Magento 85 a Livorno, sono sempre io Federico Frusciatte per chi mi conoscesse o per chi non mi conoscesse questo è il mio canale YouTube chiaramente canale nel quale si parla di cinema, musica e soprattutto è un po' di tutto il cazzo che mi va questo è il video che tutti, e lo dico tutti gli anni, attendono di più del mio canale ovvero il meglio e il peggio del 2021 diciamo subito che la base per questo video e quindi i titoli sono stati presi dall'annuario dei film tv uscito il 7 di dicembre, proprio perché l'annuario dei film tv arriva dall'altro anno, mi pare dal 31 ottobre dell'altro anno fino al 4 novembre di quest'anno e quindi non mi venite poi a chiedere il cremacio, ve lo vedate, perché io quelli dopo usciti il 2-3 di novembre non ci sono dentro questa classifica, chiamiamola così, che poi non è tale perché non metterò come al solito i film né in ordine alfabetico né per gradimento li butto tutti insieme, dovrete ascoltare per capire quali sono quelli che mi sono piaciuti ancora di più, visto che l'annata cinematografica dell'altro anno, un pezzo di quest'anno è abbastanza miserevole, siccome ho deciso insieme a Kira V con la moto di cercare di dare più spunti possibili di dare più film da guardare possibili durante l'anno insomma quelli che ho scelto sono comunque tutti o usciti in sala all'80% oppure il 20% sono film che dovevano uscire in sala ma che hanno avuto una distribuzione o un video e on demand perché purtroppo non sono potuti in sala per il covid ripeto, l'annuario dei film tv è la base diciamo per fare questo video e ripeto un'altra volta sono scelte mie come tutte le classifiche del cazzo come questa hanno il loro valore solo per il sottoscritto voi a limite divertitevi come al solito a sentire la merda e spero che insomma troviate qualcosa da vedere nei film che io invece amo e che ho amato di quest'annata e dei quali parlo molto più volentieri della merda anche se voi ascoltate molto più volentieri la seconda detto questo a me mi importa anche Po inizio a girare questo video e speriamo di far presto perché qui siamo a primi di dicembre mi sa che si arriva a primi di gennaio solo a girarlo quindi partiamo subito con i film che mi sono piaciuti non farò un film bello, due brutti, uno bello, due brutti perché è una cosa che mi fa stracacare metterò almeno 35-40 film buone e almeno 30-35 cessi poi voi scoprirete quali sono intanto partiamo come ho detto in ordine sparso con i film che mi sono più piaciuti di questa annata cinematografica passata su Luc Besson ho fatto proprio una monografia nel 2021 quindi se volete andatevela a vedere così parlo anche di questo film ma soprattutto di tutti i suoi film e il film di cui parlo è del 2019 è uscito al cinema l'altro anno da noi fu un bello spettacolo soprattutto perché la protagonista è meravigliosa il film è appunto Anna Luc Besson per chi non lo conoscesse regista francese clamoroso che viene fuori da film bellissimi come Subway oppure Nikita, Leon insomma che nonostante qualche piccola caduta di tono e come produttore faccia abbastanza ca come regista riesce a creare quasi sempre un film con donne d'azioni violentissime e pistolettate che sia Leon una ragazzina che sia Giovanna d'Arco che sia il quinto elemento che sia Nikita appunto il suo vero capolavoro più grande capolavoro a cui questo film in un certo senso si rifà il film è tutto ambientato tra 1985 e 1990 ovvero fine della guerra fredda parte finale della guerra fredda la storia è appunto quella di questa giovane e bellissima ragazza Anna Poliatova che dovrebbe essere una modella nella realtà della vita bellissima, misteriosa e che in realtà nasconde un vero segreto è stata reclutata quando era praticamente sfatta dal KGB per diventare una delle spie più letali appunto del KGB stesso e questa nostra spia fa brancolare nel buio la CIA tranne un agente della CIA che riesce praticamente a sgamarla e gli offre un patto questo patto è te tradisci il tuo paese e sarai finalmente libera la nostra vedremo che cosa avrà intenzione davvero di fare doppio, triplo, quadruplo gioco e di lì in poi tutta l'azione e tutto quello che ne verrà fuori allora divisa fa un Gillian Murphy e un Luke Evans meravigliosi con un'Ele Mirren fantastica nel ruolo del capo del KGB della nostra è una storia girata a dir poco da Dio cioè Besson un'altra volta decidi di mettere in scena una specie di remake, reboot, sequel se vogliamo del suo Nikita portando un'altra volta una ragazza distrutta a trasformarla in un'arma bellissima e dotata assolutamente di una spietata sensibilità qui naturalmente il gioco diventa anche più di spionaggio e quindi incominciano a trovarsi due, tre sottotrame e il finale è complicato per come deve essere in realtà per quanto è semplice la trama ovvero una bellissima donna che ammazza tutto quello che cammina ci sono scene fantastiche come tutta quella del prefinale 5 minuti di meraviglia tutta la scena di botte nel ristorante è a dir poco girata e montata in maniera straordinaria da un Besson che dimostra di avere una mano ancora nelle scene d'azione notevole che si rifà a John Woo al cinema della nuova Hollywood che non assolutamente si avvicinerà mai a uno shooter in quel senso e nonostante poi il film sia abbastanza fracassone e possa essere venuto anche in USA dove chiaramente però ha fatto flop questo è un film che io ho scoperto e riscoperto molto volentieri poi anche in Blu-ray perché dopo una prima visione mi aveva abbastanza convinto la seconda o terza video mi ha convinto ancora di più proprio perché il film è montato da Dio come ho detto da Julian Ray alle musiche del sudale di Xerra che levano praticamente di uno la fotografia è splendida Thierry Arbogast fa un lavoro spettacolare riesce a utilizzare una fotografia scupa con dei tagli gotici quasi rossi e neri in determinate scene di tensione riesce invece a darci quei colpi alla Riddle Scott quelli azzurri quelle luci accesissime quei forti viola e che ci trasportano in un mondo quasi fantascientifico a tratti e poi su tutto regna la protagonista sa Salus appunto che a fare questa Ana è perfetta questo fisico statuario questa faccia meravigliosa due occhi che sfondano una vera faccia da cinema niente da dire e il film la segue segue moltissimo il nostro personaggio lo tallona è rarissimo che non sia scena è uno di quei classici film che vanno seguiti con attenzione per via della trama ma che hanno proprio forza nelle immagini forza nella struttura della composizione grafica del quadro proprio perché Besson conosce tutti i sistemi narrativi e cinematografici per poter creare un'ottima inquadratura e una bella scena e quello che riesce a fare in questo film cosa che non gli è riuscito nei suoi film meno riusciti oppure falliti è proprio riuscire a dare allo spettatore quello che vuole dello spettatore attraverso una visione però molto intima e personale secondo me di Besson per questo è uno dei film più bessoneani degli ultimi che abbia mai fatto proprio perché riesce a costruire il suo stile di regia cercando di adattarlo a un tipo di cinema che ormai il nostro fa da 35-36 anni e lo riadatta attraverso una storia classicissima che però un'altra volta sfonda diciamo delle porte attraverso due-tre sorprese che non vi sto a dire se no non sarebbero più sorprese che lasciano lo spettatore abbastanza basito compleso l'ottimo finale ottima poi la costruzione temporale del film tutto su uno sflasamento fra flashback flash forward del presente quindi molto interessante anche questo bisogna stare attenti è un film che il nostro costruisce bene proprio a livello estetico ripeto è magnifico la storia funziona benissimo e il tutto è un classico gran film di azione di quelli che si vorrebbero vedere tutti gli anni di più eppure ha fatto un flop enorme ed è un vero peccato perché ormai il cinema di azione bello bello secondo me non lo vogliono più e siamo ridotti un po' a dover vedere sempre le solite quattro cazzate quando Besson già ci mette un personaggio femminile così forte la botta è fatta perché se non sfondi in America peccato perché secondo me questo Anna è un grandissimo film d'azione e dimostra un'altra volta che Besson quando vuole gira il cazzo che gli pare e come gli pare sempre in maniera ottimale quindi che dirvi di più per me è un film da avere da collezionare come tutti quelli che mettono il meglio ogni anno sono i film secondo me più belli usciti al cinema e come ho detto quest'anno ma anche non demanda un video che dovevano andare al cinema perché purtroppo si sa l'annata covid è andata così però questo Anna entra per forza e di dritto nei migliori proprio perché al di là del fatto che è proprio un bel film risulta essere un'idea di concezione di cinema d'attore classico ma post-moderna della messa in scena che tanto piace al sottoscritto quindi il link è qua sotto per me di film assolutamente indispensabili le donate su Patreon mi piace fate tutte le cazzate che dovete fare ma soprattutto se amate l'azione quella con controcazzi i film di spionaggio seri che magari hanno una trama magari vista e che può stancare non stancherà però mai la messa in scena di Luc Besson che tira fuori anche da una trama rivista da se stesso che quasi ha inventato questo stile di cinema in un certo senso visivamente in questo modo e anche narrativamente insomma siamo di fronte per me a un'opera assolutamente da non perdere Anna Luc Besson 2019 è il classico cinema azione che ripeto seppur rivisto stavolta citazionista a se stesso del suo attore è vivo ed è pieno di cuore ecco un cinema veramente fatto con grande passione e nella mia passione per il grande Besson per le donne giovani e belle armate in una pistola naturalmente continua sempre di più e questo film è un altro esempio come ho detto di tanti altri che lui ha sempre fatto nella sua lunga e speriamo ancora continuativa carriera questo è un film biografico un film biografico un po' particolare interessante su Tesla Tesla famoso inventore di fine 800 prima del 900 appunto l'uomo che ha inventato in realtà la corrente alternata altre 6.670 cose riguardanti la stessa che ha portato avanti la nostra scienza di quel tipo elettrica elettromagnetica che vedicenzo avanti di cent'anni sono con i suoi progetti e tutti i suoi brevetti che però furono sfruttati da altri per fare i soldi come Marconi ad esempio per il resto questo film appunto è Tesla si chiama proprio così è interpretato in maniera straordinaria Tesla in questo film da un ottimo Ethan Hawke che interpreta questo uomo appunto Tesla che viene di origine serba che va in America che cerca insomma di portare a compimento le sue visioni quello che lui vede e quello che lui riesce a ricostruire subito grazie al suo genio completo e totale quindi noi vediamo il nostro Tesla giovane che va a lavorare da Edison che però dopo sei mesi lo schernisce lo manda via e quindi troviamo il nostro che poi invece va a lavorare per Westinghouse per cui metterà la coltelta alternata e poi insomma tutta la parte finale con gli esperimenti e tutto il resto questo è un film puramente biografico e storico in quel senso ed è diretto in maniera veramente buona da Michael I.M. Ray da chi era un regista che si fece notare negli anni 90 con lo splendido prodotto da Lynch e Naja che era un horror vampiresco di grande impatto debitore un po' di The Addiction ma veramente notevole poi fece Hamlet 2000 che era niente male insomma un regista che quando le idee sono buone riesce a metterlo in scena con ottima mano e questo film è un film molto particolare dalla fotografia alla messa in scena al montaggio il tutto riporta a tratti a una voglia di postmodernismo enorme a tratti una voglia di classicismo di quelle che non si spengono e a tratti anche proprio una voglia di rendere il tutto teatrale tutto di cartone ecco come piace a me in un certo senso molti fondali molte cose sono proprio fatte volutamente così quasi da cinema anni 20-30 questo è veramente bello così come è bella poi la scoperta del kinetoscopio e tutto il resto che verrà nel film il film è comunque un film che parla di Tesla nel senso che si concentra molto su di lui diciamo il suo unico forse amore della sua completa conoscenza di un mondo data dalla sua intelligenza dal suo genio e non dallo studio e questa è una cosa incredibile un uomo che dichiarava che la corrente alternata nessuno l'ha inventata e sempre esistita e lui l'ha solo incanalata e poi il film funziona funziona prima di tutto perché i dialoghi sono ottimi cioè si riesce a essere molto credibile poi funziona perché il nostro ammereida non fa un vero biopic come semplicemente sembra non ci fa vedere da giovane poi da vecchio ci parla di un pezzo di storia specialmente di 10-15 anni più importanti ma soprattutto lo fa in un modo molto interessante con una ricostruzione d'epoca notevole costumi e scenografie ottime tutti gli attori anche in grande Clay McLane a fare Edison è notevole così come Barba a fare Westinghouse riesce a essere credibile e il film non si dimentica comunque di Westinghouse e Edison riesce a starli dietro la storia della della serie elettrica è terrificante è la fregatura che piglia da Westinghouse insomma è un film che ci mostra in realtà un uomo come Tesla un dichiarato un socialista dichiarato in pratica un anticapitalista che si trova con il suo idealismo europeo a combattere contro un'idea di capitalismo americano a tutti i costi per avere successo e soldi mentre lui voleva solo fare invenzioni e tutto questo è bellissimo per come viene raccontato come ho detto viene raccontato da flashback e flash forward della sua vita inframezzati però da cose meravigliose perché noi in realtà siamo abbiamo un caronte abbiamo qualcuno che ci porta ci fa attraversare la vita di Tesla e questo caronte è Anne Morgan interpretata alla storia grande da Eva Yusel così come ho detto sono bravi tutti gli altri attori e la stessa Eva Yusel appunto ci guarda ci sfonda la quarta parete la nostra traghettatrice perché ci racconta la storia di Tesla però lo fa con uno sguardo assolutamente inedito in questo senso e qui l'originalità del film la nostra sfonda la quarta parete pur essendo vestita ambientata magari in un quadro del 1800 come inquadratura tira fuori un computer portatile inizia a farci vedere quanto Edison sia in realtà molto più ricercato importato e considerato più geniale di realtà di un Tesla che ne valeva 5 dicendo che in realtà però viene considerato molto meno attraverso anche questa ricostruzione anche moderna computer fotografie interviste il film viene sballottato appunto fra questo classicismo e questo postmodernismo che è il Mireida decide di mettere in scena con una grande mano proprio una forza notevole nel montaggio lento è uno di quei classici film che non vuole raccontarci niente in due secondi ma che vuole farci attaccare i personaggi e lo fa con una mano di quelle che non si dimenticano perché il regista proprio riesce a giocare benissimo tutti i tempi le musiche sono giostrate perfettamente questa idea della quarta parete questa idea di lei che ci trasmette ci trasporta attraverso la mentale di questo Tesla è meravigliosa e tutta la parte finale con tutti gli esperimenti più astrusi dove si trovano le poche foto del nostro Tesla sono a dir poco eccezionali quindi per me questo è un film in realtà che uscì l'anno scorso a fine anno e lo metto perché mi era sfuggito l'ho rivisto l'ho finalmente visto ed è secondo me uno migliore film dell'anno ed è incredibile che sia maltrattato praticamente da tutti i critici e che non abbia in realtà il merito che deve avere perché la regia è fluida la fotografia è di alto livello la recitazione è ottima è una bella sceneggiatura il modo di raccontarci Tesla non è il solito che abbiamo visto 6.000 volte poi Tesla è uno dei personaggi più importanti diciamo per il cinema l'abbiamo visto in 6.000 film l'abbiamo visto anche in 6.000 dischi viene citato ovunque forse il più popolare negli ultimi anni è quello nel bellissimo dei prestigi interpretato da David Bowie appunto nel film meraviglioso del buon Nolan detto questo Tesla il link è qui sotto per me è sicuramente uno dei migliori film di quest'anno senza alcun dubbio questo è un film eccezionale veramente questo mi avrebbe meritato il meglio di un anno in cui fossero usciti 40 capolavori quasi perché questo è un semi capolavoro una commedia delle più divertenti che mi è capitato di vedere nel ventunesimo secolo è un francese riproduzione geniale geniale questo Mandy Bulls questo è un film secondo me di una bellezza rara un inno alla stupidità alla vita e alla voglia di amicizia ad ogni costo la voglia di sopravvivere a una società infame e anch'essa super super classista è un film straordinario questo qui questo Mandy Bulls di Quentin Dupier che dirige in maniera splendida un cast formato da Gregor Ludig David Marseille India Alf Romeo Elvis ed una spettacolare Adele Xarcoculus che qui dopo vari personaggi sempre tristi sempre sfatti modello la vita di Adele tutto il resto vera nuda e buonissima qui tira fuori un personaggio assurdo praticamente che vi starò a dire dopo perché la storia è questa è la storia di due amici due circa quarantenni due uomini di mezza età 30 quarantenni parecchio incoglioniti entrambi dalla vita e anche e soprattutto dalla natura insomma però sono dei ragazzi che sono in un certo senso buoni sono come fratelli fra di loro e allora la storia è il punto di questi qui che fanno dei lavoretti ogni tanto per dei piccoli criminali e gli viene detto di prendere praticamente una macchina per andare a prendere una valigetta in un posto e portarla da un altro posto tutto qua questi quindi non sanno che cazzo recupera perché gli dicono di prendere una macchina col bagagliaio loro non ce l'hanno siccome non sono sveglissimi decidono di andare a rubare una macchina rubano questa macchina però si accorgono che dentro il bagagliaio dopo un po' sentano rumore aprono sto bagagliaio e ci trovano dentro una mosca gigantesca a questo punto presi da atto di grandissima colpo di genio decidono di addestrarla per rapinare le banche e tutto il resto al posto loro e di lì parte questo delirio i nostri iniziano a fare questo on the road cercando di insegnare uno alla mosca e l'altro di non essere sgamato da un gruppo di persone che li scambia praticamente scambia questo protagonista per uno che doveva essere un amico di questa della scuola e questi sono ricconi che decidono quindi di invitarli in ricordo di tal memoria a casa loro e in questa casa questi iniziano a fare il cazzo che le vogliono fino alla distruzione praticamente totale e in questo il film può sembrare simile a un certo tipo di Hollywood party di Black Idors cioè queste schegge impazzite che entrano dentro questa facilità di una famiglia borghese che sembra tanto bella tanto felice tanto contenta che in realtà nasconde magagne che vengono distrutte subito in un attimo da un individuo che dovrebbe essere addirittura uno sconosciuto e lì lascia anche in sospeso una cosa meravigliosa e il film funziona perché? Innanzitutto perché questi due protagonisti sono perfettamente affiatati i tempi comici sono sempre beccati il montaggio è sempre quello giusto più digitale utilizzato con una parsimonia enorme la fotografia è sempre delicata non si cerca mai di dare dettagli eccessivi e il realismo al di là del moscone è sempre presente perché i personaggi sono scritti benissimo i nostri due non sono così soltanto perché comunque poco dotati dalla natura ma anche perché scopriamo mentre dialogano tranquillamente senza dare un eccesso di pisantezza senza mai cascare nella retorica ci dicono che uno per esempio ha la mamma morta e il babbo in galera da vent'anni l'altro non li ha mai conosciuti quindi ci troviamo di fronte comunque a delle persone che hanno dei grossi problemi proprio a inserirsi nella società una società che però sembrerebbe trattarli da idioti e stupidi e quindi loro sembrerebbero comportarsi da tali ma in realtà è la loro amicizia che li tiene uniti più che le loro follie e stravaganze e in tutto questo entra a gamba tesa questa famiglia di amici e di ragazzi che loro non conoscevano e nei quali si infilano tutti nella seconda parte del film e allora a quel punto delle risate sono giganti perché questo cercano in ogni modo di farsi passare per quello che non sono e sono straordinari nella loro lozzezza sono straordinari nel loro essere così diretti e qui la critica è gigantesca invece a questo mondo borghese che sembra così come ho detto felice così sempre pieno di attenzione ma che in realtà poi quando i nostri scompaiono tranne un paio di ragazzi gli altri sono tutti a dire sempre di merda di questo ma guarda queste due bestie questi animali e un'altra volta nel film comunque si nota come i caratteri femminili a un certo punto siano più maturi in quel senso di quelli maschili e cerchiano anche di comprendere quello che sta davvero succedendo a questi ragazzi e infatti un paio di loro dicono ma dai sono simpatici mentre gli uomini non li ameranno mai per tutto il film e forse anche perché hanno capito che qui li stanno a inculare ma detto questo il film è proprio interessante perché un'altra volta riscrive una società che porta l'essere comune a pensare di diventare quasi un supereroe attraverso un moscone il finale tra l'altro è geniale non ve lo sputterà ma il finale è geniale state lì aspettate perché è un film che quando finisce fate no vabbè li amo e li amerò per sempre però non pensate di trovarvi di fronte a un'idiozia tipo scemo e più scemo qui non si calca mai la mano nel demenziale cioè latti che fanno sono stupidi ma non c'è mai una cosa sopra le righe al di là ripeto della musca che va accettata però non è una demenzialità modello scemo e più scemo che proprio fanno le scuregge e cosa no no loro sono così sono ignoranti senza cultura bestie animali però in realtà sono buonissimi non vorrebbero nemmeno fare rapine alla fine scopriamo nemmeno un cazzo l'importante è stare insieme il viaggio e riescono anche a portarla a casa povera osa della valigia quindi è un film straordinario quando poi a un certo punto arriva il personaggio di Adele che tutto un tratto la sente in silenzio per 20 minuti di film inizia a parlare a urlare come una pazza a sbraità perché scopriamo che è cascata picchiata la testa e questa non riesce più a non esprimersi non urlando non sembrando sempre incazzata e li odia da subito e questo è il fantastico c'è subito questo scontro in realtà fra Adrietti quelli che si dovrebbero unire in realtà lei lotta di classe non li sopporta sti poveracci sti sporci sti vicci rubano ci infamano e incredibilmente però a livello logico ha pure ragione perché lei ha sgamato subito che sono dei cazzari e tutto il resto è la scena meravigliosa in cui loro hanno un moscone e gli sgamano il cane portati il canino e tutti i ubellini i polini il canino e quando poi scopriranno che il cane insomma è stato mangiato dalla mosca dovranno incolpare altri veramente ovviamente si fa sul delirio totale ma non di narrazione ma sul delirio proprio del pensiero umano e dovete vederlo se no vi sputtano perché e la fuga anche di loro è meravigliosa non sentono nemmeno cazzi come li sputtano via vanno e via e il film è fantastico perché non ha alcuna intenzione di raccontarci cosa succede alla seconda parte agli avanzati ma ci continua a seguire prende in mente i nostri due personaggi che sono due dei personaggi più belli secondo me della storia del cinema francese degli ultimi vent'anni così liberi così anarchici così simpatici così distruttivi così meravigliosamente unici ecco l'unicità è la cosa che il regista vuol farci capire di ogni persona l'individualismo sì ma mai come ossessione che hanno questa di borghesi invece loro sono una persona sola in due da soli si completano e riescono ad essere incredibilmente in amore anche con gli altri che erano di un'altra classe a noi ne frega proprio niente si nota come questi proletari completamente rincotti stiano bene con tutti facciano tutti non si debbano nemmeno censurare in un certo senso se non per non farsi sgamare perché questi l'hanno presi per altri l'hanno invitati perché convinti di essere amici da vent'anni e non si vedevano invece non è così in tutto il resto però loro continuano a comportarsi come si sono sempre comportati bestie in piscina fanno un casino mangiano di merda è così e il film riesce a divertire ed è un film però che fa pensare tantissimo a un certo tipo di condizione anche di alcune persone che sono costrette a fare anche lavori di questo tipo per mafiosi o criminali proprio perché il po' con quel sentente intellettivo o addirittura la società che li ha schiacciati fino a renderli in tal modo non li porta altro a che a dover per forza fare diciamo cose che sono illegali ma i nostri che le facciano perché questo film qui è un inno all'illegalità se i criminali sono loro sono due meravigliose persone che ha bisogno di portare questa valigia e che tutti noi speriamo sin dall'inizio abbiano ragione su quel cazzo di Moscone e che li porta i più soldi di quanto non possono immaginare in tutto questo ripeto c'è un'idea della regia che è fantastica siamo di fronte a un regista che non sembra girare mai niente che in realtà quando lo guardi la terza a quarta volta ti rendi conto dei movimenti di come gira attore personaggi del piano sequenza della difficoltà di alcuni tagli di fotografia che vanno dal chiaro all'oscuro al caldo e al freddo nel solito movimento di macchia quindi un regista che sa veramente fare il suo mestiere degli attori ottimi come ho detto una delex o stracopoulos lì come cazzo si chiama nel suo ruolo migliore migliore naturalmente vestita una volta tanto e che non fa la solita faccia sì ma che anzi tira fuori la sua verve comica e lo fa con grandissima forza proprio perché la sceneggiatura secondo me è geniale gli attori sono fantastici e la messa in scena è di quelle che si ricordano sempre proprio perché il cinema francese di questo tipo riesce ad avere una grazia una leggerezza e una pesantezza anche negli argomenti che tratta che ormai sembra il mondo essersene dimenticato quindi per me questa è una commedia assolutamente da non perdere un piccolo gioiello un piccolo capolavoro una di quelle cose che sfuggono così come sfugge questa mosca volando in aria e che poi forse ritorneranno appunto come la stessa insomma guardatevi questo grandissimo Mandibuls perché secondo me è un vero filmone una delle commedie migliori dell'anno e una delle migliori commedie degli ultimi venti anni perché qui siamo di fronte veramente a un piccolo tocco di genio uno di quei classici film che mi guarderò per 14.000 volte nella vita perché non mi annoiano mai e ogni volta l'ho già visto ci trovo cose di regia e anche di scrittura che mi intrigano sempre di più quindi è un film che non muore alla prima visione né alla seconda né alla terza quindi è un film che io metto il link qui sotto vi consiglio assolutamente di comprare perché questo è obbligato qui siamo di fronte a uno dei migliori film dell'anno sicuro ma soprattutto a una delle migliori commedie degli ultimi venti di anni fate un po' voi non avevo idea di cosa fosse e invece poi ho scoperto questo bellissimo esordio di un'ora e venti un dramma incredibilmente nero che si intitola Regina un film veramente bello veramente bello diretto dall'esordiente Alessandro Grande che si era già fatto notare con il suo cortometraggio precedente a questo lungometraggio il film interpretato da Francesco Montanari già noto insomma agli spettatori per alcuni suoi bei film delle buone prove e qui dà un'ottima prova nel ruolo del padre della ragazzina Regina appunto interpretata dalla giovane countautrice di 15 anni Ginevra Francesconi si interpreta come ho detto appunto Regina vivono insieme la madre è morta quindi il loro rapporto è abbastanza particolare nel senso che sono tutti e due musicisti il padre è un ex sessionman che suonava il basso e lei è una giovane countautrice che il padre sta cercando di lanciare a tutti i costi nella musica grazie anche ai suoi ex agganci appunto che aveva quando era ragazzo il film sembrerebbe parlare di questo in realtà poi però succede un piccolo problema i nostri vanno sempre a pescare sul lago diciamo lui e la ragazzina un giorno mentre sono lì lei torna decide di guidare lei il motoscafo pigliano uno piano nella testa praticamente un sub e lo lasciano lì e si levano dal cazzo e di lì parte tutto il problema del film perché quello che sembrava partire come un film di una giovane ragazza dotata a cantare che doveva fare anche interessante tra l'altro con una certa dolcezza alla fine il film girava all'inizio di questo rapporto padre figlio era molto interessante un padre che sembra più un amico un confidente che un padre vero sembra quasi non dare un'idea vera di figura paterna alla figlia il film chiaramente parte tutto dopo questo innesto perché come dopo la prima parte il primo quarto d'ora dove noi seguiamo la storia di questa ragazzina succede questo grosso incidente e da lì tutta la parte morale dobbiamo dirlo non dobbiamo dirlo che l'abbiamo preso non l'abbiamo preso e quindi il film a quel punto si ripana su due visioni diverse c'è la visione del padre e la visione della ragazzina chiaramente il padre è più sgamato e comunque ha un senso di colpa gigantesco ma vuole a tutti i costi che la ragazzina non abbia la vita appunto che hanno tutti in questa calabria dipinta in una maniera lividissima sembra di vedere un gotico padano più che essere girato nella sila eppure è stato girato lì tutti i verdi accesi i grigi la fanno da padrone gli azzurri scompaiono per diventare praticamente quasi marrone è un utilizzo di una fotografia fantastica e ci porta in questa cupezza in questo racconto in sud dell'Italia che non lascia da parte nemmeno la criminalità organizzata però il film bisogna dire la verità si concentra e funziona per questi due elementi soprattutto il primo è appunto la chimica che c'è fra questi due giovani attori il padre è bravissimo nel ruolo e la ragazzina che è una vera sorpresa a recitare l'abbiamo mai vista veramente brava quando fa anche le sue due canzoni una è anche molto bella l'altra molto bruttina però ha talento pure vocale la bimba di 15 anni potrà farsi però la recita proprio bene la chimica fra i due funziona benissimo sembrano davvero un padre e una figlia che sembrano scambiarsi ruoli quando lei deve fare le punture per forza al padre il padre che sembra in un certo senso meno responsabile della figlia e comunque a un certo punto non insegna un certo tipo di responsabilità alla figlia proprio perché la figlia piano piano incomincia a scoprire un padre che non credeva di avere quello che cerca di nascondere appunto quello che hanno fatto che verrà fuori molto presto e in tutto questo ci sono tanti personaggi di contorno la nostra per cercare di avere più libertà mentale perché non sa più cosa fare dai sensi di colpa è mangiata le sue amiche a scuola se ne stanno accorgendo riesce a diventare diciamo così la governante della moglie di quello che è morto nel lago e quindi conosce il figlio e tutto il resto e vede che è nella merda e che ha bisogno di soldi perché ci sono questi mafiosi che la vogliono fare fuori questa di questa famiglia e quindi si adopera per cercare di dare una mano a questa famiglia mentre il padre si adopera per cercare di far diventare la figlia al più presto una cantante nonostante quello che è successo e l'altra cosa che funziona oltre a questo rapporto perché è un rapporto veramente ben scritto e simbiotico sono uniti tantissimo anche nelle scelte che fanno in un certo senso ed è bello come vengono scritti questi personaggi perché sono molto credibili sono molto a di adesso non sembra un film che scazza sui rapporti sono i rapporti molto realistici questo uomo di 35 anni che ha avuto la ragazzina da giovane si comporta come un ragazzino ancora di 30 anni e la bambina e la ragazzetta in realtà in un certo senso è molto più adulta o noi la crediamo tale finché in realtà non si scontrerà con il segreto con il dover mantenere qualcosa o doverlo dire per liberarsene e questo la porterà a atti estremi e il film quindi è suddiviso diciamo in una prima parte dove la narrazione è più fluida è più narrativamente unita è semplice la seconda parte invece diventa scatti è più spigolosa e questo per alcuni è stato un fatto negativo per me invece è un fatto molto positivo altri hanno detto si dimentica i personaggi di contorno non se li dimentica e la cosa interessante di questo film ripeto è il rapporto fra il padre e la figlia di questo vuole parlare che messi di conseguenza di fronte a qualcosa di terribile viene sgretolato subito in un attimo a quello che sembrava un idillio e di lì poi la ricrescita un'altra volta per riconquistarsi come persone e come famiglia e questo interessava al regista cioè il contorno serve perché dà l'idea di cosa è la calabria di quel tipo se non ci mettevi il ragazzo di lei non capivi la scena in cui lui va a cercare lei il padre va dal ragazzo di lei a cercarlo e viene menato dal padre stesso del ragazzo che sono chiaramente dei mafiosi e basta quella scena bastano quei 10 secondi poi quei personaggi scompaiono ma non ci interessa che siano scomparsi hanno fatto parte della narrazione e vengono utilizzati uno come McGuffin per portarlo avanti e secondo per farci capire come quel tipo di società e quel tipo di ambiente in realtà ti schiacci e ti renda sempre depresso sempre in una condizione che o ti adegui a ciò che è oppure devi scappare fuggire fuggire sempre fuggire come cantante fuggire in ogni caso fuggire su una barca mettersi in un lago e quindi è un film grandissimo e la seconda parte che funziona ripeto la messa in scena di questo regista che decide di utilizzare una musica lievissima e quindi grazie mille come ho detto usa una fotografia particolare la prima parte è una fotografia più flu una fotografia più lieve nella seconda parte i colori si accendono il nero la fa da padrone dalla prima parte che è più una storia d'ammatica nella seconda parte il dramma diventa noir entrano i criminali si arriva ad un finale quasi tragico e funziona proprio questo quest'idea di averci trasportato in questo sud così particolare così inedito se vogliamo plumbio non c'è mai quell'idea del sole da cartolina che batte perché siccome siamo lì allora batte il sole no assolutamente fantastica questa cosa cioè la fotografia e l'ambiente servono al regista per ricostruire come il sentimento interno di ogni persona non solo i protagonisti ma tutti quelli che vivono in questo determinato tipo di ambiente che è così solare ma che in realtà filmicamente giustamente per renderci l'idea di quanto sia in realtà distrutto e solitario è così plumbio e affascinante quindi che divi di più per me questo Regina di Alessandro Grande è uno dei migliori film italiani dell'anno sicuramente uno dei film più interessanti come opere prime degli ultimi dieci anni in Italia e funziona proprio perché come ho detto l'ambientazione è beccata la regia è solida e gli attori sono grandissimi poco importa se il film forse avrebbe avuto bisogno di un quarto d'ora venti minuti di più un'ora un quarto d'ora venti un po' pochino forse ci vuole qualcosa di più però resta il fatto che il film pur nelle sue piccoli difetti come ho detto personaggi che scompaiono ma che però sono difetti oggettivi ma che per me non hanno alcun fastidio per me sembra fatto apposta e per me il regista poteva benissimo infilarli dall'altra parte invece ha voluto fare questa cosa proprio per centrarsi e concentrarsi su due determinati personaggi ridetta un'altra volta questa cosa vi regina per me è un filmone vi sotto c'è il link compratelo subito perché è uno dei film italiani che vanno un'altra volta aiutati indipendente fatto un 3-2 lire 6 attori e un grandissimo cinema ne esce fuori quindi regina è qua sotto poi fate un po' voi fatemi sapere se vi è piaciuto vante a me era impossibile per me non mettere nel meglio di quest'anno un film che mi ha veramente divertito e del quale posseggo anche il mio blu ray e tutto il resto perché è uno dei migliori film dell'anno e se no non era qui certamente non è un capolavoro ma è una commedia horror di quelle che lasciano il segno sto parlando di Freaky con Vince Vaughn come protagonista insieme a Catherine Newton allora la storia è più o meno questa in questo mondo diciamo un po' all'Halloween c'è questo noto macellaio di Bloomsfield questo serial killer che va in una cittadina ammazza quattro ragazzine e ruba un pugnale azteco poi trova in croce questa ragazzina invece che è appunto interpretata dalla nostra Newton che è carina si è bullizzata è maltrattata ha un rapporto difficile in famiglia nella quale c'è stato un lutto non riesce a dire al ragazzo di cui è innamorata del suo amore insomma la classe ragazzina che subisce e che poi quando viene a sapere della morte di questi quattro è ancora più in paranoia succede che incontra questo serial killer ne viene ferita e cosa succede a questo punto che i chi corpi vengono scambiati nel senso che la nostra va a rifinire dentro il corpo di Vince Vaughn serial killer alla Michael Myers e invece il serial killer va a rifinire nel corpo della nostra bellissima ragazza che a questo punto invece sfoggia giacchetto rosso nuovo trucco nuovi capelli e andrà a vendicarsi anche della scuola di tutti quelli che gli hanno voluto mane mentre Vince Vaughn interperò con il corpo appunto della nostra e con l'anima della nostra dentro cercherà in tutti i modi di poter far tornare le cose a posto e far fuori il delinquentone che appunto ha preso il suo fisichetto allora il film è chiaramente un film che parte da un soggetto che può ricordare tantissimi film danno i panni di una bionda di Black Widowars passando appunto per Freaky Friday che forse è però la base di questo non è il caso che si chiama Freaky senza Friday ovvero quel pazzo venerdì negli anni 60 che poi fu rifatto negli anni 2000 con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis era un film Disney quindi Disney c'è veramente poco perché il film comunque è violentissimo già si parte col botto i primi omicidi i primi ammazzamenti sono fatti benissimo Splatter a go go e la fancia di Vince Vaughn è notevole come serial killer e poi quando avviene lo scambio dell'identità e tutto si mescola bisogna dire che Vaughn a quel punto incomincia ad essere davvero interessante prima di tutto perché riesce a recitare benissimo la parte di una ragazzina con delle movenze niente male davvero e soprattutto riesce ad essere incredibile quando la stessa dovrebbe avere emozioni più tristi più seriose verso la sua vita e trasmessa appunto da un Vince Vaughn che ha lo sguardo di una ragazzina incredibile per l'attrice diciamo femminile per la nostra Newton è più facile nel senso che una volta cambiato il trucco una volta cambiato lo sguardo una volta che il suo personaggio diventa ancora più tale nel senso forte e potente proprio perché ha dentro di sé un serial killer il cambiamento è più semplice anche per il regista stesso che insomma li mette in giacchetto la trucchi a buona lei incomincia a non farsi bullizzare più e incomincia a cambiare il suo atteggiamento a scuola diventando una mezza regina e il film funziona proprio perché ha questa visione bipolare di un cinema thriller horror che funziona alla stragrande prima di tutto perché come ho detto lo splatter c'è e ha fiumi gli attori se la cavano molto bene e il regista non vuole dare più di quello che serve quindi i movimenti in macchina sono giusti e sono calibrati quando inizia inizia perfettamente come un film girato da Carpenter proprio perché vuole dare il senso di Michael Myers e ha dei momenti in cui il sistema quasi all'Ivan Reitman sì diciamo così all'Ivan Reitman all'Herold Remis la prende da padrona e diventa insomma la commedia quasi slapstick a funzionare e il tutto viene mescolato abbastanza bene poi nella colonna sonora azzeccata e da un uso cinematografico dei mezzi di buon livello veramente questo regista riesce a portarci a casa una storia come ho detto rivista attraverso però una scrittura una sceneggiatura ben dosata un sistema anche della paura che funziona perché ci sono 3-4 punti in cui si fa anche un bel salto sulla serie senza aver dimenticato ricostruire la tensione non solo tu usando i trucchetti che comunque un paio di volte vengono usati ma ripeto quello che diverte è proprio che si ride si riesce a ridere non solo per le mossette che fa Vogue comunque dicevo questo freaky funziona proprio perché riesce a mescolare i generi senza farseli divorare l'horror chiaramente non funziona quanto dovrebbe funzionare un horror puro essendo una commedia le parti comiche sono superiori e lo splatter chiaramente viene ammorbidito visto che c'è la commedia nel mezzo però insomma non è da per tutti non è da stomaci proprio deboli fino perché insomma è violentissimo e ripeto nel suo condannare un certo tipo di violenza sembra volerla condannare a livello proprio totale di un'America che vive di violenza sopravvive con la violenza e anzi se sei violento se hai soprusi se sei una persona cattiva crudele dentro come diventa la nostra Newton perché ha dentro il serial killer sei incredibilmente accettato da questa società e sei anzi idolatrato quasi dalla stessa quindi un film che sotto la patina della commedia horror e basta ripeto nasconde una critica enorme agli Stati Uniti al suo modo di portare gli studenti alla follia tramite il bullismo tramite un atteggiamento che deve ricordare a tutti di essere tutti indirizzati nella stessa modo vestiti in tutti uguali parlare tutti nello stesso modo leggere gli stessi libri da cazzare ascoltare la stessa musica di merda vedere i soliti programmi del cazzo alla televisione questo in realtà nel film viene criticato ampiamente attraverso però un horror una commedia un qualcosa che forse probabilmente è ancora più interessante sotto questo punto di vista di un qualsiasi film sociologico diciamo e basta sull'idea del bullismo l'idea del cambiamento della persona che a seconda di quello che è di quello che mostra può diventare diversa agli occhi degli altri ma mai cambiare internamente quindi facendo un discorso molto più intelligente ampio di quello che sembra questo freaky diverte dall'inizio alla fine merito come ho detto di Vince Vaughn che secondo me è un grande merito del regista che riesce a dosare bene bene i tempi e merito a tutto sommato anche di una sceneggiatura che seppur non è originalissima riesce a divertire sempre ripeto non è un capolavoro non è un grandissimo film ma è sicuramente per il sottoscritto uno dei migliori film dell'anno usciti al cinema e merita per forza di essere ricordato in questo meglio e peggio del 2022 ben poco veramente sinceramente mi aspettavo da questo film Baby Teeth tutti i colori di Mila australiano di produzione della regista Shannon Murphy interpretato da Elisa Scanlon Ben Mendelsohn Essie Davis Toby Wallace Emily Berkeley Justin Smith tra gli altri interpretati molto bene tutti molto bravi gli attori quindi dicevo sono abbastanza lontano da questo tipo di genere di film perché più che altro mi irritano perché lavorano sempre su le cose sono abbastanza ricattatori sempre con questo cancro queste malattie invece questa storia di questa ragazzina milla sedicenne che vive da una famiglia borghese che praticamente è baby teeth nel senso che ha questo dente dal latte che metaforicamente si ostina a non cadere mai e che appunto è affetta da un cancro inguaribile incurabile la nostra la storia è questa è molto semplice veramente si innamora di questo Moses che è un tossico praticamente di qualche lustro più grande di lei quindi un adulto più o meno ragazzo adulto diciamo così e iniziano a fare avere questo rapporto che insomma lì per lì non è che prende molto l'amore dei genitori di lei che insomma sono una famiglia super borghese poi di lì tutto quello che succederà insomma è una storia molto particolare che non vi sto a raccontare fino a un fondo perché se no insomma vi sputtano tutto il film poi è un film molto interessante prima di tutto perché si struttura molto bene i nostri due protagonisti recitati molto bene e con dei miei dialoghi ma soprattutto quello che funziona funziona anche perché il film riesce a non essere manicheo anche nella costruzione dei personaggi di contorno che sono anch'essi molto importanti per il film cosa che solitamente questi chiamavoli cancer movie con i teen lasciano da parte per mettere sempre di fronte primissimo piano in quadrature sempre in primissimo piano di questi con lacrimoni con l'occhi pieni di lacrime invece questo è un film anche a tratti scorretto e scopriamolo in un certo momento che forse anche l'amore di Moses per lei forse non è così potente se non forse che il padre a un certo punto comincia a dargli la droga pur di farli stare insieme in un certo senso e da qui parte anche un altro tipo di discorso sulla burguesia e sullo sfruttamento della stessa sulla cattiveria di alcuni personaggi però i personaggi non sono manichei sono molto credibili sono personaggi che possono esistere e il film come ho detto non si basa sull'idea del cancro come concetto centrale della pellicola è quasi un megalfing per farci parlare di altro quindi dove ci sono tanti personaggi come dicevo e tutti molto convincenti eccentrici sì ma credibili come nelle scene di sesso assurde che hanno i due genitori della nostra che sembra quasi una paziente quando arriva invece non lo è che sembra quasi che sia una cosa di necessità molto schematici questi personaggi loro in questa sua eccentricità però sono credibili eccentrici ma credibili ripeto anche la parte finale che dovrebbe essere la più piagnona quella che invece è gestita con dei bei tempi con un ottimo passo da questa regista che nel genere finalmente si infila e ci regala un'opera che parla dei giovani parla della malattia certo ma in realtà che parla di un insieme di cose della vita senza snaturare assolutamente il suo modo di vivere certo non è un film perfetto non è un film un capolavoro però è uno di quei classici film che quando li guardi ti senti meno colpevole ecco di riguardare un film con le malattie perché quello che mi fa a me il film con i malati è farmi sentire in colpa cioè farmi sentire sempre quello poi io sto bene non sono malato e ti gira le palle sei sempre oppresso schiacciato tutte queste cose qui questo film qui invece ti fa vedere la malattia perché esiste quella che è il cancro che ormai è una cosa che ammazza quasi tutti al mondo in questo modo così attraverso lo sguardo di una ragazza così giovane bella in un certo senso intelligente che è una scena di danza bellissima che si riappropria al di là di tutto del suo corpo un corpo fallace ma del quale insomma la nostra comunque si sente possedente è suo è suo è mia e basta e in tutto questo il film funziona benissimo ripeto i dialoghi sono scritti molto bene la regia è pulita è fluida nonostante chiaramente qualche spuntata un po' troppo manieristica ma può funzionare però il suo proprio essere così indie il suo essere così slavato il suo avere un certo di fotografia a volte accesa a volte che si spinge invece in maniera più radicale da proprio il senso ottima poi la colonna sonora e sono veramente veramente interessanti tutti i personaggi di contorno che rendono finalmente un film del genere più corale di quanto tutti gli altri ne abbiano fatto perché se ripeto in un paio di punti casca nella trappola del lacrima movie e quello è normale è chiaro c'è sempre una persona malata 16 anni di cancro però ripeto è un film che si insinua tra questi filmetti del cazzo tipo Atunna New York e November TV e coso di là non per farci piangere della protagonista ma per farci godere della vita che ha perlomeno potuto vivere è un film che non si stacca assolutamente da un certo tipo di realismo e questo realismo prende forza e forma soprattutto nelle espressioni meravigliose della nostra protagonista non vi posso dire cosa se no spoilerizzo ma la scena diciamo il pre-epilogo è girato bene è diciamo messo in scena con una forza quando li porta il vestito quando si pensa al ballo lei ne ha letto una certa predisposizione un certo idea di aver capito di essere al termine della corsa è una scena veramente che risulta bellissima uno di quei classici team movie che andrebbero fatti vedere a tutti i ragazzetti di 14 17 anni per fargli capire cos'è la vita la morte la malattia per fargli capire che cos'è la droga per fargli capire che cos'è una famiglia una famiglia non sbanda una famiglia che a volte non lo è per fargli capire com'è la vita reale per far capire che il cinema non è solo gente vola e non è solo gente spacca tutto ma è anche una voglia di raccontare qualcosa che è la realtà attraverso qualcosa di antirealistico come il cinema perché non è mai realtà vera ma che riesce però a mutuarsi ecco in questa realtà fittizia che diventa puro puro realismo proprio nella scelta della regista di non pigiare mai mai e poi mai sul fatto della piagnoneria quando bisogna piange si piange ed è giusto però nel film non si tende mai a creare un personaggio diciamo che si porta dietro la voglia di dover essere per forza santificata piagnucolata dagli altri ecco la forza del personaggio è la forza del film e la forza del film è appunto quella del personaggio che è forte proprio perché ha intorno tantissimi personaggi di contorno così scritti bene così interessanti che alla fin fine ripeto un'altra volta la malattia sembra quasi un megaffin passa quasi in secondo piano per raccontarci tutto quello che c'è intorno un certo tipo di società bigotta e ben pensante che qui viene fuori un'altra volta anche se insomma bisogna dire che i genitori della nostra sono delle persone positive nel film ecco in un certo senso e molto realistiche quindi hanno il loro sta a voi guardarlo anche un certo film perché è un film che è stato abbastanza passato inosservato è uscito un blu ray dvd il link è qua sotto per me è uno dei migliori film dell'anno anche per mia moglie che gli è piaciuto tantissimo e quindi che vi posso dire che se lo ricorda molto meglio di me e quindi cosa vi posso dire per me questo è un bel film sono rimasti colpiti mia moglie appunto dal fatto che il film non è assolutamente peagnone e che racconta qualcosa che solitamente viene raccontato in modo pesante pedante con insegnamenti roba che sembra rai scuola qui invece quello che si racconta è un amore è una vita è anche la fine della stessa senza tanti rigiri senza tanti cazzi ma attraverso proprio una bella scrittura una bella regia e degli ottimi personaggi questo è il cinema il link è qui sotto altro film che purtroppo non ha avuto distribuzione nelle sale per via della pandemia ma che comunque doveva uscire nelle stesse è uscito su Amazon e poi è uscito in versione a un video e quindi come ho detto all'inizio di questo video anche film destinati alla sala che purtroppo non sono stati uccisi e che io ho visto e che sono stati stampati da un video me li metto in questo mio meglio e peggio uno di questi film appunto è del 2020 un film molto interessante massacrato dalla maggior parte della critica e anche abbastanza dal pubblico e non ne capisco bene il perché che questo film Antebellum secondo me è un film tra i più interessanti in realtà fatti nell'anno dal cinema americano diretto da Gerard Bush e Cristo Ferrenze è una storia molto particolare il film inizia che siamo ambientati in una piantagione praticamente ricotone che viene comandata da questi militari che sono ancora più spietati del solito e noi facciamo la conoscenza di questa Eden questa giovane ribelle che all'inizio del film praticamente viene marchiata a fuoco perché cerca di fuggire cosa succede? arrivano degli nuovi schiavi tra tuoi questa giovane Giulia e la nostra Eden fa sponda con lei per cercare di scappare appunto da questa piantagione poi tutto d'un botto in realtà una notte si sveglia e si rende conto di chiamarsi Veronica di vivere in realtà nel 2021 e del 2020 e di essere una grande scrittrice di successo appunto sui diritti dei neri e tutto il resto finché poi a un certo punto non si riaddormenterà e le cose non ricambieranno di più non vi voglio dire perché è un film che gioca tutto su dei colpi di scena e sullo spaisamento appunto dello spettatore che a un certo punto non sa più bene che cosa sta seguendo dopo una prima parte incentrata tutta in questa piantagione troviamo una parte centrale invece dove la vita della nostra Veronica della nostra scrittrice arriva in primo piano per poi tornare verso la parte finale l'ultimo il terzo atto dove tutti i nodi vengono al pettine dove i colpi di scena diventano sempre più interessanti un film a lasciare malam se vogliamo a livello di scrittura un film che cerca di nascondere i mali dell'America di oggi attraverso gli errori di un'America che continua a sbagliare e continua a essere incondizionatamente un qualcosa che vuole spacciare per democrazia il suo modo e lo stile di vita e che in realtà è tutto tranne che democratico e questo film è un altro film contro il razzismo chiaramente è un film che fa capire un'altra volta su cosa è nata l'America e su cosa continua a vivere l'America ovvero la violenza la sopraffazione e la distruzione di tutte le persone che non la pensano appunto nel sistema del sogno e del mito americano e questo film è un chiaro esempio di come si possa riuscire a raggiungere un certo tipo di forza in un film chiudendo appunto gli atti in modo ottimo e raggiungendo nella terza parte la parte migliore la parte dove il ritmo accelera dove la condizione anche thriller e horror comincia a essere sempre più presente e dove i nodi vengono al pettine fino al clamoroso secondo me il clamoroso finale bravissimi tutti gli attori è Jenna Malone Kiersey Clemons Janelle Monod Jack Houston Eric Lange e tutti gli altri per un film fotografato in maniera ottima un film che fa del rosso del nero è una delle parti più importanti delle tonalità e della tavolozza che i nostri registi utilizzano per descrivere anche il male di un certo tipo di appunto passato americano che comunque riverbera assolutamente sul presente e ripeto non vi voglio dire troppo perché il film è veramente fatto per essere scoperto ci sono tantissimi colpi di scena ripeto e sono però utilizzati a livello narrativo per dare sempre più spiegazione a uno spettatore che però con queste spiegazioni incomincia a non capire più quello che stava succedendo tutto ciò avviene specialmente nella parte centrale ripeto invece la parte finale incomincia a farci ritornare tutto quello che abbiamo visto all'inizio che ci sembrava abbastanza buttato a volte un po' lì nel senso che non si riuscivano a capire determinate reazioni ed azioni dei personaggi e invece piano piano con l'andamento con l'andare del tempo del film e del suo svolgimento tutto quello che non sembrava chiaro nel terzo atto viene praticamente denudato dei suoi aspetti diciamo impossibili da comprendere e torna ad essere una storia che ha tutto quello che deve essere per tornare perfettamente a livello di cineggiatura perché sì è vero che bisogna alzare parecchio il livello di possibilità di credere a ciò che vediamo perché alcuni colpi di scena sono anche un po' forzati diciamo nella storia stessa però la forzatura è voluta è una forzatura che esiste proprio perché i registi secondo me tendano a fare intuire come quello che noi pensiamo che sia forzato e non vi voglio dire troppo ovvero quel tipo di schiavismo che noi vediamo all'inizio e alla fine del film in realtà non fa altro che rappresentare quello che è lo stato sociale americano del momento e questa è una cosa veramente interessante per come viene costruito e decostruito il genere perché qui siamo di fronte a un thriller horror che lentamente da questo si trasforma in un film di quasi diciamo così di sociale politico di contrasto e non lo nasconde più a un certo punto a un certo punto il tutto viene inquadrato attraverso appunto un livello di sistema diverso narrativo che è proprio la parte centrale dove si incomincia a credere che quello che abbiamo visto non potesse essere legato a livello quasi diciamo così onirico ecco in modo particolarmente poi non so me lo ve lo sputtano insomma il suo legame insieme al legame di quella Giulia il legame di quel posto in un momento del film può sembrare reale in un altro momento può sembrare immaginazione in un altro momento può sembrare follia sta a voi spettatori un'altra volta cercare di scoprire che cosa succederà in questo film secondo me bellissimo ripeto che pure è stato maltrattato da tutti io l'ho messo mi pare già nei consigli perché era un film che secondo me meritava alla strada e continua a meritare più volte lo vedo e più mi piace proprio perché ripeto riesce a fare un film antirazzista un film antirazzista in tutti i sistemi anti americano ma non per forza verso l'America in tutti i sensi ma contro quel tipo di pensiero e riesce a fare un film che riesce a spaventare in due o tre punti veramente tanto la tensione è sempre alta e ripeto se la parte centrale con Veronica che fa un po' il bello e il cattivo tempo il suo personaggio nella parte iniziale e la parte finale che sono secondo me le migliori riescono a far interagire benissimo anche la parte centrale una volta arrivati alla fine e ripeto e anche la parte iniziale che magari a tratti poteva sembrare forse un po' sopicante con il finale e con quello che ci verrà chiarificato dai colpi di scena diventerà tutto molto più bello e molto più chiaro quindi per me questo antirazzista è un filmone un filmone di quelli con una colonna sonora azzeccata con una fotografia enorme con un montaggio perfetto certo non siamo nei fronti del capolavoro è un bel film il classico bel film che se fosse andato al cinema sarebbe finito nel meglio e nel peggio di quest'anno purtroppo non c'è andato ma ci doveva andare è uscito in un video e quindi ve lo do a voi anche per quelli che insomma ne hanno letto e sentito male e magari con questa mini recensione hanno voglia di andare a provare a vedere un film che secondo il sottoscritto appunto è stato troppo maltrattato e che si mette merita alla stragrandona di essere uno dei migliori film dell'anno perché insomma è un film ripeto interessante intelligente che parla di cose presenti attuali e lo fa attraverso uno sguardo passato ma anche postmoderno quindi una bella sceneggiatura una bella regia dei bravi attori il classico bel film non vi aspettate un capolavoro ma aspettatevi di passare una serata non simile a tante altre certo lo spettro di Jordan Peele aleggia su tutta la pellicola ma è questo per il sottoscritto è soltanto un bene un altro film che si merita assolutamente il meglio per il sottoscritto nonostante non sia un film perfetto è un film pieno di schegge di grande cinema è un film indipendente canadese di un regista Anthony Scott Barnes che in realtà è anche un DJ produttore è anche facente parte del gruppo Pilot Priest che qui fa anche le musiche assieme a Electric U che è una musica bellissima è un synth wave un vapor wave di niente veramente male e questo Come True è un film che merita merita veramente Anthony Scott Barnes appunto il regista se l'è anche scritto il film ed è un film molto particolare un film indipendente canadese è andato molto bene al Sundance ha girato molti festival ha vinto un bel po' di premi e se ne capisce anche il perché in un certo senso perché è un film abbastanza particolare la storia è questa di questa di questa adolescente Sara appunto che è interpretata benissimo da una giovane ma bravissima Giulia Sarastona appunto questa Sara che è una ragazza scappata di casa ha dei grossi problemi nel sonno di incubi non riesce a dormire trova questa università che sta praticamente facendo delle ricerche appunto sul sonno trova questo modo quindi di poter provare a vedere se ha dei problemi e cercare insomma di curarsi e di riuscire anche a dormire che è altra cosa che non riesce più a fare sta ragazza e quindi inizia a fare gli esperimenti con questi che in realtà la fanno dormire in fase REM e studiano i suoi sogni grazie a un macchinario che riesce per la prima volta a farci vedere che cosa uno sta sognando prima nostra arriva lì i primi tempi sembra stare molto meglio perché dorme tutto il resto in realtà poi questa specie di sonda nei sogni della nostra porterà in realtà fuori degli orrori che era meglio tenere nascosti è un film che sotto il punto di vista visivo non ha secondo me molte peche la fotografia spazia dal livido quindi colori azzurrini grigi che fanno da contraltare a una vita che sembrerebbe così allegra per gli altri giovani che sono intorno alla nostra Sara e che invece è proprio livida come è Sara al suo interno proprio per alcune cose che probabilmente gli sono ancora sfuggite del suo passato e non tutto questo la porterà appunto in questo laboratorio dove fanno questi esperimenti dove troverà forse anche l'amore e amicizia e il film quindi è diviso chiaramente in due parti proprio letterali la prima l'identità e la seconda invece in un altro modo non mi ricordo com'è comunque è diviso proprio in due blocchi e diciamo che il primo blocco secondo me funziona alla stragrande tutti i primi 20 minuti sono giocati sulle assenze sui silenzi un film che va contro le regole di quello che dovrebbe sembrare diventare presto uno slasher un film demoniaco e che sotto lo sguardo del regista che sembrerebbe lì per lì copiare un po' da destra e manca in realtà riesce a costruire una storia che seppur chiaramente debitrice a tantissimo Dick a tanti film di Cronenberg per l'ambientazione per un certo tipo di utilizzo dei movimenti di macchina molto lineari molto cupi e molto diciamo così body horror in un certo senso e poi c'è Carpenter un certo tipo di situazione politica all'interno Romero che viene citato sia dalle magliette che da un film visto appunto in sala è un film fatto di citazioni che però portano poi a una conclusione che è diversa da quelle di citazioni fatte quindi la prima volta che lo vedi questo film rimasi abbastanza interessato disse molto carino rivedendolo invece ho scoperto cose ancora più interessanti proprio di una narrazione che alla prima occhiata non mi era sembrata sempre pulita e se anche una seconda occhiata ci sono alcune cose che non tornano un doppio finale secondo me con colpo di scena finale che poteva benissimo essere evitato ci sono dei tempi un po' allungati io invece di un'ora e 45 una un'ora e mezzo secondo me bastavano ma ripeto la citazione è ottima la sceneggiatura nonostante prenderla tantissimi riesce poi a tagliare in quei momenti in cui non ti aspetti a girare delle cose nel momento in cui non credi possano avvenire e quindi riesce a entrare nelle regole del cinema fantascientifico thriller horror di questo tipo diciamo onirico dove si cita anche Wes Craven e Freddy Krueger chiaramente il mostro dei sogni e tutto il resto ma non ci si dimentica però insomma dell'aspetto anche in un certo senso sociale e politico è un film anche che tratta un'altra volta la solitudine tratta il bullismo scolastico e lo fa attraverso un film che non dà molto scampo al genere umano sinceramente che è tutto più o meno maltrattato dal nostro regista il film poi viaggia sempre su questa idea appunto bellissima a tratti di una situazione onirica che diventa tale più per il pensiero dentro del sono che per una realtà che però poi diventa una realtà filmica e quindi una realtà anche tangibile per i nostri protagonisti mano a mano che insomma l'orrore esce sempre più sconfinato che questo uomo dagli occhi bianchi comincia a prendere sempre più piede nei sogni della nostra è un film a tratti sconclusionato io credo volutamente personaggi che scompaiono da un momento all'altro personaggi che riappaiono nel momento in cui meno te lo aspetti è un montaggio a tratti notevole veramente i movimenti di macchina sono studiatissimi ripeto è un film che vive di silenzi e di sensazioni tutta la prima parte come ho detto prima secondo me è eccellente un filmone un film eccezionale finché lei va a fare tutte le analisi e incomincia a non buttarla di fuori è veramente girato benissimo lascia quell'angoscia che deve lasciare a quel senso proprio di un certo cinema freddo che cerca di stare dentro i personaggi aiutato come ho detto da ottime interpretazioni e soprattutto dai dialoghi per nulla sbagliati certo se la seconda parte si insiste un fa troppo sul colpo di scena finale evitabile e forse il voler spaventare con qualche salto sulla serie di troppo leva un po' di tono al film però non le leva all'efficacia l'efficacia di un film che secondo me va gustato e visto più volte è un altro di quei film che purtroppo abbia passato del cinema ed è arrivato direttamente in un video ma fortunatamente è arrivato proprio perché è uno di quei film forse sì che hanno dalla loro parte la puzzetta un po' sotto il naso da indie americano da indie canadesi da Sundance è vero però e questo film incredibilmente pur nascendo così secondo il sottoscritto proprio delude le aspettative di chi si aspetta il classico roretto invece semplice e totalmente dimenticabile e questo è uno di quei classici film che quando hai finito di vederlo in realtà ci ripensi e ci ripensi anche se ti sembrano così convincente proprio perché in realtà dentro ha due o tre schegge di genio notevoli specialmente in qualche sequenza che veramente è riuscitissima non ve le sto a dire per non rovinarvi la sorpresa perché probabilmente questo come true non l'ha visto quasi nessuno ed è un vero peccato perché secondo il sottoscritto è uno dei migliori film dell'anno nonostante la critica quella francese e americana l'hanno abbastanza trattato bene la critica in Italia l'ha abbastanza massacrato come in tutto il resto del mondo rifinendono un film al massimo sufficiente o più che discreto invece secondo me è proprio un buon film a tratti ottimo se non fosse che una mezz'oretta della seconda parte scivola nell'incartamento totale incominciavano a non capirci più una sega il finale era bello per come era il doppio finale non serve a niente ma resta il fatto che è un film proprio che si accende dentro di te quindi che film che quando finiscono vorresti che ce ne fosse ancora dove la spiegazione ti sembra così illogica che diventa logica e quindi a un certo punto è un classico film che merita di essere visto e in questo meglio e peggio specialmente di quest'anno dove i film al cinema sono anche stati pochi una riscoperta come questa è per chiunque ami un certo tipo di fantascienza come ho detto spinta un po' alla Philip Dick che per chiunque ami un certo tipo di horror dell'anima un po' di horror della Cronenberg è impossibile perdersi un film leggere e chi ama la nuova Hollywood è un film giocato su tempi rallentati su ritmi lenti su sensazioni sonore e visive che vengono sempre mescolate e non si riesce più a capire a un certo punto qual è la realtà e qual è il sogno e tutto questo lavora proprio grazie all'uso cinematografico che fa il nostro egitto a Scott Barnes quindi riesce a tirar fuori delle scene fantastiche tutta la prima parte in cui lei arriva e fa il primo sogno è geniale per messa in scena tutta la parte in cui loro scoprono diciamo quello che c'è sotto agli altri due pazienti è geniale come è girata e tutto il prefinale secondo me è a livelli veramente del capolavoro peccato che ci siano cadute di tono in qua e lass nel film sarebbe veramente intoccabile così intoccabile non è ma per il sottoscritto lo è nel senso che mi è piaciuto a bestia me lo sono già visto 3-4 volte ho il mio bel blu-ray e me lo continuo a guardare perché è uno di quei classici film da collezionare perché come ho detto sedimentano si infilano nel tuo fisico parlano di questa situazione di questa ragazza di questa gioventù allo sbando di questa scienza che pur di trovare quello che vuole cerca anche di scavalcare quello che è lecito a livello etico ed è un film che secondo me funziona proprio perché non si lascia mai prendere dall'idea di dover essere commerciale di dover piacere a tutti i costi il regista aveva qualcosa da dire lo dice attraverso un film che mescola Wes Cremant Tobu per Romero Carpenter e Philip Dick la fantascienza alta la fantascienza bassa la serie B l'indipendente il cinema alla Sundance e questo frullatone incredibile alla fin fine ci si diverte viene fuori un film che non lascia assolutamente insoddisfatti ripeto un po' troppo lungo un po' troppo confuso e con un doppio finale eccessivo ma che nel complesso rimane un'opera assolutamente da non perdere proprio perché come ho detto ti resta dentro e dai sempre voglia di rivederla per scoprire delle cose che il regista ha messo in qua e là e che datemi retta la terza e quarta visione verranno fuori anche per voi quindi che dirvi di più non abbandonate la prima se vi sembra troppo lento il film o tutto il resto è un film bomba secondo me uno di quei film che vivono dall'atmosfera che vivono della grandezza del cinema stesso che ha fatto appunto dei suoi mezzi e non solo e soltanto dell'originalità che in effetti ogni tanto qui non c'è resta il fatto che il film metto il link qua sotto è una bombetta per me quindi donate su padre cazzo vi pare in questo meglio e peggio non poteva mancare questo come true che mi sono stragustato rigustato 6.000 volte che non vedo l'ora finita la pandemia di poterlo proiettare magari un festival per vedermelo finalmente alla stragrande sul grande schermo perché un film del genere seppur difettoso merita assolutamente la sala perché è pieno zeppo di idee anche visive piccoli indizi che lo spettatore deve comunque assorbire per poterne capire al 100% il discorso finale che il regista appunto Scott Barnes ci vuole dire quindi per me film assolutamente da non perdere il link è qui sotto come true 2020 un'altra piccola gemma che purtroppo ha bypassato la sala Swallow del 2019 è uscito da noi nel 2021 dopo essere uscito al cinema a fine 2020 mi va in questo meglio proprio perché io comunque l'ho visto nel 2021 ed è un filmone un filmone molto particolare molto molto particolare diviso in tre atti ben distinti un film che parte quasi come un horror psicologico e anche un po' anche qui yuznaiano nel senso della mutazione del corpo e di un certo tipo di critica a un certo tipo di società perché insomma la storia è questa Antere è una bellissima donna giovane che si è sposata con un riccone che praticamente però la usa più come orpello praticamente ogni volta che lei apre bocca o qualunque cosa viene zittita non viene mai considerata e soffre di una malattia particolare ovvero ingoia tutto quello che gli è a tiro piano piano però la sua psicologia la tua testa la sua psiche comincia a andare sempre più giù e questa malattia incomincia a diventare l'unico suo valvolo di sfoga da una vita nella quale in realtà è relegata ad essere semplicemente quasi un oggetto da mettere sul tavolino quindi la nostra piano piano incomincia da ingoiare piccole cose fino a ingoiare pezzi di ferro puntine e roba che la porterà svariatamente volte all'ospedale di lì in poi tutto il film che si svolgerà chiaramente al film è un film incredibile il primo atto è meraviglioso c'è questo dividere questo assetticismo della messa in scena in realtà con il calore della fotografia è la meravigliosa prova dell'attrice protagonista L.A. Bennett che qui veramente vola altissima in più il film riesce a mantenere per tutta la prima parte una sensazione costante di odio e violenza subita da questa donna perché noi vediamo che quando questo è al tavolino che parla con i soci i soci la trattano come una merda come non esistesse e quindi questa bellissima cosa femminista tra l'altro la chiosa infatti che molti hanno criticato secondo me invece è molto bello e la trasporta via dal cinema di genere tutta un tratto dall'horror però è proprio un'idea interessante questa del regista di trasformare tutto quello che infatti si chiama Hunter la nostra in realtà cioè di trasformare tutto quasi in un McGuffin per fare andare avanti qualcosa che è un suo discorso in realtà sulla solitudine sull'impossibilità di essere qualcosa che gli altri non vogliono che tu sia per essere presentabili al mondo sull'impossibilità di poter avere un'idea un modo di pensare anche solo perché si viene considerati belli biondi e quindi stupidi e in tutto questo naturalmente è un esimo attacco a questa critica a questa società altoborghese e qui è Biuznaiana Bestia che in realtà sono dei mostri che non hanno alcun interesse di portare la loro cultura e i loro soldi a chiunque ma se ne vantano esclusivamente ed anzi maltrattano gli altri con una superiorità veramente oscena e la nostra è sempre maltrattata e chiaramente non può altro che tornare a qualcosa che la porti a qualcosa di intimo e il mangiare qualcosa il sentire il ferro il sentire il sangue che li spacca il sentire anche il dolore come dice sempre Tsukamoto nei suoi film il dolore che ti riporta a sentirti viva in un certo senso quindi tutta la prima parte funziona proprio per questo decadimento ed è molto più horror perché proprio è un horror che non è solo un horror dato dai tagli di luce che sono proprio horror come messa in scena nella seconda parte invece il film incomincia a prendere una piega più ritmata perché la nostra incomincia a ingoia di tutto veramente le cose incominciano a ingarbugliarsi a livello di trama e poi nella terza parte scopriamo perché lei comunque ha questo problema da cosa nasce tutto e non ve lo sto a dire perché sennò vi sputtano il film che forse però nonostante sia bello è un po' debole in quel senso per tutto quello che era stato però per me è un finale notevole ma poi è tutto il film il film è il classico film che ormai non si vedono quasi più il ritmo per almeno 40 minuti è rilassato quello che ci piace tantissimo è proprio questi movimenti di macchina lenti è proprio questo indugiare della nostra protagonista in una recitazione perfetta che non è mai sopra le righe quindi sempre pronta a darci uno sguardo con il quale riempirci lo schermo e qui è grandissimo il regista che gli fa dei primissimi piani fantastici e poi utilizza dei grandangoli splendidi e dei movimenti circolari proprio nel momento in cui per esempio la nostra si sente male è meraviglioso sembra di essere all'interno della sua testa e poi insomma il sangue le scene sono terribili perché quando vedi che mangia le puntine comunque è una cosa veramente fastidiosa suona il pensiero cioè a me è già il pensiero di mordere una forchetta figurareci mangiarsi varie cose di metallo quindi è qualcosa che va oltre diciamo l'horror inteso col fantasma l'horror con la pazza e mangia è una cosa talmente realistica in un certo senso che ti colpisce perché in realtà poi questo tipo di malattia che mi dicono si chiami picacismo è in realtà molto più diffusa di quello che si pensa solo che solitamente si ferma le cose che non fanno male ingoio una biglia ingoio un pezzo di velo perché per sentire qualcosa di diverso dalla vita bisogna sentire il sapore e il sapore diventa dolore nel momento in cui schiacci una puntina e quindi il film è proprio un'altra volta un modo per renderci conto di come le donne vengono schiacciate vengono utilizzate a volte per essere degli animali quasi in gabbia non è un caso che lei viva in questa casa di vetro dove fuori sembra sia uno zoo c'ha di tutto questa è ricca c'ha tutto il cazzo che vuole l'unica cosa che gli manca è una vita non ha nessun piacere a vedere il cinema non ascolta musica non ama perché qualunque cosa prova la nostra ad avvicinarsi ad amare e quindi a condividere con chi è intorno viene sentita ma vaffanculo non ci capisci in cazzo conti in cazzo perché lei è una povera è una che non ha studiato e questo riccone di famiglia invece sua la tratta per come lei in un certo senso tratta gli oggetti si li mangia ecco questa è proprio una condizione grottesca molto interessante anche di come viene proprio messa in scena ripeto perché pur sfiorando l'horror il body horror pur sfiorando l'horror la tratti comunque non fa piacere vedere questa donna che mangia sta roba però poi alla fine in realtà si scopre il dramma si scopre la voglia di raccontare qualcos'altro e il regista Carlo Mirabella Davis dà proprio idea di avere grandissimo talento nella messa in scena proprio nella messa in scena questo non butta via l'inquadratura i quadri sono tutti ottimi come ho detto la fotografia passa da sensazione alla Mario Mava a sensazione freddissima alla Yuzna per poi magari cercare un qualcosa anche di melò alla circa degli anni 50 nei primi piani flù della nostra bionda bellissima e poi ci sono molte altre cose che funzionano tra i film come si utilizza la musica che è utilizzata perfettamente poi anche chi la fa la fa benissimo non c'è quegli eccessi di quei piani di quelle cazzo di sonorità che ti vogliono dire di più di quello che dice l'immagine qui invece la musica viene utilizzata per narrare l'immagine per costruirla e in più come ho detto il montaggio per me è ottimo quello proprio ottimo quando deve essere ritmato è ritmato quando deve essere teso è teso quando il film prende la via del dramma prende un sistema proprio anche a livello narrativo del montaggio ben diverso i primi piani incominciano ad allontanarsi incominciamo a trovare piani larghi incominciamo a trovare moltissimi scontri di distanza cioè quindi i primi piani angolati con molta distanza per far capire la distanza fra i vari personaggi quasi mai nella stessa inquadratura quando si ha un dialogo si ha due personaggi nella stessa inquadratura proprio per far capire che il regista voleva completamente distanziare questa donna da chiunque li parla anche se gli stanno parlando in faccia quando inquadra lei la sua inquadratura è spostata a sinistra a destra con una profondità di campo da un lato che non ci fa mai intuire con chi sta parlando e questo ci procura e ci fa capire la distanza che lei sente e la distanza che lui il marito ha verso la moglie che ripeto è semplicemente un bellissimo soprammobile da mostrare a vicini amici e quindi che vi posso dire di più un film femminista però di quelli veramente fatti controcazzi che non fanno della moralina al loro film un thriller horror che funziona anche su quel lato perché in un certo senso per un bel po' siamo spaventati più che altro siamo tesi e siamo anche disgustati in un certo senso e poi funziona alla stragrande come film puro di racconto un racconto di una donna sola che cerca di rientrare in un mondo che non è il suo attraverso qualcosa che in realtà fa più male a lei che agli altri ma che la rende viva e quindi un racconto dolorosamente barrozziano un racconto secondo me che ha proprio al suo interno tutto quello che il cinema di adesso che parla di queste cose delle donne delle problematiche del mascismo di questa idea di queste famiglie super borghesi che pigliano le donne povere e belle per fare sposare i loro figli e doverle trattare poi come in realtà pezzere a piedi esclusivamente perché si pensa che non ragionano negli basti soldi da spendere così non è finalmente qualcuno che fa un film politico, sociale intelligente che fa anche paura in qualche punto ma che soprattutto è un thriller dell'anima uno di quelli che ti lascia un po' sconvolto perché scoprire che ci sono milioni e milioni di donne che soffrono di questa malattia perché soffocata da un certo tipo di sistema di vita maschilista sicuro nel mondo e soprattutto anche semifascista e capitalista è una cosa che mi ha spaventato ancora di più del film che comunque metto qua sotto perché come tutti quelli che mettono nel meglio chiaramente per me sono i film assolutamente da comprare di quest'anno e questo swallow appunto non può essere lasciato lì va portato a casa e va visto e rivisto anche perché è fatto con due lire e magari qualche indipendente italiano convinto già di essere Kubrick si metterà a un certo punto un po' più in basso e cercherà di trovare forse all'interno di questo film qualche modo e qualche idea per cercare di capire che il cinema non si fa con gli effetti e con i troppi soldi ma che anche un film così costato pochissimo riesce a funzionare perché ha le tre cose che fanno funzionare il cinema la sceneggiatura gli attori e la regia tutto il resto è noia non poteva che finire nel meglio questo buon horror italiano diretto da Bruno Giorgio Bruno che dirige questo Day Talk uscito nei cinema pochi mesi fa è un film secondo me che merita nonostante poi a un certo punto si incarti un po' la recitazione ogni tanto traballi ma però il classico film italiano è veramente ben fatto a livello tecnico proprio la regia è ottima e gli attori nonostante un paio di cadute di tono anche nel doppiaggio forse se la cavano veramente bene ma partiamo dall'inizio insomma è la storia di Alex questo ragazzo che praticamente fa parte di questa troupe documentaristica vanno a fare questo documentario che parla anche di una suola maledetta e di tutto il resto che sta intorno appunto a questo racconto mentre girano queste scene nel bosco e tutto il resto il nostro dopo che ha scaricato diciamo il sonoro e tutto il resto lo va a ascoltare piano piano sente dei frusci sempre più forti nell'alzare questi frusci e nel dividerli sente delle voci diverse di uomini e donne che dicono cose che sembrano non avere alcun senso il nostro però comincia ad avere strane visioni dolori alla testa ma di testa enormi e piano piano scopriremo che queste visioni provengono forse dal passato forse da dei morti forse no e comunque lo avvertiranno del suo futuro e li porteranno a galla cose del suo passato ebbene non lo fanno trofio che riporteranno anche un altro personaggio nella sua vita che non vi voglio dire perché magari questo day talk visto che è d'italiano è uscito in pochi sale magari non lo avete visto ma bisogna subito dire che seppur la sceneggiatura rimandi chiaramente a tantissimi classici e poi l'incipit che è la cosa più fulciana che viene vista nel cinema horror italiano indipendente sicuramente degli ultimi anni proprio l'incipit è fulci puro nel cimitero e poi abbiamo tutta la parte in un certo senso centrale dove si Carpenter Wes Craven nella nuova Hollywood anni 70 esce tutta fuori naturalmente James Wan un po' del nuovo cinema americano c'è dentro ma però ci si scova anche proprio all'interno a livello di messa in scena tantissima voglia di cinema francese e ispanico quei colori alla del toro quei colori accesi modello orphanage quel modo di utilizzare i gialli di utilizzare i blu e i verdi negli esterni e questi colori caldi molto fuoco come appunto la scena bella proprio iniziale insomma è un film che fa della fotografia veramente un passo avanti nel cinema independent italiano notevole così come sono notevole tutte le location sembra di essere in America invece è girato praticamente in Calabria e anche lì sono bravissimi ed è ottima la scelta di Svensson come protagonista protagonista pulito riesce bene fa il suo e come ho detto anche il resto del cast comunque riesce a essere interessante e poi vederci Yagamuchi il classico caratterista di cinecittà dai tempi dei tempi che fa il giapponese e il cinese in tutti i film italiani bravissimo tra l'altro fa sorridere ma proprio perché lo vedo da tutta la vita in tutti i film ed è molto bravo perché riesce a portare avanti il suo medium che è poi uno che incontra nel film che appunto si occupa di queste cose quindi le voci le casse da white noise come ci hanno fatto il film le voci vipus si amano le lezze di morti dovrebbero sentire appunto attremerso le registrazioni sonore e lui è un esperto si metterà di mezzo insieme a un'altra esperta e se la strada la trama in effetti a un certo punto comincia a incartarsi un po' e non si comincia ad essere un po' troppo complicata quando era meglio la prima parte che sembrava molto più semplice però bisogna dire che il regista veramente grazie all'uso del montaggio all'uso di quella fotografia e anche ai movimenti di macchina studiatissimi riesce a creare un'atmosfera perfetta dall'inizio alla fine del film il finale forse il doppio finale è un po' tirato via e chiaramente per uno come me che ha ammazzato più cinema horror di quanto ne possa ammazzare chiunque non ho visti veramente tanti è abbastanza telefonato in alcune cose però ripeto l'originalità ormai dell'horror specialmente di questo tipo è già aver messo quelle due tre scene splatter dove dovevano stare senza esagerare aver utilizzato il sesso in quella scena dove ha proprio un valore intrinseco alla narrazione e in più aver mescolato comunque tre tipi di piani narrativi il futuro il presente il passato di due personaggi e di Aldi un altro che dovrà avvenire e non è cosa da tutti i registi insomma e Bruno qui dimostra di avere una bella mano proprio di saper gestire la macchina la presa le inquadrature non sono mai tirate via il sonoro è ottimo come ho detto e proprio il film riesce grazie alla regia si prova la regia stavolta e fa bene dirlo per un film italiano a mantenersi sempre su ottimi livelli a livello proprio estetico quando guardi il film ti rendi conto che è un film italiano nel senso che si capisce che c'è una voglia di dare un po' di Mario Bava di Argento di Suavi si capisce perché insomma il cinema italiano ha quella forza però è un film molto internazionale per come lo racconta e per come viene raccontata questa storia da Cantonce e Carolli Moss funzionicchia però a livello proprio di colpi di scena funziona a livello di salti funziona a livello di tensione funziona purtroppo non funziona secondo me quando cerca di dare determinate spiegazioni di quando cerca di portare i nodi al pettine lì forse si perde in qualcosa di un po' troppo complesso quando ripeto bastava quello che c'era ma il film comunque è veramente un film che fa dimenticare a tratti l'idea di poter essere indipendente ed è enorme è un film che in questo senso riesce finalmente a farci capire che questo Bruno ha uno sguardo internazionale per un tipo di cinema che è internazionale di suo l'horror è proprio un tipo di cinema che si vende benissimo e secondo me questo film potrebbe essere venduto alla stragrande oltretutto mi pare che sia recitato in inglese e doppiato e quindi per me cosa vi posso dire di questo dei talk di sicuro non è un capolavoro non è un film eccezionale non è bellissimo però è il classico bel film che arriva da niente per me è così sfacciatamente nelle sale che lo guardi e fai boia questo è un film italiano fatto veramente bene curato ha una musica ben fatta nonostante a me non piaccia molto la musica però è fatta bene per il film e ripeto gli attori se la cavano e quello che colpisce del film è che sembra costato molto di più e poi c'è un lavoro veramente incredibile su tutto le strade le macchine sul paesaggio perché ripeto è un film girato praticamente in Calabria con la Calabria Film Commission che è ambientato in America e che invece è girato nella Sila cioè fate un po' voi regia fantastica ritmo giusto giusta tensione sceneggiatura che traballa un po' bravi gli attori a tratti meno a tratti molto di più però è il classio film che poi quest'anno diciamo dove i cinema sono sempre stati chiusi c'è pochi film da cinema questa è nata al cinema è italiano e si merita tutto il bene del mondo proprio perché il nostro Giorgio Bruno ha provato un'altra volta a spingere su un genere che non è il nostro ormai che pure lo è stato per decenni e che in questo caso però riesce a essere secondo me vendibile ed esportabile in tutto il mondo senza come ho detto perdere però l'essenzialità del suo essere italiano perché deve avere qualcosa che lo distingue dalla massa di tutti gli oraretti che escono nel mondo e questo ha qualcosa che lo distingue cioè una voglia grafica una voglia visiva del regista assolutamente di quelle di gran classe a quel talento Bruno ce l'ha la prossima volta scriverei un po' meglio il film perché per tutto il resto non c'è da dire la pellicola funziona alla grande e mi ci sono divertito a bestia nonostante alcuni piccoli difetti che comunque un'altra volta nel cielo indipendente si possono anche lasciare stare per un po' quindi insomma che dirvi di più di questo day talk sono molto interessato quando si esce dai confini quando si cerca di fare qualcosa che riesca ad essere italiano sì ma che sia anche interessante per gli altri e quindi cosa vi posso dire di più ottimo lavoro ottimo lavoro veramente perché al di là dei rifetti una sceneggiatura come ho detto un po' a tratti prevedibile ma confusa e ogni tanto due o tre persone che non recitano proprio al massimo nonostante i protagonisti e poi quelli che devono recitare vanno abbastanza bene anzi il protagonista va benissimo il colpo di scena finale è ganso ripeto il film ha dei rifetti ma questi rifetti vengono ampiamente massacrati da tutte le buone cose di questo film che sono veramente tante come ho detto fotografia montaggio sensazione proprio della creazione dell'attenzione la paura che esiste è un sistema proprio narrativo che comunque è convincente la paura c'è ed è grazie all'uso che fa Bruno dei mezzi cinematografici quindi ripeto link qua sotto per me questo Day Talk è assolutamente uno dei migliori film horror dell'anno e che sia italiano mi fa ancora più piacere nonostante sia un film di un paio di anni fa da noi è uscito quest'estate praticamente l'avevo messo nei consigli è un film talmente bello che va nel meglio di quest'anno per forza il film Agniara rotta verso Marte un film di produzione svedese un film molto particolare un film di ambientazione fantascientifica pura chiamiamolo così fantascienza alta un tipo di fantascienza che sia anche spettacolare perché visivamente il film è fatto benissimo ma che chiaramente parla di altro nel racconto appunto di questi esseri umani che stanno lasciando la terra per Marte perché ormai la terra l'hanno distrutta Agniara è una delle tante navi che stanno appunto partendo per arrivare su Marte cosa succede? all'interno di questa nave ci troviamo un po' di tutto ogni tipo di religione ogni tipo di etnia tutto il mondo praticamente viene ricostruito all'interno dentro queste navi perché dovranno fare un viaggio abbastanza lungo ma nemmeno troppo per arrivare su Marte il problema nasce che l'astronave perde un bulloncino così e quel bulloncino gli fa perdere la rotta e quindi diventa un grosso problema perché cosa succede? questi dicono guarda se tutto va bene invece di metterci due settimane tipo ci vuole tre anni per arrivare su Marte perché ora si è cambiato la rotta quindi bisogna arrivare a toccar questo pianeta ma quando si tocca questo ci rimette in linea e di lì piano piano tutto quello che viene fuori dall'animo umano quindi se all'inizio iniziano le persone ad attaccarsi al consumismo cominciano a mangiare vestiti tutto tanto c'è tempo piano piano si fanno prendere invece dall'angoscia del tempo che passa allora l'allegoria sulla religione diventa tutti religiosi in questa stanza fatta apposta dalla nostra protagonista che in realtà era andato su quest'astronave dove aveva appunto costruito questo progetto di questa stanza particolare dove te ti centravi dentro e andavi completamente in estasi stavi lì tranquillissimo e ti rilassavi quindi cosa succede? a un certo punto sono tutti dentro questo coso perché a un certo punto diventano tutti bisognosi di aver bisogno appunto di questa rilassatezza che però diventa religione ecco appunto subito dopo e piano piano diventa sempre di più fino al meraviglioso finale che non vi sto a svelare perché è veramente geniale proprio nell'idea centrale quindi il disfacimento del genere umano attraverso varie epoche varie anni fino al meraviglioso finale ripeto e il tutto fatto alla stragrande e prima di tutto i due registi Pella Kagerman siamo Ugo Straffan Garsken-Banger e Ugo Lisha dicendo subito che questo film è tratto dal poema svedese del 1956 che vinse il premio Nobel per la letteratura era ambientato appunto nello spazio erano 103 canti diviso in 103 canti che appunto narravano la storia di questi esseri umani dal loro viaggio dalla terra fino a Marte qui viene preso come spunto di base viene preso come spunto filosofico analitico però poi il film va un po' dalle sue parti e fortunatamente prima di tutto perché ci descrive una protagonista veramente imponente nel suo personaggio un personaggio che cambia con il cambiamento degli anni e il passaggio del film però senza mai perdere la sua forza iniziale cioè è un carattere ben definito veramente ben definito è recitato alla stragrande da Emily Johnson notevole appunto nel ruolo della protagonista però è un film a un certo senso seppur la nostra sia protagonista è un film corale ci sono tantissimi personaggi e ripeto è un film che ha alcune similitudini se uno vuole con Ad Astra con High Life di Claire Denis se vogliamo trovare affinità sul film ma c'è anche tanto a livello proprio intellettuale anche molto di Tarkovsky un certo tipo di cinema svedese che non può non ricordare anche il cinema nordico alla Bergman è un film che filosofeggia sul genere romano sul senso della vita sul senso del tempo sul senso anche del come e nel perché facciamo determinate scelte tutto attraverso l'allegoria del viaggio nello spazio che in realtà è un viaggio attraverso se stessi che il regista che i doppi registi portano in scena con una grande mano prima di tutto gli effetti speciali proprio visivi l'astronavi tutto l'altro sono fatti benissimo film a buon costo e ripeto quando ci sono le idee e quindi c'è il design il design è quasi più importante di come viene realizzato un design così ganso con quelle navi che sembrano in realtà città volanti che non sembrano quasi astronavi che iniziano in alcuni punti è geniale il design anche delle tute degli interni è tutto di grande classe in più ci sono dei costumi fantastici e a livello recitativo tutti sono bravissimi i dialoghi sono tra l'altro molto difficili a tratti perché non è un film che è diviso in puri tre atti il primo atto la partenza che sembra tranquillo il secondo atto la tragedia nel senso che vanno fuori il terzo atto dove sembra proprio tutto andare a puttane il film essendo pur diviso in questi tre atti in ogni atto in realtà esamina fino a fondo il genere umano esamina fino a fondo perché quindi il genere umano ha bisogno della religione perché ha bisogno del contatto sociale perché ha bisogno della solitudine perché ha bisogno della musica del cinema dell'arte è un film che parla di tutto questo e quando si parla di questo un film chiaramente non può che essere un film da seguire quando gli dici non sai del genere il pubblico si spaventa ora ma guarda questo lo devi seguire è come perché è come se il bello ormai è la roba che non devi seguire che se ti giri e perdi dieci minuti porta una sega tanto si menano si meneranno altri dieci minuti qui non si menano mai mi dispiace non c'è una scena d'azione manco a pagare loro c'è un pari scena cattivissima e violente ma non c'è nientra niente collection a un certo punto dopo la prima parte che non è tesa è molto a farci capire dove siamo perché se non entriamo nell'idea di come ragionano questi nel futuro che è anche qui la tranquillità la bellezza del film è che questi sono tranquilli di andare su un nuovo pianeta dopo che hanno difflagrato il pianeta precedente cioè quindi anche un'altra volta sulla stupidità umana che ha sempre la ricerca di qualcosa di diverso e che è convinto di poter risolvere sempre tutto sempre tutto poi le cose potrebbero andare male anche per un bullone di un'astronave gigante che è quattro volte praticamente l'Europa però ti potrebbe andare male per un bullone quindi è un film che un'altra volta parla della fallacità umana e del pensiero umano di non esserlo mai cioè questa cosa assurda del genere umano che è convinto di avere sempre ragione su tutto quello che fa e quello che dice e poi è quasi sempre torto e quindi il film ragiona proprio su questo livello dicotomico fra ragione coscienza e inconscienza e in tutto questo praticamente non divide niente cioè per i due registri tutto questo vive all'interno di ogni genere essere umano ed è così in realtà ed è il bello del film perché la nostra protagonista non è esente da difetti in quello che fa chiaramente le azioni nel film non sono sempre giuste ma è esente da diciamo difetti di scrittura che è molto meglio nel senso che tutto quello che fa è utile alla narrazione e la narrazione è sempre più spedita non si ferma se ripeto la prima parte è più tranquilla nella seconda parte arriva la tensione e lì comincia ad arrivare una tensione quasi cicocchiana il film diventa nero diventa thriller hai paura quando poi verso la terza parte tutti iniziano a avere paura di tutti tutti iniziano a utilizzare la violenza per un certo modo la religione per un altro e qui ti fa capire ancora di più nel terzo atto dei due registri come il genere umano quando è messo alle strette in realtà tiri fuori il lato peggiore invece che quello migliore come arriva una crisi una cosa terribile da affrontare tutti tirano fuori il peggio e mai il meglio per darsi una mano così è la verità e purtroppo e lo è anche per me e inoltre il film è un attacco enorme comunque un sistema capital fascista che ha distrutto la terra ha distrutto il genere umano come pensiero e in più a livello diciamo anche pratico per costruire queste astronavi veloci e rispermia perdono pure un bullone e quindi ha distrutto anche la sua umanità stessa quindi un film politico sociale intelligente bellissimo con un ritmo lentissimo se vi va bene se no cazzi vostri è uno di quei classici film che devono essere comprati devono essere in casa della gente perché ci avete rotto i coglioni con la fantascienza tutta rimbotti rincoglionimenti e in che ogni personaggio appare scompare muore e rientra tanto a nessuno gliene frega un cazzo chiaro ci può essere anche la fantascienza che scoppia tutto e mi importa una serie non è che non lo dovete fare però porca puttana un film come questo che anche per colpa del covid debba aver perso il cinema per farci andare Shang-Chi vuol dire che il mondo veramente come dice Aniara gira al contrario come dice la nostra protagonista il mondo ormai è pazzo e lei è grandissima che dice questa cosa quando è su un mondo diverso perché sono passati anni ed è sul suo mondo che è quello dell'astronave qui un'altra volta l'identificazione di ciò che è proprietà di ciò che è proprio di ciò che rendiamo nostro un'altra volta viene criticato ancora una volta all'interno del film perché abbiamo distrutto un pianeta che era colonizzato diviso da tanti vari piccoli staterelli che noi chiamavamo tali quando il pianeta è solo uno e noi ci si ostina a tenere su ancora diciamo le frontiere a definire una persona di ogni paese diversa dall'altra certo non so di quelli che deve mandare in culo la cultura del posto quella deve rimanere sempre ma io sarei di quelli che vogliono il mondo unico un mondo posto unico e vado dove cazzo mi pare e vado dove cazzo mi pare così si mescolano le culture e così il mondo migliora Aniara dice questo se all'interno dell'astronave fossero riusciti a unirsi sarebbero probabilmente riusciti anche ad avere un finale un po' migliore ma la lotta non porterà altro che alla cecità e non dico cecità a caso quindi fatemi un po' questo Aniara il link è qui sotto firme che leva di uro l'ho distribuito benissimo dalla Coq bella bella edizione per me è un grande firme fate un po' voi il link ripeto è qui sotto Aniara rotta verso Marte allora il buon Daniele Misischia era già entrato nel meglio ed aveva già colpito gli amanti come me del cinema indipendente horror con quel piccolo gioiellino che era The End l'inferno fuori che aveva un buon successo ha fatto girare il nome di Daniele Misischia e nonostante aveva avuto anche molte critiche questo mostro della cripta appunto io invece lo metto nel meglio proprio perché lo reputo uno dei film di genere italiani più interessanti degli ultimi anni non per la sua perfezione è un film che ha dei difetti è un po' troppo lungo non tutte le gag vanno a segno ogni tanto la recitazione va un po' troppo sopra le righe ma il film mi convince la storia è questa un gruppo di ragazzi siamo a fine anni Ottanta a Bobbio non a caso Bobbio città dove Bellocchio ha girato con in tasca non a caso il produttore del film è il figlio di Bellocchio non a caso c'è la moglie di Bellocchio a fare una della famiglia Valmonta insomma la storia è quella di questo ragazzino che vuole girare i suoi film horror amanti del cinema horror che sta girando i suoi film horror in VHS normalmente ed è fissato con questo fumetto che si chiama 666 quando legge il nuovo numero del fumetto si rende conto che tanti riferimenti di questo fumetto una cripta un mostro che c'è dentro e tutto il resto sembrano essere collegati appunto al suo paese e quindi decide di iniziare a indagare facendo questo entra dentro questa cripta e scopre che c'è questa famiglia Valmont che appunto dedita a questi sacrifici sacri per questi alieni o presunti tali modello lovecraftiani e quindi il nostro decide di andare a trovare quello che ha scritto il fumetto che poi ha interpretato da Lilo per farsi dare una mano e liberare il paese che piano piano sta andando sempre più sotto il gioco e la violenza appunto di questa famiglia Valmont e dei mostri che vuole risvegliare in tutto questo le avventure dei nostri ragazzi all'interno appunto della cittadina e in giro un po' per l'Italia per cercare appunto Lilo e gli altri Allora il mostro della cripta è un film che funziona c'è poco da dire la fotografia è ben fatta gli effetti speciali specialmente di trucco sono veramente ottimi il mostro è ganso il ritmo è quello giusto ripeto troppo tempo troppo lungo ma all'amore che si sente la passione che hanno messo i manetti nello sceneggiare il film che poi è stato risottosceneggiato da Ciccotti e Misischia per renderlo più negli anni 80 è una sceneggiatura implausibile certamente piena di rimandi e citazioni a un cinema di serie B serie Z e di chi di cinema horror voleva fare anche senza mezzi quindi è un film che cita proprio quel tipo di cinema un tipo di cinema che praticamente non esiste più e in questo film se ne fa un certo tipo di voglia insomma di prosecuzione e cercando di avere un certo tipo di ironia cercando di scavare appunto nel cinema che era quello diciamo fatto con pochissimi mezzi e tanta voglia e idee da ragazzi di provincia in mezzo mondo e il tutto viene trasportato in questa piccola cittadina dove il tutto si svolge molto lentamente sono bravi come ho detto i giovani del casti i giovani del casti sono veramente bravi se la cavano alla stragrande la Caselli un po' meno e la grandissima Arianna Bonardi a fare la figlia della famiglia Malmonte e sono bravi tutti anche Camiglia a fare una piccola parte a fare il poliziotto bello come gli scoppia la testa gli effetti splatter sono fatti bene le bruciature meravigliose sulla Bonardi ed è un classico film che viaggia proprio di ritmo viaggia ma di bel montaggio e viaggia grazie a una bella regina di Daniele Missischa che seppur su commissione riesce a tirare fuori delle scene notevole in più ci ammazza ragazzini e bambini in un film dove gli horror ormai sono talmente buoni e pudici che non fanno morire gli adulti figuriamoci i bambini come in questo film ma poi il sangue lo splatte scorre come è giusto quando deve scorrere ci si diverte chiaro Lillo alza il livello recitativo a livello di battute a livello di tecnica dei tempi comici che sono quasi sempre beccati e per me insomma il classico film che pur non essendo un capolavoro si merita alla stragrande il meglio di quest'anno proprio perché riesce ad essere un film interessante italiano di genere puro che misca il fantasy l'horror la fantascienza e lo fa guardando anche uno sguardo ai ragazzini e questo mi fa molto piacere è un film anche questo secondo me è sportabilissimo perché seppur è girato in Italia in realtà quello che parla l'amore fra ragazzini la voglia di crescere totalmente la voglia di fare cinema la voglia di essere artisti ma di non essere tali e spocchiosamente vive tutta in un film appunto questo mostro della cripta che ha delle scene azzeccatissime appunto l'ammazzamento del Camilli la scena della ragazza ampalata sul palo tutte le sequenze di viaggio sono veramente ganzissime il personaggio del nostro e romanticamente ancora gucciniano di Lillo è molto interessante e invece il bimbo che vorrebbe ascoltare il metal è un momento in cui il cinema ha bisogno di queste cose italiane ne ha bisogno specialmente se è fatto col cuore e si vede come in questo caso che ciò non ci regala quindi un film assolutamente perfetto ma ci regala un film sentito se ne capisce la voglia se ne capisce l'idea e anche le battute contro Nani Moretti e tutto sono solo goliardia che non è stata assolutamente secondo me capita quindi per me questo Mostro della Cripta è di Mortone uno dei migliori film italiani dell'anno ed è uno dei migliori film usciti al cinema quest'anno mi ha divertito mi ha divertito le tre volte che l'ho vista al cinema e mi ha divertito adesso che ho il DVD quindi che cazzo vi posso dirgli più Mostro della Cripta il DVD della Ciccoria è qua sotto il Blu-ray purtroppo non l'hanno ancora stampato è uno di quei classici film che è passato troppo inosservato e che invece merita di molto l'attenzione di tutti quelli che amano il cinema di genere italiano e non perché per un'altra volta si fa notare come in Italia si potrebbe fare del grande cinema o del buon cinema o del discreto cinema di genere quindi fantasy e tutto il resto senza dimenticarsi però insomma di far attaccare il cervello agli spettatori e soprattutto senza dimenticarsi uno di essere in italiani due di fare cinema che possa garbare anche all'estero e tre di fare qualcosa che si ha veramente voglia di fare in questo Mostro della Cripta l'amore c'è tutto il link è qui sotto come ho detto tornate su Patreon mi piace iscrivetevi al canale fate il cazzo di che vi fare non si amate il cinema indipendente italiano un'occhiata dategliela questo film di Daniele e insomma uno come il sottoscritto che amava quel tipo di cinema che fosse la full moon o tutto la troma o quello che volete non può altro che poter amare un film che omaggia gli stessi cercando di essere girato in maniera più moderna certo digitale e tutto ma non tradendo mai lo spirito di quel tipo di cinema inoltre la ricostruzione di ambiente perfetta per essere negli anni 80 e come ho detto il film nonostante le difetti lunghezza un'ecitazione a tratti un po' sopra le righe e una sceneggiatura che ogni tanto piglia ogni tanto non piglia è un classico film che ha una regia ottima e una messa in scena che da sola merita il prezzo del biglietto quindi a voi la scelta il link è qui sotto altro film che dovevo uscire nelle sale che invece ci siamo ritrovati diretti non video e meno male perché è una delle commedie indipendenti inglesi orrorifiche più divertenti che mi è capito di vedere negli ultimi tempi certo a tratti di debitrice di Edward Wright di un certo tipo di neo parodia inglese che dopo il successo di Shaun of the Dead ha portato a tante parodie horror però insomma questo Benny Loves You secondo me è un piccolo gioiello che ricorda molto più in un certo senso a livello anche estetico un cinema anni 80 alla Empire Full Moon i tempi di Puppet Master di Demoniac Toys però se in quel momento lì insomma tutto era spiegato da un certo tipo di intervento diciamo così demoniaco nel vero senso della parola qui invece è dato per scontato che in un mondo nostro in realtà se noi abbandoniamo un orzacchiotto un nostro giocattolo dopo 30 anni ci viene e ci uccide questa è più o meno la logica del film in realtà poi è la storia di questo ragazzo Jack che ha 35 anni non fa un cazzo sta in casa con i suoi che ha questo orzacchiotto Benny che è una vita e ce l'ha la trama è questa è la più semplice veramente del mondo questo all'inizio dice eh cosa vuoi mi succede nella vita mia è una vita di merda succede tutto è Natale lui va in camera a cambiarsi si mette il maglioncino in questo mentre dice la mia vita è una merda non cambierà più nulla la sua mamma scivola il suo babbo scivola picchia una testata le casca un soprammobile sulla testa muore la mamma scivola sul sangue del babbo si pianta con la testa dentro le forchette dell'occhi e muore il nostro arriva lì e li trova morti passano un anno è il Natale dell'anno dopo il nostro decide praticamente di buttare via questo orzacchiotto che ritorna solo che stavolta ritorna non per uccidere il nostro ma per uccidere tutti quelli che il nostro c'ha sul cazzo o che c'ha intorno quindi è una commedia abbastanza assurda questa è la trama allora detto questo e allora va subito detto che non viene utilizzato nessun tipo di computer se non per cancellare i fili cioè il nostro Benny che poi è questo bel mostriciatolo rosso lì il nostro Benny non è assolutamente usato al computer è mosso con i fili chiaramente non tocca nemmeno terra e vengono cancellati al computer quindi il pupazzo è pupazzo reale lo splatter è totale cioè la violenza di questo pupazzo è allucinante io un film di pupazzi così violento è veramente da tanti anni che non lo vedevo e in pratica l'idea dell'abbandono viene filtrata questo film è sia l'abbandono dell'umanità che il nostro ha in fine conti rimuoiano due genitori così a cazzo di cane questo un anno dopo è lì che non gliene frega un cazzo e l'abbandono del pupazzo è un po' l'abbandono della fanciullezza l'abbandono del sogno è il sogno che torna stavolta come incubo perché devi iniziare a lavorare devi iniziare a pagare le tasse devi iniziare a alzarti e quindi si diventa quasi una trasmigrazione del pensiero questo mamboleotto una volta che lo abbandoni ritorna come responsabilità in un certo senso responsabilità che si deve tenere più nessuno e cerca di trattenere la furia di questo pazzo che quando va a giro poi col coltello della motosega niente veramente da dire il problema appunto di questo Benny è che non ha mai torto cioè quando guardi il film io quando ammazza questi sono talmente antipatici che in un certo punto il film funziona proprio come classica idea di mettersi dalla parte del mostro che il mostro non è e che però questa volta è portato all'ironia dal fatto che questo mostro è alto 30 cm rosso ce la faccia sorridente e che in realtà gli dà una piedata in bocca e gli fa fare 30 metri nello stempi cioè il punto è che qui Benny è più furbo cioè la bellezza del film è che non punta come quei classici film che non tornano un cazzo con la bambola classica tipo l'ultima bambola assassina e non torna una sega perché un robottino pigli in due la strappi in due fino alla bambola assassina non come il vecchio bambola assassina che c'è il rito voodoo li strappi in braccino lui ti dà il tellato uguale ne frega un cazzo qui si torna a un livello ancora diverso cioè qui non siamo né dalle parti della bambola assassina elettronica perché non ti dà la spiegazione di un chip che la butta di fuori o una stronzata elettronica no qui dà per scontato che l'abbandono tale se ti ritrova Benny si incazza con te o chi è intorno e più la cosa interessante è che il nostro una volta che sgama che Benny sta ammazzando la gente nasconde morti non gliene frega un cazzo non è che dice trovo il sistema per fermarlo gli dice c'è proprio l'immaturità del personaggio è legata all'immaturità del pupazzo che in realtà fa tutto quello che il nostro personaggio vorrebbe fare ma non ha il coraggio di fare in tutto questo si inserisce appunto una sceneggiatura del regista Carl Holt che appunto scrive la sceneggiatura che fa anche Jack quindi siamo di fronte proprio a un il protagonista siamo proprio di fronte a un film non voluto stravoluto il regista ha scritto produce monta fotografa interpreta ed è un film a basso costo e un'altra volta si dimostra come le commedie horror da basso costo funzionano meglio prima di tutto perché si elimina ogni tipo di retorica e buonismo qui si attacca direttamente una società capitalista è una società che ti mantiene attaccata l'idea di possedere qualcosa quando perdi la posizione di questa e la consideri come fosse merda allegoricamente ci fa capire quanto buttiamo via di importante quanto non ci rendiamo conto che varrebbe per altri e che per noi varia uno sputo questo è Benny per uno come me in Benny ci vede tutto quel cibo che viene buttato via tutte le arance e vengano buttate via per far salire il prezzo Benny è il fattore umano siamo delle merde e lui è semplicemente la nostra la nostra trasposizione in pupazzo e il nostro protagonista non è una merda se non quanto Benny perché ripeto al di là del fatto di tutto non è dispiaciuto quasi della morte dei genitori che lo lasciano pieno di soldi tra l'altro non gliene frega quasi un cazzo degli omicidi se non per la paura di essere sgamato quindi un personaggio molto stronzo e questo Jack Colt secondo me dimostra di avere una bella mano sia nel montaggio una regia e che in tutto il resto che ha fatto praticamente da solo l'idea gli era venuta perché aveva appunto paura di questo pupazzo quando era piccino che se l'avesse abbandonato lo sarebbe venuto a cercare perché mi pare era di quelli che parlavano quindi ti vorrò sempre bene infatti bene qui Benny ti ama visto ribadito mentre fra fra strappano due la testa di uno Benny ti ama e quindi diciamo il contrasto in questo punto il contrasto un po' come per quell'altro film in Bergarbato Io sono nessuno che è interessante ma proprio che Gandhi la cosa che fa idea è che questo non c'è la faccia di eroe né il fisico quindi il contrasto fra un film reazionario conservatore di vendetta che potrebbe farsi brava e invece la faccia scemo di questo porta a un'ironia che non rende serio nulla e quindi ci si diverte come se fosse un cartone animato e questo fa uguale Benny Love You nel suo attaccare un certo tipo di critica a una società borghese a una società che non sa guardare oltre al proprio guadagno che non sa guardare oltre a niente che non sia il proprio diciamo interesse tutto è ributtato dentro questo Benny che non è a caso come ha detto lui è il rosso il resto non so perché però è il rosso Benny Love You Benny ci ama tutti non ama solo il povero Jack nel modo in cui può amare solo Benny è quello in cui è stato indottrinato e noi siamo un po' tutti Benny in un certo senso e Jack guardando bene il film se volete questa è la mia idea è peggiore di un bambolotto che fa questo perché così è invece Jack decide di fare quello che fa e quindi poi guardate il film e capirete perché secondo me è più merda Jack di Benny detto questo il film insomma è uscito un'altra volta solo in un video lo trovate qui sotto il link c'è per me è uno di quei filmetti che chiaramente per altri faranno poco e che per invece per il sottoscritto valgono un bel po' proprio perché nel loro essere indipendenti fatti con dei soldi hanno 5.000 volte più idee di 6.000 film appunto nella bambola assassini fatti con blockbuster di adesso che però non dicono altro che la solita ripetizione dicotomica fra bene e male le solite quattro puttanate e in più quando ci mettono la commedia non riescono come in questo film a essere anche a tratti tesi e spaventosi solitamente la commedia si mangia tutto ridi dall'inizio alla fine e non c'è alcuna catarsi né divertimento reale invece qui il problema è che un momento prima sei un po' sciabordato dalla scena tesissima poi arriva il pupazzo ridi e poi arriva la scena splatter che non ti aspetti così violenta e poi arriva l'allegoria e la critica alla società quindi che volete di più Barry Loves You è qui sotto siccome siamo un po' il terzo mondo del cinema in Italia se non il quarto questo bellissimo film di Fabrizio Duels regista di quel capolavoro che è Calvair e poi del bellissimo Vinian dell'ottimo Colt 45 arriva con quei sette annetti di ritardo dai non è proprio così tanto il suo Alleluia grandissimo film veramente che avevo già messo nei consigli pure questo naturalmente questo grandissimo si ripete visto che questo è il meglio il meglio sono dei film questo The Lonely Heart Killers chiamato qui così in Italia quando era molto meglio Alleluia ripeto perché rendeva molto più l'idea però si collega a questi The Lonely Heart Killers che erano due serial killer degli anni 50 che si incontrarono proprio un'infermiera e questo qui e decisero praticamente di incominciare a truffare le coppie così e poi ammazzarli e rubargli tutto da questo presupposto il nostro fa una specie di biografico di questi due perché la parte iniziale è molto simile se non uguale però trasporta tutto agli anni nostri e quindi da lì prende spunto il grandissimo Fabrice Duels per girare questo clamoroso filmone veramente per me uno dei più bei film degli ultimi 30 anni un capolavoro assoluto del thriller uno dei film più disturbanti che abbia mai visto un film a livello di potenza proprio a livello di cattiveria a livello anche di ironia in un certo senso verso il mondo che può essere conducibile al grandissimo Lars von Trier della casa di Jack se vogliamo un film incredibile questo che se vogliamo possiamo ricondurre al grandissimo film di Harry Pioggia di Sangue anche quello bellissimo un certo tipo di scrittura e ricerca anche a livello visivo di un certo realismo all'interno di una storia molto particolare la storia è poi veramente la più semplice del mondo questa donna è una donna praticamente che ha perso il marito è anni che non esce con un uomo è un'infermiera sembra avere un po' di problemi però insomma come tanti altri però è normale all'inizio con la sua sorella lì che chiacchierano di prendere un appuntamento su internet come un altro lei sembra non volerlo fare poi alla fine insomma decide di cedere va all'appuntamento e si trova quest'uomo affascinante che poi è il protagonista di Calvera appunto si trova quest'uomo affascinante davanti ne è colpita vanno a casa e trombano questo si sveglia la mattina dicendo guarda io però devo scappare perché ho dei debiti da pagare sono nella merda non mi apre la banca questo ora mi fanno il culo quindi questa gli dà dei soldi e lui praticamente scappa e non si fa più sentire lei dura come il leccio decide praticamente di girare per la città e lo sgama che praticamente di lavoro questo di mestiere fa quello che fa con lei becca le fie un po' distrutte ne bare o si ci tromba gli ruba qualcosa di casa comunque si fa dai soldi e poi scompare dicendo di amarle lei va da lui iniziano a litigare lei gli fa la scenata in realtà si innamorano quindi decidono insieme di fare questa cosa lei si spaccia per la sorella appena lasciata dal marito che viaggia con lui e lui farà il suo solito lavoro abborderà le donne lei gli darà una mano gli fregranno tutti e di lì parte tutto il film che diventa un delirio omicida allora un film meraviglioso allora Fabrice de Wales decide di utilizzare la macchina a mano come mai aveva fatto macchina a mano per quasi tutto il film l'inquadratura era avvicinatissima oltretutto è uno dei pochi registri che riesce in questo film a mostrarci il sesso in una maniera negativa nel senso non negativo il sesso mettale ma quando lo vedi è tutt'altro che eccitante in questo film quando c'è questa di settant'anni che fa il pompino a lui che danno il senso proprio del limite al porno cioè proprio vicinissimo al limite e questo limite però il grande The Waltz non lo supera mai ti mette sempre in una condizione di realismo a un certo punto si sposta nell'angolo e vedi questa cosa in ombra e ti mette a disagio sinceramente perché vedi e sai che l'uomo lo sta facendo esclusivamente per prendere soldi a questa vecchia a quarant'anni di più e il disagio te lo mette soprattutto il fatto che noi sappiamo che questi sono osservati oltretutto quindi lo sguardo voyeristico di questa che la butta di fuori di riparte del tutto quindi il nostro The Waltz in 3-4 punti del film ci butta dentro praticamente del soft porno ma lo fa proprio per andare contrario alla narrazione che di solito viene inserita il soft porno di solito ci viene messa una a culo di fuori una gran fia tutto questo perché così nell'horror non c'è le tette invece The Waltz ribalta la concezione perché ci spoglia le donne di 70 anni brutte ci fa fare il pompino da una vecchia e il sesso viene rigettato in realtà a livello non della loro coppia come qualsiasi cosa che venga fatta esclusivamente per i soldi e quando i nostri due fanno sesso il loro sesso è sesso sfrenato completo e quindi il regista non ha assolutamente alcuna morale verso il sesso sia mai e non è nemmeno moralista verso i suoi personaggi questa è una delle cose migliori di The Waltz non riesce fortunatamente mai a dire il bignamino della stronzata e della retorica come sono classi cattivi o tutto il resto il film ragiona proprio di due personaggi che sono due personaggi soli due personaggi completamente borderline fuori da una società che non li comprendeva uno e l'altro lei che fa l'infermiere viene maltrattata ciao Stefano ciao Lince lui invece che fa il truffatore e che in realtà cercherebbe probabilmente una vita più tranquilla l'incrocio di questi due caratteri in realtà esplode in qualcosa di molto più grosso violento e omicida è qui che viene fuori il bello in realtà il nostro uomo pur essendo un traitore un truffatore una merda non aveva mai toccato nessuno invece con l'arrivo di questa donna che fa il primo omicidio la violenza sale sempre di più e diventa svaloritiva come sale a livello anche narrativo a livello visivo i colori si accendono se nella prima parte il tutto è quasi giocato tutto sugli azzurri sui verdi sui blu per cercare di dare anche molto più apertura ai paesaggi apertura diciamo allo spazio filmico invece nella seconda parte più i nostri entrano nell'orrore più l'orrore viene rinchiuso la fotografia si avvicina quasi a quella di Apocalypse Now nella parte interna con Marlon Brando i tagli di rossi i tagli arancioni il giallo il colore del fuoco sembra dominare questi amanti folli amanti folli che però il loro amore lo portano avanti con reale cuore ecco e questo è bellissimo il regista non mette mai in dubbio l'amore che hanno in loro due per loro stessi mette in dubbio l'amore che hanno per il mondo esterno che però li ha sempre li ha sempre massacrati e in più la critica poi anche sociale perché poi questi non è gente che muore di fame è proprio un'idea di sopravvivenza quasi ferina come se fossimo in mezzo alla savana e ci dovremmo dovessimo scappare dai leoni e quindi vogliamo diventare noi stessi leoni a un certo punto e qui sembra raccontare questo il film due perdenti due loser due che sembrano vivere in un mondo che ormai li ha dimenticati che solo insieme riaccendono una fiamma peccato che anche quella però è della follia e che quindi il film a un certo punto proprio nell'ultima mezz'ora la butti completamente di fuori e diventa veramente difficile a sopportare perché non è di stomaco forte non solo per due o tre scene di violenza ma proprio per come la violenza è mostrata e proprio per come Fabrizio de Wales non ha alcuna intenzione di essere morbido con il proprio spettatore non gliene frega un emerito cazzo di quello che diranno chi guarderà il suo film e si nota questo è un regista che fa film per sé come si sa io leggo 6.000 libri e c'è quello che dice faccio film per me poi per gli altri quelli solo per il pubblico e sono grandi autori che decidono anche di fare film per il pubblico però magari Spielberg The Waltz decide di fare film per sé il pubblico è la conseguenza quando un regista fa un film di questo tipo spera che il pubblico sia un po' come lui è chiaro cosa intendo cioè la differenza è quella non fa un film generalista per il pubblico fa un film per se stesso sperando che il pubblico apprezzi e questo è un altro discorso sperando che il pubblico sia vicino a chi fa il film e questo è un film che ripeto ha un montaggio eccezionale l'uso della musica è stratosferico è dilaniante gli attori sono uno più bravo degli altri i due attori principali dicevo sono grandissimi Laurent Lucca è il protagonista di Calvare e qui fa appunto Michelle Belmer invece Gloria è interpretata alla stragrande dalla bravissima Lola Desnois bravissima e incredibile anche lei nel suo cambiamento perché ripeto è un film che proprio è straniante sono quei film stronzi quei film che partono il primo quarto d'ora e sembra la storia di questa donna sola poverina che fa l'appuntamento con questo viene fregata te ti fii per lei pensi ma guarda questo stronzo tutto e poi arriva con accetta e spacca la testa una e fai buongiorno quindi ma quando non te l'aspetti arriva lì di botto e poi non è che vi sto a spoilerà cioè è così il film e poi di lì parte tutto se no tra l'altro vi ripeto essendo ispirato ai killer della luna di miele si chiamavano così perché questi qui cosa facevano in realtà negli anni 50 erano fantastici abbordavano donna sola ricca sfondata si sposavano pochi giorni lei moriva l'ammazzavano i portavano in e scappavano sono famosissimi questi killer della luna piana perché sono riusciti a fare questo ad una festa alla casa bianca la follia dei nostri come era negli anni 50 parte dalla follia di lei più che dalla follia lui non era un assassino era solo un truffatore certo loro sembra abbiamo fatto fuori 250.000 persone non si sa quanti hanno fatti fuori i killer del matrimonio del viaggio di nozze invece questi nostri nel film non fanno fuori poi tutta questa gente ma il finale è meraviglioso con quelle due mani che si uniscono e il colore rosso prende vita e diventa arte grandissimo film The Lonely Heart Killers preferisco Alleluia del 2014 del grande Fabrice de Wells che dimostra un'altra volta di raccontare dei personaggi così importanti potenti interessanti senza dover avere budget chissà di quale tipo e soprattutto utilizzando i mezzi cinematografici montaggio, fotografia campi lunghi campi larvi contro campi primo piano tutto quello che il cinema usa senza mai sbagliare una mezza virgola l'inquadratura qui siamo di fronte a uno che non sbaglia un cazzo ripeto usa il sesso come lo può utilizzare solo lui usa le scene di sesso in modo assolutamente unico usa la macchina a mano in modo stupefacente e quando decide di stare fermo e inquadrare quello che deve inquadrare diventa un genio assoluto quindi per me The Wolves è uno degli autori più importanti degli ultimi 30 anni e chiaramente ha fatto 5 film e chiaramente da noi sono arrivati tutti almeno 2 o 3 manco sono arrivati quei 2 o 3 che sono arrivati diretti per lo video e saltano la sala pure questo ma perlomeno però almeno anche se siamo nel 2021 ci è arrivato 7 anni di ritardo insomma sono un po' tantini però insomma per The Wolves si aspetta anche di più se mi potrebbe mandare anche Vinian che ne ha 15 anni io sono sempre qui contento di recensirlo e guardarmelo anche in sala sarebbe meglio come questo dell'Holly Heart Killers del quale aspetto con la fine del covid che qualcuno prima o poi si decida di buttarlo in qualche sala per poterlo andare a vedere su un grande schermo perché questo per me è un capolavoro altro film italiano questa volta indipendente anche questo costato poco e mi fa piacere quest'anno come avete fatto lo sto zeppando questo meglio del più possibile dei film italiani anche a basso costo che ho visto proprio perché siccome al cinema ho visto poca roba nel senso che come tutti il covid vorrei insomma cercare di tirare su un po' della nostra cinematografia un po' più scomparse a chi ci dice che non sappiamo fare determinate cose una di questi film che invece ci dice che determinate cose le sappiamo fare seppur difettose è Letto numero 6 di Milena Cocozza con Carolina Crescentini come protagonista un classico classico thriller horror proprio gotico se vogliamo la storia è quella di Bianca una donna che era appena rimasta incinta di suo marito che è una dottoressa è una pediatra e che trova lavoro in questa clinica privata vaticana quindi da preti e dalle sore e lei deve fare praticamente il turno di notte in pediatria in questo ospedale per i bambini dove però purtroppo la dottoressa prima si era suicidata buttandosi da tutta la finestra e arriva a questo posto la nostra non dice però di essere incinta perché se no ha paura di non essere presa a lavorare a quel punto entra al lavoro tranquillamente il marito fa il suo posto austero mostruoso una notte incontra un bambino del letto numero 6 ci fa determinate parole promette a questo bambino che sua madre stavolta verrà a trovarlo il giorno dopo quando va a cercare questo bambino si rende conto che in realtà non esiste e di lì tutta la storia allora bisogna dire subito che chiaramente la nostra regista si rifà a livello estetico in maniera chiarissima fucci baba argento cioè proprio a livello di tagli come già secondo me l'inizio già è fantastico una sequenza polvore di tanto di altre sbagliate la prima sequenza dove stiamo fermi per 4 minuti su un riflesso di un palazzo sul rosso sul rosso su questa bozza diciamo questo pozzangra in lingua normale dove si riflette questo palazzo e partono i titoli di testa molto semplici e poi a un certo punto stro dentro la pozzangra arriva uno che gli si spappola la faccia una e butta sangue da tutte le parti e fa i buoni inizio con i fiocchi ed è appunto la nostra pediatra della quale la nostra bianca va a fare inizia subito benissimo poi in quadratura con grand'angolo di questo gigantesco palazzo modello medievale con questo colore blu e rosso che taglia e fai ok inferno e si incomincia a pensare che argento è in ogni inquadratura poi a livello narrativo invece la donna che arriva lì il bambino che noi scopriamo subito che in realtà non c'è del 59 che c'è il fantasma e tutto il resto invece è mutuata da diciamo così due tipi di neo horror secondo me uno che è quello orientale quindi troviamo ecchi di The Ring ecco di The Grudge e via dicendo quindi ombre dal passato queste cose qui sciatte invece poi c'è l'altro lato quello dell'oro europeo quindi ci potremmo trovare tracce di Balaguerot modello settima musa o altre cose ancora più vicine al darkness oppure ci potremmo trovare produzioni di Del Toro o di Almodovar modello The Orphanage per esempio quindi è un cinema molto italiano in realtà per come è raccontato per come è recitato però che prende un po' da tutte le parti e quindi anche questo molto esportabile e in questa storia diciamo è divisa e suddivisa in due atti praticissimi il primo atto dove la nostra praticamente tira fuori tutto quello che c'è dentro la pediatria di questo ospedale è privato e nel secondo atto diciamo inizia a partire tutta la risoluzione e il ritmo si movimenta perché cominciano ad entrare preti sette cazzo di salute spiritiche casini e quindi parte tutto diciamo molto più velocemente il ritmo aumenta e secondo il sottoscritto è lì che il film perde un po' delle sue qualità quindi non è che siamo di fronte a un film perfetto nel meglio e nel peggio come ho detto tutti gli anni comunque non ci vanno i migliori film per forza ci vanno i migliori film per me quindi questa come tutte le classifiche lo devo dire ogni tanto perché tale è anche se non li metto dal meglio e al peggio me ne frega nulla però come tutte le classifiche perdono il tempo e trovano domani potrei essere d'accordo che il letto numero 6 non andava bene in questa classifia chiaro le classifiche sono fatte anche sul momento e sul momento vi mandi metterci questo e non no Madelende perché no Madelende tanto l'avete visto tutti è un buon film fate conto che l'ho fatto lo metterò poi in un consiglio di un mese come un altro giro questi film sono belli li ho nascete tutti il letto numero 6 ma non li ho nascete e quindi credo che debba anche servire questo meglio e il peggio per farvi vedere qualche film che magari vi è sfuggito e che siete amanti dell'horror siete amanti del thriller psicologico qui trovate di fronte a una buona sceneggiatura almeno per la prima parte scritta da Manetti ben scritta una bella produzione anche di loro una Crescentini che a me non piace molto ma che qui in realtà molto quadrata e attaccatissima al genere molto brava e in più c'è un personaggio ma a un certo punto entra un personaggio di un coatto che fa l'infermiere ed è fortissimo come in realtà questa italianità questa parla in romano non abbassi assolutamente la tensione per niente quindi la regista è molto brava a dosare specialmente tutta la prima parte e la prima parte è quella che amo di più per forza è una schiana sembra di vedere più le pulsioni questa donna sola nell'ospedale quindi c'ha questo senso di gotico spiaccicato addosso di Mario Bava di Fulci c'ha proprio questa idea qui l'idea del cinema che piace a me più di tutti poi queste sensazioni quest'idea proprio della fotografia che vive in queste scene la nostra che sogna e non si distingue più la realtà dal sogno però mai attraverso troppe banalità ecco nel senso di scrittura non è così banale il film però secondo me che cosa dice? dice troppo a un certo punto diciamo le cose belle come le ho dette cose belle grande fotografia tensione che c'è quasi tutto il film quindi la regista riesce veramente a mettere la macchina dove serve recitazione di ottimo livello un film indipendente crescentino ha il suo miglior ruolo secondo me il suo miglior ruolo la ricostruzione è perfetta le musiche sono ottime e poi ci sono le cose che non funzionano la seconda parte si incarta troppo casino troppa voglia di darci una spiegazione a tutto cioè non ce ne fregava un cazzo di sapere perché il bambino è venuto fuori proprio in quel giorno in quel momento non ci interessa tutto per il casino del prete e quell'altro la seduta spiritia allunga il brodo sono due ore purtroppo il film sono un'ora e cinquantasette minuti un film si è da un'ora e mezzo andava tagliato a volegli bene in quarto d'ora 15 minuti epilogo troppo lungo troppo casino è un film che avrebbe funzionato secondo me ancora meglio con ancora più attese però purtroppo forse il pubblico ha bisogno più di ritmo non lo so e di essere tutto spiegato alla perfezione non ne ho idea resta il fatto che è un film pieno di idee e questo è vero idee che a volte sfuggono a volte scompaiono come alcuni personaggi che cioè io quando ho visto il mostro della cripta regina questo mondo cane che me ne sono voluti poi rivedere tutti di fira per fare questo meglio e peggio mi sono sentito bene ho fatto ma guarda il perci c'è un incredibilmente nei suoi rifetti nei pochi soldi in quello che volete nella ripetizione nel sapere già sti cazzi però alla fine mi sto spappolando un po' di film italiane a raffica ne trovo un cuore gigantesco ecco ci trovo proprio la voglia di volerli fare si sente proprio e questo non li rende migliori come opere tutti per forza ce ne sono alcuni che non ho messo che fanno ca al mondo quelli che invece valevano ci fanno messi perché questa è gente questa Milena se gli date i soldi e fa un film a un 20 milioni questa vi fa un filmone uguale al per me il misistio uguale al dirigista di regime questi sono registi che andrebbero aiutato e questo letto numero 6 è un ottimo filmone di genere di quelli che se fosse venuto dalla Spagna o dalla Meria al posto della Crescentini ci stioccavi la classi attrice ameriana famosa Uma Thurman erano tutti a fare poc'anzo questo film di spettri ripeto mica è favoloso ma quando un film dura due ore e la prima è meravigliosa e la seconda si lascia vedere il film per me è più che buono ed è un film che va sponsorizzato proprio perché è fatto con pochi mezzi e manco sembra manco sembra ripeto una produzione piccola un'altra volta poco successo un'altra volta peccato perché tutti questi film li sto facendo rivedere in più o meno quindi vorrei che la gente li riscoprissino un video dateli due soldi fateli lavorare perché secondo me quelli che vi sto citando sono tutti film che meritano di essere comprati non perché italiani ma perché bei film il fatto che siano italiani è in passo in più nel senso che se aiuti la nostra industria aiuti l'Italia in tutti i sensi cioè ci aiuti a vivere meglio fanno meglio film più belli c'è più gente andranno più nelle sale e ci libereremo forse di tutti i luomoragnoli di questo mondo ecco quindi chiaro detto questo paletto numero 6 non voglio togliere nulla è un ottimo film di genere quindi chi ama il thriller o la psicologica la del toro chi vuole il gotico chi ha il solito giro di vita di Harry James e tanto torna e ritorna il bimbo e gli spiriti non può non dare un'occhiata a questo film e non apprezzarlo perché vuol dire a questo punto non amare il genere per uno come me chi ama il genere vecchio e il genere nuovo questo film è indispensabile perché unisce e cerca di unire il genere degli ultimi 20 anni col genere degli anni 70 e almeno per metà film ci riesce per me è un grande successo link qua sotto complimenti a Milena Cocoz per la sua bella opera e l'aspetto al varco alla seconda opera che spero sia ancora migliore di questa e la porti insomma su livelli altissimi e spero non abbandoni assolutamente il genere per darsi anche lei al solito film commediola con quattro stronzi in una stanza che parlano della rivoluzione fuori non poteva mancare nel meglio di quest'anno il film uscito quest'anno di Woody Allen perché tranne che per To Rome With Love è praticamente entrato in tutti i meglio di tutti gli anni il film di cui voglio parlare è un film notevole secondo me abbastanza passato sotto tono il pubblico non se l'è fregato e la critica lo ha trattato così così invece secondo me questo Rifkin's Festival è un film notevole è un film che parla di morte in un certo senso parla di amore per il cinema amore per la scrittura parla un'altra volta di tutto quello che Allen mette in scena come al solito e qui usa William Shaw come suo diciamo alter ego cinematografico che poi aveva lavorato con lui Milinda e Milinda e altri 4-5 mila film come caratterista qui lo porta come protagonista principe e fa la storia di questo uomo appunto che è un ex professore di cinema che deve andare con la moglie che deve intervistare un regista famoso che deve parlare con un regista famoso francese e deve andare al festival di San Sebastian va al festival di San Sebastian però con il giramento di coglioni e con l'idea di dover avere un infarto da un momento all'altro quando arriva lì la moglie interpretata da Gina Gersh in realtà si fa infatuare da questo regista che è convinto di aver risolto il problema israelo-palestinese con il suo film e quindi la presa di culo ai nuovi registi che non sanno nemmeno dove vivono di Allen è gigantesca in tutto questo c'è il nostro nostro show che cerca in un certo senso di ridare un senso alla propria vita ed è un film secondo me completamente antinarrativo perché al di là del fatto che la moglie vuole fare la scappatella con quello al di là della discussione come al solito di Allen sul cinema sulla vita sull'amore sul tradimento che sono le basi del suo cinema sulla famiglia la madre la morte tutto il solito discorso di Allen viene qui filtrato un'altra volta in maniera comica e un'altra volta la commedia la fa da padrone però qui è una commedia citazionista ma di quelle fatte con i grandi cazzi prima di tutto bisogna considerare che qui c'è un'altra volta Storaro quarta collaborazione con Allen e tira fuori un cielo che quando lo guardi ti sembra dipinto da quanto è ben fotografato poi i dialoghi sono eccellenti Woody Allen è uno scrittore di quelli che vanno lasciati perdere un'altra volta la sua regia dimostra di essere all'altezza di ogni situazione sia nella narrazione normale del film ovvero quando noi seguiamo Shaw la moglie e tutto il resto che vanno a giro per stranze bassa in tutto il resto il film è incredibile naturalmente il nostro ci narra continuamente la sua vita così come fa sempre Woody Allen però poi la cosa splendida del film al di là proprio della storia interna è come il nostro attraverso il cinema voglia quasi esorcizzare sembra Allen la paura della morte non è un caso che quel nostro ipocondriaco pensa di morire sempre il cinema sembra quasi una cura e il ripensare a tutti i suoi per il professore tutti i suoi film amati invece per Woody Allen tutti i suoi film che lo hanno portato a fare cinema è un modo per curarsi un modo per curarsi anche dalla vecchiaia come disse Woody Allen stesso alla stessa uscita del film e poi cita tutto cita da Bunuel a Godard a Fellini Bergman diciamo che questo film è incredibile la morte che non ha voglia più di giocare a scacchi con se stessa neanche lei cioè la morte non esiste più per Allen sembra quasi averla esorcizzata con questo film in un certo senso una morte meravigliosa che si porta gli scacchi dietro da sola con un Christopher Waltz in questa particina geniale come sono tutte le parti dei registi incredibili ripeto quando gira come Fellini pare Fellini quando gira come Bergman pare Bergman Bunuel pare Bunuel Cioè qui ogni anche Howard Hawks John Ford sono citati cioè come questo decide di girare la sua citazione gira perfettamente come Bergman cioè una tecnica Woody Allen spaventosa al servizio di una penna mostruosa una direzione degli attori come al solito gigantesca Gina Gershwin era una vita non faceva un film così brava nonostante reflagrata dalla chirurgia plastica ma va bene perché lei comunque fa parte di quel mondo a differenza del marito del che non ne vorrebbe assolutamente far parte ma la cosa più bella ripeto sono questi al di là di queste meravigliose incursioni metacinematografiche che sono geniali fanno quasi parte di metà del film sono proprio i dialoghi un'altra volta Allen sfiora sempre la devenzialità per arrivare sempre a colpire però nel segno colpire e fare male sul tradimento colpire e fare male sulla politica colpire e fare male sul sociale colpire e fare male anche sul discorso del cinema il cinema nuovo quanto ha davvero interesse di diventare qualcosa per il futuro quanto ha davvero interesse di non essere una botta e via e qui Allen discute sul fatto di come certi autori appunto Fellini Truffaut Bergman in realtà non facciano film alcuni da 60 anni 40 anni ma sono continuativamente portati avanti dal nostro la nostra età dal nostro tipo di pensiero Allen qui si chiede quanti di questi giovani registri di questi giovani spettatori di adesso si ricorderanno fra 40 anni i loro 50 anni i loro registri di quando avevano 10-15 anni probabilmente nessuno perché si sta perdendo completamente quest'idea del cinema come arte e Woody Allen qui te lo sfacciatamente te lo dice questo regista artista che vuole risolvere il problema islato-palestinese col film è veramente completamente fuori di cervello ed è una allegoria perfetta del trentenne di adesso che è convinto di fare tutto perché ha la tecnica ai mezzi e sa fare tutto ma alla fine non sa fare un cazzo non sa raccontare una sega se non la sua e diciamo così voglia di essere superiore a tutto ciò che è passato perché in questo film chiaramente il nostro viene veceggiato sempre di essere vecchio di merda da questo vi che comunque di cinema non ne capisce un cazzo e che Woody Allen fa intuire anche che è un regista di merda hipster del cazzo che serve per fare i soldi alle case ma lui si sente Bergman e di lì appunto l'odio del nostro giusto perché è veramente un personaggio di merda per il resto è Allen regia spaventosamente invisibile quelle che servono nelle commedie cioè te ti sembra la prima volta ti sembra che Allen faccia campi contro campi la seconda volta inizia a fa merda la terza volta c'è in piano sequenza da dieci minuti quattro dolli che ti hai accorto perché Allen un'altra volta fa parlare le persone nello schermo basta leggere i libri di Allen e dice sempre che lui si prepara la scena ma una volta che ha la scena decide se fa in piano sequenza fare campi contro campi anche da come è cambiato sul momento la sua idea da come sono le facce degli attori quel giorno se hanno dormito bene se hanno dormito male insomma Allen è uno di quelli pignolissimi che prepara tutto ma poi nel libro dice che quando arriva lì cambia tutto perché 9 su 10 poi l'idea dell'attore o l'idea sul momento li cambia proprio perché li cambia la sceneggiatura ecco e quindi a quel momento non interessa più il primo piano allora si mette a fare il piano sequenza quindi Allen è un regista in realtà molto istintivo infatti lui dice di non averlo mai studiato in realtà il cinema se non andando al cinema è un regista molto istintivo ma quando si è un genio e ci sa questo talento l'istinto mi pare che possa bastare perché se per i critici come dicono Rifkin's Festival è uno dei film più belli più brutti più brutti di Woody Allen immaginatevi più belli per me non è di sicuro uno dei più brutti è un classico bel film di Woody Allen non è uno dei suoi migliori ma non è uno dei suoi migliori 5-10 non è da 20 anni cioè da Criminemmi Sfatti o Menebbi è dagli anni 2000 un po' la Zoppicati Zoppicati regalandoci tutti ottimi film tra me Rotten il top e probabilmente mai nessun capolavoro resta il fatto che questo Rifkin's Festival si mangia tutte le commedie sentimentali dell'anno e un'altra volta rimostra come Allen sia un genio e scriva dei dialoghi solo lui può scrivere il link è qui sotto tornate su Patreon amate Allen andate a vedere la monografia che dovrebbe essere qui nel playlist andate a vedere le monografie vecchie se no non la trovate se la cercate poi farò in modo come mi chiedete in 6.000 di caricare tutta questa roba sul canale così la troverete ma detto questo per me Allen è sempre imprescindibile io a casa non c'ho solo Turon with Love e non c'ho nemmeno se me ne regalano 5 copie le regalerò tutti a chi mi vuole male per il resto questo Rifkin Festival per me è un film assolutamente da possedere anche perché è uno di quei film che si guardano molto volentieri più volte senza dover spengere il cervello ci troviamo di fronte a una commedia americana-spagnola doppia produzione che ha dalla sua Woody Allen mi basterebbe il nome a un certo punto per dovervi convincere invece ormai nel 2021 non basta nemmeno più di guarda che è di Woody Allen prima mi bastava di è di Woody Allen no beh bello me lo guardo adesso invece è di Woody Allen mi fate insomma mi tocca convincervi guardatelo cazzo proprio perché è di Woody Allen non non guardatelo perché è Woody Allen il mondo mi pare i giri al contrario grande Allen e grandissimo Rifkin Festival uno dei film che ragiona sul cinema più intelligenti che sono usciti di sempre Zumeo è un giovane laureando in oceanografia che un giorno per puro caso riesce a salvare da un volo che fa una ragazza da una carrozzina che stava scivolando giù da una collinetta la salva la prende al volo praticamente e la nonna di questa lo invita a casa e noi scopriamo che questa ragazzina che si chiama Comico ma che si fa chiamare José come una delle eroine dei romanzi della sua autrice preferita ovvero la Sagal è appunto una ragazza paralizzata a cui sono morti i genitori e che vive solo con la nonna che non la vuol fare uscire di casa perché ha paura dell'esterno per la sua ragazzina siccome il nostro protagonista questo ragazzo ha bisogno di soldi perché vuole andare in Messico per fare oceanografia proprio sotto l'oceano per cercare una specie di pesci che sembrerebbero scomparsi decide di accettare il lavoro offerto da questa signora anziana per prendersi cura appunto della giovane José e di tutti i suoi capricci dell'inizio è il rapporto di questi due praticamente un amore odio iniziale molto più odio che amore che piano piano si trasformerà in comprensione amicizia avvicinamento allora è un film particolare questo José la tigre e i pesci di Kotaro Tamura assistente alla regia è stato art director allo studio Ghibli per Mamoru Zoda per tanti quindi parte con questo film che è veramente un ottimo film sulla scia appunto dei film come la forma della voce your name o via dicendo anche se qui il fantasy inteso come tale così come la forma della voce è eliminato dalla storia le cose oniriche i viaggi della nostra nella mente per diventare una grande disegnatrice in questo oceano immaginario insomma è veramente una bella storia tratta da un libro tra l'altro famosissimo c'è stata una versione live action in Giappone nel 2003 e una versione altra versione mi pare live action nel 2020 coreana di questa storia perché è una storia molto semplice come ripeto la storia di due ragazzi che si incontrano lei ha la difficoltà praticamente di rimanere di essere da quando è nata praticamente sulla sedia a rotelle di sognare una vita diversa libera di voler fare la scrittrice però non si sente mai al sicuro di un mondo affatto appunto di tigri che sono in realtà gli esseri umani che la circondano e non la comprendono e i pesci invece sono la sua liberazione la storia della sua sirenetta la sua biografia in realtà la scena magnifica quando la leggerà ai bambini è un film che fa del tratto semplice e morbido una delle sue caratteristiche più importanti riesce a funzionare proprio benissimo grazie a questo anche una bellissima animazione molto fluida e ha questo disegno fantastico questo tratto ha tratti veramente bellissimo nel senso che i fondali sono splendidi tutte le parti diciamo anche che si utilizzano in quel 4-5 punti il computer riescono ad essere adeguati alla narrazione e la storia è una storia d'amore sì ma è anche una storia in realtà di crescita e di formazione una formazione di due caratteri completamente distanti che piano piano si avvicinano sempre di più e in tutto questo funzionano benissimo appunto la scrittura di due personaggi che non sono assolutamente scritti a cazzo di canale la nostra protagonista non è per niente simpatica ma nemmeno la fine del film in realtà ha proprio un carattere spiegoloso di suo e il nostro protagonista in realtà fa tutto questo più che altro perché vuole prendere i soldi e scappare in Messico e da ciò nasce però un'unione un dualismo di due persone che sono sempre distanti in questa società che sognano qualcosa ma che questo sogno sembra svanire sia per uno che per l'altro a un certo punto del film ed è un film che è proprio giocato solo con un montaggio fluidissimo un ritmo perfetto sono una storia d'amore scritta anche questa dalla sceneggiatura da Sakai Akuvomara che insomma si sta facendo largo insieme anche ad altre soggestizie sceneggiatrici quindi il mondo del manga sta diventando sempre più al femminile e lo sguardo qui si nota che è quello al femminile c'è poco da fare perché al di là di tutto è una delicatezza una sensibilità che veramente pochi pochi film d'animazione dimostrano e poi è un film completo nonostante sia un'animazione in realtà è un dramma anche in commedia perché a volte si ride molto realistico in quel senso nonostante ho detto le botte di Oniriche con le visioni della nostra i disegni meravigliosi ma il film in realtà segue una linea sua logica narrativa con un ribaltamento a metà che uno neanche si aspetterebbe e con una rinascita di tutti e due i personaggi davvero eccellente guardatevi tutto il film anche dopo i post credit perché continua ed è uno di quei classici film come ho detto che riescono a mettere di fronte anche uno come me un film ottimista così un film che cerca di smuovere gli animi dei ragazzi e cercare di farli fare quello che vogliono nella vita quello che sognano però è giocato benissimo non invade diciamo così il campo della record non è invasivo non rompe i coglioni non è mai melassoso quando scappa la lacrimuccia scappa perché deve non perché è costruita proprio perché il film è costruito proprio benissimo come scrittura un'ora e trentacinque e vola via che è una bellezza e ci sono un paio di colpi di scena che non ti aspetti ed in più ripeto c'è proprio una forza di regia che è simile a quella di Nouvelle Vague è un certo tipo di voglia anche di mettere i nostri in un ambiente molto particolare a livello proprio di messa in scena il regista dice di utilizzare molto flu molto distacco fra i personaggi e quello che è all'esterno della loro bolla la loro bolla di vita i nostri due personaggi sembrano vivere all'interno appunto di questa loro chiusura una appunto perché chiusa all'interno dalla casa dalla nonna che invece troverà finalmente la libertà con le uscite con il nostro uomo invece lui che in realtà sembra così aperto ma in realtà anche esso vive chiuso in una bolla che ha paura quasi gli stesso di aprire se non proprio per un viaggio che forse andrà a buon fine è un film classico in quel senso proprio una storia d'amore pulita fra una ragazza con dei grossi problemi fisici e un ragazzo che in realtà ha dei problemi e che si rende conto di poterli risolvere di averli esclusivamente quando incontra una con problemi più grossi di lui veri dalla vita potenti di quelli che ti spezzano appunto come dove stare su una sede a rotelle e non poter mai correre come dice lei non poter mai fare un bagno non poter mai capire cosa vuol dire camminare sotto la pioggia e una scena infatti in cui lei la vuole essere portata al male e rantola fino a dover assaggiare se davvero il male è salato o no perché non ha mai visto nel toccato del mare in vita sua delle scene in cui vede le cose che non ha mai ne ha meno pensato di immaginare di vedere un treno per lei è una cosa meravigliosa un gelato e un film che parla quindi anche delle piccole cose dell'incertezza della vita e delle certezze della vita che sono l'amicizia l'amore e la solitudine purtroppo quindi le cose negative le cose positive vengono esaminate da questo film in maniera ottima e ripeto l'animazione giapponese riesce a fare questi film molto delicati molto romantici anche un po' piagnoni però senza mai metterci di mezzo appunto quella ritorica bonista quell'idea di dover per forza stare dalla parte di chi è più debole nel senso fisico no basta questo è un film che parla proprio di rinascita di crescita di voglia di cercare di ricreare dei personaggi che non siano assolutamente manichei che abbiano al loro interno sia il bene che il male e in tutto questo il film funziona all'astra grande quindi cosa vi posso dire questa animazione per me finisce nel meglio di sicuro è un filmone per me questo José, la tigre e i pesci ed è uno di quei classici film che da noi purtroppo sono andati in sala solo due o tre giorni come proiezione speciale l'ho visto lì ha fatto una gran figura per il sottoscritto mi sono comprato adesso che è uscito il Blu-ray me lo sparo mille volte proprio perché questa animazione giapponese non funziona stra funziona e seppur non è originalissimo perché ormai comunque siamo abituati a queste storie di ragazzi qui non siamo adolescenti qui siamo sui 25 anni di età post universitari diciamo che ci hanno abituato appunto questi giapponesi a questi anime che sono molto più adulti interessanti intelligenti e pieni di cuore e anima di qualsiasi altro film che fa lo stesso genere ormai nel mondo che sembra annacquato appunto da un buonismo e da una certa sottile voglia di raccontare sempre la solita storia che invece fortunatamente l'animazione giapponese è questa cosa ormai è sempre più rara e grazie anche come ho detto a delle ottime sceneggiatrici donne che hanno smosso un po' l'animazione appunto giapponese e i loro filmoni questo Giosella Tigre Pesci sicuramente non è un capolavoro ma è un grande esordio per Takamura e speriamo insomma che continui su questa strada perché qui siamo a livelli altissimi Giosella Tigre Pesci il link è qui sotto per me uno dei migliori film appunto dell'annata ed è animazione giapponese un certo tipo di fantascienza se vogliamo distopica sociale così come è stata in Meander in Come True e in altri film che sono usciti quest'anno è viva anche in questo bellissimo film del 2019 che da noi è uscito appunto a fine 2020 e anche questo poi è uscito in home video fortunatamente il film è Vivarium è un film con Jess Heisenberg e la bellissima e bravissima Imogen Puz il film appunto è diretto da Lorcan Finnegan che ne scrive anche la sceneggiatura è un film molto interessante è la trama è questa una giovane coppia che vorrebbe spodarsi insomma in cerca di una casa incontra una strano agente immobiliare dentro un'agenzia immobiliare un po' particolare e questo agente gli dice guarda vi porto in un posto meraviglioso costano pochissimo le case troverete tutto quello che volete in vicino non c'è il criminale non c'è un cazzo seguitemi questi montano con lui in macchina lo seguono vanno a rifinire in questo quartiere in effetti bellissimo visitano questa casa perfettissima a un certo punto fanno per andarsene il problema è che l'ambiente immobiliare si è allevato dal cazzo e loro sono rimasti intrappolati lì cercano a un certo punto di cercare di scappare dal tetto da tutte le parti invece sono giorni che si rendono conto che sono circondati dalle stesse villette tutte uguali da pavimentazioni che sembrano erba ma non lo sono e soprattutto da un cielo completamente falso dove le nuvole non si spostano nemmeno di un millimetro e quindi si trovano costretti in questa situazione finché un giorno non gli arriva un pacco all'interno del quale non c'è un bambino un bebè e gli viene detto crescete questo bebè e sarete liberi e di lì tutto quello che succederà all'interno di una trama meravigliosa per un film secondo me splendido altro film sottovalutato e sottostimato invece molto bello una fantascienza distopica modella anni 70 molto molto interessante veramente interessante che nasconde chiaramente nella sua messa in scena nel suo modo di essere montaggio fotografia slavata di verde e la dominan in questi colori pastello da famiglia borghesuccia americana classica da film qui vengono in realtà uniti e disuniti per creare immagini disturbanti veramente inquietanti il televisore che non fa altro che riflettere rumore in un certo senso e il pianto di un bambino ossessivo e compulsivo quest'uomo che continua a scavare 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 per trovare chissà quale cosa l'idea di questo bambino che cresce sempre di più diventato sempre un adulto e senza mai però dare il senso di capire agli altri che cosa sta succedendo quindi una lineazione completa quindi in realtà il nostro regista attraverso un thriller horror fantastico e fantascientifico riesce a inquietarci proprio inquietarci tantissimo prima di tutto proprio per come riesce a utilizzare la tensione il film è creato proprio bene e le inquadrature dall'alto che fanno vedere questa distesa immensa dove tutto è uguale tutto è perfettamente allineato è un'allegoria chiarissima di come è tutto allineato nella nostra vita dobbiamo pensare tutti nella stessa maniera dobbiamo essere tutti dietro ai stessi film tutti dietro alla stessa musica tutti dietro al stesso programma televisivo per cercare di renderci tutti un blocco un blocco di individualismo totale nel pensiero ma collettivo per farci dare vendere e credere che la vita sia quella appunto che qui viene completamente sfasciata dal nostro regista ovvero quella medio borghese che vorrebbe dirci crescete compretevi casa fate un bebè e poi morite la vita è tutta qui e invece la vita non è tutta qui la vita è fatta di tante altre emozioni di tante altre cose da vivere ed è incredibile come questo film attacchi direttamente senza alcun problema questo capitalismo da sguardo visivo questa idea di possedere di avere di avere tutto il giardino la grande casa il figlio il macchinone per poi in realtà non possedere altro che il vuoto il vuoto cosmico assoluto del silenzio di un cielo di cartone di una terra che non puoi scavare se non distruggendola e trasformandola in realtà in qualcosa di diverso quelle scene lì sono veramente meravigliose quindi un film che parla anche dell'alineazione del genere umano della nostra mancanza ormai di comunicabilità parla appunto anche dei nuovi mezzi la nuova televisione on demand non è un caso che la televisione non faccia altro che stordirti mandarti solo dei segnali in questo film che eppure dà l'idea proprio che la tecnologia ormai ci stia sfuggendo di mano è proprio un'idea di discussione sui tempi moderni nostri un film sociologico alla fine è un film sociale politico e finalmente un altro film che fa discutere su quello che è nello stesso non solo su quello che dice perché la cosa bella del film non è solo quello che dice a livello grottesco allegorico chiaramente appunto la sfida sui nostri tempi sulla borghesia che deve seguire determinate cose per essere perfetta agli occhi della società cosa bisogna fare per essere perfetti agli occhi della società cosa bisogna ascoltare cosa bisogna mangiare qui viene tutto allegorizzato in questo le scatole che gli arrivano con la roba da mangiare tutto è inscatolato in questo mondo dicono è te stesso sei dentro una scatola sei in una gabbia sei te il pollo dentro una gabbia sei ormai te cresciuto dentro un vivarium appunto un film maestoso con un finale a dir poco incredibile che non dà assolutamente una spiegazione totalmente razionale che un'altra volta deve essere chiesta allo spettatore che deve essere attento perché questo è un altro film che ha visto la prima volta è rimasto un po' bello ma c'è delle cose che va invece rividendolo sempre di più quello che non sembrava tornare in realtà è qualcosa di ancora più interessante visto dopo perché le cose che appunto sono messe in scena alcuni dettagli alcuni dialoghi alcuni movimenti di macchina svelano molto di più di quello che sembrava non svelassero alla prima visione quindi la paranoia di essere soldegliati la paranoia di dover guadagnare la paranoia appunto del capitale come punto centrale della vita il risparmio l'idea di avere qualcosa il possedere una cosa incredibile di questo mondo capitalista che tende a non farti avere le necessità e che quindi trasformano anche delle necessità magari pure come appunto il senso di maternità o altro in qualcosa di distruttivo proprio perché ormai siamo in un modello capital fascista che premia come ho detto solo l'individuo in mezzo però al mucchio che deve essere tutto uguale facendo credere di essere individui pensanti e questo in realtà non allegoricamente ma fisicamente porta degli sconquassi non poco grossi apprecialmente alla nostra donna e al nostro uomo psicologici e fisici quindi che dire di più di questo film secondo me è un film eccezionale uno di quelli che dovete assolutamente avere questo si trova il link è qua sotto grandi attori come ho detto grande messa in scena fotografia eccellente bellissima musica per un film un'altra volta che mostra come attraverso il genere si può parlare del mondo di oggi senza dover essere pedanti ma anche riuscendo a trasportare all'interno della storia anche persone che magari non hanno intenzione di vedere film sociopolitici e che forse con film invece di questo tipo avranno la forza e la voglia di poterli guardare senza doversi sentire soffocare e a volte dall'eccesso ed è della voglia di raccontare troppo ed è di alcuni autori che si credono tali e non lo sono invece questo regista qui è proprio un autore riesce a raccontare quello che vuole attraverso uno sguardo limpido tutta la discesa in finale sempre di più all'inferno con strati e strati e strati di umanità diventa veramente una cosa meravigliosamente paurosa un film che fa una paura a cane eppure non succede quasi niente di realmente pauroso quello che fa paura in realtà è il riflesso di quello che siamo per questo film riflette la nostra società capitalista che ci sorveglia che ci vuole individualisti ma che in realtà poi ci vuole e che riusciamo a dare amore a tutti per sembrare così buonisti di fronte a quello che in realtà poi il mondo non è perché il mondo è una merda e questo film tende a dirvelo un'altra volta il mondo è una merda e l'unico modo per cambiarlo è spezzare queste fottute regole capitaliste e borghesi questo dice questo grande film dal budget bassissimo ma dalle idee altissime per me è veramente uno spettacolo visto la prima volta mi era garbato meno rivedendolo e rivedendolo e rivedendolo sempre di più mi garba sempre di più quindi il meglio era assicurato grandissimo film questo veramente ripeto Vivarium il link è qua sotto non ve lo fate sfuggì perché merita assolutamente l'acquisto ennesimo ottimo film che metto nel meglio e che purtroppo anche questo ha saltato la sala all'ultimo momento peccato perché è un thriller fantascientifico horror claustrofobicissimo di produzione francese con la protagonista dei Vikings la serie tv è un film secondo me di quelli che non lasciano l'amante del genere specialmente come me thriller horror fantascientifico non lasciano assolutamente indifferenti proprio perché è un film giocato benissimo questo meander trappola mortali di Mathieu Touré produzione francese per questo film incredibile a bassissimo costo indipendente e pur funzionantissimo è un film molto particolare da un certo punto di vista ovvero quello del sonoro della messa in scena di un certo tipo di regia dalla recitazione funziona molto per quello la trama è molto surreale e grottesca su questo se ne potrà discutere dopo e la trama è semplicemente questa una donna di nome Lisa praticamente è in mezzo alla strada che sta piangendo perché l'è morta la figlia è rimasta lì bloccata non sa come fare sta cercando di elaborare il lutto facendo una fuga mentre fa questa viene aiutata da questo Adam che la carica in macchina e poi lo scopriamo anche questo Adam a essere un serial killer mentre lottano si spinge la luce ritroviamo la nostra Lisa vestita solo in una tuta tra i tec dentro questa specie di tunnel che deve cercare di sfuggire alle peggiori trappole nel senso che ha un braccialetto con del tempo e entro un tot di tempo deve riuscire a fare determinate cose per non essere fotonizzata e tutto ciao e per non essere bruciata per non essere esplosa e tutto quello che li potrà capitare appunto dentro questo tunnel di Nataliana memoria nel senso che ricorda molto in un certo senso Cube di Vincenzo Natali Ace di Tsukamoto un po' anche Boa Baried se vogliamo per alcune situazioni claustrofobiche ma nel suo complesso comunque è originale in questa trama anche perché poi noi scopriremo che Adam insomma è sempre là sotto con lei saranno passati dei tempi degli anni che cosa sta succedendo questo non ve lo sto a spiegare toccherà a voi vedessi il film quindi dicevo di questo meandere è un film che mescola tante tante intuizioni di altri registi eppure riesce a tenersi tesi non ci interessa niente se la spiegazione anche finale bellissima potrebbe essere quella che noi pensiamo e non per forza quella che il regista voleva dare anche perché il regista in varie interviste ha detto più volte il film la spiegazione dategli da voi potrebbe essere morta dall'inizio lei potrebbe essere stata rapita dagli alieni potrebbe essere messa alla prova da un governo potrebbe semplicemente essere quella la prova del serial killer insomma a voi come ho fatto io cercare di dare una spiegazione logica a quello che forse deve rimanere illogico un film che si sposta lentamente dalla prima parte dove il ritmo è abbastanza trattenuto ma piano piano però aumenta grazie soprattutto all'utilizzo della fotografia una fotografia magistrale alla bravura della nostra protagonista Gaia Vace a fare appunto l'ISA ma anche bravo il serial killer interpretato da Peter Frenzel appunto che è fatta l'Adam la fotografia poi come ho detto è magistrale utilizza questi blu questi scuri e poi si accende questi colori questa idea delle trappole è fantastica è l'anti escape room è proprio l'idea dell'angoscia dell'uomo il silenzio diventa parte dominante della scena a volte così come i rumori il sonoro quello che sentiamo scattare che la nostra sente solo avvicinare il sonoro è importantissimo in questo film perché ci spiega molto più quasi delle parole che sono poche inoltre il film oltretutto è parlato mezzo in inglese e mezzo in francese è un film particolare è un film di quelli che vanno apprezzati proprio per la loro complessità e la loro assoluta semplicità in realtà poi nella messa in scena il regista non fa chissà quale vezzo tecnico riesce a mantenere la tecnica su livelli ottimi senza dover mai sborare senza buttarla fuori di capo senza dover per forza dimostrare di saper girare chissà cosa quei movimenti rotatori quei carrelli quei lentissimi piano sequenza che vanno a seguire le mani della nostra sono splendidi il regista sa veramente fare il suo mestiere e qui è aiutato da una storia come ho detto che riporta altri ma che proprio riesce ad essere quella che è proprio perché crea la tensione benissimo riesce a darci l'ansia per tutto il film una sensazione proprio di claustrofobia che ci schiaccia in più il male maggiore non sembrano essere neanche più ormai le trappole ciò che potrà succedere ma appunto ciò che potrà incontrare di vivo di essere umano all'interno di questa stessa trappa è un film che viaggia appunto su questo livello sempre di film sotto il lato di coscienza sembra di essere immersi tipo in stati di allucinazione e subire questo film ed è una cosa molto bella proprio perché notiamo che la via d'uscita quello che sarà poi lo scampo per la nostra in realtà non è una via d'uscita vera è una riapertura verso qualcos'altro e anche lì veramente si gode con quel bellissimo finale insomma che dire di più un film che poi arriva a un certo punto allo splatter all'iperviolenza tutte le volte che lei deve scappare nel tunnel guardare l'orologio infilarsi dentro e esce fuori il fogo e gli spuntoni tutte le trappole corpi carbonizzati un film che a un certo punto l'ultima mezz'ora inizia a alzare il ritmo alzare il sonoro alzare tutto quello che deve essere alzato per raggiungere una catarsi grandiosa come ho detto nel bellissimo pre finale specialmente che è veramente da urlo e quindi un'altra volta ripeto il link è qua sotto questo meandere anche questo non è potuto uscire al cinema purtroppo ma è uscito direttamente in un video e lo troviamo bene ed è un film che ha una bella edizione e ripeto è un film che non può non garbarmi nel suo mescolare appunto il cubo nel senso del cambio delle stanze del ritorno di alcuni giochi e il suo mescolare è Ace Ace soprattutto nell'uso del sonoro queste unghie che graffino questi denti che battono questo corpo e che nel silenzio totale dà in realtà il senso della paura ecco un film veramente che fa del sonoro della visione due viventi di macchina molto di più di quello che narra come storia la storia è una storia quasi di redenzione quasi di amore in un certo senso è una storia che alla terza quarta visione come ho fatto io spiega e dispiega determinati tappeti pieni zeppi in realtà di pieghe che lentamente con lo sguardo dello spettatore con il pensiero dietro alla nostra protagonista a quello che sta facendo queste pieghe si tirano sempre di più fino a diventare sempre più liscio a scoprire praticamente ciò che il regista forse ci voleva dire perché è un film criptico è onirico abbastanza surreale sicuramente grottesco nel suo disegnare disegnare un qualcosa che potrebbe essere in realtà completamente diverso in mano a qualcuno che avrebbe trasformato il tutto in un giochetto appunto all'escape room alla somma distruggendo tutta la grande atmosfera che è nostra riuscita a creare con due attori un tubo un po' di foo un po' di lucine e una tutetta e un timer creando una pellicola per il sottoscritto davvero da non perdere per chi ama il fanta thriller horror di questo tipo siamo di fronte a una pellicola come ho detto da non perdere proprio perché quest'anno sto premiando tantissimi indipendenti e questo cinema indipendente horror di fantascienza così come era per altri film in questo meglio e il peggio deve essere portato di nuovo fuori se no le sale si riemperanno solo di filmoni fatti da mega studio hollywoodiane delle mega società on demand e verranno messi da parte queste grandi pellicole che secondo me proprio nell'essere piccolo nell'avere due attori nell'avere pochissimo budget tirano fuori delle grandi idee seppure a volte di riporto ma sempre meglio avere idee di riporto che non averne alcuna e questo meander ha delle idee di riporto ma la messa in scena non lo è affatto quindi per me ottimo film veramente da vedere uno di quelli da non farsi sfuggire il link come al solito di meander è qui sotto fate un po' voi durate su patreon se mi volete bene ma se vi volete bene assolutamente date un'occhiata a questo film perché se amate un certo tipo di cinema fantascientifico come ha detto la Vincenzo Natale un certo tipo di cinema alla Philip Dick un certo tipo di cinema alla Tsukamoto questo film fa proprio per voi così come ha fatto per il sottoscritto questo è un filmone che sarebbe andato nel meglio di qualsiasi anno degli ultimi 30 anni secondo il sottoscritto una commedia nera con tinte gialle notevole argentina del regista del segreto dei suoi occhi ovvero Juan José Campanella che mette in scena questa meravigliosa la casa delle stelle del 2019 è arrivata a noi a luglio del 2021 in poche sale poi direttamente un buon video è secondo me uno dei capolavori più alti degli ultimi 30 anni a livello di commedia ed è la storia di quattro ex-glorie del cinema di 40 anni prima che sono praticamente in casa vivono in questa casa e sono questa attrice che ha vinto l'Oscar poi suo marito che è un attore fallito diciamo così poi lo sceneggiatore dei suoi film e il regista dei suoi film che vivono in questa casa in modo molto particolare e strambo diciamo che un giorno arrivano questi due che li si ferma la macchina e sono due che vendono case e per puro caso dicono loro di essere rimasti lì e vedono questi li riconoscono come questi attori famosi e incominciano a convincere la padrona di casa che poi in realtà è l'attrice a vendere il tutto e mettere gli altri per la strada e di lì poi tutta la storia che ci sarà all'interno di questo meraviglioso film allora intanto citiamo tutto il cast è Clara Rago Oscar Mantinez Luis Brandioni Graciela Borges Marcos Mundostock e Nicolás Francella è uno più bravo dell'altro sia i giovani che diciamo del cast che i più anziani è meraviglioso questo film al di là appunto di questa trama che sembra semplicissima in realtà il film è una disgressione incredibile sull'avidità sulla vecchiaia sull'amicizia sulla vendetta un film che parla di 6.000 cose e molto metacinematografico anche proprio per come è messo in scena e per alcuni dialoghi che vengono messi in bocca ai nostri protagonisti diciamo che subito i quattro della casa la fanno da padrone una recitazione mostruosa di una sceneggiatura perfetta di Campanella che dimostra di avere tutti i tempi sia per alzare la tensione sia i tempi comici e soprattutto riesce a trasformare questo microcosmo di queste quattro persone quasi in un pianeta a sé insomma e quando arrivano i due intrusi questi due intrusi credono insomma che l'età anziana possa rendere le persone molto meno scaltre così non sarà grande film è un film appunto che parla dell'avidità umana perché in realtà questi due giovani fanno tutto e soltanto per i soldi e quando si devono inculare si inculeranno a vicenda in quel finale meraviglioso ed è un film in cui si ragiona appunto è anche del cinema andato i nostri sono stati cacciati dal cinema diciamo così perché il registro e lo sceneggiatore negli anni 70 saranno messi a fare film a favore dell'operai e quindi sono stati cacciati brutalmente anche quindi gli altri e poi nascondono un segreto perché comunque sono morte due persone dentro questa casa che sembrerebbero aver avuto un incidente e di lì in poi insomma la statua che c'è fuori e anche lì tutto quello che succederà Campanella ho detto becca tutto cioè è un film è magistrale magistrale proprio per le scene ci sono 4-5 sequenze che sono già da strada del cinema una per tutte quando giocano a biliardo gli anziani arriva la giovincella e vuole fare la guappa scena memorabile scena memorabile anche il prefinale quando sono al tavolino e bevono qualcosa che forse non dovrebbero bere questi due giovani incominciano a infamarsi l'uno con l'altro altra scena mastodontica così come poi sono perfetti tutti i flashback il flashback rivelatore diciamo della casa è a dir poco completamente grottesco ma in un certo senso mai surreale ed è qui che nasce la bellezza di quest'opera un'opera che ha una fotografia magnetica magnifica negli interni con questi tagli quasi gotici per rendere cupa una situazione che già è cupa di suo eppure stemperata sempre da un'ironia altissima mai demenziale invece in esterno le luci si accendono come se ci fosse un certo tipo di belletà all'interno di questa casa in realtà tutto questo gioco di luce e ombre è semplicemente legato a ciò che succederà attraverso la narrazione e in grande campanella riesce a fare tutto questo utilizza la musica in maniera eccellente soprattutto in maniera anche rock una musica modernissima all'interno di un certo tipo di cinema che è stata criticata così come è stato criticato questo film alcuni l'hanno definito un troiaio io non lo so è talmente bello secondo me che ci sarebbe fare un trattato su questo film questi 6-7 minuti che ne chiacchiero io come ne ho già creato noi consigli 200 volte perché io più ne via parlo di questo film è meglio perché secondo me questo è un film che tutti dovreste avere qui si capisce come con 4 attori 5 attori e 3 location si riesce a fare un grande film grande grande cinema qui siamo in fronte veramente a un cinema di un livello esaltante qui dicevo questo gruppo di persone che sono state mandate via dal regime durante gli anni 70 appunto argentino e qui a Buenos Aires è ambientato fuori Buenos Aires in realtà loro vivono nella campagna è ambientato questo film il cinismo l'arrivismo delle nuove generazioni verso questi uomini che sembrerebbero come ho detto così sconfitti ma bisogna arrivare veramente fino alla fine per capire la genialità di una sceneggiatura perfetta che ci mette di fronte di nuovo a un certo tipo di società che crede un'altra volta che l'anziano la persona sia semplicemente da buttare via 70 anni quando invece l'intelligenza di questi è 560 volte superiore a quella di questi due rivisti di merda il capitalismo visto come una cosa negativa seppur loro vivono in questa grande casa ma non la vivono con sfarza la vivono quasi come fosse una gabbia in un certo senso proprio per il loro passato che non vi sto a dire che riverbererà sul grandissimo finale riverbererà alla grande insomma il personaggio di Mara Odez come ho detto è interpretato benissimo è un personaggio magnifico questa donna che poi quando in una scena fantastica scopre un po' l'inghippo si incazza è meravigliosa ha tante di quelle sfumature la sua espressione in cambio con due espressioni soli ne fa 600 un'attrice meravigliosa che ricorda la Desmond appunto di Viale del Tramonto volendo in un certo senso però questa non è arresa non è arrendevole ed è molto meno decaduta è decadente vive nella sua follia nella sua gioia interiore che in realtà è spezzata evidentemente da cose del passato che ripeto non dobbiamo sapere ma questo è il classico film e funziona in tutto i movimenti di macchina te lo accorgi la quinta visione che sono così belli perché le prime visioni si è talmente preso dalla storia che non puoi staccarti poi ti rendi conto che tutto il sistema del cinema proprio funziona i tempi comici sono perfetti i tempi della tensione sono quelli cicocchiani e si vede il tema appunto del metacinema i nostri che dicono spesso e così sarebbe in un film e così sarebbe in un brutto film così sarebbe in un grande film in realtà rigira tutto quello che il nostro ci vuole raccontare anche a livello filmico è il cambiamento del suo paese della sua società attraverso il cambiamento anche di come viene vista l'arte cinematografica e il film lavora alla grande perché questi diciamo poi in un certo senso mettono insieme il loro lavoro per il cinema per fare qualcosa di anticinematografico e reale nel realismo di una opera che è cinematografica stessa quindi un gioco di luci specchi e riflessioni che sono enormi e che Campanella però trasmette senza mai appesantire il racconto pur essendo un film alla fine sociale e politico e metacinematografico a livello proprio intellettuale però il film diverte e basta proprio diverte e alla fine si tifa anche per i cattivi diciamo qui in un certo senso i ruoli si ribaltano completamente la dicotomia fra bene e male qui salta per aria e ci troviamo di fronte a un'opera cattivissima un'opera che però fa dell'amicizia in realtà qualcosa di enorme che è proprio l'amicizia e l'amore in realtà che decidono chi rimane vivo e chi muore grandissimo film veramente un suo altro sadì ho già parlato 6.000 volte questo è quasi un appunto unito a questo meglio perché questo film deve essere comprato il link qui sotto da chiunque campanella dimostra di essere di nuovo uno dei migliori registi argentini quindi uno dei migliori registi degli ultimi 30 anni il segreto dei suoi occhi non era una balla così come altri suoi film ma questo è la casa delle stelle a me affolgorato per me è un capolavoro assoluto di quelli che non devono mancare nella casa di nessuno commedia nera e un certo tipo di voglia di cinema politico un certo tipo di thriller un certo tipo di anche di woodnit di giallo vengono tutti mescolati insieme e non si perde un frammento di nessuno di questi generi proprio perché campanella scrive e dirige con un tocco praticamente divino grandissimo film grandissimo campanella cast da urlo sceneggiatura perfetta e messa in scena praticamente paradisiaca il link è qui sotto la commedia nera più bella degli ultimi 30 anni film di produzione russa che doveva uscire in sala e che invece è stato dirottato sull'on video e direttamente on demand proprio perché appunto per la pandemia e questo film è un film di ore russo un fan tour che mi ha colpito mi ha lasciato completamente basito e sorpreso non tanto per la sua originalità ma proprio per la messa in scena e per quello che riesce a dire attraverso un ottimo un'ottima regia questo Sputnik appunto è un film russo di produzione diretto da Igor Abramenko qui la sua opera prima che riesce a darci una fantascienza spaventosa ororifica ma anche intelligente grazie alla sceneggiatura Oleg Malovitchko e Andrei Zolatorev che scrivono un film classico che non esce molto dai generi un film un po' alien un po' la cosa un classico film un po' anche Cronenberg volendo siamo nel 1983 Unione Sovietica un astronauta viene riportato torna dallo spazio dalla missione l'unico che torna e viene messo sotto osservazione in una base militare top secret e viene chiamata un psichiatra un medico specialista però sotto inchiesta per valutare questo astronauta appunto che loro stanno tenendo rinchiuso dentro questa base militare segreta la nostra scoprirà appunto che il nostro protagonista in realtà sarà all'interno una specie di simbionte e alieno e di lì poi tutto quello che succederà perché insomma il film diventerà sempre più un film d'azione in un certo senso un fantatrile che aumenterà il ritmo ed è un classico film che è di quelli che vorremmo tutti i giorni la fotografia è notevole di veramente di ottimo livello così come la corona sonora è gestita benissimo con il sonoro tra l'altro sono molto bravi gli attori a me praticamente sconosciuti ma vanno citati Oksana Ashinchina Fedor Bonarciuk Peter Fiodorov Anton Vasile Anna Nazarova e Alexei Deminov tra gli altri un cast molto compatto che recita molto bene di dialoghi credibili per una storia che prende sempre più ritmo come ho detto una storia che diventa a un certo punto una storia di fuga una storia di amicizia una storia d'amore una storia che si complica non vi voglio dire troppo perché questo è un film che va scoperto in quel senso i colpi di scena ci sono sono due o tre sono piazzati molto bene il regista li piazza molto bene perché sa e conosce il modo di gestire la tensione che si alza sempre di più dopo un incipit straordinario il film rallenta per poi piano piano diventare sempre più complesso ed arrivare ad un finale veramente veramente bomba di quelli che non ti aspetti funzionano benissimo gli effetti speciali che non rompono mai il cazzo senza contare che la creatura diciamo così spaziale ha un design meraviglioso meraviglioso veramente vive nel cuore di ognuno di noi diciamo così così ci si capisce senza dover dire troppo poi come abbiamo detto il film è ambientato in piena guerra fredda quindi anche questo rende molto interessante appunto l'idea del conflitto l'idea della divisione l'idea dell'essere umano che si divide in due in questo senso è molto 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 interessante il film proprio per l'ambientazione era il momento in cui appunto si cercava di mettere nello spazio ogni tipo di satellite o bestia per sparare i missili dallo spazio quindi era un momento molto particolare il tutto poi è gestito veramente benissimo dai tempi del regista che sa dove mettere la macchina di appresa utilizza il piano di sequenza quando deve utilizzare lo splatter c'è quando deve essere messo non è buttato lì a cazzo di cane quindi un classico film ben congeniato ben scritto film che assolutamente da non perdere per chi se l'è perso un film di quale non voglio parlare molto per me va nel meglio perché è proprio un film bomba per chi come me ama il front horror con gli alieni che sembrano cattivi ma poi i cattivi veri in realtà sono sempre gli umani che cercano di sfruttare questa situazione e quindi che vi posso dire di più è un film che ha dalla sua un'onestà ecco intellettuale verso il genere che in pochi anni non cerca di inventarsi chissà cosa di innovativo ma quando si fa un film di questo tipo e si sta nelle regole sì ma poi queste regole però sono anche scardinate in un paio di punti e sono soprattutto portate a dei livelli altissimi cioè delle regole che vengono sfruttate per darci altro e questo altro è molto interessante proprio perché ripeto la parte politica è gradevole proprio per come viene messa proprio perché è un film che parla di come era il mondo 40 anni fa e già è molto interessante per le nuove generazioni scoprire questa cosa della guerra fredda che molti nemmeno sanno è incredibile ma vero l'idea appunto di questo simbionte che si nutre delle nostre paure che vive con noi anche se è alieno insomma è veramente interessante di più non vi voglio dire questo è un film assolutamente da vedere uno di quei film che sono passati completamente inosservati ora è uscito in un video lo trovate il link lo metto di sotto come al solito e chiaramente se è finito nel meglio per me è uno dei migliori film dell'anno a tutti gli effetti proprio perché riesce a mescolare questa fantascienza l'horror e il thriller con una certa voglia di sociale e soprattutto con un'idea di cinema che comunque sì è spettacolare sì ha voglia di rimettere nel mezzo a tante cose ma che poi alla fine punta proprio alla mente dello spettatore alla sua coscienza e adà un finale che secondo me è proprio una bella sorpresa che lascia col sorriso sulla bocca proprio chiunque chiunque ami questo genere di film ovvero il fantoro ripeto il link qui sotto secondo me questo Egor Abramenco alla sua opera prima ha fatto davvero un bel lavoro quindi speriamo nella sua seconda opera per visto che dalla Russia escono 6.000 film di fantascienza questo mi è parso il migliore dell'anno è un filmone per me uno di quei film che io amo e se amate un certo tipo di genere appunto di cinema fantascientifico con Zimbionte avete amato Life questa roba per me questo vale molto di più quindi fate un po' voi se è il caso oppure di no di lasciarsela sfuggire qui sotto c'è il link a voi l'ultima parola come sempre per me è uno dei migliori film dell'anno altro thriller italiano che entra nel meglio quest'anno sono felicissimo di questa rinascita non purtroppo di incassi all'interno di tutto questo sono felicissimo perché trova spazio anche questo bellissimo film a tratti perché a tratti chiaramente ha qualche caduta di tono ma è un film comunque che regge veramente bene è un thriller psicologico anche un po' fantascientifico particolare questo Shadows Ombre di Carlo Lavagna è un film che gioca su stilemi classici del genere visti e rivisti ma come al solito tante volte nel cinema la differenza la fa come si mette in scena non quello che si mette in scena e Lavagna riesce a costruire questa storia in modo molto particolare perché è la storia di due sorelle Alma e Alex che vivono in un albergo abbandonato insieme alla madre che non gli permette a nessuno di due di uscire durante il giorno niente luce del sole e non possono oltrepassare la riva del fiume nero perché lei dice che il mondo all'esterno è terribile e che morirebbero sotto la luce del sole che sarebbe un gran casino cosa succede? a un certo punto però dopo un bel po' di casini Alex che è la ribelle delle due sorelle decide praticamente di scappare di cercare di arrivare appunto al di là della riva del fiume nero per scoprire forse qualcosa che era meglio non dovesse scoprire allora detto questo il nostro Lavagna costruisce una trama che può ricordare Two Sisters di Kinji Won che si muove attraverso un certo tipo di gotico che si può riportare un'altra volta a giro di vite di Harry James il film può essere messo nella scia seppur meno orrorifica in quel senso è più thriller di film tipo di others o addirittura The Turning che è uscito adesso che è direttamente collegato a giro di vite di Harry James la logica è sempre quella però il regista riesce a trasportare il tutto senza dover tralasciare minimamente però uno sguardo diverso ecco sulla storia prima di tutto le due sorelle sono straordinarie e riescono a donare alla pellicola la forza in più la loro recitazione non è mai carica specialmente Alex è bravissima nel suo modo di recitare la giovane Lola Pettico rende il suo personaggio irresistibile davvero notevole è bravissima anche la madre Saskia Reeves efficacissima nel suo ruolo ma chi è una scoperta è la protagonista la ragazzina la Anne l'altra sorella che va detto è la figlia di Kate Winslet che qui a 16 anni dimostra un talento mostruoso il suo nome è Mia Trappleton che dimostra veramente qui al suo primo film di avere una forza descrittiva del suo viso del suo modo di muoversi in scena veramente enorme una potenza naturale evidentemente venuta fuori dai geni della mamma che è una delle migliori attrici della sua generazione e qui viene fuori tutta la forza di questa giovane e che riesce a portarci in questo mondo polumeo perché poi la cosa che colpisce tantissimo oltre all'uso delle musiche notevole e al montaggio che rende tutta la prima parte molto più lente e lineare in un certo senso simile a The Nest dell'anno prima ma poi piano piano ci si sposta in realtà in un film di fuga che poi cerca quei due o tre colpi di scena che uno come me sgama dopo mezz'ora ma questo è molto relativo perché il film non vive come ho detto di quello che è ma di quello che il regista dimostra di voler essere di voler fare con quello che è e quindi il film nonostante abbia quei tre o quattro colpi di scena telefonati non perde a niente nel suo fascino proprio perché come ho detto il nostro riesce a gestire la fotografia per esempio in maniera enorme gli interni hanno proprio il classico gotico danno proprio quelli tagli di luce che danno proprio il senso di essere un film degli anni venti e non perché sia bianche e nero è chiaro proprio per l'utilizzo dei grigi l'utilizzo dello spazio attraverso il montaggio di un certo tipo di luce quasi espressioniste che non funzionano quasi a livello e realistico ma che in realtà rendono realistico il tutto quindi discorso che si rigira su se stesso gli esterni sono meravigliosi con queste foreste questi boschi che con questi verdi scuri e questi marroni che la fanno da padrone però si aprono anche a dei colori che prima non si erano mai visti quando apparirà la prima luce e poi è un film che per la prima parte è quasi tutto girato di notte perché non devono mai uscire e questa idea appunto di questo di questo colore pece questa notte che sembra praticamente poterti far sprofondare al suo interno così come è sprofondato probabilmente la psiche delle due ragazzine o quella della madre perché dobbiamo scoprire questi dovranno davvero uscire ci sarà davvero qualcosa di pericoloso fuori che cosa cazzo sta succedendo ci si arriva costantemente senza dover mai sbagliare il ritmo ecco il film anche qui chiaramente non è perfetto perché queste opere sono tutti film indipendenti fatti anche con pochi soldi al di là del fatto che riescono ad essere molto più riuscite di quelle fatte con i milioni e quindi però si sa il regista in questo caso cerca di dare il massimo però ogni tanto probabilmente si fa prendere un po' la mano da qualche tecnicismo che poteva evitare per evitare di mostrare la macchina appesa cosa che a me ogni tanto due o tre volte quindi non è che poi rompa più di tanto il cazzo ma se devo dire anche quello che non funziona questa cosa qui a me il mostrare la macchina ogni tanto mi ha riportato mi ha scansato insomma mi ha riportato al mio mondo e quindi questo non mi ha fatto funzionare in granché per quei due minuti di film poi fortunatamente come ho detto l'uso degli altri mezzi cinematografici è ottimo e quindi il regista mi ha fatto risprofondare in questo dramma cupissimo in questo horror dell'anima in questo film che ci trasmette il carattere di due ragazze completamente differenti che sembrano far parte di una sola ed è un film dove le ombre appunto la fanno da padrone non solo perché il film è fatto a livello fotografico di immagine anche di ombre proprio che vivono e fanno vivere le immagini ma proprio perché sono le ombre del nostro passato del presente e del futuro e le ombre che ci portiamo dentro per cercare insomma di non trovare quella luce che forse ci mostrerebbe cose che non vogliamo assolutamente che ci siano mostrate questo è il film di più vi posso dire perché se no shadows ombre ve lo dico tutto ma è un grandissimo film sotto questo punto di vista è uno di quei film italiani un'altra volta che meritavano molto di più e che purtroppo ha ragguantato poco un vero peccato perché la magna dimostra di avere una gran mano che la moglie la figlia di Kate Winslet dimostra un talento enorme così come tutti gli altri attori diretti benissimo quindi cosa il cazzo vi posso dire di più il link è qui sotto anche questo è Cechigori lo trovate bene una bella distribuzione una bella visione ripeto un film che non stanca uno di quei film che si guardano sempre stravolentieri in più è indipendente in più è italiano che cazzo volete di più il link è qui sotto donatelo sul Patreon mi piace iscrivetevi al canale fate il cazzo che vi pare ma aiutate il cinema italiano buono soprattutto quando è indipendente così che è zeppo di idee e che sia anche ogni tanto zoppica meglio che zoppichi ogni tanto ma che ci dia l'idea di un regista che ha qualcosa da dire e questa lavagna sembrerebbe proprio averlo qualcosa da dire poi si aspetta al prossimo film perché non si sa mai magari poi scivola e fa un ruzzolone spero proprio per lui di no perché dimostra un talento raro perlomeno nella messa in scena e nell'idea del decor nell'idea della estetica visiva che qui secondo me è altissima ed ecco un film che ha fatto molto discutere e se ne può anche capire in un certo senso il perché è una specie di noir al contrario questo una donna promettente i ruoli si ribaltano ed è un film molto particolare ha fatto molto casino proprio per il suo essere così chiarificatore sull'idea insomma dello stupro del reato come tale della conseguenza che uno stupro può causare e di come viene utilizzato semplicemente in America come nulla fosse da quello che capiamo da questo film quindi è un film incredibilmente sullo stupro e le sue conseguenze ed è un film che viene girato in modo essenziale dalla regista che poi ha scritto la stessa sceneggiatura Emerald Fenner che sotto produzione di Margot Robbie ti tira fuori questo appunto filmone secondo me un dramma thriller sulla vendetta ma in un certo senso sulla violenza e che riflette proprio sull'idea appunto dell'uomo che è ossessionato dal sesso e dalla visione dello stesso come ultimo fine è un film splendido questo nella storia di questa Cassie ex studentessa di medicina che vive ancora con i suoi genitori che in realtà lavora in un bar e poi la sera fa finta di essere completamente ubriaca per poter portare a casa della gente praticamente che sta poi per stuprarla e lei al punto in cui stanno per stuprarla gli dice quanto fate cagare e cerca di farli riflettere dalla schifezza di uomini che sono per l'appunto lei ha tutto questo proprio non lo scopriamo perché a un certo punto rincontra questo Ryan suo ex amico del college che diventa suo finanzato si incominciano a frequentare solo che questo risveglia in lei appunto l'idea del perché sta facendo tutto questo la cosa interessante di questo film già di partenza è che la nostra non è stata stuprata e non si vendica lei ha una vendetta mentale per lo stupro collettivo che le donne hanno per il femminicidio per questa idea assurda che l'uomo possa pensare che una donna ubriaca debba essere per forza trombata contro la sua volontà e che non ci sia niente di male in tutto questo un film secondo me è bellissimo e quando dicono è vero tutti gli uomini sono cattivi non è vero c'è un paio che non lo sono affatto come appunto uno che lei risparmia guardatevi il film che è bellissima tra l'altro quella sequenza magnifica è un film che parla purtroppo di realtà purtroppo di come funziona il mondo che ci piaccia o meno e in più ribalta come ho detto i ruoli del noir se di solito nel noir e nel poliziasco erano sempre le donne a dare l'inculata a essere quelle stronze qui stavolta i ruoli si ribaltano e quindi dobbiamo anche stare zitti perché siamo sempre stati in un mondo maschilista e se esce qualche film femminista niente male poi tra l'altro questo viene definito molto me too dagli americani ma in realtà non è che poi la nostra ci passi perfettamente bene cosa è fuori testa quando potrebbe denunciare al mondo in un'altra maniera certo è che basterebbe vedere poi quel meraviglioso finale quando lei si veste l'infermierina sexy con quel finale che ti ghiaccia c'è poco da dire un'altra volta ti ghiaccia e i discorsi che si fanno i due amici sono terrificanti e il controfinale poi alla fine è ancora più bello e devastante quindi io trovo che sia un film recitato in maniera splendida dalla protagonista una Carrie Calligan che fa una Cassandra magnifica coaudivata da una serie di attori uno più bravo dell'altro e grazie anche il film funziona alle musiche le musiche sono splendide di Anthony Willis e il ritmo il ritmo che si cerca di dare a questa storia d'archissima è quello giusto lento l'ha rifatto durante la prima parte poi sempre più movimentato nella parte centrale dove lei va da uno dall'altro e fa questa specie di scherzoni che forse non sono tali e poi l'ultima parte di vendetta completa che cosa vi posso dire di più questo è un classico film dove il cinema viaggia su livelli altissimi e a livello proprio tecnico perché ripeto secondo me fotografia montaggio tutto il resto è talmente bello la musica che si rimane a bocca aperta così come sono bravi tutti gli attori e la regia è fulminiam la regia riesce ad essere realista non si sposta mai da un quadro che possa essere disegnato al di fuori delle regole standard di un mondo che esiste purtroppo ed è questo io credo a questo film credo alla nostra crudeltà alla nostra pazzia di fronte al sesso a una donna bella che sviene e che a noi a quel punto ci sembra in grado di poter pensare di voler fare sesso e lo facciamo e basta è una cosa che andava detta va detta e va detta con un film di genere quale meglio modo per far capire al mondo che il femminicidio che lo stupro che l'utilizzo di alcol o pasticchio o altro per portare a letto una donna è qualcosa di enormemente orribile è uno degli atti più tremendi che si possa fare a una persona ed è veramente un atto fascista nel suo essere tale quindi il film che molti hanno accusato di essere fascista nel suo secondo me è proprio all'opposto il suo modo di pensare è proprio quello non della vendetta privata e personale per qualcosa di subito ma per una vendetta che in realtà seppur subita dall'amica è una vendetta generale del mondo delle donne che sono sempre state sottomesse dagli uomini che questa volta un'altra volta sottomesse alla fine l'avranno vinta con la chiave maggiore che hanno sopra di noi ovvero l'intelligenza a voi scoprirne di più perché questo è un film che ha molte chiavi di lettura oltre ad essere un thriller è fatto benissimo su quel punto perché l'attenzione c'è oltre ad essere un bel film d'azione perché le scene d'azione sono fatte bene è un dramma che riflette come ho detto sulle donne e il loro stato di vita specialmente in America come fanno pochi altri film al mondo quindi per me è un grande film un filmone si sono in un capolavoro come dicono quelli che lo esaltano di sicuro non una merda totale come quelli che lo ammazzano ma per il sottoscritto una volta passata questa ambulanza vi dico cos'è è il classico bel film d'azione di quelli che hanno dentro tante di quelle idee e tanta di quella voglia di parlare del mondo d'oggi che al sottoscritto non fanno altro che piacere quindi che vi posso vedere di più il link è qui sotto questo per me è un film veramente da non perdere chi se ne è perso gli dia un'occhiata il film racconta una storia piccola per raccontarci come siamo in realtà in tutto il mondo un mondo maschilista e macista che avrebbe bisogno di un bello sbattimento di un bello scossone per rimuovere tutte le sue scorie orribili appunto che sono quelle maciste che ci portiamo dietro dai tempi dei tempi sarebbe anche l'ora di finirla e questo film lo dice chiaramente horror indipendente è arrivato direttamente da noi quest'anno in DVD e non video anche questo bypassa purtroppo il cinema perché è prodotto da Dark Sky Films è l'esordio appunto del produttore della Dark Sky che qui decide di andare dietro la macchina da presa e girare questo horror indipendente che ha girato molti festival un horror particolare il titolo è La ragazza del terzo piano del 2020 di produzione da noi uscito nel 2021 ripeto è un horror che secondo me è veramente intrigante proprio per prima di tutto per come è costruito è un horror che mescola Reimi chiaramente a Cronenberg a visioni lovecraftiane e a un certo tipo anche di cinema diciamo alla Brian Yuzna society c'è di tutto in questo film la storia è quella di una coppia classica che è in crisi lei è incinta lui rischiava di far 15 anni di carcere non è un grande uomo è un po' un poco di buono un po' un pezzo di merda però comprano questa casa ottocentesca decidono di rimetterla in piedi risistemarla però lei sta a casa per i cazzi suoi e lui decide di risistemarla da solo e cercare insomma di riprendere il rapporto che sta sfuggendo con la nostra e questo si porta il suo fedele cane questa casa all'inizio è una casa normalissima classici scricchioli tutte ste cazzate poi una donna una sera questa esce dal pub va a bere incontra questa ragazza bellissima il giorno dopo la ritrova nel giardinetto di Asa entra se la tromba e la manda via di lì in poi inquietanti presenze entreranno nella casa cioè lui comincerà a sentire dei rumori assurdi delle crepe che si aprono e che diventeranno degli occhi biglie che gireranno per la casa uscendo dal muro come cazzo li pare fino sempre sempre di più a una trasformazione della casa stessa e anche perché la casa stregata in questo modo è in realtà originalmente legata al sesso e legata alla presenza che stavolta è invece quella della donna che lui incontrerà ma non vi voglio di più perché magari questo film non l'avete visto io l'avevo già consigliato nei consigli del mese ma lo riconsiglio perché è un film veramente particolare è un film dove piano piano il clima incomincia a spostarsi nel primo atto diciamo con lui che arriva alla casa e tutto il resto sembra più un thriller psicologico con la classica casa infestata e lo scricchio invece piano piano che sembrerebbe ricordare più Conjuring alla fine che un film di Sam Raimi poi in realtà il nostro personaggio lentamente incomincia a svelare quello che è perché se noi vediamo che all'inizio è un personaggio che sembrerebbe positivo nel senso che sembrerebbe aver capito gli errori che ha fatto stare con lei invece poi nel giro di 25 minuti si arriva al secondo atto e lui già tromba con una senza dire un cazzo e in più lentamente il suo vero carattere cioè la sua essere violento il suo essere stronzo il suo incomincia sempre più a salire con questo sale sempre di più la tensione perché incontra appunto questa donna e quello che succederà nella casa inizierà a essere sempre più unirico sempre più surreale e grottesco e il nostro lo affronterà in una maniera che è quasi simile a quella di Bruce Campbell nella casa il film infatti ha anche una buona ironia ha dei belli effetti speciali praticamente tutti analogici quindi tutto girato bene così come Dio comanda il montaggio è ottimo perché riusciamo ad avere la tensione bella spedita cresce quando deve crescere l'orrore arriva perché comunque anche quei 3-4 salti sulla sedia li fa fare e lo splatter non è assolutamente negato ma è uno splatter legato più alla forma al cambiamento della forma al cambiamento del corpo umano inserito all'interno di una casa oppure il cambiamento stesso che abbiamo noi addosso non è un caso che appunto queste fessure che si aprono sembrano proprio vagine occhi ani è proprio una costruzione voluta come quasi alla Barrox insomma alla pasto nudo e questa casa in realtà è forma fisica è quasi una donna è quasi una una presenza in quel senso che non è però data da un morto dentro da quello che poi dovrete scoprire tutto quello che c'è perché poi lo scoprirà questa scala a chioccio lancassino toccherà a voi vedere che cosa succede e perché la casa è così però vi ripeto senza svelarvi troppo non è la classica casa stregata perché c'è il bimbino del cazzo o perché c'è qualcuno sotterrato sotto tutti gli indiani insomma per capirsi la soluzione va sul sul grottesco quasi buneliana inoltre ripeto il body horror è presente quindi unire Cronenberg unire questa sensazione dello schifo il grande Cronenberg col body horror è riuscito a fondere quest'idea del sesso e rendercelo orribile e questa cosa qui il film riesce a darcela cioè scandalosamente in un certo senso visto quanto è buona la bionda che lui si tromba però in un certo senso noi già capiamo che sta succedendo qualcosa che non deve perché come questa esce di casa succede subito una cosa che non doveva succedere e quindi capiamo che in realtà il suo atto sessuale è legato anche alla sua fregatura diciamo che la casa sembra quasi mettere alla prova chi ci entra dentro infatti quando va al bar qualcuno gli dice guarda che gli eterosessuali gli uomini da soli che sono entrati in quella casa non ce n'è uscito uno vivo e lui vabbè chissà perché negli anni e via dicendo e di lì riparte tutto quindi un film che unisce questo body horror perché il corpo che cambia e la casa che cambia assieme al corpo in più Society Mariana Yuzna perché c'è una critica la società enorme e poi Yuzna portava avanti il body horror in maniera plastificata molle ed è questo che ritroviamo nelle gigantesche figure che poi troveremo all'interno della casa e in più ci troviamo quell'ironia quel modo anche di muovere la macchina da presa quella macchina da presa bassa il dolly che arriva sempre dalla finestra il girare intorno ai personaggi la macchina che si sposta nel momento e quello è sempre Remi Puri è proprio scuola prima anni 80 dell'indie americano che qui non viene assolutamente negato da Travis Stevens appunto regista produttore che anzi mette in scena un film che sicuramente non è esente dai difetti non è che è un classico film perfetto anche qui probabilmente c'è due tre sequenze di troppo e c'è una certa ricerca eccessiva di dare un po' troppo ritmo secondo me nell'ultima parte rendeva molto meglio le prime due parti perché il ritmo era più calante e la parte della soluzione pur interessante come ho detto è troppo tirata in un certo senso l'avrei resa molto più pacata avrei preferito al sangue e a due jump scale avrei preferito una tensione continua ma non si può chiedere tutto gli attori non è che siano proprio dei geni però si eme il punk che è un rapper non so come si chiama a fare il protagonista è bravissimo c'è la faccia giusta da stronza e tutti gli altri danno una gran mano quindi per me è un film che lavora benissimo a livello tecnico il montaggio la fotografia quindi il montaggio la fotografia funziona benissimo e sono anche ottime le musiche tra l'altro fatte dal grande mitico Steve Albini e infatti diciamo che è un film post punk un film post hardcore in un certo senso è un film new wave se vogliamo c'è di tutto dentro quello che era un certo tipo di cinema classico fino al post moderno però viene tutto rimescolato dentro e quindi ciò che magari sembrava un nuovo Hollywood degli anni 70 e c'è magari che sembrava Polanschiano degli anni 60 magari che sembrava Remy degli anni 80 in questo modo viene rifrullato e viene fuori un film comunque modernissimo proprio nella messa in scena proprio nell'idea del taglio di montaggio dell'uso delle musiche dell'uso proprio anche degli attori in scena e soprattutto dell'uso della casa che diventa in realtà protagonista unica ed è lì la bellezza noi siamo catturati da quella casa così come è catturato chiunque ci entra e che ha un certo tipo di tentazioni e questo è bellissimo un film secondo me che ripeto non è esente da difetti ha dei problemi ma sono i classici problemi per i quali non te ne frega un cazzo perché quando arrivi in fondo al film la soddisfazione è alta proprio perché l'orrore c'è stato il thriller c'è stato ci siamo pure divertiti ed abbiamo trovato una storia tutto sommato originale di una scasa diciamo così maledetta che al suo interno però ha ben altro del solito fantasmino diavoli da esorcizzare quindi il link è qua sotto film distribuito benissimo si vede di stralusso ha vinto 6.000 premi e si capisce perché è un film d'horror che funziona tirato senza tanti cazzi e che riesce a divertire senza mai però dover perdere di vista la narrazione perché il film è anche abbastanza ambizioso in quel senso non è così stupido se ti perdi 5 minuti film a un certo punto non ci capisci più un cazzo quindi occhio perché questo è il classico film che è passato purtroppo inosservato e che invece dovrebbe essere di mortone osservato visto che poi ci si trova nei cinema la loro una e questi film del cazzo e non sta merda e questo ne vale 46 il link è qui sotto fate un po' voi la ragazza del terzo piano il cinema indipendente italiano quest'anno ha dimostrato di fare il genere abbastanza bene veramente un esempio di un film molto coraggioso anche questo italiano è un film particolare perché alla fine ha uno sguardo quasi post apocalittico in un certo senso quasi post post o proto cyberpunk se vogliamo insomma il film è Mondo Cane è un film molto molto interessante tutto girato a Taranto ed è uno di quei film che arrivano come un fulmine a ciel sereno per il sottoscritto un film d'azione drammatico fantascientifico fatto in Italia così con un borghi in una perfetta parte con dei ragazzini fantastici perché la storia più o meno è questa siamo in un futuro prossimo 40-50 anni da adesso le acciaiere dell'ilva hanno inquinato praticamente tutta Taranto quindi Taranto viene divisa in Taranto vecchia dove ci sta che è comandata praticamente non ha leggi dove la polizia manco c'entra che è praticamente comandata da delle gang una di queste sono le formiche appunto che è una gang di ragazzini guidate da testa calda che appunto è borghi la Taranto nuova invece è una Taranto tutta pulita a lucido tirata alla grande che sembrerebbe vivere nella sua distopia così bene ma che in realtà nasconde appunto le magagne di un sistema al di poco fascista e in tutto questo noi troviamo la storia di due ragazzini che praticamente sono salvati da questo vecchio che li ha stuprati e tutto che a un certo punto morto il vecchio decidono di entrare a far parte appunto di queste formiche questi due ragazzini uno che si fa chiamare un mondo cane e l'altro piscia sotto questi due praticamente entrano dentro questa gang di ragazzini e da lì poi parte tutta la storia insomma che incrocia quella di una poliziotta quella di questi ragazzini quella di un'altra ragazzina che è praticamente in un ferrotrofio e all'interno di tutto questo viene fuori insomma un thriller d'azione nerissimo che appunto punta sul Fanta e thriller il tutto allora come ho detto produce Rovere e Kurti quindi producono due dei produttori indipendenti più interessanti che ci sono in Italia il regista tra l'altro Rovere di Veloce come il Vento e di Primo Re che qui va alla produzione insieme a Kurti un film drammatico sicuramente ma un action assoluto e con una fotografia meravigliosa già è molto intelligente il fatto di aver ambientato il tutto nella Taranto Vecchia proprio accanto all'Ilva e quando noi vediamo queste inquarrature con questo colore meraviglioso tutto giocato sui gialli tutto giocato sui pastelli proprio per cercare di dare un calore quasi radioattivo visto che metà di questa Taranto è radioattiva giocato su questo sistema è bellissimo proprio perché basta semplicemente l'inquarratura dell'Ilva per com'è delle fabbriche distrutte di Taranto e di intorni per dare già l'idea del post atomico poi i richiami anche a livello narrativo sono chiaramente al signore delle mosche e a tutti i classici della letteratura dove i ragazzini la fanno da padrone in un certo senso è dove la moralità viene meno e infatti il regista ha detto ti avrei voluto in realtà raccontare una storia di amicizia che non doveva avere morale e quindi per far perdere ogni tipo di morale a questi due ragazzini che sono alla fine assassini sparano rubano bisognava rendere il tutto credibile per rendere il tutto moralmente credibile li ha fatti crescere in una società dove far parte di una gang di ragazzini che ammazzano sparano stuprano deflagrano è il sogno di questa gente che vive in questa tarantoecchia quindi la storia di questi due ragazzini che si vanno a scontrare questi caratteri che sembrano ben definiti all'inizio e che poi iniziano a girare invece a cambiare più piccola storia d'amore ed è un film che funziona allora su molti strati come ho detto il primo è la messa in scena il regista ha una mano veramente eccellente l'esordio di questo Alessandro Celli è forte forte veramente macchina a mano utilizzata nei momenti giusti i rallenti nella parte finale ben messi come ho detto una fotografia studiata benissimo una direzione degli attori ottima anche perché ci sono tantissimi ragazzini a recitare con i ragazzini è sempre un casino invece a fare mondo cane c'è questo Dennis Protopapa che col suo accento di puro talento regala un personaggio veramente bello veramente interessante per come è scritto e per come è messo in scena così come sono messi in scena benissimo anche Pisciasotto interpretato benissimo anche questo da Giulio Soprano e come ho detto questa specie di di capo diciamo così questa specie di pirata piratesco questo capo piratesco crudelissimo comunque interpretato da Borghi con cresta punk è un cattivo però a tutto tondo in un certo senso è un cattivo che è diventato cattivo perché nella sua società cerca un certo tipo di rivalze quindi un personaggio che si vuole vendicare di un certo tipo di società che ha abbandonato il proletariato per far ridere solo i ricchi che vivono però in questa specie di bolla nella quale hanno acqua calda cosa che loro non hanno mai visto infatti scena iniziale meravigliosa di questi ragazzini che riescono a stare a tre minuti sott'acqua andare a 30 metri e tornano su con un crocefisso enorme che fanno che cazzo è questo sabore sono una sega o sé però magari ci si fa qualcosa e se lo portano dietro mezzo film per cercare di vendolo la grandiosità del film secondo me del regista e questo funziona è l'aver messo in scena un mondo del quale sono bastate sette riprese quattro buone messe bene e molti dettagli su una descrizione per farci capire il mondo com'è ci dicono appunto che non sanno più chi è Cristo la legione è crollata come tale non sanno più quando parlano di Roma si quella città lì sfatta l'ex capitale capiamo che l'Italia come tale probabilmente è crollata e quindi è un film che sotto con due discorsi e quattro riprese ti fa entrare direttamente nella situazione politica e sociale di quel mondo senza entrarci troppo in più ha come ho detto degli attori fantastici e un ritmo secondo me eccezionale poi però ci sono anche i difetti nello senso della parola il film dura due ore e secondo me dura un quarto d'ora meno la parte finale è un po' troppo ridondante e ci sono un po' troppo è un po' troppo caricata per quanto era secondo me invece pulita tutta la prima ora però ripeto questo è un difetto come sono difetti un altro paio di cose due tre personaggi come la poliziotta che è ganso il suo personaggio ma finisce come deve finire però non ha un non si capisce bene il rapporto con testa calda non si capisce bene non è perfettamente centrato questo personaggio e in quel senso lì la durata non aiuta e avrei spostato un po' di più ogni tanto l'attenzione insomma sul contorno e non solo sulla gang che è la parte principe però appunto il ragazzo volendo raccontare questo Celli la storia di un'amicizia impossibile fra due ragazzi che vengono divisi da una società che non ti permette altro perché poi la cosa bella è che noi troviamo Mondocane all'inizio che viene scelto lui per essere dentro la banda e quell'altro va a fanculo invece Mondocane lotta per portare con sé e piscia sotto quindi è un film che funziona benissimo la colonna sonora è utilizzata anche questa molto bene e ripeto l'unica cosa è la tempistica secondo me anche il finale che dura l'epilogo per 20 minuti è troppo lungo lo potevi fare in 5 minuti dare un po' più al succo eliminare un par di ralenti e cercando andare un po' a diritto ma anche così finalmente un film che combatte ecco un film di genere di quelli che non si vedono tutti i giorni ed è un peccato non perché solo è italiano che fa piacere ma proprio perché è fatto proprio bene c'è uno di quei film che come me si amava i film di Castellari di Martino tutti i post-atomici italiani da 1990 i guideri del Bronx che qui viene completamente citato perché le automobili e i vestiti dei guardiani che vanno a prendere e picchiare i bambini che sono a giro senza genitori così per sterilizzarli sono vestiti identici praticamente ai poliziotti del film di Castellari e questo lo ricorda in molti punti solo che il nostro non ha voluto fare un film di quel tipo nonostante gli omaggi e lo ha portato più sul dramma noir di due ragazzini senza dimenticarsi come ho detto l'azione senza dimenticarsi il thriller e mettendoci anche dentro un paio di scene veramente inquietanti questi personaggi poi non sono mai buoni né cattivi anche Mondocane fa le sue scelte in realtà in relativa incoscienza ecco e quando deve prendere la scelta più forte della sua vita alla fine per non morire tutto questo quello che non lo ferma in realtà non è quello che noi pensiamo ma quello che lui e vedete il film per capirlo non dà per scontato e viene bloccato da una presenza quindi di lì poi parte l'ultima parte incasinata che è troppo lunga secondo me per il resto è un film che funziona funziona da grande è un film d'azione in Italia girato sì montato molto bene con delle belle scenografie con degli effetti speciali notevoli con questi ragazzini tutti in parte è un film tra l'altro che non per niente di quelli come posso dire non è né buonista né cattivista non è assolutamente un film che potrebbe portare a dire guarda ganzi questi bimbi sparano è terribile questa condizione è terribile anche chi cerca di aiutarli per uscire da quella condizione farà una fine di merda quindi un film secondo me sotto il punto di vista narrativo che ha dei rifetti ma che funziona proprio grazie in realtà forse alle idee che se sono di riporto però funzionano alla grande e funziona proprio sul sistema dei personaggi ecco e della messa in scena quello che colpisce un'altra volta è la regia pulitissima la fotografia e come il nostro è riuscito a centrare il bersaglio fare un film post atomico con un'idea cyberpunk all'interno però di una costume e scenografie sì un po' diciamo alla Kenshiro ma senza dover però fare il nostro Mad Max ecco in quel senso qui sì è molto italiano i nostri parlano a volte in pugliese stretto e quindi una parola su tre magari la perdi però è un film che lavora per quello è proprio una perfetta ricostruzione del mondo che sembra di adesso un'allegoria perfetta non cambia molto lì è portato tutto agli estremi ok ma ormai stanno portando tutto agli estremi senza che nemmeno ce ne stiamo accorgendo più come siamo costretti in un certo senso a seguire determinate regole senza capirne il perché e quindi c'è una ribellione alla base quindi è un film molto intelligente socialmente politicamente e funziona come action come dramma e come noir ripeto i difetti ci sono alcuni personaggi sono abbozzati è troppo lungo ogni tanto è ridondante ma il film comunque si porta a casa che è una bellezza e oltretutto ripeto anche se c'entra poi non sono molto campanilista questo tipo di cinema è un tipo di cinema che dico sempre non perché è italiano ma è un tipo di cinema che se fosse stato spinto bene anche questo non è stato spinto avrebbe sicuramente portato un po' di più all'industria italiana io dico così si fanno due posti di lavoro così anche la gente che magari interessa interessante che non ha soldi magari se questi film guadagnano gli danno due soldini anche ai registi che vogliono fare il post atomic e che non trovano una lira perché appunto in Italia non si fa più e al solito ha fatto flop peccato perché era un film che secondo me doveva incassare uguale a tantissimi altri film di genere che quest'anno purtroppo il pubblico e anche le distribuzioni parliamoci chiaro hanno abbastanza snobbato vero peccato distribuito da 0.1 in DVD e Blu-ray e il link è qua sotto per me è un film indispensabile un po' come tutti quelli del meglio ma questo è un film italiano di quelli che sorprende e la sorpresa per me a volte vale di più della qualità totale che comunque in questo film c'è altro film che avevo messo nei consigli mi pare di luglio di quest'anno è un film in realtà uscito l'anno prima al cinema che non avevo messo e quindi lo metto quest'anno perché è un film su un nome splendido nonostante anche questo abbia preso la maggior parte delle critiche pubblico e critica sia stato massacrato non lo massacro io questo Little Joe Jess Couser che secondo me qui tira fuori un film veramente esagerato uno di quei film di Chiani uno di quei film che riescono proprio a entrarmi nel corpo un thriller assolutamente folle e una discussione enorme sulla genetica sui cambiamenti della genetica stessa sull'umanità sulla perdita dell'umanità o che cos'è davvero essere un essere umano è un film splendido e nalla la storia di Alice una donna single madre che ha un bambino su 12-13 anni che si chiama Joe e che inventa appunto questo tipo di pianta che sarà pronta per la diciamo così la stagione successiva delle vendite delle piante fatte in genetica questa pianta naturalmente è una bellissima pianta si chiama Joe appunto per il figlio ed è questa pianta rossa fantastica sembrerebbe bellissima sembrerebbe perfetta perché la nostra l'ha creata geneticamente per levare la depressione alle persone con il suo profumo con la sua bellezza dovrebbe rendere le persone più felici e per fare questo ha utilizzato un virus che sarebbe in realtà illegale e che cosa succede sembrerebbe che questa pianta quando rilascia il suo polline in realtà entri nel cervello della gente e la induca a farla sopravvivere a qualunque cosa a qualunque costo e a qualunque cosa proprio perché la nostra chiaramente essendo una pianta geneticamente modificata l'aveva messa in impossibilità di procrearsi di continuare a esistere e quindi la nostra sembrerebbe pianta aver creato un sistema lei stessa in realtà per resistere alla morte che l'essere umano gli vorrebbe dare dopo un po' di tempo quindi un film bellissimo che fa una discussione enorme ma che soprattutto funziona grazie alla messa in scena anagia quasi cubricchiana freddissima mi ha ricordato a lei che è un certo tipo di cinema incredibilmente austriaco la produzione tra l'altro è mista Austria, Gran Bretagna e Germania per un film del 2019 2020 interpretato benissimo da un cast notevole la bravissima Emily Beckham in un ruolo molto difficile l'ottimo Ben Wischoff poi Carrie Fox Kit Conner Lindsay Duncan Goran Kosti Cloran Best tra gli altri tutti molto bravi ma quello che convince ripeto è la regia il film inizia con questi vediamo queste piante dall'altro questi sistemi per fare queste nuove piante a livello proprio genetico con questi movimenti di macchina circolari sui circoli diciamo sui cerchi dove vengono utilizzati questi bozzoli che poi diventeranno le piante vere e la macchina appresa si muove in questo stranissimo garbuglio di piante di posizione di laboratori e intanto iniziano ad arrivare quei meravigliosi titoli di testa e già lì si fa mamma mia si casca benissimo già da questo piano qui poi entra in scena il tutto e sia che sia la donna che all'inizio non vuole credere a tutto questo col cane sia che sia l'uomo che la ama sia il personaggio principale sia il bambino interpretato benissimo che la bambina che si affezioneranno tantissimo alla prima pianta che lei porta in casa diciamo ed è un film che in realtà parla un'altra volta di quanto la coscienza umana sia in realtà vera o quanto sia possibile anche indurre il genere umano a fare qualcosa attraverso una cosa che sembrerebbe non pericolosa quindi l'allegoria è enorme in realtà ti faccio fare questa cosa che fa bene a tutti in realtà poi è in culata e questa è una cosa che subiamo quasi tutti i giorni poi la grandiosità del film è riportare un certo tipo di fantascienza anni 50 tipo invasione dell'ultracorpi in un modo però molto più moderno ormai l'anticomunismo non c'è più la paura delle strane è molto diversa quindi la paura è all'interno la paura è cosa noi costruiamo dentro e questa volta la paura è tecnologica ma soprattutto è umana la perdita dell'umanità attraverso però l'acquisizione di un altro tipo di umanità perché noi quando vediamo che questi vengono davvero o non davvero portati a pensare in una certa maniera dalla pianta non perdono in realtà una vera umanità ne acquistano un'altra e qui è la sostanza del film non riusciamo più a capire lei avranno usato non avranno usato lascio a voi dire tutto quello che è ma le scene sono fantastiche c'è le scene di tensione quando sale tutto il rosso e ci rimangono incastrati il bambino la bambina sono terribili sono scene puramente horror senza mettere una goccia di sangue il thriller funziona perché la tensione è altissima e a livello proprio di dramma anche esso è perfetto la protagonista è ottima e riesce a donare al suo personaggio così ostile verso il mondo così ostile verso tutti tranne che verso il figlio un carattere potentissimo proprio perché va a diritto fa di tutto per portare avanti la sua idea anche a costo di in realtà infrangere una regola grossissima che appunto gli vietava di utilizzare questi tali virus per fare queste modifiche genetiche ma era l'unico modo perché questa pianta levasse la depressione cambierà l'umanità non la cambierà ma la cambierà in meglio o in peggio perché sembra che questo trasformi ogni tipo di atto di ira in realtà in un atto di amore quindi è un film che discute sul quanto siamo fallaci noi sembra voler dire la regista abbiamo perso di vista l'idea della collettività l'idea di portare avanti tutti insieme un mondo pulito e migliore solo per i soldi per fare successo per avere la possibilità di essere ricordati o semplicemente per assecondare il proprio hedonismo e pensare solo a se stessi questo dice la fotografia è fantastica cioè talmente bella come ho detto in interno e anche qui questi tagli espressionisti e invece dentro il laboratorio è tutto freddissimo tutto sparato tutto meravigliosamente algido così come algida la nostra protagonista e come sono algidi piano piano tutti e quindi non riesce a capire perché non è che inizia il film che sono tutti degli allegroni sono tutti scienziati già quadrati quindi non riesce a capire ma sarà tutto nella testa del nostro sarà tutto nella testa del bambino sarà tutto nella testa di lei perché gli altri si comportano come i primi eppure sono stati tutti a contatto delle piante forse però ci sarà qualcosa da scoprire in più perché questo Little Joe è davvero un'opera a tratti straordinari ripeto massacrata da tutti e invece Lausner sceneggia insieme a Geraldine Bajard un'opera assolutamente originale e unica e questo per me per il sottoscritto vale più di altri 6.000 miliardi che ci possono mettere o di effetti speciali io c'è un effetto speciale la colonna sonora è l'effetto speciale la messa in scena è talmente bella ci sono dei movimenti circolari che fanno paura dei movimenti sull'asse straordinari c'è un montaggio lentissimo che dona tutta l'attenzione al film c'è le musiche che vengono utilizzate quasi a livello industriale sono noise sono ambientali se mai senti un braianino è acido sono bellissime e quando un po' il film è recitato in tale maniera ed è un film che non vuol regalare colpi di scena la regista costruisce il tutto non perché la paura del genere umano sarà quella o quello o quell'altro di scomparire non scomparirai per curare una pianta il discorso è tutto un altro un'altra volta il discorso della regista secondo me insieme alla sceneggiatrice non è tanto la paura poi della scienza è l'idea che l'essere umano abbia perso coscienza della sua umanità e che in realtà forse questa pianta gli dia più coscienza umana di quanto non ne avesse prima e questo fa veramente paura a chi guarda il film e soprattutto a chi è dentro il film perché la nostra protagonista a un certo punto non capisce se forse è meglio in un certo senso essere trasformata sempre questa trasformazione esista quindi che cazzo vi posso dire di più per me questo è un film meraviglioso non ho riparlato qui per la terza volta perché come è per la casa delle stelle altri film che magari non ho parlato nei consigliosi devono essere acquistati e visti e questo Little Joe è un filmone è inutile tanto mi diranno il finale non funziona una pappa un rompimento di palle certo ognuno ha il suo chiaramente non è un capolavoro quindi è un film che si può discutere si discute tutto come dico io qui siamo nel mezzo a un bel film quindi può anche non garbare però insomma a volte le critiche che gli sono state fatte sono veramente assurde è un film che osa è un film particolare è un film pericoloso ve lo ripeto questo è un film che non funziona sui colpi di scena funziona per l'atmosfera funziona per quello che dice e soprattutto per come lo dice ripeto le parti più belle non sono nemmeno quelle dialogate ma sono quelle in silenzio con la musica i movimenti di macchina i dettagli e i nostri protagonisti che anche senza spiacecare una parola ci donano perfettamente l'idea dei loro personaggi personaggi perché sono scritti a livello pratico da dio per me questo è un grande film quindi Little Joe il link è qui sotto se non l'avete ancora visto male se l'avete visto o siete perché questo è un film molto di divide se l'avete visto quindi o vi carverà tanto come a me o vi farà cacare perché la via di mezzo ho notato che esiste poco per un film del genere e quindi vuol dire che il film comunque funziona Tom Moore è un genio c'è poco da dire è un genio da noi apprezzato zero prima di tutto perché mi pare The Secret of Life il suo primo lungometraggio d'animazione è assolutamente ancora inedito da noi che siamo ormai veramente spacciati la canzone del mare l'ho visto al cinema per pura botta di culo perché è uscito da noi con due o tre anni di ritardo ed è un capolavoro assoluto piano zeppo veramente di una narrazione difficilissima per niente da ragazzini esce anche da noi fortunatamente questo Wolf Walkers dove ha fatto una fugace uscita nelle sale esserse l'occupato Wolf Walkers appunto di Tom Moore e di Ross Stewart che dirigono questo film d'animazione chiaramente completamente bidimensionale senza nessun ausilio del computer tutto disegnato che ha una magia che ricorda i classici cartoni animati degli anni 30 e 40 per bidimensionalità disegno acquarelli utilizzo delle matite è un film basilare con una delle linee più semplici del mondo siamo nel 1650 Robin è una giovane cacciatrice di lupi che decide di andare a sterminare l'ultima branco di lupi rimasto praticamente nel bosco ci va col padre cacciatore poi a un certo punto si perde e incontra questa ragazzina che in realtà è una Wolf Walkers ovvero fa parte appunto di questa tribù che non si vuole arrendere di uomini che diventano lupi che cosa succede? fa amicizia con questa ragazzina lì per lì sembrano scambiarsi occhiatacce poi diventano amiche e cosa succede di veramente grosso? che la nostra piccola Wolf Walker passa il potere di trasformazione anche alla nostra Robin che a quel punto diventerà un lupo e dovrà capire l'esperienza di essere un animale all'interno appunto e al di là di tutto anche di un certo tipo di modo di pensiera maschilista e non che sta distruggendo praticamente la sua esistenza di lì in poi una storia di amicizia meravigliosa con un finale bellissimo lo dicevo a livello narrativo il film è lineare molto basico molto pulito e questo lo rende molto fruibile anche da piccoli bambini più della canzone del mare ma è un film visivamente bellissimo un'altra volta si capisce e si intuisce come chiunque dice che l'animazione in 2D l'animazione diciamo così bidimensionale certo senza alcuno 3D senza alcun effetto al computer chi dice che fa schifo deve vedere questo film chi è invecchiata in questo film non invecchia di un minuto c'è una bellezza assoluta proprio nei colori nell'immaginazione nel momento della trasformazione durante la notte e tutti gli inseguimenti tutto ciò che è curato è curato in maniera esteticamente fondamentalmente perfetta proprio perché Moore insieme all'altro co-regista fanno un lavoro eccellente proprio come montaggio il film è cinematografico al 100% siamo di fronte a un'opera che lascia sbalorditi per potenza visiva c'è un uso delle luci che fa paura è talmente fa sminderiano che fa quasi piangere i dialoghi sono splendidi veramente splendidi le forme con cui vengono disegnati proprio la scelta estetica di design è eccellente è originale è incredibilmente ti apre il cuore questo film di animazione senza mai abusare o abusare della retorica senza mai romperci coglioni con personaggi piagnoni tutt'altro le nostre World Walkers sono di molto personaggi che combattono per quello in cui credono un film incredibile che è tratto poi da uno scritto qui portato poi a livello di sceneggiatura da Will Collins che fa un lavoro eccellente perché la sceneggiatura è ottima ma ripeto quello che colpisce è la messa in scena la messa in scena così paurosamente retro diventa incredibilmente postmoderna in un mondo dove tutto quello che è così computerizzato così colorato così incredibilmente sparato diventa a maniera completamente totale quello che cerca di ritrovare qualcosa di esteticamente passato ma che cerca però allo stesso modo di renderlo più moderno e di modernizzare anche la storia e di rendere attuale il tutto è dieci volte mila volte meglio di Bellaossa lì in CGI che fanno adesso senza alcuna anima proprio perché il nostro riesce a livello espressivo non solo con i disegni a creare qualcosa di estatico di meraviglioso a livello visivo ma crea qualcosa di incredibile proprio a livello narrativo grazie a questa bidimensionalità grazie proprio all'idea di ciò che viene raccontato che deve diventare essa tridimensionale non come viene raccontata un racconto che sembra scorrere come un geroglitico scritto per sempre su un muro un racconto che sembra una cosa talmente reale che ormai credo a questi popolo di lupi io quando ho finito di vedere il film speravo fosse davvero una storia vera non una storia di uno scritto che si credeva vero all'epoca nel 1300 quando è stato scritto e poi riadattato nel 1700 e qualcosa era appunto uno scrittore che si basava sulla caccia degli ultimi lupi che a quanto pare erano spiriti che diventavano umani e da lì la sceneggiatura come ho detto questo è un film che lascia basiti mi dispiace una storia di amicizia così non la vedevo nella vita una storia così consapevole di come parlare ai ragazzini non la vedevo da 30 anni altra è Luca di merda mamma mia qui si parla veramente al cuore qui si dice si parla veramente delle diversità e di come accettarle qui si parla davvero della violenza come strumento del male qui si parla davvero come il male non è assolutamente spirituale ma il male inteso proprio come una cosa che si fa e uno come me che non è più un ragazzino da almeno 40 anni invece ne ho letto una chiave molto più pessimista verso l'umanità è un film proprio che hanno i personaggi la sua bellezza queste due ragazzine completamente diverse una spigolosa lunga secchissima che parla piano senza avere e quest'altra invece bassa grintosa capelli gonfi incazzata sempre che spacca tutto perché poi alla fine è mezzo lupo sono proprio nello specchio del mondo di oggi di come è bipolare di come queste due distanze però potrebbero essere colmate appunto da un livello di amicizia che qui nasce proprio per necessità non vi voglio dirvi più perché magari qualcuno questo Wolf Walkerson non l'ha visto e non so cosa dirvi di più oltre ad essere uno dei più bei film d'animazione degli ultimi vent'anni oltre ad essere un film che ti spacca in due il cuore perché anche se hai 48 anni fai porca puttana tocca le corde giuste senza mai rompere i coglioni dove dispengi sta monnezza retorica è un film che non è mai piagnone c'ha l'avventura a bestia è d'azione fa ridere perché fa ridere eppure fa pensare dall'inizio alla fine insomma un film educativo è vero educativo proprio perché insomma nella storia come ho detto di questa bimbetta e quando dorme diventa al lupo c'è tutto quello che dovrebbe esserci in un film d'animazione non si riuscirà mai a imparare non si riuscirà mai a essere dei veri dei veri esseri umani se non si capisce il diverso l'altro questo è la base di tutto il film e anche ad aprirsi all'altro cioè cercare di non essere chiuso chiuso aprirsi all'altro cioè non aver paura di dirgli la verità sia una cosa negativa non aver paura di perdere un'amicizia se però questo serve a te e all'altra persona il film è fatto di scelte anche Crudeli ed è un film meraviglioso grandissima musica di Bruno Qualè ci tirano fuori un'opera secondo me sensazionale ennesimo capolavoro di Moore tre film tre capolavori il link è qui sotto fate un po' voi questo non è un acquisto obbligato di più grandissimo irlandese non lascia da parte minimamente diciamo le sue origini e come ogni grande regista parla di quello che conosce ma lo fa attraverso un sistema ma che in realtà arriva a tutti gli spettatori senza mai doversi svendere quindi per me un artista unico un'opera indispensabile bellissimo fantasy questo norvegese del 2020 un film che va di diritto anche questo nel meglio doveva uscire al cinema purtroppo uscito direttamente in un video ma tanto vale questo Mortal è uno dei fantasy più interessanti degli ultimi anni proprio perché gestisce diciamo il mito di Odino il mito nordico in una maniera tutt'altro che è scontata qui è un fantasy che riporta Thor diciamo l'essenza di un certo tipo di paganesimo alla sua vera violenza e alla sua vera identità anche di luogo non solo del momento insomma filmica e la storia è questa un giovane Eric è un giovane ragazzo praticamente che vive da barbone noi vediamo che un giorno c'è questi bulli che gli vanno a rompere il cazzo lui gli spara dei fulmini e li scoppia prima di essere arrestato praticamente viene portato da una psichiatra che comincia a ragionarci e lui gli dice praticamente di avere questi poteri questi poteri che sembrerebbero essere divini allora la nostra psichiatra decide di portarlo alla fuga e farlo scappare prima di farlo vivisezionare praticamente e lì parte tutto il film questo è un film bellissimo un'altra volta ci troviamo di fronte a un film che è passato completamente inosservato allora il protagonista Nat Wolf è il fratello minore del protagonista di Hereditary e si dimostra bravissimo anche lui il regista invece è il talentuosissimo regista di Trollhunter di Autopsy di Scary Tale in the Dark ovvero André Overdal che a sua missione disse mi sono rotto i coglioni di venire adattato Thor come una cosa così del genere e quindi decidirò di trattarlo in una maniera ben più ampia e quindi dicevo questo mortal utilizza il sistema di fantasy puro nordico per raccontarci la storia di questo protagonista in realtà che subisce il potere più che gioirne nel senso che comunque quando viene attaccato da questi bulli ne ammazza uno anche il capo della polizia rimangono tutti un po' straniti perché non riescono a capire questo ma è mai spara furmini in un certo senso è di come è riuscito a uccidere l'altro e quello che fa interesse nella pelicola prima di tutto è come il regista decide di presentarci il nostro protagonista già all'incipit a livello tecnico fotografia montaggio è meraviglioso cioè fai mamma mia e parte sto film poi piano piano che noi vediamo che il nostro protagonista è tutt'altro che super eroe non è forse n'eroe né super è super nel senso che ha i poteri però è un film dove il nostro è frustrato è completamente succube di questi poteri non sa nemmeno di averli in un certo senso perché averli che cosa sta succedendo è lì la cosa bella noi protagonisti noi spettatori in realtà sappiamo più dei protagonisti in un certo senso capiamo la visaglia sin dagli inizi perché noi lo vediamo che spara vesteose sappiamo che cosa potrebbe avere in corpo e gli altri no e quindi tutti i rischi che correrà Christine per esempio la psichiatra non li sono molto chiari perché noi in realtà abbiamo visto il potere devastante di questo ragazzo ma tutta la scena finale sul ponte è meravigliosa è proprio meravigliosa quando viene fuori il vero potere e tutta la parte della fuga inizia ad avere un ritmo enorme e la parte centrale che poi funziona anche a tratti in flashback è fatta benissimo proprio è uno di quei classici film di genere che mancano cioè questo qui è uno di quei classici film che dovrebbe incassare qui ci sono idee qui c'è talento nella lista di scena eppure leggo le recensioni dei critici non nemmeno lo cagano le recensioni del pubblico è una merdata facca per forza si è abituati a Thor Corbuzz e beve le birre e si fa selfie e martratta a 12 anni quando uno giustamente di ver paese dice o me lo faccio io il mito normanno e cerco di farlo anche a livello fumettistico perché non nega questa cosa non nega il fatto di fare un film supereristico ma nega il fatto di ridurre quel mito a qualcosa di così stupido come può fare un americano che non ha idea del suo emi che non è un suo mito e quindi ci da un giorno sopra diciamo a livello molto pop invece il nostro qui è pop il film nel senso che non è un film d'autore alla Bergman però il nostro è un attore vero nel senso che per ne tutto è riconoscibile il suo modo di fare regia c'è un film fantasy che mette paura e quindi un'altra cosa si capisce che è un regista horror perché ripeto in alcuni movimenti di macchina alcune scene sono tesissime proprio ti lasciano con la sensazione giusta che devi avere e poi il film ha una tecnica esorbitante costato 3 lire e mezzo pare fatto un 30 milioni 40 è proprio un film dove ogni mezzo di un cenato grafico viene usato per darci idea di cosa vuole raccontare il nostro regista che oltre appunto il termito nordico ci vuole raccontare questo scontro anche fra questa donna e questo ragazzo questa visione diversa di un certo tipo di vita che poi piano piano si unisce sempre di più quindi dei caratteri che sono lontani all'inizio e che si avvicinano sempre di più quasi fosse una storia d'amore la loro melodramma e i melodrammi si sa non vanno mai a finire bene e poi c'è sempre quest'aria plumbea in questo cazzo di film il cielo è sempre è limpido ma non lo è mai non so come farvi capire le luci sono chiare spaccano ma sono un chiaro che però nasconde sempre un grigio ed è quello che fa il film in questo personaggio in realtà il protagonista noi abbiamo un antieroe classico in un certo senso che non sa nemmeno di essere questo e questa sua mancanza di consapevolezza lo rende ancora più pericoloso quando poi avrà la consapevolezza vera dei suoi poteri e il film cerca di essere un film che passa dall'avventura d'azione un po' di horror a un anche chiamiamolo così a un camera spill perché tutta la parte centrale in cui parlano a raffica al tavolino è un thriller da camera e è meravigliosamente gestito nei tenti per me questo è un grande film di sicuro non siamo di fronte a un capolavoro l'ho detto non è che è il film del secolo ma finalmente è un film fantasy che tratta l'argomento con una maniera seria non seriosa nel senso che ti spacca il cazzo con 6.000 discorsi nel senso che nel film si evita l'ironia praticamente l'ironia che c'è le due o tre battute sono inserite nella narrazione non hanno intenzione di spostare il film verso la commedia nemmeno per un secondo il regista il regista rimane piantato diritto sull'idea di raccontare un thriller fantasy con incursioni horror che parla in realtà anche di gioventù di cambiamento di tutto quello che è essenzialmente la vita e lo fa verso il genere ma lo fa benissimo proprio perché non riduce un'altra volta Torre il mito di Odino e tutto questo a un mito per ragazzini di 11 anni che vogliono usare un martello qui in realtà il mito del divino chiaramente è affrontato con una serietà dovuta e quindi il dio non può essere buono nel vero senso della parola il dio fa quello che vuole e disfa quello che vuole ed è la bellezza di questo film quando il nostro acquisisce poteri non mi dico cosa fa cioè una volta che capisce chi è va a fanculo a tutto cioè nel senso proprio vero è un film potentissimo ha delle immagini fantastiche qui c'è due rallenti finalmente usati a come cazzo si devono usare non buttati a merda di culo ci sono un paio di effettoni speciali fatti anche in digitale che però non danno assolutamente fastidio perché non sono la preminenza della narrazione quello che conta in questo film è la storia che come ci viene narrata narrata benissimo da un regista che dimostra un'altra volta di essere uno dei più talentosi degli ultimi anni si parla tanto di Mock Flanagan per due serie tv di merda e Dr. Sleep quando film buoni ormai ha smesso di farli da Sony e Oculus tutto il resto è praticamente semi spazzatura a televisione e poi e non si lascia da parte un regista appunto come questo che è un grande perché poi al di là di Trollhunter che è il più debole se guardiamo Autopsie è in grande horror Scary Hotel of the Dark è in grande horror e questo è in grande film fantasy e anche Trollhunter comunque è un ottimo documentario quindi ci troviamo di fronte a un regista tra i migliori di genere uscite negli ultimi 15 anni che nessuno si frega e questo ha fatto un cinefumetto per i cazzi sua nel senso che ha tirato fuori l'ambizione dal fatto che funzionano i Marvel e via così gli hanno dato soldi per fare i cazzi sua si è inculato anche i produttori perché insomma alla fin fine ha fatto sì un film su un supereroe che però è tutto tranne che eroe in un certo senso ed è tutto tranne che super per come si intende noi perché non è altolutamente super o mistico è un dio che è tutto un'altra cosa non è un'evoluzione di niente non è un cazzo di niente non c'è niente di Nishano in tutto questo lui è prettamente dio basta quindi non lo butti giù nemmeno se gli spari una bomba nucleare questo film praticamente racconta la vita di un ragazzo e le sue sensazioni attraverso un corpo umano ma che in realtà è divino e quindi è un film meraviglioso proprio perché non lascia nulla al caso ed ogni comunque spettatore può leggere sotto un paio di sottotrame come ho detto sociali e politiche molto interessanti anche sull'utilizzo di un certo tipo di potere che vorrebbero fare i potenti veri del mondo cercando di agguantare lui quindi è un film tutt'altro che stupido banale e non ha assolutamente mai una leggera caduta di tono il classio film che funziona dall'inizio alla fine che quando finisce porca troia ne vorresti ancora di più quindi cazzo vi posso dire di più meno male la Midnight ce l'ha portato Mortal è qui sotto per me è in grande firma in culo ai critici che lo massacrano e al pubblico che un'altra volta dimostra che se non gli dai quello che vuole quando fai anche qualcosa di simile a quello che gli piace lo caga a zero perché non è assolutamente quello che voleva e finalmente con questo grande regista di genere probabilmente lui fa i film che vuole ed è per questo che gli vengono così bene link qui sotto Mortal per me comunque resta un filmone sorpresona questa io quando vidi l'uscita di questo film che doveva andare al cinema è uscito in un video pensavo è impossibile che va la più sciagurata delle trame cioè un uomo praticamente che va a caccia di tartufi gli rapiscono la scrofa e la va a cercare a tutti i costi ho fatto vai siamo ripronti all'ennesimo film ma io vi troverò con la vacca con la scrofa e in più vi taglio il protagonista Nicolas Cage mi immagina a che piano si asca sorpresone film magnifico ma magnifico sul serio sono rimasto basito allora questo film è un film di origine inglese costato due lire Nicolas Cage qui interpreta questo uomo che sta in mezzo al bosco praticamente noi capiamo che è uno chef stellato che ha deciso di vivere in mezzo al bosco dopo la morte della moglie che vive con questa scrofa da anni che è una scrofa da tartufi che gli fa fare i soldi ma lui vive senza niente luce, televisione, telefono un cazzo in mezzo al nulla in mezzo al nulla i ragazzi gli rapiscono e li portano via questa scrofa allora lui con il suo amico che è uno il figlio di uno degli uomini più ricchi potenti e incazzevoli della città si fa dare una mano per cercare di ritrovare questa scrofa nell'ambiente ed è lì parte tutto il viaggio del nostro ecco detto in realtà questa è una distruzione del modello americano del sogno americano e del sistema capitalista in 10 minuti cioè il grandissimo regista qui Michael Sarnoski tira fuori dalla sceneggiatura di Vanessa Block e dello stesso Sarnoski un'opera incredibile è un film pieno di varie devazioni nel senso che prima di tutto la fotografia è magnifica l'uso della macchina a mano è perfetto e il montaggio è geniale specialmente nella prima parte dove senza alcuna parola per i primi minuti noi entriamo nella storia di quest'uomo che vediamo che cerca i tartufi e tutto il resto poi vediamo che arriva questo ragazzo la prima volta gli chiede gli dai soldi prende i soldi si fa i cazzi su a non gli invoio di sapere di un cazzo arriva questa botta di violenza e te pensi vai ora il film è passato un quarto d'ora ora parte il film è grandissimo il film perché il film sembra ogni 10 minuti prendere la via del nero proprio nero dell'azione sembra prendere la via ora vorrò raccontare un thriller e invece poi sfuma sfuma e in realtà ci racconta secondo il sottoscritto il film la bellezza oltre del cibo la bellezza del cibo la bellezza dell'amore per gli animali la bellezza del saper cucinare c'è una scena magnifica dove lui deve convincere uno Adam Markin e il presidente gli fa un normalissimo piatto ma cucinato da lui che è 15 anni che non si fa vedere gli cucina questa cosa e questo si mette a piange e tutto il capitalismo l'uomo crudele che io non piango male il capitale sviene davanti a un piatto meravigliosamente buono che lo fa iniziare a piangere con un vino eccezionale e in quel capitolo perché il film è diviso in tre capitoli il primo il secondo che è fantastico che lui va a trovare un suo amico che faceva l'aiuto cuoco di lui quando era famoso va a trovare un suo amico per dirgli per sapere lo sai te dove hanno rubato la scrova per fare tartufo perché sei nel giro no? c'è l'idea in realtà della cucina proprio come libertà della cucina come atto d'amore totale conclusivo verso ciò che hai ucciso per cucinare e anche verso le materie prime anche per chi sta per mangiare quindi è un film che in realtà sotto questa patina assoluta del thriller che c'è perché comunque continua ad andare a cercare sta scrofa però in realtà ci racconta quasi un viaggio culinario che realizza la fine del sogno americano la fine proprio dell'idea del mangiare cioè quando questo lo vogliono portare a mangiare a fast food c'è una faccia in centro nemmeno se mi ammazzi c'è questa logica qui e quindi è una logica un po' la Capitan Fantastic per capire si sta nel bosco e quindi elimina ogni cosa capitalista del mondo perché per lui fa schifo e poi questo suo dovuto ritorno dopo 15 anni di bosco per cercare la sua e quindi deve ripresentarsi al mondo per quello che è quella scena è fantastica perché lui dice a tutti Rob 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 non dice chi cazzo è e il film maltratta tutto quello che è a catena per esempio cioè l'idea proprio di cucinare per le catene è una cosa terribile maltratta anche l'idea come ho detto di avere che è assurdo e parla di questo ma parla di questo in realtà il film perché te guardi no ma in realtà parla del cibo parla di come è assurdo che un ristorante ti faccia pagare 600 euro dollari per una schiumetta di merda di cappa santa perché l'ho fatto di vivere il cibo deve essere naturale deve essere per tutti la sua concezione anticapitalista bizzarrissima rivestorecista attraverso il cibo è una scrofa che scompare secondo me solo per questo vale e poi ripeto c'è una prova clamorosa Nicolas Cage posatissimo vicino a Joe se vogliamo un po' a quel cane mangia cane quello un po' più rilassato in alcuni momenti e qui fa col barbone capellino è veramente un Nicolas Cage incredibile compassato con uno sguardo mostruoso quando deve fare un'altra gara per cercare di andare avanti deve prendere i cazzotti nel muso da uno finché non sviene per farsi dire la cosa perché così funziona è un'altra scena meravigliosa e nel suo girovagare insieme a questo ragazzo che in realtà è lotta di capitale come il padre perché sono due che vendono tartufi tutti e due sono tutti insomma c'è questa storia padre e figlio che è meravigliosa e poi c'è la ricerca del nostro che non ricerca poi la maiala da tartufi per i tartufi nella scena più bella inizia a piangere perché? perché li voglio bene quindi per me questo è un film meraviglioso proprio perché riesce a raccontare una storia di amicizia quella fra lui e il ragazzino che poi è Alex Wolf bravissimo una storia di padre e figlio come è quella di distanza fra i nostri due comprimari una storia d'amore meravigliosa per un uomo e la sua scrofa che è l'unica sua compagna di vita da dieci anni quindi quello che può diventare veramente una tresciata nelle mani di questo con questa sceneggiatura diventa un film magnifico per il sottoscritto un atto d'accusa verso chi ci fa considerare ancora il cibo come qualcosa di semplice di veloce di cazzatella non so come farvi capire questo è proprio una critica a chi vi dice vai al ristorante da 600 euro oppure vai a McDonald a 20 un film antiapitalista in questo senso non vuole che ci siano 650 polli nelle scatole Nicolas Cage e fa tutto questo per salvare la scrofa c'è un film che vi sta dicendo che il mondo è troppo veloce che il mangiare di McDonald è una merda non ci dovete andare e che il mangiare degli stelati che vi fanno mangiare la polpina del cazzo a 600 euro cucinata sotto la zota è una merda incredibile satire anticapitalista bizzarrissima fatta da un regista che la fa attraverso una scrofa e un uomo che va a cercare quella quindi quando per l'altro gli da 30 mila dollari gli fa ma compratene 10 i maiali da tartufi con questi soldi e lui non li vuole capiamo perché questo è un film meraviglioso non rinuncia nemmeno al suo rimanere solo non si avvicinerà più a questo mondo fascista capitalista che lo idolatra solo perché riusciva ad essere uno chef stellato e questo lui non lo sopporta più non sopporta dalla vita una vita che gli ha portato via la moglie una solitudine devastante allora la solitudine che sia quella vera del pensiero nessuno capisce che Nicolas Cage fa tutto questo perché la scrofa era una vera amica qualcosa con cui condividere un modo di vita e quindi l'unico modo di condividere una vita fatta da animali quello è dentro una nulla senza lavassi senza un cazzo senza luce è condividerla con un animale animale che a quel punto per il nostro Nicolas Cage oltre a diventare una parte quasi della moglie diventa in realtà la cosa principale perché la sua vita da 15 anni è quel bosco con quella scrofa a lui degli esseri umani non gliene può fregare meno di un cazzo e vi ripeto la scena che riporta Ada Markin il piatto da mangiare perché Ada Markin lo vuole fare fuori dopo che gli ha dato i soldi e ha detto non mi rompere più coglioni riporta il piatto e inizia a piangere ripensando anche lui alla moglie scomparsa vale tutto il film di più mi voglio di ho detto anche troppo ho spolarizzato a bestia lo rimetto all'inizio ho detto 300 volte ce lo spolar il film è una bomba il link è qua sotto è uscito o non video mi gira veramente il cazzo che non sia uscito al cinema perché questo era un filmone da sala fotografia magnifica tutto slavato montaggio esagerato musica perfetta siamo di fronte al cinema quello che spacca quello che non ha bisogno di scene d'azione per funzionare ti porta sempre al limite del thriller dell'azione sembra che stia per scoppiare vai ora parte ed è un film che non parte mai c'ha una miccia che si accende ma non arriva mai alla polvere questo è ancora più bello perché alla fine ogni cosa che succede non è mai quella che mi avevo aspettato mai mi ha sorpreso dalla prima all'ultimo inquadratore speriamo che qualcuno se ne accorga e faccia lavorare a Nicolas Cage ancora a questo modo come nel Correre Neutrallo Spazio o anche in Mandy quando la buttare fuori insomma Nicolas Cage non sembrerebbe un attore finito e questo film sembrerebbe anzi averlo riportato a recitare proprio a livelli altissimi e questo mi fa solo piacere perché io ce l'ho sempre avuto in simpatia link qui sotto fate un po' voi noir tratto basato da una storia vera seppur reinventato ai tempi nostri che meritava assolutamente questo meglio perché è un film bellissimo questo short film danese veramente di grandissimo grandissimo livello noir poliziesco drammatico di quelli che si fanno ricordare sul serio proprio perché è un film molto particolare tra l'altro che utilizza una fotografia tutta sparata sugli arancioni gialli cerca di scaldare un ambiente che è freddissimo sin dalle sue battute iniziali perché il film inizia così praticamente un ragazzino di un quartiere un ghetto in Danimarca viene catturato dalla polizia e noi seguiamo una coppia di poliziotti che sono appunto di pattuglia in questo ghetto che si chiama Svelgarden e proprio mentre sono di pattuglia la radio annuncia che questo è morto e quindi iniziano a partire nello stesso quartiere delle rivolte in cui i nostri sono messi nel mezzo uno dei poliziotti chiaramente è uno più giovane convinto che si debba utilizzare meno la violenza e più l'umanità contro questi diciamo così ragazzi del ghetto e invece c'è l'altro poliziotto che è vent'anni che lo fa che è molto fascistore e dice io di qui io di là spacco tutto ammazzo tutto non me ne frega un cazzo da lì parte tutta la storia il film è bellissimo non è tutto perché alla fin fine la dicotomia di questi personaggi non è assolutamente quella che ci crede di far regista per tutta la prima parte perché se il film è diviso chiaramente in tre atti nel primo atto è tutto quello che sembra essere normale il poliziotto fascio il poliziotto meno fascio la situazione che sfugge di mano è gestita benissimo da una regia da una messa in scena veramente di grandissima classe oltretutto i due interpreti sono bravissimi ovvero Jacob Lockman e Simon Soros sono veramente due bravissimi attori così come sono bravi anche tutti gli altri del film è un film che descrive poi una società allo sbando un ghetto che diventa un teatro di guerra proprio perché un'altra volta la società in realtà si dimentica dei perdenti si dimentica delle classi inferiori si dimentica dei loser e li lascia marcire fra di loro meravigliosa infatti la scena in cui questa donna di colore quando è in questo quartiere arabo dice a questi poliziotti quando c'è da sparare a qualcuno di noi e che vi fa favore a voi siete spronti qui quando vi si chiede aiuto contro veramente le gang di questo quartiere non venite perché vi cagate addosso e non mette l'ora che ci si spari questo è un po' il succo di questo grandissimo film che a un certo punto devia manda un poliziotto da una parte e un poliziotto dall'altra e lì le storie incominceranno a cambiare i caratteri incominceranno a cambiare perché si scontreranno con una realtà che fino a quel momento hanno visto seduti all'interno di una macchina dietro una divisa e che invece li porterà a vivergli la coscienza sul momento reale sulla realtà non su un falso insegnamento di protezione e dovere verso i cittadini quando noi vediamo benissimo il film che tutto fanno la polizia in questo film tranne che proteggere e servire i cittadini quindi la doppia coppia di registi Frederick Lewis Hivid e Anders Hololom che scrivono anche le sceneggiatura riescono a portare a casa uno di quei classici film tesissimi se come ho detto la prima parte ci racconta i personaggi in maniera abbastanza manichè e lo fa appositamente proprio perché nella seconda parte nella parte centrale il tutto come ho detto si ribalta i personaggi cominciano a non essere più quelli che sono e le condizioni in cui si trovano all'interno del ghietto stesso li portano a trasformarsi in tutto questo il montaggio è fantastico perché il montaggio veramente cambia da seconda della situazione narrativamente senza mai dare il senso di essere messo a caso ogni inquadratura ogni movimento di macchina ogni inquadratura dal largo che stacca diretto sul viso ogni tipo di continuità cancellata nel film in realtà rende una continuità ancora più interessante quindi le regole vengono completamente rispettate e spezzate in due o tre momenti in cui serve veramente poi il colpo di scena finale è bellissimo e il film ha nella terza parte l'ultima parte un insieme di cose che fanno pensare un'altra volta quanto il mondo sia una merda e quanto chi lo vive noi forse siamo ancora più merda del mondo stesso quindi è un film veramente meno drammatico in quel senso una storia d'amore non vera una storia d'amore di un paese verso un'etnia che in realtà non ama una storia d'amore non ricambiata un mondo che ci porta un'altra volta di fronte alla schifo di un certo tipo di polizia che in realtà più che aiutare schiaccia volutamente mandata apposta da uno stato che vuole che schiacci e in tutto questo troviamo anche però una condizione per niente ma nichea appunto dei registi che tendono però a farci vedere anche quanto il ghetto sia pericoloso e quanti criminali andrebbero arrestati però in tutto questo discorso torna la frase della donna di prima del film si capisce anche che la polizia però arriva solo e soltanto quando c'è da menare sparare a chi manifesta o chi è in realtà pacifico ma se ne sta di mortone a casa sua è buona buona e almeno in questo caso quando i nostri chiamano così il ghetto rimane tale la violenza rimane tale e tutti sanno insomma dove trovare un nemico non è un caso che il regista ha detto di averlo fatto dopo il casino che è successo in America di quello che ha schiacciato la testa e quel poveraccio l'ha ammazzato quel poliziotto stronzo quell'infame che ha ammazzato quel ragazzo dopo averlo fermato in macchina schiacciandoli la testa gli ha riportato la luce un fatto vero e Danimar che ha voluto girare questo film ed è un film ripeto che però non è dalla parte di qui o di là mostra ti dà quello che è e ti dà un mondo marcio ti dà un mondo dove l'essere buono l'essere una persona solida l'essere una persona di carattere è in realtà negativo qui bisogna essere dei vigliacchi dei venduti dei pezzi di merda e dei violenti assolutamente antinarrativo e completamente sleale che fa vedere insomma i poliziotti così tanti buoni oppure i criminali così tanto buoni questo è un film veramente da ricordare è un filmone se fosse uscito nelle sale firmato Scorsese ne avremmo parlato per anni invece è firmato solo da queste coppie di danesi sconosciuti e quindi non ne parla nessuno ma questo short è un film del quale ci si deve ricordare anche questo è stato tampato anche questo in DVD e Blu-ray lo trovate qui sotto è un filmone uno di quei film che non devono mancare uno di quei film che fanno finalmente un'altra volta amare il noir amare una storia di polizia amare un poliziesco che si trasforma in storia e una storia che si ripete ciclicamente paese diverso dall'altro il nostro regista ci dice non è solo l'America questo tipo di razzismo questo tipo di chettizzazione è in tutto il mondo e in Italia lo sappiamo benissimo e quindi questo è un film che riflette sulla società di oggi e lo fa attraverso un cinema meraviglioso con una sonora splendida attori bravissimi storia che prende alla fine il ritmo giustissimo per un noir che colpisce anche nelle scene d'azione poche che ci sono realistiche girate da Dio quindi non so più cosa dirvi per me questo short è il grande film che si merita di essere di essere citato in tutti i meglio di quest'anno vediamo chi ce lo metterà io ce lo metto di sicuro questo è un filmone è un filmone che tranne qualche presentazione e qualche anteprima purtroppo ha lasciato la sala è rifinito on demand ma anche in on video e quindi come tutti ho detto all'inizio del video i film che finiscono on demand o a un video che dovevano uscire al cinema verranno nel meglio di quest'anno perché sennò era impossibile farlo detto ciò questo short è un film che non deve mancare nella vostra collezione perché ripeto se avete il poliziesco chiaramente un poliziesco che ricordi in un certo senso anche qui la nuova Hollywood che ricorda più Friedkin che Michael Bay chiaramente le stronzate tipo Pain and Gain qui siamo di fronte a un film serio uno di quei film che dimostrano un'altra volta come il genere possa discutere sui mali del mondo e farlo attraverso un modo narrativo che non sia così complicato e rompicoglioni come tanti film che vorrebbero essere d'autore e che invece sfrangiano solo i coglioni questo invece è un grande film l'autore che entra nel genere nel noir nel poliziesco nella storia vera e ci fa immergere definitivamente all'interno di una storia semplice come ho detto ma piena zeppa di meandri piena zeppi di rami che svelano di qua e di là e che ci svelano il terrore e l'orrore dell'animo umano quindi a voi questo grandissimo film che parla di razzismo di violenza di coscienza di mafia in un certo senso di come non siamo mai sicuri di quello che diamo per scontato non siamo mai sicuri che le figure che devono considerate essere per determinate cose che ci servono nella vita in realtà poi siano tutt'altro quindi un film veramente interessante che parla di 6.000 cose e non le lascia una da parte perché ha dalla sua e lo ripeto per l'ultima volta una regia straordinaria questi sanno veramente sempre dove mettere la macchina appesa non c'è una ripresa buttata via il tempo che dura è perfetto il montaggio è giustissimo per me siamo di fronte a un grandissimo film non ve lo fate sfuggire perché qui siamo di fronte a uno dei migliori film dell'anno sul serio grandissimo short ha già consigliato mi pare dei consigli meritava un altro video meritava il meglio perché è un firmone ed è veramente uno spregio che non sia uscito in 200 sale è sempre difficile giudicare un film in realtà dal suo primo tempo questo è in realtà Dune parte prima di Denis Villeneuve è tratto appunto dalla saga meravigliosa di Frank Ebert che era stata portata sullo schermo appunto da Lynch con risultati altalenanti doveva essere portato da Jodorowsky appunto c'è il documentario di Jodorowsky di Sduna ed è sempre stata un'idea di molti registi quella di poter trasportare questo romanzo di Ebert sullo schermo ed era veramente difficile o tradendolo sconvolgendolo ed era difficile rimanere fedeli al di là del fatto che questa prima parte del film appunto è abbastanza fedele e riesce a trasmettere bene alcune delle sensazioni del libro quello che dicevo all'inizio è sempre più difficile però dare un giudizio critico completo visto che comunque siamo a un primo tempo e quindi vedremo un po' col secondo tempo se riuscirà a mantenere questi livelli il nostro regista è il Quebec perché qui siamo a livelli veramente notevoli di messa in scena cioè allora prima di tutto ho sentito criticare molto la colonna sonora di Hans Zimmer che qui invece compone una delle sue colonne sonore migliori e poi insomma c'è una fotografia a tratti veramente strabilianti che lascia a bocca aperta per come è ricostruito il piano di tutti i pianeti uno dopo l'altro insomma una fotografia che cambia nonostante su ogni pianeta tenda a essere monocromatica ma è meravigliosa proprio per scelta alcuni interni sono meravigliosamente espressionisti degli esterni sul pianeta Dune sono meravigliose la luce stessa diventa padrona la sabbia e la storia è inutile raccontarla è la storia appunto della faida degli Atreides che vengono mandati sul pianeta Arrakis dove c'è questa appunto spezia che è il motore dell'universo perché è l'unica che fa fare gli spade di viaggi interdimensionali vengono mandati lì appunto a governare il pianeta di Arrakis gli Atreides che diciamo che sono guidati dal duca che sono diciamo i buoni una parte dei buoni della galassia solo l'imperatore in realtà se li fotte li manda per essere massacrati in realtà dai cugini degli stessi Atreides ovvero gli Arkonen che sono dei merdoni guidati anche che si dà un cattivissimo duca quindi lavoro clamoroso di Greg Fazer che tira fuori per ogni inquadratura per ogni sequenza più che altro un tipo di fotografie diverse e questo è notevole proprio perché il film tende ad essere molto criptico a differenza del film di Lynch dove ogni 33 secondi c'era una voce narrante che cercava di spiegarti ciò che succedeva in scena qui Villeneuve decide di far parlare le immagini quindi far parlare tantissimo del sonoro non solo da musica ma un sonoro eccellente uno spettacolo visivo tra l'altro enorme questo è dire effetti speciali che non sembrano nemmeno tali una palpabilità nella computer grafica quasi incredibile di questi tempi e il film è purtroppo come ho detto però monco nel senso che la storia è a metà e noi riusciamo a capire poi se poi l'altra metà sarà a livelli di questa speriamo di sì almeno di scrittura perché qui tutti si se la cavano una stragrande dagli attori uno più bravo dell'altro sia il giovane Shalamat che dopo Halle insomma qui dimostra di avere ancora la faccia giusta che il grandissimo Oscar Isaacs anche già meraviglioso in questo meglio e peggio nel bellissimo capolavoro quello sì veramente capolavoro intoccabile il collezionista di carte di Shredder poi il cast continua con la giovane bella aziendaia che però ha poco spazio invece c'è fantastica Rebecca Ferguson poi abbiamo addirittura un momoa guardabile un cattivissimo Dave Bautista c'è Verbar Diem come un capo dei Fremen e il mitico Josh Brolin un cast gigantesco per un film enorme a livello visivo ripeto tutta la parte di ogni pianeta è sviluppata in maniera differente e perfetta proprio a livello di sonora a livello di luce a livello di costruzione anche delle inquadrature e ogni sequenza in realtà porta sempre più in alto l'epica e sempre più in alto la voglia di scoprire che cosa succederà dopo ora per chi è proprio senza alcuna idea di cosa sia il Dune secondo me Squissi gode ancora meglio il film la prima parte del film di Vivenev perché chi avesse già visto Jodorowsky's Dune aveva già idea della follia che poteva fare di Jodorowsky chi ha visto quello di Lynch sa un po' gli avvenimenti anche se Lynch tradisce alcune cose e ripeto il film è un film a tratti incredibili visivamente tutte le parti dei vermi sono eccellenti tutte le parti dei voli con le astronave insetti sono fantastiche e ci fanno intuire come nel mondo di Ebert non esistono più i computer se non umani ma è tutto questione proprio di tecnologia analogica e questo è interessante perché fa capire insomma che cosa succederebbe all'interno che cosa succede all'interno di questo tipo di mondo dove c'è quel tipo di tecnologia computeristica che è completamente bandita è bellissimo come vengono costruiti i personaggi per finora e c'è poco da dire i personaggi prendono sempre più piede il nostro protagonista con i propri sensi comincia ad acquisire tutto quello che lo porterà a trasformarsi forse nell'eletto il film viaggia su un ritmo fantastico nel senso che nonostante duri due ore e quaranta quasi il film vola via che è una bellezza la prima ora ti fa entrare dentro questi personaggi ti fa arrivare su Arrakis ti fa entrare nei personaggi ti fa veramente amare un certo tipo di desaturazione un certo tipo di colori che sono per esempio sul pianeta Atreides meravigliosamente accesi con quei verdi con quegli azzurri che ti si sparano addosso per poi arrivare su come ho detto appunto su Arrakis e trovarsi con quei della desaturazione meravigliosa ma non forzata data proprio dall'idea della luce e del deserto ma poi le sequenze sono tantissime magnifiche c'è la sequenza dell'avvenenamento degli Arconen che è qualcosa di magnifiche qualcosa a livello di Fritz Lang poi ci sono delle scene meravigliose proprio a livello di d'azione tutta la parte del combattimento semifinale è a dir poco eccellente i dialoghi sono scritti con grazia e senza mai eccedere e ci sono dei punti che sono veramente incredibili la prima presentazione di Bardem è una scena anche quella veramente di impatto così come è di impatto incredibilmente anche la morte di Jason Momoa stavolta che fa il suo è di impatto anche tutta la parte finale col nostro che deve fare qualcosa che non ha mai fatto per poter prendere la fiducia di Fremen ed è uno di quei classici film che purtroppo dico purtroppo essendo costato 150 milioni di dollari avrà avuto bisogno dell'incasso per fare il secondo e io questa volta ho cercato in tutti i modi di esserne all'esterno non volevo più dare adito a queste cose perché un conto è se si fa un film e poi fa successo e se ne fa altri un contro è stroncare i film a metà così c'è basta c'erano meglio quattro ore al cinema io capisco però così non se ne può veramente più nel senso che devo aspettare due anni un anno e mezzo per vedere la seconda parte di questo Dune Dune bellissimo film ripeto bellissimo per tantissime cose con una sonora di Hans Zimmer che pesta al punto giusto gli attori molto bravi il testo da sé vale l'eccellenza e poi Villeneuve porta avanti comunque il suo idea di fantascienza la sua idea di fantascienza anticapitalista in un certo senso una scienza completamente unica in questo senso perché anche se col flop per il sottoscritto del non riuscitissimo Arrival però insomma c'era sempre un'idea che il nostro porta avanti e in Blade Runner 2049 l'era riuscita la stragrande e qui idem siamo di fronte a un film che cerca di stare attento all'opera di partenza per cercare di riportare perlomeno le esperienze perlomeno la sensazione però il nostro buon Denise cerca di fare il suo film e come al solito fa il suo film le immagini valgono tantissimo il corpo del nostro i suoi sensi come ho detto lo risvegliano e riportano alla luce presente passato e futuro che però potrà cambiare a seconda di quello che lui vedrà assolutamente fatto da Dio ora il problema ripeto è che non è un film completo e quindi possiamo solo parlare di una prima parte se poi la seconda farà schifo e saranno grossi problemi perché il film andrebbe giudicato tutto insieme così si può dire che la prima parte è veramente interessante è scolpita riesce a rendere Ebert benissimo e soprattutto riesce a dare l'idea anche a chi non conosce Ebert di qualcosa di completamente differente per esempio da tante altre spese opere che più molto più famose che comunque tutti hanno pupato da questo dure basterebbe vedere anche Vermone insomma Vermone l'hanno pupato da tutte le parti ma proprio l'idea la concezione è stata fregata da 1600 film fantascienza fantasy e non quindi un film che secondo il sottoscritto non poteva non finire tra il meglio dell'anno è un filmone è un film è tanta roba peccato che è il primo tempo del film un'altra volta io rimango finisce così arriva dai frame buongiorno e grazie e quindi tutta la parte diciamo la seconda parte che poi è anche quella più epica in un certo senso più fantasy e ancora è tutta la vedere se si pensa che il personaggio che era interpretato da Sting nel film di Lynch Wimman che è arrivato insomma che il robot computer si è visto mezza volta l'uomo computer si è visto mezza volta insomma è un classico film che purtroppo vive della sua bellezza visiva vive della sua grandiosità a livello espressivo vive di una grandissima fotografia di una messa in scena gigantesca cinema al mille per mille questo è un film che è la sala cioè Villeneuve sa di fare grandi cinema per grandi sale e grande intrattenimento in mezzo a tutta questa arte arte proprio nel saper creare questa musica nel saper creare questo tipo di costumi scenografiche sono spettacolari ripeto ci sono degli squarci e delle inquadrature che sono magnifiche ogni inquadratura in realtà a sé sarebbe qualcosa da incorniciare proprio come fosse un vero quadro un film li lasciano basiti io sono rimasto colpito a tale livello proprio perché conoscendo bene il libro conoscendo le Jodorowsky's Dune conoscendo il Dune di Lynch mi aspettavo di trovare un film noioso in fin dei conti perché sapendo gli avvenimenti più o meno invece Villeneuve sposta comunque ancora di più l'attenzione sui demoni del nostro giovane protagonista e sul suo futuro e lo fa con uno sguardo interessante e al solito di ricerca del personaggio nel senso che se vediamo i suoi film molti dei suoi film sono proprio basati sulla accettazione e la ricerca del proprio io di cosa siamo dentro e questo sposta l'attenzione di tutto Villeneuve in realtà però riuscendo a semplificare un po' il libro ma senza lasciarne da parte l'afflato epico e quella forza modernista e soprattutto diciamo così mondiale nel senso della parola molto meno americano centrica qui siamo di fronte a un'opera serissima un'opera che nonostante due o tre punti di ironia messi al punto giusto regala delle scene fantastiche la scena in cui vogliono ammazzare il nostro Paul Atreides in realtà è qualcosa di incredibile veramente perché ha una tensione enorme poi è un film ripeto le scenerazioni sono poche ma funzionano stragrande dove i caratteri sono già ben messi in chiaro e dove il film e dove la magia del cinema sembra nascere inquadratura per inquadratura c'è poco da dire chi non ama Villeneuve ama i cazzi suoi chi non ama questo film problemi suoi il film è bellissimo ripeto diventa difficile fare un giudizio pieno perché non è un vero film nel senso che è una metà di un film quindi il giudizio complessivo forse sull'opera sarà bene darlo quando ha finito l'altra parte del film Villeneuve ma è per ora di fronte a questo non possiamo altro che gioire e sperare che la prossima sia almeno a questi livelli così abbiamo un grande film una di fantascienza che era un bel po' che non ci sapeva e crolla anche il mito di poter fare un Ebert simile al libro senza snaturarlo come possiamo vedere perché insomma tutti dicevano lo stesso di Lynch però qui sembra proprio che almeno secondo il sottoscritto il film abbia un amore enorme per il libro ma riesca comunque a riadattarlo per un'altra arte ovvero quella scenatura ma non letteraria mettendo da parte molte molte pensieri quasi tutto basato su quello molte spiegazioni anche tecniche che devono essere specificate più dall'immagine dall'inquadratura come ho detto e dalla scelta appunto del nostro regista con i suoi movimenti di macchina piano sequenza meravigliosi effetti speciali stupendi uno di quei film che è un blockbuster di quelli che hanno un'anima enorme uno di quei film che rimarranno secondo me nella storia della fantascienza se la seconda parte sarà a questi livelli perché è veramente un mezzo capolavoro ora poi vediamo insomma qui funziona tutto bene mi dispiace per i retrattori ma funziona veramente tutto bene Hans Zimmer come ho detto si misura e con questo percussioni ci porta avanti tutto il film aiutato da un sonoro magistrale aiutato da una recitazione a tratti veramente gigantesca e aiutato soprattutto da una messa in scena con i tagli di fotografia espressionisti durante poi l'avvenenamento con quei tagli incredibili quel senso di chiusura e se poi si pensa in realtà poi anche a tutti i modi in cui il nostro utilizza determinati spazi per mettere in scena determinate cose e si pensa a quando entra il nostro pol per fare l'affare della mano dentro la mano per la madre cattivissima appunto che o metti la mano se il dolore se no ti ammazzi se lavi la mano che è una bella scena anche sull'inch ma troppo carica di discorsi qui invece è una scena che vive sostanzialmente di immagini e vive di una messa in scena intorno diciamo ai personaggi che è enorme si perde tantissimo del barocco diciamo linciano e si torna più a un'idea estetica quasi medio orientale specialmente sul pianeta Arrakis appunto quindi per me questo è un filmone io poi non so cosa arrivi non si riesce a non rimanere attaccati al film è un film tesissimo pieno di tensione pieno di idee pieno di voglia del regista di mettere in scena qualcosa in modo così perfetto così pulito senza mai però dimenticarsi di sporcare nel momento giusto la scena nell'acqua nera in questa specie di olio del nostro cattivissimo Arkonen che riviene fuori è qualcosa di incredibile l'epicità la potenza di questo film è enorme speriamo che e ripeto è sempre più difficile farlo che non venga tutto sputtanato dalla seconda parte del film e che Vinnev caschi picchi la testa e non capisca più dove mette la macchina appresa perché qui ogni punto diciamo così di macchina appresa dove è stato messo è stato studiato perfettamente magari sul momento magari è stato anche improvvisato ma il regista non ne sbaglia uno cioè ogni punto macchina ogni stacco di montaggio ogni momento in cui la fotografia vira con colori scuri colori chiari colori che vanno sempre di più chiaramente su Arrakis a espandersi verso il colore del deserto la scena magnifica dove ci sono tutte le palme che lui dice che ha portato che devono bere come 20 persone al giorno è qualcosa di fantastico per farci capire in che condizione e in che mondo ci sta trasportando il regista senza dover mai per forza utilizzare troppo voci narranti o romperci troppo coglioni con spiegoni incredibili il film vola via che è una bellezza due ore e mezzo che paiano venti minuti quindi per me per ora è un grande film e speriamo di vanno il meglio di Sura di Vestan speriamo che si spesca velocemente la seconda parte così capiremo insomma se questo Dune vale veramente la pena di essere considerato una migliore film di fantascienza almeno degli ultimi 30 anni per ora la prima parte lo è però se la seconda non arriva a questi livelli sarà un po' un problema ma credo proprio che Denis non ci tradisca anche perché la seconda parte diciamo è quella che dovrebbe essere più d'azione più carica e che quindi forse potrebbe garbare ancora di più al pubblico e dovrebbe essere un po' più semplice a livello diciamo di messa in scena da dover fare non per il casino che ci sarà perché le battaglie saranno un casino enorme ma insomma dovrebbe essere una conclusione si spera che sia una conclusione degna di questo primo capitolo che doveva essere tutto un film insieme ma che come al solito di studios e un po' anche la pandemia il covid hanno martellato e distrutto tenendocene metà film è andato bene uscirà la seconda parte ne siamo tutti felici Villeneuve è un grande regista mi dispiace perché Peckhead sa al contrario ma secondo me così è e i suoi film sono qui a dimostrarlo questo veramente è un filmone incredibile siamo di fronte a un'opera mastodontica gigantesca tratti che lascia storditi per la sua essenzialità per la sua modernità e per la sua post modernità un film assolutamente da non perdere aspettando però la seconda parte mi viene da dire più un primo tempo incredibilmente da non perdere aspettando il secondo sperando che sia su questi livelli mega produzione cinese però di grandissimo livello 50 milioni di dollari di budget per un film che si vede che ce li ha tutti e non sono stati spesi per niente male perché questa storia fantasy l'eroe dei due mondi questa storia fantasy cinese appunto diretta da Yang Lu è la dimostrazione che il cinema cinese l'avventura è d'azione avanti l'oriente vola è una storia bellissima questa l'eroe dei due mondi uscita anche da noi l'ho già consigliata ma la riconsiglio vi leggo la trama così la trama ve la leggo precisina a modine il magnate della high tech Jay Moore capo del gruppo Aladino fa rapire dalla sua assistente un uomo di nome Joan Gunn che da tempo ha letteralmente stravolto la sua vita per cercare Tangerin la figlia scomparsa da sei anni compito di John è uccidere il vlogger il romanziere Leon un ragazzo che è in grado con i suoi romanzi di influenzare i corsi degli eventi sulla terra John riesce ad avvicinarsi al ragazzo tra i due mondi abbandona il suo spirito omicidio per aiutare il ragazzo entrando nel romanzo e quindi entrando in un'altra realtà sfidare l'impero di Lord Redman e spezzare la connessione col mondo reale una volta tanto una trama scritta messi da è così la trama più o meno è uno di quei classici film che riescono prima di tutto non c'è nessuna disconnessione fra i due piani è uno di quei classici film che riesce a mescolare il piano fantastico e il piano reale in maniera enorme finché a un certo punto la realtà non diventa quasi più fole della fantasia ci sono degli effetti speciali bellissimi un'altra volta una computer grafica utilizzata con garbo belli effetti digitali in più un gruppo di attori veramente tutti tutti in gran forma è un film adrenalinico è un classico film che parte forse un sordino prima scena meravigliosa poi parte un po' in sordina cerca di prendere i suoi tempi i tempi di questo che scrive loro che lo guardano su internet non capisci dove vuole andare a parare quest'altro che ha perso la sua figlia non si capisce dove l'ha persa forse nell'altro mondo non sto a dirvi tutto perché se no a film no i sordizi ve lo sputtano un film che boh avenne quando un film d'avventura diventa così diventa un classico film che parla in realtà di cose molto più ampie perché un film d'avventura stupido lo sanno scrivere tutti ma i cinesi chiaramente all'interno ci mettono un'altra volta l'etica della famiglia dell'idea della mancanza di minorismo del collettivismo come scelta di possibilità per aiutare gli altri c'è dentro l'idea appunto della famiglia proprio intesa come padre, figlio madre che non è quella classica e manichea divisa dicotomica europea o americana dove c'è la famiglia la buona quello cattivo qui non esiste quasi questo diciamo che nel mondo fantastico la divisione tra bene e male chiaramente è più netta in un certo senso perché è un mondo fantastico nella realtà in realtà non c'è qualcosa che è bene o è male c'è la realtà e in questo film la cosa incredibile è che la realtà è molto più pericolosa di un mondo dove c'è i mostri i lord che ti vogliono far fuori oltre al fatto che il protagonista è veramente mostruoso è bravissimo e riesce a regalarci veramente un film incredibile con la bambina che è brava anche lei è un classico film che ha dalla sua parte tutta la tecnica cinematografica che serve per raccontare una cosa del genere e questa è una cosa importantissima perché così il film non esagera se non è un film che ogni due minuti ha bisogno di effettone speciale spaccare tutto si piglia tutti i suoi tempi proprio perché il montaggio è perfetto nelle scene d'azione è fantastico non è che si accavalla la nosa sull'altra vedi tutto nelle scene di tensione in seguimento si riesci ad essere teso perché il regista usa benissimo per esempio le musiche usa benissimo la fotografia una fotografia che è molto più cupa nel mondo reale che non nel mondo della fantasia dove i colori si accendono vesti gialli vesti rossi dove i blu la fanno da padrone dove anche le costruzioni diciamo non voglio dire altro sembrano decostruite a livello visivo quasi un tunnel un vortice di falsa realtà di illusione che diventa magia e all'interno di questa magia il nostro deve riuscire a capire tantissime cose sia della vita che della morte che insomma di tutto quello che c'è nel mezzo quindi un film per niente stupido non siamo di fronte a Jungle Crisis non siamo di fronte alla classica avventura con due stronzi che devono saltare da un ponta in alto alla Tomb Raider qui siamo di fronte all'avventura in realtà che parla di cose grosse l'ho detto parla di amore famiglia morte stato conoscenza cultura lettura parla di 6.000 cose immaginazione e lo fa tutto attraverso un racconto di formazione e crescita se vogliamo è questo formazione e crescita sia per gli adulti che per i ragazzini e poi in mezzo a tutto questo non manca il grande cinema d'avventura come ho detto è fantasy perché i combattimenti levano di uro i mostri sono bomba gli effetti speciali sono intoccabili per i soldi poi che ha il film non è da 250 milioni e inoltre il ritmo finalmente è di quelli orientali cioè si accende a momenti diventa teso altri ma cerca di raccontare con calma una storia senza buttare una cosa sull'altra che arriva in fondo non ci capisce un cazzo si prende tutti i suoi fottuti tempi infatti il film dura fortunatamente due ore e dieci cioè si prende tutta la sua calma non è che in un'ora e venti va, fa, spacca, arriva, vimbo torna a casa e buongiorno chi si è visto e anche il finale che a tratti potrebbe sembrare facile e consolatorio non è così guardate questo film questo è un classico film dovete far vedere i vostri figlioli di 10, 12 anni 8 anni si divertiranno come pazzi e capiranno quali sono le cose importanti nella vita che non sono i soldi che non sono da possedere che non è niente di tutto questo ma è l'amicizia l'amore la voglia di voler bene agli altri la voglia di dividere quello che abbiamo anche la propria cultura la propria esperienza con tutti questo dice il film ma alla fine chiaramente mascherato da una confezione fantastica che rende il tutto fruibile alla stragrande e quindi mai pesante quindi che cosa c'è di meglio che un film di formazione che però non rompe i coglioni nemmeno per un minuto e che alla fin fine lancia un messaggio fortissimo ma lo fa sottovoce e i sottotesti a volte come si dice sempre sono a volte più forti dei sovratesti perché se te ci proponi sempre quell'idea tutto il film ma alla fine quest'idea è quasi più confutabile del film stesso perché la forma va a scozzare questo film invece riesce a raccontarci una storia d'amicizia d'amore e di anche di società che è devastante e devastata attraverso però un racconto che non si ferma mai diciamo così a cercare di darci la lezioncina che nessuno vuole questo è un film che insegna che è un'altra cosa ma non te le impone come scelta ed è fantastico è un film che non vuol dirti come siamo tutti buoni siamo tutti belli siamo bravi col cazzo è un film che ti vuole mostrare il mondo com'è ma attraverso il fantasy cosa c'è di meglio per un adulto è una cosa meravigliosa perché puoi accendere la tua parte bambinesca e in più rimanere acceso anche con l'idea politica l'idea sociale o la tua idea di cinema per un bambino invece è ancora più bello perché la sua idea fanciullesca è un film del genere vuole altissima perché è piena di idee di regia di fantasia di animazione proprio una meraviglia in tutto questo e in più anche se non arriva diretto in realtà poi l'idea dell'immaginazione può essere utile della cultura questa è una cosa che in realtà anche se infilata nel film senza alcuna forza arriva con forza invece a chi la guarda quando è piccolo perché distanzia una cosa di questo tipo da una cosa puramente ludica modello sonic dove non succede in cazzo non impari un cazzo e c'è uno stronzo di affaretto e rotea e dice puttana tutto il film è lì la differenza il bimbo che guarderà questo film non farà come con Luca lì della Disney che vorrà svegliarsi con la Vespa ma quando crescerà vorrà finalmente capire e capirà perché il mondo è così bello quando si fa qualcosa anche per gli altri questo dice il film il link è qua sotto se non vi garba problema vostro questo è un grande film grande film d'avventura il migliore forse dell'anno allora altro film secondo me di quelli veramente bomba questo è un film un thriller dei migliori secondo me degli ultimi vent'anni c'è poco da dire pur essendo chiaramente un thriller che ha dalla sua una sceneggiatura che rimembra altri 15 classici che possono essere Misery non deve morire di Stephen King che è anche citato nel film nel senso che mi pare la dottoressa della farmacia si chiama proprio Katie Bates non a caso come l'attrice protagonista grandissima di Misery non deve morire e poi il film chiaramente cita che fine ha fatto Baby Jane e cita quasi tutti i film i thriller da camera perché la storia è molto semplice poi ripeto quello che la fa diventare molto più interessante sono intanto la prova attoriale delle nostre due protagoniste sia Sarah Paulson nel ruolo della madre Diana che sembri abbia dedicato tutta la sua vita proprio a la sua figlia Chloe interpretata alla stragrande da Kiera Allen che col suo sguardo illumina veramente lo schermo la storia appunto allora è questa qui la storia di questa ragazza Chloe è una ragazzina che però ha dei grossi problemi nel senso che sta aspettando di andare all'università e sta aspettando la risposta insieme alla madre appunto però il problema della nostra è che è nata con delle gravissime malattie prende tutto e non riesce a camminare su una sedia a rotelle inoltre ha dei grossi problemi al cuore e quindi anche per questo deve prendere delle medicine in più al diabete senza dimenticare che si sveglia e per colpa di tutte queste medicine sta vomita per un quarto d'ora come si sveglia quindi una povera ragazza che cerca in tutti i modi di arrivare a fare quello che può nella vita aiutato appunto da questa madre coraggiosissima di Anna solo che a un certo punto un giorno la nostra quando la madre gli cambia una medicina si rende conto che questa medicina non gli torna la va a cercare da una farmacista e forse tutto quello che ha fatto la madre fino a quel momento non è quello che la nostra si aspettava di più vi voglio dire guardatevi il film perché è un filmone anche questo lo trovate in dvd metterò il link vi sotto un blu ray e questo è un grande film secondo me c'è poco da dire è un duetto clamoroso delle nostre due attrici una più brava dell'altra che riescano a dare spessore a un dramma thriller tesissimo veramente tesissimo perché se per i primi 20 minuti entriamo subito dalla prima inquadratura magnifica la prima sequenza che va a vedere lei appena nasce la bimba con questa bimba distrutta in primissimo piano questa neonata che poi noi scopriremo il colpo di scena che non vi dico quindi è meraviglioso e ce ne saranno due o tre di fila è un classico film appunto d'attesa uno dei classici film in cui l'orrore esplode grazie alla tensione alla creazione della suspense che arriva fino a un certo punto e il regista per almeno tre quarti di film quel punto non te lo fa mai superare cioè ti tiene sempre col fiato sospeso per poi esplodere nell'orrore in realtà negli ultimi quarti d'ora 20 minuti nell'orrore puro nonostante non ci sia niente di esoterico o chissà cosa tutto è molto realistico e ripeto la sceneggiatura tra l'altro è ottima riecheggiando i classici di Aldrich chiaramente riecheggiando le meraviglie di un certo tipo di cinema anni 40 50 e 60 a livello di noir anche a livello proprio di estetica di messa in scena Hitchcock domina su tutti i movimenti di macchina un certo tipo di fotografia slavata che cerca di essere sempre in linea con la sequenza che sta raccontando quindi un regista che cambia molto la fotografia cambia molto da interni ed esterni e riesce a giocare tantissimo sugli sguardi dei nostri attori e riesce soprattutto a giocare su quel frebilissimo filo che tiene insieme una trama come ho detto sentita mille volte perché una ragazza che una donna un uomo che vengono praticamente messi su un letto da una donna che gli vuole bene ma che forse gli vuole troppo bene che forse quindi non sta facendo quello che deve fare si è visto mille volte a livello di pratica che fino a fatto Baby Jane e venì giù ma qui però siamo a un discorso diverso un'altra volta come dico sempre io non è quello che si racconta a volte ma è come si racconta e questi due registi lo raccontano benissimo questa storia non eccedono mai in dialoghi eccessivi non eccedono mai nel sangue quando non serve non eccedono mai nella ricerca assoluta per forza del salto sulla sedia che non gli interessa e invece riescono a concentrarsi su quello che fa grande un thriller di questo tipo cioè gli ambienti cercare di far diventare gli ambienti che sono intorno a questa ragazza all'inizio che sembrano in realtà dargli il sollievo e la vita lei che riesce ad agguantarsi lei che riesce a vomitare lei riesce a caminare quindi questi ambienti che sembrano voler bene a che gli sta intorno essere fatti appositamente per dargli quello che gli serve invece poi piano piano che scopriamo che va avanti il film in realtà sono messi in quella condizione per cercare di non scaprire quello che davvero a lei serve e quindi in un certo senso è un film stranissimo il nostro utilizza questi interni nella prima parte i primi 20-25 minuti con delle luci che sembrano quasi affievolire il tutto sembra di essere in un piccolo pezzetto di magia dove la nostra riesce a avere tutto in tutto perfettamente al posto giusto sempre in un momento giusto quindi riesce a fare tutto da sola ad alzarsi farsi colazione fa tutto quello che deve fare grazie appunto all'aiuto di una madre che in tutti questi anni gli ha dato una mano quando incomincia a cambiare i sospetti della nostra incominciano a diventare certezze vediamo che il regista incomincia a restringere la profondità di campo a restringere l'idea degli obiettivi a cercare di rinchiudere quindi la nostra proprio nelle stesse fareti che sembravano volerla liberare in un certo senso dalla sua immobilità totale che è quella dell'inizio sul letto restituitando ancora più noia dell'ambulanza quindi per me veramente un filmone non è il migliore thriller degli ultimi 20 anni la Paulson finalmente dopo il grandissimo film con Shyamalan Glass e altri film dimostra di essere un'attrice proprio da cinema una faccia che sfonda spacca grandissima sia quando è addolorata sia quando è incazzata sia quando nega sia quando nega se stesso che è ancora più difficile nell'ultima parte e poi troviamo appunto questa ragazzina mai vista prima parte che sfonda lo schermo dall'inizio alla fine bravissima una parte molto difficile perché deve fare l'inferma quasi per tutto il film e cercare di trascinarsi dietro le gambe è una delle cose più difficili che si vede sullo schermo vediamo sempre muovere magari un ginocchio o qualcosa anche ai migliori attori questa pare veramente che le abbiamo sparato nella spina dorsale non si muove e riesce a cambiare proprio anche il modo di guardare il modo di muovere le mani il modo di muovere le spalle nel momento in cui si rende conto che qualcosa sta per cambiare in più quel finale fantastico con la madre sul letto non vi voglio dire niente è veramente un altro tocco di grandiosità perché un film che poteva sembrare in maniera buonista come finale tutto in realtà ribalta il tutto e riporta ancora una volta le conseguenze verso la persona che ha fatto determinate azioni e queste conseguenze tornano nelle stesse azioni che la stessa ha fatto e non vi voglio spiegare come in una maniera magistrale e geniale proprio a livello di messa in scena quindi per me questo run che ho consigliato già in video l'ho consigliato con le foto l'ho consigliato in tutti i modi e lo riconsiglio in questo meglio e il peggio perché per me è un gran filmone e thriller così senza effetti speciali senza gente vola senza nulla e scoppia ma giocati essenzialmente sulla messa in scena sulla scrittura sulla recitazione sulla fotografia e il montaggio ovvero il cinema è praticamente un pezzo rarissimo di questi tempi e oltretutto non è che è valido solo perché se come a me mi ricorda Ichiko bello belli bei tempi no no è un bellissimo e grande film thriller che si rifà certamente ai classici che possono andare appunto da John Huston per passare a Orson Welles fino a Ichiko e arrivando addirittura appunto a certe intuizioni kingiane di scrittura per arrivare a tirare fuori un classico film di quelli che ti lasciano proprio soddisfatti alla fine ne vorresti ancora di più e quindi questo è un atto diciamo di buona salute del cinema perché quando finisce un film e vorresti durarsi un'altra ora anche se come questo durano i 40 e il suo vuol dire che il film sta funzionando alla grande inoltre è un film come ho detto che finalmente è arrivato al cinema e che meritava alla stragrande il grande schermo perché è dotato appunto di una grandiosità di una bellezza visiva che è rara da trovare nei film diciamo così nei thriller da camera come questo che solitamente comunque sono ben più teatrali ecco la grandiosità anche di questo film secondo me è che i due registi non sono assolutamente teatrali ed anzi usano i primissimi piani i piani larghissimi e i movimenti di macchina che in teatro sarebbero impossibili per dare ancora più movimento diciamo così narrativo alla storia che secondo il sottoscritto è di molto una bomba seppur chiaramente di riporto di altri mille ma mi importa anche una sega visto che il film va via che è una bellezza il link di run è qui sotto acquisto anche questo obbligato come più o meno tutti questi di quest'anno tre perché insomma per me sono i migliori ma con run siamo tra i migliori 20 se vogliamo è veramente una bomba di quelle che non vi dovete far scappare nemmeno per il scherzo altro film meraviglioso di questa annata è un film splendido che ho avuto la fortuna di beccare in una sala proiettato e di lì in poi ricerca assoluta per il supporto che ho trovato estero l'altro anno e non avevo messo nel milione il peggio perché mi sfuggì e non era scritto sull'almanacco sull'annuario quest'anno c'è e quindi non posso altro che non consigliare quella meraviglia di Saint Maud di Rose Glass un dramma horror thriller psicologico di quelli che non si dimenticano assolutamente nella storia di Maud questa donna ex infermiera che è stata licenziata perché ha fatto un danno grosso sul lavoro che non vi sto a dire e che è diventata praticamente una badante privata che va in casa delle persone gli tocca un lavoro anche se lei non vorrebbe più perché dopo quel casino che le è successo a fare l'infermiera non vorrebbe più lavorare ma scopre Dio scopre Dio e in questa sua follia della scoperta divina va appunto a lavorare in casa di questa ex ballerina di questa ex donna famosissima piena di amore per la vita che in realtà però è purtroppo bloccata a letto perché ha un tumore e sta per morire la nostra inizia ad avere un amore viscerale per questa donna con la quale inizia a pregare per la sua vita e questa sembra dargli ragione a un certo punto però cosa succede la nostra litiga con questa donna e il suo cervello una volta viene licenziata va completamente di fuori già un'era stabile prima di più un velo poco posso dire di questo grandissimo film appunto di questa rose grass che tira fuori un film fenomenale che tra sprazzi di grandissimo cinema modello Brian De Palma che Harry secondo me è alla base anche se qui poi è interessante come sia in realtà raccontato quasi dagli occhi della madre di Harry e della sua follia e il film è un film bellissimo ha dei tempi meravigliosi una fotografia e a dir poco eccellente con quei colori quando sono pastellati i blu con quei colori verdi che si accendono lentamente durante le visioni e quei meravigliosi gialli arancioni che rendono il tutto quasi un dipinto del 500 la regista dà un tocco morbidissimo i suoi movimenti di macchina sono lievissimi eppure sempre sensibili a ciò che vuole raccontare e riesce a dirigere un gruppo di attori fantastici tutti veramente in grandissima parte la protagonista è enorme ovvero Jennifer Hale qui è bellissima e bravissima riesce a fare la parte di questa psicopatica legata alla follia della religione in maniera eccellente così come sono bravissimi tutti gli altri da Lily Fraser a Morfitt Clark veramente un cast azzeccatissimo una fotografia enorme e una musica ma una musica gestita in maniera perfetta così come sono gestiti in maniera perfetta i silenzi grazie anche ad un montaggio curatissimo un montaggio perfetto secondo me una sceneggiatura quasi intoccabile questo per me è un mezzo capolavoro uno di quei film che è stato criticato tantissimo e che per me invece è eccellente a dir poco proprio perché diviso nei suoi tre atti riesce a colpire in ognuno è duro e forte il primo atto dove conosciamo la nostra mood dove vediamo la sua religione che la fa vivere così e quindi la prendiamo in un certo senso anche quasi in simpatia una persona che ha subito dalla vita e che continua a subire e che ha fatto un danno grosso quasi non per colpa sua che però riesce a trovare in questa voce divina perché lei parla sempre con Dio convinta che Dio gli risponda proprio perché lo sente di fare la cosa giusta di essere sempre sulla via retta per poter tornare ad essere la donna che era prima del casino che aveva fatto all'ospedale tutto questo però la porterà in realtà ad un concetto appunto di religiosità che è più dannoso per chi crede che per chi non crede e tutta la prima parte gioca in questo modo la seconda parte invece è più ambiva quando lei viene licenziata la nostra incomincia a scoprire il mondo nelle cose che secondo lei non ha mai fatto il sesso e altre cose e poi la terza parte dove tutto esplode e diventa la parte più horrorifica dove la nostra si farà il martirio anche proprio per non sentirsi all'altezza di un Dio che non gli parla più e che poi gli riparlerà e lo porterà a quel grandioso e meraviglioso finale finale fantastico nero fuoco colori meravigliosamente accesi una specie di come posso dire dipinto semidivino che poi in un secondo diventa fiamma urla il titolo finale meraviglia un film meraviglioso ripeto qui siamo di fronte a un'opera di quelle stratificatissime un'altra volta ci parla della modernità e di come la religione possa se porti maniacalmente a credere solo a quello ad essere così chiusi e vivere solo per questo in realtà ad essere una cosa che porta il pensiero umano non a qualcosa di positivo ma semplicemente alla follia alla ricerca di qualcosa che possa rendere vivi appunto una vita che ormai sembra persa come quella della nostra protagonista che si aggrappa a tutto si aggrappa a una voce divina che in realtà è quella interiore probabilmente ed è un film su questo che non fa una piega ripeto qui non è una donna vessata dalla vita certo vessata da ciò che gli è successo ma è già problematica e che aggiungendo in realtà la problematica della religione non riesce a salvarsi ma anzi si porta alle estreme conseguenze proprio per il suo pensiero che in realtà nella sua bontà di pazienza come può essere una religione diventa malato proprio per l'eccesso e per il fanatismo che essa gli ha creato portandola ad essere quel tutto quello che non voleva essere un film come ho detto secondo me quindi perfetto uno di quei film che io guarderò all'infinito lo farò vedere a tutti i miei amici perché è un dramma incredibile un dramma che parla di morte di solitudine parla appunto di due personaggi completamente speculari la nostra che ha un fisico in perfetta salute ma la mente un po' andata e che crede in tutto quello che vuole di religioso per darsi forza nella vita e l'altro personaggio quella della malata che in realtà ha un fisico che non ce la fa più ma una mente che vorrebbe fare tutto quello che in vita ha sempre voluto fare quindi feste droghe la sua omosessualità sfacciata con un'altra donna alcol ed è quindi una donna in realtà distrutta nella mente perché cerca e nel corpo di poter essere qualcosa che non sarà mai più mentre l'altra è speculare proprio perché pur essendo distrutta nel corpo nella mente è tu è in rinascita ecco in quell'altra invece è vicina alla morte ed è incredibile come questi due caratteri vadano in contrasto su determinate cose che sono anche diverse per classe se vedete non voglio dirvi altro per me questo è veramente un filmone uno di quei film che dovete riscoprire per forza il link lo metto qui sotto spero veramente che esista donate su Patreon mi piace iscrivetevi al canale tutte le cazzate il peppolino vi per fare le notifiche tutto l'anno oltre questo mille e peggio che sono contento che tutti vogliate vedere ma spero guardare anche gli altri video insomma per finire questo Saint Mode sono uscito dal seminato un secondo è il classico dramma psicologico che riesce come ho detto a unire Brian De Palma riesce a metterci dentro un po' di Lars Von Trier anche un qualcosa del neo cinema horror a la Ari Ashter un po' di Raw se vogliamo un po' di Thelma c'è un po' di tutto all'interno però è un film in realtà che poi con l'ultima inquadratura quel flash quell'urro quel fuoco insomma il tutto si richiude e diciamo l'opera esplode nella sua grandiosità un film secondo me impossibile da perdere il link ripeto è qua sotto un film che per me è già un capolavoro vediamo se reggerà col tempo per adesso mi ha colpito mi ha flashato in maniera talmente grossa che non vedo l'ora di potermelo rivedere 20.000 volte con altra gente che non l'ha visto perché a vederlo già più di 5-6 volte da solo mi sembra di essere un po' impazzito anch'io come mod detto questo guardatelo un film assolutamente da non perdere questo lo dovete comprare assolutamente se non esiste la versione italiana scrivete post e spingete perché esista perché è impossibile che io non si possa vedere un film del genere se non on demand spero che esista la versione italiana se esiste me la comprerò anch'io perché un anno fa un c'era qui sotto il link se c'è straniero o no perché questo ripeto è obbligato uno dei migliori film degli ultimi 20 anni per me non dell'anno uno dei più divertenti film dell'anno violentissimo ma divertentissimo che non si prende molto sul serio seppur insomma tratta un argomento abbastanza serio appunto quello della difesa della famiglia in un certo senso in un mondo come questo il film è io sono nessuno il film è particolare in un certo senso perché è un classico John Wick da uomo comune in un certo senso se vogliamo proprio per la faccia la schiaffi del nostro protagonista aiuto che cazzo dicevo il regista il russo presumo Ilya Viktorovich Najsuller dirige questa storia con grande mano a livello tecnico si vuola via e questa storia insomma diciamo del John Wick e dei due altri nel senso che la storia è questa più o meno il nostro è il classico uomo di famiglia media borghese americano tutto a modino con la famiglia camicina acquolettina penina dentro sembra tutto a posto chiaramente sottostimato sottovalutato e un po' maltrattato da tutti cosa succede un giorno rientrano dei ladri in casa praticamente lui non fa un cazzo perché c'ha la moglie e la figlia lì e lascia che i ladri facciano quello che devono fare finito tutto questo nonostante minacce tutto il nostro rimane tranquillo e insomma viene però maltrattato dal figlio che gli dice che sei un debole del cazzo e la moglie che gli dice sei un signor nessuno non ce n'è me indifeso questa cosa fa montare in lui una rabbia enorme perché lui non sappiamo bene il suo passato non ve lo dico nemmeno io una ragazzina allora si alza e li sfarina tutti proprio con una violenza enorme nonostante pigli sei mila cazzotti nel muso e uno lo manda praticamente in fin di vita all'ospedale che cosa succede quello in fin di vita è mi pare il figlio di uno dei maggiori capi della droga mafiosi russi che ci sono in città che quindi prendono di mira lui e la famiglia lo vogliono far fuori e di lì tutta la rincorsa del nostro che sempre più violenza sempre più violenza fino a una catarsi finale assoluta allora bisogna subito dire che il film non si prende se è molto sul serio l'ironia a palla di foo ogni tanto sembra di essere di fronte a un cartone animato non è affatto un film giustizialista chi l'ha visto così si deve pensare ad altro certo il regista e il sceneggiatore hanno detto che in effetti tutto nasce da un'idea perché a questo uomo gli hanno rubato tre volte in casa tre volte o ladri e lui ha detto tutte e tre volte ho pensato la mia famiglia di rinchiudere la camera e di vai vai rubate e ci hanno portato via roba senza troppi danni il pensiero è stato però se attaccassero un uomo comune che ha qualcosa da nascondere come poi reagirebbe al suo dover star fermo in quel momento e in più siccome noi abbiamo avuto un'evoluzione come avrebbero reagito i nostri bisnonni se ti entrava uno in casa per rubà gli tiravano una fiascata in testa probabilmente quindi un discorso molto particolare sull'America sulla violenza e su come la violenza in realtà diventi divertimento quindi è un film assolutamente per niente stupido però è ironico prende in giro in realtà un certo tipo di situazione da supereroe ok? perché qui l'eroe è infallito piglia più cazzotti nel muso lui di vanti ne dà e in più poi il regista che cosa riesce a fare in un film d'azione becca le scene d'azione che sono tutte girate benissimo c'ha un ritmo fantastico le musiche di David Buckley sicuramente aiutano perché sono notevoli e il montaggio ritmato e la sceneggiatura di Derek Stolder funziona benissimo proprio perché riesce a dividere i suoi due e i tre atti in modo molto lineare non si perde mai di vista la narrazione di fronte non siamo un capolavoro ma siamo un film d'azione a me mi ha divertito proprio nella sua idiozia che non è tale proprio nel suo essere pieno pieno zippo di idee di messa in scena di recitazione perché il protagonista è splendido ma sono bravi tutti compreso un grandissimo resa e una parte magnifica è un classico film di quelli che bisognerebbe amare proprio divertircisi e poi sinceramente da regista di hardcore che era un filmetto del cazzo che sperano tutti mi aspettavo veramente di peggio da questo musicista rusto veramente di peggio invece qui dirige con veramente bella mano insomma un classico film di quelli che nascondono chiaramente l'identità di un protagonista che sarà molto di più di quello che ci vuole dire in questo forse ricorda addirittura il story of violence volendo e che ha poi dall'altra parte invece il classico alla John Wick c'è poco da dire lui che ammazza tutto quello che cammina ma ripeto la faccia del protagonista e l'ironia di sottofondo elimina tutto il reparto diciamo se vogliamo così conservatore azionario che un film del genere potrebbe portare avanti per me è un film divertentissimo proprio a livello politico non ci ho letto nulla se non proprio la rabbia di un uomo che è costretto a vivere sempre dentro quadrature borghesi sempre in quella vita pulitina 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 e che pur pur facendo bene il suo lavoro pur essendo un bravo marito pur essendo facendo il giusto viene trattato come un signor nessuno e allora a questo punto la signor nessuno diventa un signor nessuno incazzato che ammazza tutto quello che cammina certo chiaramente un po' di ironia c'è i russi sono i cattivi come al solito non vorrei stupidi come mine è crudelissimo ma ripeto siamo di fronte a un fumettone un film che riesce a divertire proprio perché è azione pura non è stupido è divertente critica l'america critica quasi tutto ma lo fa senza mai avere la moralina dietro e senza mai dover dire la giustizia privata è interessante film d'azione commedia nera che ci si diverte inutile chiedere più a un'opera insomma che ci dà quello che vogliamo divertimento sfrenato senza mai dove spengere il cervello perché comunque come ripeto ci sono due tre appunti alla società stessa americana e alla società nel mondo che non sono così da poco quindi io non sono nessuno è un film fantastico ripeto proprio per la recitazione dell'attore che un'altra volta diminuisce ancora di più la possibilità di rendere il film inaccettabile a livello etico un film di quelli che se amate l'action se amate le rincorse se amate la roba buona e volete vedere qualcosa tipo From Paris with Love io vi troverò ma senza film senza la trama di merda ma con una bella trama e che ci si diverte questo io lo sono nessuno è il film che fa per voi proprio perché la faccia e la stiaffi del protagonista è meravigliosa la regia è fatta di lusso e in più non ci si annoia nemmeno per un minuto poi è chiaro c'è chi dirà che è un film di merda chi è un bel film e chi cazzo ce l'hai messa a fare sono cazzi miei il link è qua sotto per me è un film d'azione mi ci sono di verità bestia è una commedia del genere non la vedevo sempre insomma per me un film d'azione si ameriano è sempre un piacere nel magma e nel marasma di quelle puttanate di gente col mantello e l'occhialini un film memorabile questo un film di produzione giapponese difficilissimo da spiegare tre ore di poesia in scena di epica e di amore di una storia appassionante e avvincente sin dal suo inizio perché è un film molto particolare questo del regista Yusuke Amaguchi che adatta il racconto Drive My Car di Murakami della sua raccolta Uomini senza donne in questo film narra la storia di Yusuke Kafuku che praticamente deve mettere in scena un'opera di Shekhov a Hiroshima per un laboratorio teatrale e di lì praticamente il nostro che è abituato a memorizzare i testi durante il viaggio in macchina praticamente ha bisogno praticamente di un autista con la quale all'inizio chiaramente sembra riluttante non vuole avere alcun rapporto e che con la quale in realtà poi piano piano incomincerà ad aprirsi e scomincerà a relazionarsi a scoprire tutta la vita di uno e dell'altro che si andrà a mescolare in queste tre ore di narrazione meravigliosa ora bisogna dire subito che in realtà il film inizia con il nostro e la moglie che lavorano insieme praticamente che si danno una mano tra una coppia ottima perfetta dove lui è regista e lei soprattutto è scrittrice ma anche televisiva e quindi si adoperano per fare insieme un lavoro di echipi in un certo senso e darsi una mano l'uno con l'altro finché un giorno lui non torna a casa e non scopre che la moglie praticamente lo incorna e questo lo rende dubbiosissimo anche se pensa che la donna lo abbia sempre amato e nonostante diciamo così sia stata infedele il giorno in cui la donna stessa voleva parlare con lui e discutere di questa cosa ha un'emorragia celebrale e muore e quindi inizia il film in realtà perché per i primi 40 minuti del film se eseguiamo questa storia poi stacco netto titoli di testa e parte l'altra storia che vi ho detto e qui c'è poesia pura attraverso delle immagini costruite con una grazia enorme e con una forza di messa in scena incredibile i nostri attori protagonisti uno più bravo dell'altro è un film che è molto più corale di quello che sembra perché poi noi conosciamo tutti quelli che lavorano intorno al teatro è una specie di perfetto passo per farci capire l'amore per farci capire l'amicizia per farci capire il lavoro di un artista e per farci capire anche come un grandissimo regista qui perché veramente questo regista dall'idea di aver fatto 6500 film di essere un veterano riesce a trasportarci perfettamente con dei movimenti di macchina a volte fluidissimi con dei piani fermi con dei dolli splendidi con della macchina presa attaccata ai nostri personaggi riesce a raccontarci l'animo umano riesce a raccontarci le nostre paure il nostro amore il perché magari viviamo di che cosa i nostri ricordi hanno bisogno di che cosa la nostra mente di quali ricordi ha bisogno la nostra mente quindi è un film molto molto particolare un film chiaramente lento un film che cerca di parlare dell'animo umano e lo fa attraverso dei personaggi fantastici interpretati da Dio come ho detto poi la musica è splendida la fotografia è da urlo è un montaggio perfetto Simone Fonte ha tre ore di film e tutti i secondi di ogni questo film servono non c'è un minuto di più né un minuto di meno un'opera eccellente ha vinto la migliore sceneggiatura mi pare a Cannes se la merita tutta perché è una sceneggiatura veramente formidabile una messa in scena strepitosa qui siamo di fronte a un film che se non è il migliore degli anni poco ci manca qui siamo di fronte a un film che lascia sbalorditi c'è un'altra volta Giampone ci dimostra come la grazia la potenza la forza della loro messa in scena sia altamente superiore a tratti a quella occidentale e qui siamo di fronte a un film che si è avvincente in ogni momento seppur di una tristezza a volte straziante perché è veramente difficile tirare fuori qualcosa per non dire troppo di questo film è un film del quale parla da solo c'è un film in questo straziante via viaggio per conoscere se stessi per conoscere gli altri per cercare anche di capire che cosa si è stati e che cosa si sarà è veramente commovente è veramente pieno e zeppo di idee proprio idea di messa in scena idea di fotografia idea di tutto è uno di quei classici film che andrebbero visti 650.000 volte che purtroppo ho potuto vedere una volta sola ed è incredibile perché l'ho visto una volta sola e mi è rimasto in mente quasi un anno fa mi è rimasto in mente una maniera incredibile proprio perché ogni sua inquadratura sembra che esca di natura che non sia stata assolutamente studiata per quanto è perfettamente montata con l'altra cioè un film che vive di piani sequenza che non si vedono che vive di un montaggio che è inesistente e che quindi è perfetto una classica regia che sembra non esserci e che invece porta avanti il tutto con una potenza enorme enorme proprio perché riesce a non mai il proprio regista a voler giudicare mai a voler essere oppressivo verso personaggi riesce a farci narrare una storia che di suo è perfetta e che viene narrata in questo modo così semplice fluido lineare pur essendo spostato avanti e indietro in alcuni momenti ma che ci riesce a far capire anche a livello proprio mentale com'è il lavoro di queste persone anche a teatro e tutto il resto tutto questo però affrontando l'idea della morte l'idea dell'essere lasciati l'idea del tradimento l'idea dell'amore oltre il sesso qui è un discorso ampissimo naturalmente molto orientale dove la dicotomia fra il bene e il male ciò che dobbiamo fare e non dobbiamo fare è sempre molto più meno limitante in quel senso di quella nostra quindi c'è un film splendido che ha appunto come suoi palcoscenici quello appunto delle prove del teatro e la macchina l'automobile con la nostra attorno a tutto questo girano appunto tutti questi personaggi e noi scopriamo che il nostro protagonista in realtà così emotivamente intimista ma anche abbastanza egoista da pensare sempre a se stesso in realtà scoprirà se stesso e scoprirà il modo per farlo attraverso la scoperta degli altri l'apertura verso tutto ciò che lo circonda un film appunto che è fatto anche di incomprensione di parole fantastica la scena in cui ognuno parla una lingua diversa al tavolino per me è un'opera difficilissima da dover recensire per me è un'opera che volevo metterci perché è un film che mi ha lasciato basito perché uno dico classici film che non sai bene come spiegare un po' come era quel film meraviglioso di Deo Rivera in mezzo al mare dove tutti parlavano una lingua diversa e oppure tutti si capivano con un Malkovich straordinario country in the neve enorme è un film parlato appunto qui siamo di fronte a un regista che ha già dimostrato il suo grandissimo talento in altre firme ma che qui secondo me raggiunge livelli inimmaginabili altissimi e che perlomeno toccano le mie corde in maniera assoluta l'arte che si mescola il teatro alla vita vera la vita vera che diventa teatro e alla fin fine il tutto in realtà è questa meravigliosa voglia del nostro regista e dello sceneggiatore di raccontare appunto una storia che sia corale sì e che parli di tutto quello che ci circonda attraverso proprio la storia di un personaggio unico come ho detto che finalmente scopre la bellezza di aprirsi agli altri completamente e dagli stessi recupera insomma pezzi della sua vita che potevano andare persi un film meraviglioso di quelli che lasciano il segno a chiunque l'abbia guardato e che un'altra volta riporta in fronte a tutti noi la grandiosità di un cinema quello giapponese in special modo che riesce a parlare dei sentimenti in maniera così semplice eppure così complete tre ore di complessa ma in un certo senso facile assimilazione anche per noi perché le emozioni e l'idea di ciò che proviamo nel mondo è uguale in tutti i paesi seppur mutuata in maniera diversa dalle proprie espressioni appunto un film della lingua un film che mette a confronto se stessi e la ricerca individuale che finisce quando si scapisce che con la forza degli altri si può essere ancora più forti che da soli e con la propria ricerca unica e questo nostro kafuku impara veramente a capire dagli altri che cos'è la sua vita quindi di più mi voglio più aprire i suoi spazi aprire la sua mente e anche la sua auto a un'altra persona magnifici tutti gli attori uno dopo l'altro non li sto a nominare perché in giapponese sono uno più difficile dell'altro ma sono veramente dei mostri straordinario tutto del film in particolare come ho detto la regia del nostro che fra primissimi piani piani fissi e movimenti di macchina lentissimi riesce a trasportarci in questo mondo enorme grazie anche alla sceneggiatura scritta dallo stesso e da Takamase Oe che insomma si rifà come ho detto al racconto di Murakami quindi che dirvi di più questo per me è un film non consigliato straconsigliato se poi uscirà in un video compratevelo alvoro se lo vedete in qualsiasi perché questa è un'opera assolutamente straordinaria è uno dei migliori film dell'anno Drive My Car un film impressionante del quale non sono nemmeno io in grado secondo me a livello intellettuale di parlarne più di tanto è un'opera che parla da sé trovatela e vedetela c'è poco da dire James Gunn tranne che per la sceneggiatura orribide dell'alba dei morti viventi remake di Romero ogni cosa che tocca la trasforma in oro primo su 6 squad penso sia una delle cose più brutte che il genere umano abbia mai creato quindi non avevo molte speranze del film di James Gunn nonostante avesse speranze in lui ma pensavo fosse un po' troppo legato dalla DC a fare cose un po' a cazzone serissime invece lo spirito di James Gunn esce tutto da questo film che non poteva finire nel meglio che nel meglio visto che è un film bellissimo un film di supereroi tra i migliori mai fatti sicuramente non è un caso che ci sia James Gunn tra i quattro migliori mai fatti di supereroi c'è sempre la sua firma questo su 6 squad missione suicida ovvero su 6 squad 2 scritto da Gunn diretto da Gunn è veramente una bomba una sorpresa di quelle enormi diciamo che la Walker tira fuori una squadra suicida per andare ad assaltare l'isola cortomaltese anti-americana dalla quale sono stati uccisi vecchi dittatori e ce n'è venuto fuori un altro dittatore che però a differenza degli altri che era amico degli americani stavolta è particolarmente nemico qui la nostra manda una squadra diciamo capitanata dal grande Michael Rucker che non sa che in realtà c'è un'altra squadra capitanata da Idris Elba che deve fare in realtà il vero lavoro e quegli altri sono completamente sacrificabili di lì in poi tutta la storia dei nostri appunto che devono andare a distruggere questo dittatore e poi in sotto in realtà c'è una storia di fantascienza con un alieno una cosa meravigliosa di cui andremo a parlare tra poco quindi personaggi fantastici in questo film veramente fantastici James Gunn già tira fuori un'idea di una messa in scena coloratissima schizzatissima super 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 splatter quindi attenti cuori che non amano il sangue perché qui il sangue è a fiumi certo l'ironia è anche a fiumi così come anche il sesso cosa molto strana per un film di super eroi dove il sesso viene quasi sempre bandito e qui ci troviamo dei personaggi enormi se lì Idris Elba nel suo carattere ovvero Bloodsport prende l'eredità di un Will Smith spentissimo di Suicide Squad qui invece è un grandissimo Idris Elba Margot Robbie per quanto faceva a calzo personaggio di Suicide Squad e in Bird of Ray qui diventa un personaggio magnifico magnifico la scena di lei che va con il criminale poi tutta la parte secondaria con l'utilizzo della musica della fotografia di un montaggio straordinario ci porta dentro un personaggio e una sua tristezza una sua crudeltà che però viene fuori con un'armonia assoluta con il resto del mondo di questo film un mondo devastato dove anche gli eroi sono più antieroi degli antieroi stessi poi il cast funziona più o meno tutto anche John Cena a fare pacemaker del quale faranno lo spin off peccato perché il personaggio è meragarbato di meno comunque anche lui funziona Kineman come colonnello flag è un bel personaggio sono tutti ganzissimi quello che spara i puoi è geniale quella specie di topone gigante che il nostro dice ha ammazzato una marea di bambini sono geniali tutti in realtà se stiamo a guardare proprio per come sono scritti pazzi al limite della meravigliosità Michael Rucker che appare nei primi dieci minuti è meraviglioso con i suoi capelli bianchi ammazza l'uccellino subito con una pallina sono tantissime le sequenze una più bella dell'altra fino ad arrivare poi a veramente a quella follia di quella specie di Kaiju gigante a stella marina che io ho amato proprio per come è messo in scena all'interno di una storia strepitosa per ritmo come ho detto per montaggio Ruskin e Wagner in questo senso fanno un lavoro enorme le scene d'azione sono fantastiche per come sono girati i ralenti finalmente al punto giusto nessuno scavalcamento le regole del cinema che quando belgono non rispettate hanno un loro senso nel loro essere spezzate finalmente grande cinema con i grandi supereroi e ci voleva James Gunn per fare un grande film con supereroi che quest'anno ci hanno regalato praticamente solo spazzatura poi che dire del grande King Shark insomma l'uomo mezzo squalo che dovrebbe essere una presa di uno di acqua gigantesca tra l'altro doppiato da Stallone in originale poi c'è la bellissima ragazzina che fa Ratcatcher 2 che anima tutti i topi ed è grande qui il rapporto fra i topi e Bloodsport e ripeto Polka Dotman con i suoi pallini che spara i puoi con l'immagine della madre è qualcosa di completamente al di fuori di una illogica supereroistica eppure questo è il miglior film di supereroi della DC mai fatto degli ultimi 30 anni c'è poco da dire e se non fosse per i Guardiani della Galassia sicuramente più centrati probabilmente di questo e preferibili in toto al film però qui Gunn la dà completamente di fuori non si prende sul serio un secondo spacca ammazza tutto eppure alla fin fine la critica di un'America che dice di odiare alcuni nemici e invece sono i suoi migliori amici esiste perché Gunn comunque è un regista politico è un regista sociale ed è un regista fantasticamente leggero in questo riesce a parlare di cose serissime di cose importantissime come la famiglia qui la morte il tradimento una patria che non è più la tua patria dei cattivi che sono tali proprio perché una società forse li vuole come te stessi e lo riesce a fare con una leggerezza incredibile eppure tutto questo arriva arriva perché il film è veramente bellissimo in tutti i suoi sensi perché anche la sceneggiatura scritta da Gunn stesso funziona alla grande il massacro iniziale è straordinario e tutta la parte centrale è a dir poco azzeccata e il finale è completamente folle e adorabile quindi cosa vi posso dire di un film che ha delle sequenze d'azione girate perfettamente alla commedia che vola via a una 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 demenzialità ecco nel suo essere così folle che non si avvicina mai alla demenza però è proprio la follia la pazzia di qualcuno che inserisce in un blockbuster qualcosa che nessun altro ci avrebbe mai inserito secondo me gliel'hanno fatto fare proprio perché col covid il cazzo doveva incassare poco ha pagato 150 ha incassato 150 noi li siamo pari ma poi con l'on demand e tutto il resto avranno fatto miliardi ma detto questo il film se li merita una volta tanti a uno di quei film che non ne parla già più nessuno di un male per parlare a tutti dell'uomo ragno di merda l'ultimo film orribile del cazzo questo è un grandissimo film non va lasciato lì dov'è va ricordato perché così finalmente continueranno a fare dei grandi film si spera dopo questo lavoro incredibile di James Gunn che ripeto dimostra un'altra volta di essere uno dei migliori registi degli ultimi 30 anni e che ha una mano assolutamente eccellente sia anche quando deve diventare drammatico ripeto la scena con Harley Quinn e con altri due o tre personaggi che sfiora il dramma è a dir poco geniale poi i discorsi sono tutti credibili e come ho detto la messa in scena è di quelle che non si dimenticano il nostro riesce a inseppare un blockbuster di sesso sangue violenza parolacce di tutto quello che non potrebbe mai far parte di un universo che in realtà regalerebbe soddisfazione solo a bambini di 5 anni James Gunn è un bambino di 5 anni probabilmente che però ha tutte le malizie e la grandezza di un uomo di 50 e quindi butta dentro tutta la follia bambinesca del suo cinema mescolata a quella invece adulta e ne viene fuori un concentrato assolutamente indimenticabile anche per il sottoscritto perché se non siamo di fronte a un capolavoro però siamo di fronte a un grandissimo film di supereroi farne meglio di così di quelli della DC è veramente difficile e James Gunn ci è riuscito insomma uno che mette una stella marito gigante starlo come mostro finale senza nemmeno riadattarlo dai fumetti che lo fecero negli anni 80 per me è semplicemente un genio finale esilarante eppure drammaticissimo con un dopo un sotto finale ancora più interessante guardate questo film perché secondo me è un vero gioiellino della dei cinecomics un film superioristico così non se ne vedrà molti di film superioristici così perché sono film cattivi intelligenti crudeli e che fanno divertire a bestia ma di sicuro non sono assolutamente bambineschi sono adulti anche nel loro essere così idioti a volte volutamente alla von Trier se vogliamo parlarne proprio adeguatamente quindi che dirvi di più il link di sui Sands Squad Missione Suicide è qui sotto James Gunn è un mezzo genio ogni cosa che tocca è ora ho già fatto mi pare una recensione Patreon per questo film di più non posso so cosa dirvi funziona il ritmo funziona la musica si parte già con Fall Son Prism del grandissimo Johnny Cash per poi annellare una delle canzoni più belle dietro l'altro chiaro ci sono i deja vu dei supereroi che arrivano a Rale il Fovele però tutto questo fa insomma parte del gioco un gioco stavolta veramente bello e divertente cosa chiedere di da un cinefometto altro film altra corsa e naturalmente non poteva non entrare in questa mio meglio e peggio l'ultimo film che è uscito da noi di Mika ovvero l'ultimo Yakuza grandissimo film di Takashi Mika Takashi Mika regista ogni volta che lo spiego forse il più prolifico del mondo per quello che lavora in 30 anni e poco più più di 120 film chiaramente negli ultimi anni ha un po' diminuito ma non troppo la sua pressione sul cinema fortunatamente naturalmente da noi non è arrivato quasi un cazzo quest'ultimo Yakuza invece è arrivato fortunatamente nei cinema e poi in DVD e quindi sono qui a parlarne è la storia di questo Leo un giovane pugile di promettente bravissimo che dopo un incontro ha un malore e crede di avere qualcosa che non va va dal dottore che gli dice che ha un tumore e che entro un mese morirà a pochi giorni di vita allora il nostro dispiaciuto cammina per la strada e un giorno salva una ragazza che sta scappando da un tipo e presente sdraia questo vicino un cazzotto scappa con questa ragazza e non si rende conto di aver sdraiato in realtà un poliziotto che questa ragazza era stata messa in mezzo da dei trafficanti e quindi gli stessi lui e lei sono seguiti appunto da questo poliziotto corrotto da un membro della Yakuza che li vuole far fuori da un membro della triade cinese e da una donna particolarmente violenta e abilissima con la spada insomma il film poi è così è uno dei film più movimentati se vogliamo di Mickey è uno dei più leggeri in quel senso nonostante con Mickey ci si trovi sempre di fronte a delle scene assolutamente assurde e surreali in alcuni momenti però il film è fotografato in maniera meravigliosa quasi al neon questi colori accesissimi questo digitale è sparato con questi colori fortissimi questi viola questi rossi questi gialli che sono eccezionali specialmente in interno in tutta l'ultima parte quando vengono rincorsi dentro il magazzino e diciamo c'è uno spiccinio fra di tutti è a dir poco eccellente eccellente anche l'idea appunto di una fuga in auto che non poteva essere fatta a livello di budget che il nostro costruisce appunto trasformandola in animazione altro colpo di genio gigantesco e poi sono i personaggi a colpire veramente sono i personaggi scritti benissimo e soprattutto messi in scena da Dio da un amico che come al solito non scrive la sceneggiatura ma la adatta al suo stile quindi gli eccessi ci sono chiaramente ci sono eccessi di sangue eccessi di violenza ma è quello che colpisce è un certo tipo di umanità e il rapporto fra questi due fra questa ragazza tossica sfatta e lui che diventa un salvatore suo malgrado in un certo senso convinto di dover morire e quindi è convinto di poter fare quello che cazzo li pare in un certo senso e anche stare di fronte a una pistola e ridere carica sapendo ormai della sua condizione e il film viaggia appunto su tre binari quello dell'action che funziona benissimo cioè le parti d'azione sono tutte messe in scena e girate da da amiche in maniera esemplare c'è la storia d'amore che è praticamente perfetta proprio perché è girata con una grazia uno stile unico da amiche che non lascia da parte assolutamente i dettagli della sua messa in scena non lascia da parte tutto quello che lo renderà e l'ha reso sempre più famoso ovvero movimenti di macchine esterici piano sequenza infiniti racconti spezzati da raccordi di montaggio assolutamente ineriti è un movimento di macchine dei piazzamenti della macchina stessa che hanno sempre l'idea di qualcosa di originale che portano sempre a una narrazione non sono mai buttati lì a cazzo di cane e amiche dimostra un'altra volta di poter gestire ogni genere questo gira dal dramma alla fantascienza al supereroi movie al film per ragazzi al film per la televisione quasi alla sopopera questo ogni cosa che tocca la rende comunque incredibile questo ultimo Yakuza pur essendo probabilmente non un capolavoro dei film di Miche anche se io li amo tutti come fossero figli me non so perché un regista insieme a Sionsono che adoro in maniera enorme Kurosawa Kiyoshi Tsukamoto sono quegli autori giapponesi della nuova ondata anni 90 che sono veramente indispensabili e quest'ultimo Yakuza è indispensabile anch'esso per capire la potetica di un certo autore che mette sempre dei perdenti di fronte alla macchina da presa ma perdenti che sono perdenti per una società che li vuole tali e che non accetta assolutamente le diversità e che li sfrutta fino in fondo naturalmente a un'altra volta la critica alla società giapponese è enorme il maschilismo e il maschismo e un'altra volta il pugilato così come per tanti film di Tsukamoto come metodo modello anche per cercare di sfogare le proprie frustrazioni attraverso uno sport che rende lecite le cose che in realtà in questo film fanno per tutto il tempo durante la strada uno sport che appunto riesce a portare il nostro eroe su un piano diverso proprio mentale il suo combattimento con la ragazza è quasi quello che è un combattimento su un ring quindi non si lascia mai per vinto riesce sempre a rialzarsi quando casca fino al meraviglioso a dir poco finale dicevo quindi un mic probabilmente più leggero in alcune cose del mic più pesante o più diciamo così intellettuale la gozu isu o bing bang giovani la o altri grandi suoi film tipo visitor q qui siamo più dalle parti appunto di un cinema yakuzziano sì ma in un certo senso il titolo era completamente sbagliato perché qui l'ultimo yakuza non c'è c'è una yakuza e basta e manco è l'ultimo il titolo era perfetto first love perché lui si innamora per la prima volta e il primo innamoramento gli fa cambiare tutto il sistema di vita fino al meraviglioso finale ripeto un'altra volta quindi per me questo è un film assolutamente da comprare il link è qua sotto è un film da non perdere l'ultimo yakuza un'opera maestosa a tratti che descrive un giappone tra l'altro bellissimo a livello visivo ripeto le parti notturne le parti interne sono tagliate con dettagli di fotografia quasi a tratti espressionisti e che danno la voglia anche di un certo tipo di pop e di goticità e invece le parti giornaliere sono trattate con luci quasi completamente naturali e quindi la descrizione del giappone che noi vediamo in giro è praticamente perfetta e realistica allo stesso tempo per quanto è irrealistico tutto ciò che in realtà potrebbe succedere poi all'interno della pellicola perché di Mike stiamo parlando quindi che vi posso dire di più grandissimo film di yakuza grandissimo film d'amore grandissimo film d'azione questo è uno di quei film che in molti hanno criticato dicendo ma Mike che film ha fatto e io invece che non critico affatto e dico meno male che Mike c'è e continua a fare film di questo tipo quindi grandissimo Mike il link è qui sotto l'ultimo yakuza che io pervenisco a chiamare first love uscito da noi con un po' di ritardo del 2019 ma perlomeno è uscito e lo potete acquistare come ho detto qui sotto capolavoro per il sottoscritto ma per il sottoscritto lo sono il 90% dei film Mike quindi non è che sia molto obiettivo in tal caso ora che l'ho visto 5-6 volte posso dire che questo old di Night Shyamalan al di là dei certi tane di cineggiatura che paiano fatte per le orchiate di mare da quanto sono grosse cioè delle bue così però è strano questo film non so riguardandolo da 650 volte appunto questo old ho quasi paura che quelle botte di cineggiatura che sono quasi tutte attaccate negli ultimi 5 minuti siano quasi un pretesto per Shyamalan ci ho pensato perché lui una sceneggiatura così bucherelata non l'ha mai scritta in realtà quindi probabilmente non so se ha voluto in realtà fare una sceneggiatura così chiaramente surreale per quello che succede per rendere in realtà ancora più reale quello che succede nella realtà cioè il nostro mondo non so come farvi capire però parliamo prima del film la storia è questa vi alla base è una famiglia vanno in vanza carai mi pare tropici vincono questa specie di ripremio di vanza vanno in vanza in questo villaggio vacanze strafigura contro un'altra persona un poliziotto fanno amicizia con altre famiglie e tutti sti cazzi arriva il capo resort e gli dice guarda visto che voi siete famiglia simpatica bella e buona vi si portano un posto in leva di uno una spiaggia meravigliosa che nessuno vuole e vedrai che lì vi divertite di brutto e loro fanno vabbè perché no partano un gruppo vanno in questa spiaggia il problema è che da questa spiaggia non si torna perché non si può tornare indietro se non svenendo e che ogni ora praticamente passata lì sono tipo 10 anni 6 anni mi pare una cosa cioè 6 anni ogni ora e che quindi i nostri precocemente invecchiano o crescono addirittura i bambini o ne nascono di nuovi i nostri poi arrivano su questa spiaggia e chiaramente ci trovano altri quindi ci trovano anche una psichiatra col suo marito e poi ci trovano il capo del dipartimento di medicina di New York con la moglie e poi ci trovano un rapper in un angolo spaventatissimo e il cadavere di questa modella che però sembrerebbe essere lì da decenni di lì parte tutta la trama loro incominciano a capire che il tempo passa rapidamente e cercano di capire come sfuggire ora Shyamalan gioca tutta la prima ora sull'azione della macchina da presa perché azione in campo praticamente non ce ne sta se non per quella scena bellissima che prova a salire di sotto e si sbriciola o per la scena in cui una è malata con le ossa che si riscompongono troppo velocemente e si sbriciola dentro questa ossa che lascia veramente anche Basiti come scelta la Shyamalan nella prima ora secondo me non sbaglia niente niente al di là della scritta hanno zone non c'entrate la gente c'entra a cazzo di cane però sto ripetendo secondo me questa forse è una visione dello sguardo di Shyamalan che tende a far capire come lo sguardo probabilmente inteso proprio la vista la percezione dell'umanità adesso sia molto limitata e che quindi non si guardino in realtà attorno non guardino nemmeno che c'è scritto non militare i zone probabilmente ce lo fa vedere a noi con l'inquadratura da vicino di non entrare gli altri veramente ricchi convinti invitati vanno cioè ormai la società è così tutto molto veloce senza dare troppo troppa importanza a quello che vediamo quando ti dicono portati da mangiaggiù per una settimana e ci devi stare a quattro ore perché non la lasci lì perché non ti interessa più stare a discutere litigare vai a fare la vacanza e poi boom in cinque minuti Shyamalan non è che è grandissimo perché non costruisce stavolta la tensione in mezz'ora per farla esplodere la costruisce in cinque minuti e poi la disinnesca come una bomba cioè lui ti sta lì per un'ora e dieci con questa bomba che te vedi il timer che sta per scoppiare io l'ho vista così proprio e quindi fa stare la tensione come se tu dovesse scoppiare la bomba quando alla fine poi ti fa vedere che ci esce uno scherzone un clown non è una bomba vera e questa è l'impressione che mi sembra voler dare Shyamalan voler non quasi girare un horror e un thriller ma in realtà voler parlare di un certo tipo di valori familiari dell'amicizia del tempo il tempo che è relativo è esternamente proprio cioè è relativo nel senso che i ragazzini che crescono a differenza di loro che ci muoiono vedono il loro tempo passare in maniera molto normale quindi per loro crescere ogni ora di sei anni non sembra destabilizzarli quindi è anche una scena che a me non torna ma in realtà che mi pare mi era parza la prima volta una gran cazzata la quarta quinta però ho pensato ok questi hanno quarant'anni trent'anni però il cervello è di quarant'anni ma la preparazione dello stesso no quindi la paura della morte la paura dell'invecchiare non esiste quasi per loro per quello che hanno un certo tipo di innocenza nella fuga quindi mi piace è rivalutata questa cosa e poi c'è una fotografia porca puttana cioè io andare al cinema quando l'ho guardato mentre lo guardavo ne nemmeno una parola quando sono uscito sono stato mezz'ora a dire quanto mi era piaciuto e quanto mi facevano c'è alcune scelte ora le scelte che mi facevano c'è non le sto qui a discute prima di tutto perché se no mi dite come mai ti fa un film che ti fa cattere e quattro cose non avete ancora capito che mi possono garbare film che mi fanno c'è anche per un'ora basta in venti minuti e si accende per me è un grande film ve l'ho detto semila volte ma poi ho detto visto evito perché sono tutti alla fine e se vi dico cosa non mi torna è che piano piano mi torna sempre di più ma che non mi torna vi devo dire come va a finire il film e non mi pare proprio il caso ma è proprio un film sullo sguardo un film in cicocchiano a bestia la finestra sul cortile è proprio citata c'è questo che spia spia continuamente ciò che avviene come ho detto appunto l'idea del tempo che passa l'idea della famiglia che sembravano tutti sgretolati arrivano su quell'isola sono tutti sgretolati incredibilmente questo tempo che passa velocemente questa mancanza appunto di tempo riunisce determinate cose invece di dividerle ed è una cosa bellissima e in questo è classico in questo è forse conservatore se vogliamo dire addirittura Shyamalan più che progressista cioè la famiglia intesa come proprio sistema chiuso la stessa che ti salva in realtà la coscienza quindi un certo tipo di spiritualità io non ho assolutamente che però mi piace nei film di Shyamalan ma anche clamorosamente e spirituale e questo vi ogni tanto è anche un po' baciapile se vogliamo in un certo senso con questa criminalizzazione se vogliamo della scienza un po' all'acquetta di rose secondo me ma detto questo però il film è proprio terribile cioè c'è una regia che passa da movimenti di macchina se ne parlava prima con Fabrizio che per far capire che uno non ci sente più si sposta lentamente fa alzare i rumori fa abbassare le voci poi sposta sempre più di là sfoca lei mette a fuoco dietro e lei non sente più un cazzo e li fai a mazza e ma non è una cioè per la prima ora è tutto così è una meraviglia per fare un'inquadratura del cazzo del mare invece no si inventa sempre un tocco in più ma non per forza di movimento è anche di piccola angolatura di qualcosa messo a fuoco qualcosa no sul grande schermo è un spettacolo micidiale Shyamalan dimostra un'altra volta di essere anche lui come Scott uno dei migliori esteti dell'universo e oltretutto scrive una sceneggiatura che parte da un fumetto che non aveva l'inizio e la fine ma sono l'isoletta dove la gente invecchiava quindi oltretutto è un film molto personale su qualcosa di non personale che diventa subito Shyamalan proprio per questo senso della fede continua per questo senso della mancanza della stessa in realtà che opprime ancora di più personaggi che devono ritrovarla per sentirsi meglio specialmente in una situazione come quella dove la religione potrebbe forse aiutare nel vero senso della parola e poi come ho detto funziona sul piano puramente di genere perché il film è teso non c'è versi te quando incominciano a invecchia fai ma che cazzo succede questi trombano i figlioli nasce una figliola che poi muore subito un casino cioè nel momento sei proprio preso dal caos del mondo moderno all'interno di un'isola di una spiaggia però che col mondo moderno praticamente non ha mai avuto nessun contatto se non con la morte esterna eppure in questo microcosmo ci descrive tutto quello che non funziona la violenza verso le donne è così la mancanza di attenzione dei nuovi genitori verso i figli poi vedrete perché in che scena dico e Shamanan secondo me la società di oggi si perde troppo nel pensiero di fare cazzate nel pensiero di essere presi da cose futili da non capire appunto che piano piano invecchierai e questa paura in realtà diventa paradossalmente una cosa positiva perché loro specialmente l'ottimo perché poi il cast lo leggo ce l'ho qui Gael Garcia Bernal e Vicky Cripps che sono moglie e marito mi pare Rufus Ewell è il dottore di New York Alex Wolfe è l'uomo di colore Thomas McKenzie poi è Billy Nicky Amadou Beard che è Hong Kong è Richard Schleyman li voglio di tutti anche se è un lì conosco Aaron Pierre Emazet Davids e Moon Elliot questi fanno un lavoro tutti fenomenale anche perché poi ci sono i bambini che diventano più grandi devono poi affrontare determinate scelte che sono assolutamente da adulti e a quel punto sono soli ma ripeto è un film che funziona per tutto ripeto questi attori sono in grande parte proprio in grande parte il nostro giovanissimo il nostro ex diario della motocicletta Garzia Bernal proprio dona grande forza al suo personaggio così come tutti gli altri perché Schleyman li lascia liberi in un certo senso la macchina da presa è sempre nascosta se noi vediamo le riprese sembrano fatte come se qualcuno stesse sempre osservando e quasi in realtà quando uno si avvicina tantissimo alla macchina da presa tipo così sembra quasi che sfondi sempre la quarta parete cioè se in realtà non guarda così guarda sempre un po' di lato alla macchina da presa e quindi ti dà sempre l'intenzione che ti stiano guardando te i protagonisti e invece poi usa campi larghissimi o per esempio quando scoprono un cadavere morto l'inquadratura te non capisci lì per lì perché sono spaventati perché te vedi un'inquadratura da sotto con tre affari che sembra un pezzo di legno invece ti capisci da loro cosa stanno dicendo che te stai guardando attraverso il costato di qualcuno che ormai è sensibilmente morto ma da secoli perché a quel punto te ne accorgi quindi il nostro Shyamalan piazza la macchina da presa dove non ti aspetti inserisci le personaggi fantastici fa una critica sociale gigantesca non solo come ho detto a livello di religione o a livello di famiglia o a livello di disattenzione a livello del tempo che non sappiamo più che cosa serve perché ormai sembra che passi tanto per passare e quindi questo sì è interessante ma ripeto quello che veramente poi colpisce è che c'è 3-4 punti che ti mette una strizza incredibile cioè quando lei è tutta rotta la cosa del bambino cioè rimani proprio porca troia ecco è uno di quei classici film che quando esci non vi voglio dire se finisce bene o male ma è intuibile quando esci comunque ti lascia sempre una sensazione strana e hai voglia di parlarne finito il film chiunque usciva dalla sala mi ricordo stava parlando quando lo do qui in videoteca o quando lo guardo a casa parlo con qualcuno è un film che fa discutere perché è un film talmente pieno di grandissime cose secondo me due o tre scivolate così enormi che non capisci come fanno a stare così insieme e funzionare il film allora a quel punto c'è questo cortocircuito nel mio cervello cinefilo che mi dice ma perché Shyamalan non lo può aver fatto a cazzo c'è qualcosa ancora sotto e nonostante l'ho visto 5-6 volte totalmente questo qualcosa non l'ho trovato e forse non lo troverò mai però mi porterà e infatti l'ho comprato a guardare altre 100 volte questo film quindi non poteva che finire il meglio e il peggio e poi detto fra me e voi io se esce un film di Shyamalan ce lo metto sempre a priori manco se l'ho visto mi importa una sega perché tanto film veramente da vomito io sono dell'idea che non l'ha mai fatto nemmeno vanno affatto film brutti perché è un mezzo genietto e sicuramente Old secondo me non vale la trilogia Unbreakable Split e Glass che ha fatto ultimamente perché avevano una forza distruttiva che il film non ha questo e poi avevano un'originalità che non era questa lì si è creato un mondo qui comunque ha preso tre quarti da un fumetto però questo Old forse a differenza di quello che comunque giocava anche con i gusti del pubblico e voleva essere un po' ruffiano ecco diciamo che questo Old è fatto per non piacere a nessuno secondo me è un film che è commerciale zero nella sua in realtà partenza molto commerciale i primi quarto d'ora molto ritmo sembra chissà poi boom il film a quel punto fa io qui ciò da discute di società religione medicina morte vita invecchiamento paura di morire paura delle malattie essere chiusi essere rinchiusi ce l'ha parlato di 6700 cose e lo faccio allegoricamente con una spiaggia e 18 inquadrature i dialoghi sono pochi e perfetti e poi il finale la butta completamente lì fuori Shyamalan si riparta si ritaglia al solito una bella parte per lui e il film è come al solito con Shyamalan per me un po' bipolare c'è dei giorni che lo considero un capolavoro dei giorni che lo considero un grande film mancato oggi sono diciamo così ma è presa bene sono nel mezzo non è un capolavoro non è un grande film mancato è solo un grande film se per solo insomma si può dire solo in questa diciamo condizione perché insomma per me solo in questo momento vuol dire che insomma siamo di fronte a uno dei migliori film degli ultimi dieci anni e un'altra volta guarda caso è firmato da quel genio che è M. Night Shyamalan non poteva mancare nel meglio di quest'anno il capolavoro di Edgar Wright il suo film secondo me è migliore mi vogliano male tutti quelli che amano la sua trilogia del cornetto che io adoro perché reputo che comunque abbia fatto un altro paio di capolavori il nostro Wright perché per me Shaun of the Dead e la fine del mondo sono due capi d'opera e questo Ultima Notte a So secondo me è il massimo che questo regista ci poteva dare almeno per il sottoscritto perché nella storia di Eloise questa ragazza di campagna che sogna di andare a Londra per diventare una stilista fissata con la Swinging London che ascolta i 33 giri di quegli anni che cerca di ricreare uno stile anche di quel tipo nelle sue creazioni riesce a entrare con una borsa di studio a una delle accademi di moda più alte di Londra quindi la nostra ti trasferisce armi e bagagli nonostante sia praticamente orfana viva con la nonna dopo che la mamma si è suicidata mamma che noi vediamo subito all'inizio del film essere vista dalla nostra che ha dei poteri di parlare con gli spettri chiaro sin dalle prime tre inquadrature insomma dicevo va a questa scuola quando arriva lì non si trova troppo bene trova un lavoro e decide di andare a dormire in una casa diciamo da un'affitta camera quando entra in questa camera si addormente la prima volta nel sogno entra nel corpo e viaggia nel tempo fino agli anni 60 e segue la storia di Sandy questa donna bellissima che è praticamente questa ragazza che va a Londra negli anni 60 per diventare una cantante lì per lì il tutto sembrerà quasi un sogno realizzarsi per la nostra invece il sogno piano piano diventerà un incubo la storia è tutta qui ed è bellissima quindi il film è stato liquidato molto spesso da una critica al solito che esalta magari l'ultima merda di Spider-Man lì del cazzo con 600 universi e non esalta un film di questo tipo che viene anche detto maniera insomma così così questo è un grande film questo è un capolavoro un capodopera un'unione incredibile fra Mario Bava Hitchcock Polanski il musical e la swing in London anni 60 una regia formidabile due attrici la McKenzie e Annatella Joy una più bella e brava dell'altra una messa in scena mostruosa questo film è diviso in tre atti perfetti il primo atto dove la nostra arriva incomincia a scoprire che la Londra che lei tanto immaginava è forse troppo come si ripete sempre la McKenzie dà prova di una grandissima recitazione il nostro poi utilizza le musiche in maniera spaventosa e riesce a ricreare perfettamente ogni ambiente che gli serve e quindi l'arrivo nella nostra in questa scuola dove viene vessata subito maltrattata per il suo essere così vintage e tutto il resto e diventa sempre più ossessivo ecco questo passaggio come va avanti se all'inizio sembra quasi depressivo in realtà poi porta sempre più scompensi proprio a livello di depressione alla nostra di proprio di voglia di scappare di scomparire allora la costringerà a fare quello che succederà poi dalla seconda parte quando lei arriverà a vivere in questa casa e dove appunto sul letto dove viveva la nostra Anna Terellino e gli anni 60 riscoprirà tutto quello che gli è successo al ritroso e entrerà poi un meraviglioso Tenestamp un meraviglioso un grandioso Tenestamp che accende lo schermo come arriva veramente un attore che io amo dai tempi dagli anni 60 adesso mentre non ha sbagliato un film la sua faccia perché il film l'ha sbagliato ma lui è una faccia incredibile e degli ultimi 20 anni per me resterà sempre l'inglese di Soderberg perché è veramente incredibile e qui Tenestamp un'altra volta da idea di come si recita ogni volta che appare in scena si accende ancora di più una scena già accesissima nel senso che troviamo tutta questa Us Will in London questa regia meravigliosa un uso delle musiche straordinario questi movimenti laterali questo sdoppiamento questo andare su e giù questo creare questa Us Will in London che lentamente diventa sempre di più una Londra quasi ottocentesca e quasi da Jack lo squartatore e in più noi notiamo che il decadimento morale e fisico della nostra protagonista viene in conseguenza al decadimento morale e fisico della protagonista dei suoi sogni con la quale scambia a un certo punto in realtà il proprio punto di vista e neanche rapita ed è neanche coscientemente spostata da quella che potrebbe essere la realtà e quindi è un film meraviglioso tutta la parte in cui loro prendono le pasticche la butta di fuori e incomincia a vedere di tutto e con la musica sotto con Suxy e Happy House è una delle scene più belle che abbia mai visto al cinema proprio negli ultimi 30 anni e il nostro riesce a collegare scene tesissime alla Hitchcock insieme a scene goticissime e alla Mario Baba e poi si sposta riesce a mescolare il musical un certo tipo di critica enorme a una società maschilista e deflagrante che quel finale meraviglioso non giustifica assolutamente meraviglioso un finale meraviglioso in più i colpi di scena sono assestati bene per lo spettatore medio certo io ho visto 2000 film e quindi il colpo di scena magari lo capisco ma non è questo è come ci arriva il nostro il nostro non punta sul colpo di scena punta sulla condizione delle donne punta su come non sia cambiato un cazzo in 60 anni come Londra sia troppo per le donne non è un caso che la nostra come scene trova subito un tassista che gli dice come se bello che gambe c'hai un'altra volta troviamo che il genere maschile per l'80% non pensa altro che ai suoi bisogni sessuali e ai suoi bisogni edonisti e questo è meraviglioso perché non è un classico film dove tutti gli uomini sono delle merde anzi il nostro protagonista ha nel suo ragazzo uno degli uomini uno dei personaggi più meravigliosi del film e anche il povero Terence Stamp in un certo senso non lo è così negativo se poi lo stiamo a guardare ed è un film che ripeto riesce a mescolare l'orolo psicologico e funziona verso quel punto perché fa paura ci sono 4-5 punti di pura paranoia queste ombre che appaiono in computer grafica limitatissima che sembrano uscire da paura di accettare morti viventi di Fulci che viene citato così come Argento nella scena dell'omicidio con quel coltello che va lentamente e quelle facce che gli occhi che appaiono sul sangue che spruzza sul coltello è magnifica sono magnifiche tutte le scene oriniche sono perfette tutte le scene del bordello tutte le volte in cui la nostra va fuori di testa e si ricollega alla scena della coltellata che gli sta per dare nella faccia a quell'altra un film che vive di grande tensione vive tra l'altro di 4-5 battute ironiche fantastiche che però non sono assolutamente sopra le righe come Herr Wright di solito ci ha insegnato che erano perfetti nei suoi film ma qui le inserisce perfette una narrazione che ha dei dialoghi fantastici sembrano scritti per come si parla e questo per me è amore puro perché è rarissimo trovare dei thriller così che non arzicocolano con discorsi assurdi qui siamo di fronte a un film che fa della forza della messa in scena della forza della scrittura della forza dell'autore la sua vera potenza un film che ha una fucilata un film che due ore pare un secondo un film che mescola come ho detto 14 generi senza mai di perdere di vista la base il thriller drammatico di una donna sola che cerca attraverso gli spiriti attraverso il suo potere attraverso una cosa che ha cercato anche di trattenere di non voler vedere cerca in realtà di trovare una soluzione per la sua vita fragile e che reputa inutile e da questo verrà fuori il suo grandissimo talento dalla paura dall'emozione dal terrore e dall'unione che comunque unirà le nostre protagoniste fino alla fine fino a quello splendido finale con questa donna sul letto che dice portati via il tuo amore un film che ti spezza il cuore secondo me un film gigantesco con una tra l'altro messa in scena paurosa una ricostruzione della Swinging London anni 60 che pare da essere lì Wright dimostra un'altra volta di essere uno dei migliori registi al mondo come montatore riesce a fotografare in maniera splendida ed ha una sceneggiatura che ripeto omaggia tutto quello che lui vuole omaggiare tantissimo il cinema anni 60 70 ci trovo anche qualcosa di Antonioni volendo dentro ci trovo di tutto tutto quello che fa grande il cinema di Edgar Wright qui dentro esplode e diventa completamente unico i suoi movimenti il suo montaggio le sue carrellate in questo modo non sono più parte di una narrazione si spedita ma che serve a staccare per ellissi no qui il suo montaggio ve nelloce il suo cercare di avvicinarsi sempre ai personaggi il suo essere così attaccato a volte ai primi piani dei personaggi stavolta non è solo per dare il senso del tempo che passa ma è proprio per dare la sensazione di una memoria che passa di un cervello che diventa sempre più passivo a ciò che ha davanti che invece in realtà può scoprire un essere attivo tutte le parti in cui gli dicono come ti chiami Sandy ah che nome bellissimo tutti i nomi bellissimi e lei si si qualunque cosa proprio la meraviglia e poi la scena in cui arriva e quest'uomo con gli occhi azzurri dice io vi salverei tutti altra scena meravigliosa quindi che cosa vi posso dire più ultima notte a Sochi ho già recensito insieme a un video che c'era la mostra della cripta e Cattivo Sangue altro film Cattivo Sangue meraviglioso di Bara che non va nel meglio di quest'anno per il semplice fatto che abbiamo visto proiettato solo nei festival visto che qui siamo dentro un horror e siamo dentro un capolavoro di un altro livello questo ultima notte a Sochi ripeto è un film imperdibile proprio imperdibile il link è qua sotto se fosse già uscito ma mi pare di no ma sta di fatto che qui siamo di fronte comunque a un'opera stravigliante un'opera di quelle che io ho visto quattro volte tutte le volte mi ha lasciato basito e tutte le volte ho trovato dei modi delle sensazioni per doverla rivedere ed è uno di quei classici film che rivedrò tutta la vita perché secondo me mettono dentro insieme la creazione della suspense alla Hitchcock la forza gotica di Mario Bava la forza pop di un certo tipo di cinema appunto right più leggero più scansonato a una certa invece ricerca di un certo tipo Polanskiano io ci trovo anche Repulsion ci trovo questo doppiamento della mente è geniale è un film meraviglioso come un cambio di capelli possa cambiare un'attitudine come un cambio di vestiti possa cambiare completamente una vita come ciò che ti succede possa cambiare te allo sguardo degli altri ma non cambieranno mai gli altri ha il tuo sguardo del finale in questo è meraviglioso lo specchio come doppio lo specchio l'immagine riflessa che riflette in realtà una realtà alla fine che forse è quella che la nostra protagonista neanche mai si sarebbe sognata per me un film recitato così diretto così con questa musica meravigliosa con una regia di questo tipo non può essere altro che definito magistrale quindi il link è qui sotto se c'è compratelo subito questo per me è un capolavoro uno dei 3-4 migliori film dell'anno per me è uno dei migliori film del ventunesimo secolo Edward Wright dimostra un'altra volta di essere uno che non sbaglia a un film nemmeno a pagare loro perché il suo talento è unico perché la sua voglia di ricerca è enorme e perché ha proprio un senso nel volerci trasportare nell'immaginario di questi personaggi anche stavolta solo femminili incredibilmente fortissimi e che ci portano appunto nel loro immaginario nel loro pensieri senza una forzatura senza mai sentirci obbligati a volerli bene o male la grandiosità di questo film di Wright è che Wright è un grandissimo regista e come tale quindi ci mostra ciò che ci vuole narrare poi lo spettatore se ha abbastanza sensibilità potrà riconoscere sia le citazioni sia l'amore che si prova per il cinema e per la musica in questo film sia la grandiosità di un regista che dimostra inquadratura dopo inquadratura frame dopo frame di essere uno dei più grandi talenti che il cinema inglese e mondiale secondo me ci ha dato negli ultimi 30 anni non aspetto ormai altro che il prossimo film di Wright perché un capolavoro del genere alla sua prima incursione horror thriller pura di questo tipo non mi sarei mai aspettato davvero perché per me questo ripeto è un capodopera magari gli anni poi mi diranno di no ne riparleremo quando sarò vecchio fra 20 anni ma secondo me fra 20 anni mi garberà ancora di più perché un cinema di questo tipo sarà completamente fagocitato da effetti speciali e puttanate cose che qui vengono utilizzate gli effetti speciali in maniera limpida e leggera dove il sangue scorre dove deve scorrere la computer grafica ci deve essere dove deve essere e tutto il resto però è collegato e legato da una messa in scena che non perde mai il punto di vista della narrazione ci lascia sempre dentro la storia fino al suo meraviglioso finale chapeau a Wright questo è un capolavoro il link è qui sotto mi inchino alla sua grandiosità con Paul Schrader si va sempre sul sicuro ogni anno che esce un suo film praticamente va nel meglio e questo filmone uscito pochi mesi fa visto al cinema è un grande film uno dei migliori film dell'anno al di là del meglio e del peggio che si sa come dico dentro ci va un po' di tutto dico sempre ci può anche andare roba molto brutta ma che è piaciuta a me quindi molto relativa questo collezionista di carte però insomma con un Isaacs formidabile è uno di quei film che non si possono dimenticare e che non si dimenticheranno facilmente perché è uno di quei classici film che mescolano quattro generi cinque generi in oro come fa sempre Schrader e fa un'opera quasi calvinista sul senso di colpa e la redenzione in un certo senso è un film spettacolare sotto il punto di vista narrativo proprio di regia e di messa in scena pulitissima il grandissimo Schrader scrive una storia che è tra le più semplici al mondo da descrivere un ex diciamo così a guzzino di Abu Ghraib dopo 12 anni di galera noi scopriamo essere uscito ad essere diventato un grande contatore di carte e quindi essere uno che a poker non perde mai però non è uno che punta a fare tanti soldi entra nel casino porta via 6-700 dollari e se ne va così che capisce che appena gli rompono i coglioni i capi del casino che potrebbero non incularse lui se ne va così perde poco e vince un po' di più con questo va avanti nella sua vita proprio perché è l'unica cosa che ha imparato diciamo così in carcere è appunto quella di giocare a carte poi già avvengono due cose nella sua vita che è sempre stessa è molto lui arrivare in un albergo prende dei lenzuoli e ha questa cosa fissa di coprire il tutto con questi lenzuoli senza dover quasi lasciare traccia di sé a livello istintivo fa quello che faceva in carcere in realtà che è poi quello che faceva nell'altro carcere che ha avuto in vita sua che era la prigioniera insieme agli altri prigionieri che lui però distruggeva detto questo a lui cambierà la vita nel momento in cui Linda questa sua amica di colore che gestisce questo giro di poker internazionale quello serio che vediamo alla televisione il World Series che però in realtà è una mezza inculata per i giocatori poi vi spiegherò perché insomma incontra lei quindi l'amore la possibilità di avere una redenzione una rinascita e in più incontra un ragazzo che è il figlio di un suo ex commilitone che si è sparato in bocca perché non sopportava più il senso di colpa per tutto quello che aveva fatto appunto a Guantanamo e via dicendo e nelle carceri iranien, irakene, irakene dove cazzo i sistemi diciamo di tortura americana erano diventati ormai prassi quindi questo ragazzo gli fa vedere che ha trovato questo gordo che sembrava scomparso e che lo vuole far fuori e gli chiede dammi una mano il nostro è tutt'altro che contento di fare questo e gli dice a lui no guarda vieni a giro con me dimentica di questa cazzata vieni con me intanto ne parliamo e vediamo cosa può succedere quindi partono per questo viaggio verso i tornei di poker il nostro a un certo punto decide di legarsi a questa ragazza di colore e di lì parte il tutto e poi insomma quello che succederà non ve lo sto a dire se no vi sputtano e onestamente tutto il film che è un film che non vive chiaramente nei colpi di scena ma viene prima di tutto rimessa in scena erano anni che non vedevo dei titoli di testa così belli e così posati un tavolo da gioco verde nemmeno un cinema scopo un po' ristretto tavolo da gioco verde e nomi sopra ah bene già senza tanti ralenti puttanate e canzoni di Bob Dylan a rompecci i coglioni proprio la quadratura di cos'è un titolo di testa da un film serio quindi sto collezionista di carte non è che le tira in bocca alla gente o sì ma è un proprio già il titolo sbagliato perché collezionista di arte non è che le oleziona The Coward Counter cioè il contatore di carte originale sarebbe stato meglio questo olezionare arte sembra una Joan Magic non è così detto questo il film funziona per tre motivi particolari non è tutto la messa in scena la Paul Schrader che cosa fa? descrive una storia terrificante come appunto quella delle torture mandate lì da quella merda di decenni e di tutti gli altri che insomma busce sappiamo tutta la storia le torture più abbiette che l'umanità moderna abbia mai potuto subire proprio perché quando una persona subisce determinate cose in realtà bisognerebbe spiegare al mondo che le subiamo anche noi perché se noi facciamo subire quello a quelle persone prima o poi le fanno subire anche a noi chi ci dice di no cioè quindi una volta che si subisce che accettiamo un'ingiustizia talmente elevata come una tortura la accettiamo anche per noi il giorno che decidono di torturare noi e zitti e mosca cioè quindi per favore riflettete quando dite le torture vanno bene pena di morte queste stronzate razziste e naziste allora qui descrive quest'uomo ed è meraviglioso perché ormai siamo abituati a questi eroi fumettosi dove c'è l'eroe che ha i super problemi e questi super problemi li affronta con la super forza e o siamo se no costretti a polizieschi o noir dove c'è la donna che non capisce un cazzo l'uomo super figura il cappello storto che ammazza tutto veleccio intorno e alla fine è la risoluzione come al solito reazionaria perché è americana qui invece siamo di fronte a un uomo che in una scena delle più belle quando è al diciamo perché il film è molto bipolare in questo senso e quindi tanti ben pensanti quelli che odio che fanno ah come fa schifo Guantanamo ah come fa schifo questo ah come fa schifo per questa e poi vanno a mangiare la mcdonald si vestano di nike e danno vai in isola all'americani e poi dicano nel mondo e qui il film è incredibile perché ti fa prima di tutto ti fa un discorso politico sul fatto che un'altra volta sto gordo che è vero che ha insegnato a tutti le tecniche va a giro a fare le conferenze di come si fa le tecniche e quindi già arriva questa cosa politica sul fatto che loro lo vedono e quindi monta l'odio anche a quell'altro a come ho fatto 20 anni di galera e quindi c'è questa cosa di questo personaggio che in realtà ha pagato e capiamo che come al solito pagano i soldatini cioè chi è che ha messo in galera Ranfield mi pare nessuno Bush quindi hanno pagato al solito i soldatini la gente che in realtà hanno mandato lì a impazzire perché poi il film è intelligente su una cosa ti fa vedere che quelli che sono stati mandati a torturare in realtà a loro volta per 4 mesi sono stati tutti torturati con un sistema che io non conoscevo che sputtana il grandissimo che si chiama SERE S.E. puntato tutto puntato che era un modo di allenamento di quel sistema che loro faranno poi fatto su di loro quindi il nostro protagonista dice che lui ha subito 4 mesi quello che poi farà e questo l'ha fatto andare fuori di cervello trovato lì e lì arriva la grande tecnica di Schrader perché utilizza una macchina da presa sempre quadratissima macchina a mano pochissima piani chiusi non si muove mai cerca di stare attaccata a personaggi poi quando si sposta dentro la pigione grand'angolo e fisciai sparato a manetta colori gialli che ti spaccano di occhi perché devi sentire l'odore della merda del piccolo lo devi sentire e te lo fa sentire in quel modo il grande Schrader e lo collega a una scena straordinaria perché fino a quel punto ripeto il film sembra essere un po' strozzo nel senso dice ok i militari hanno pagato dovevano pagare su ma sembra a un certo punto essere sul filo della giustificazione no? quando lui dice a un certo punto in una scena importantissima questo è stato un inferno per noi e per loro e il ragazzino gli ride in faccia come di allora è giustificato e lui invece diventa viola quasi piange e gli dice guarda che questo non vuol dire un cazzo non giustifico niente di quello che si è fatto tutto quello che si è fatto è stato una merda fa cacare al cazzo e mi merito la punizione cioè quindi il problema del film è ho fatto 12 anni io ne dovevo fare 40 Rasmi Ranfield cioè Bush che mi ci hanno mandato perché io alla fine sono finito in un inferno e ho fatto quello che si fa all'inferno si tortura però se mi ci mandi all'inferno quello che mi ci ha mandato gli vorrai fare qualcosa e quello che me l'ha insegnato va a girare a fare le conferenze quindi c'è quest'uomo che cerca in tutti i modi con le carte che sono collegate chiaramente no? perché il gioco di carte del poker è collegato all'idea mentale della tortura perché è uno stesso gioco mentale se sei bravo a intuire che cosa quando stai torturando uno se dice la verità o se non dice la verità dai movimenti del corpo chiaramente lui è un grande giocatore di carte perché ormai dai movimenti del corpo scopre tutto solo che ripeto e sentendosi completamente in colpa gli servono solo per sopravvivere e non pensare a quello che ha fatto fatti lui vince 700 euro dal casino e se ne va non arriva mai poi però arriva ripeto questa idea di paterna in un certo senso di riconciliazione con questo ragazzo che ha interpretato tra l'altro la stragrande del bimbo da ready player ruban che manco pare lui mentre Isaacs è un fantastico protagonista con una faccia spaccata in due sembra Henry Bogart ed è fantastico ripeto per tutte queste cose perché è un film che ci mostra quella cosa abietta questa cosa terrificante che abbiamo visto tutti e che pure ormai sembra passata di moda quindi non ne parla più nessuno e ce lo mostra però con una visione per niente manichea cioè lui chiaramente allora prima di tutto Schrader non mette nemmeno in considerazione qui la grande opera non mette nemmeno in possibile considerazione che chi venga torturato sia un no terrorista Schrader non ne frega un cazzo cioè Schrader proprio denuncia alla base l'idea della violenza per raggiungere uno scopo l'opposto di quello che dicevano invece questi stronzi americani no? ti si tortura per dirci la verità cazzi tua ideale contro perché se bisogna contare contro il terrorismo non c'è niente che conti sti cazzi le leggi speciali questo è un film che attraverso di tutto questo e di tutto questo ne vediamo forse di due ore un quarto d'ora ma non ci arriva è quasi un McGuffin in realtà per farci capire che la società americana è quel microcosmo lì tutto quello che loro facevano all'interno di questa prigioni cioè tutto questo distruggere l'altro ma in realtà è una distruzione personale che uno lì per lì non capisce perché anche lì però mi tocca sputtanare il film anche lì ci sono dei dialoghi meravigliosi quando lui cerca di farli capire che per capire perché questo ragazzo si vuole vendicare vuole torturare questo vic che ha insegnato a Supac che si è sparato lo vorrebbe e lui vorrebbe farli capire ma lo sai che cos'è una tortura e gli spiega che cos'era la prigione e per spiegare la prigione non dice un ca non è che si mette a dire c'era chissà cosa dice solo gli odori c'era odore di piscio merda sangue vomito io mi ricordo solo questo cioè lui si ricorda questo di quello che ha fatto nemmeno le torture perché ti mette in condizione di dire che a noi ci hanno spento cioè lui era spento praticamente in quel periodo e si è fatto e il film questo però lo utilizza proprio anche per parlarci del poker è incredibile cioè guardiamo un film dove in realtà per 40 minuti giocano a poker ma ripeto questa divisione tra poker e tortura non esiste nel film cioè lui ti dice un'altra volta che la pazienza che deve avere per giocare a poker la pazienza che devi avere per capire e leggere tutti gli sguardi per capire la situazione è la stessa pazienza che devi avere quando sei nella tortura il problema è che lui ti dice che la tortura ti porta a una conseguenza buona se lui ti risponde cosa succede quando uno te lo torturi sempre di più e ti dice no 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 perché non lo sa davvero ti dice che superi il livello perché questo non sa un cazzo e te a quel punto la forza del potere proprio ti fa un livello proprio psicologico una discussione quando guarderete il film è molto intelligente perché è proprio su un libro che c'è di questi torturatori che vanno in tale paranoia perché non riescono a farsi dire le cose dopo essere stati torturati e non riescono e capiscono che questa innocenza quindi c'è da una stessa parte la forza del potere sovraumano di vita e di morte su di uno ma dall'altra parte la coscienza che questo potere non ha alcun valore perché sto un sancazzo perché li sto strappando lunghi dei piedi vedrai che se sa dov'è me lo dice e quindi c'era questo senso che ha portato a torturarvi ancora di più perché lui dice l'unico modo che ho avuto per sopravvivere è pensare che fosse tutto uno scherzo e ridere è un film terribile e in tutto questo c'è il gioco di carte ci fa entrare scorsesianamente che gliel'ha prodotto non è un caso che è lo sceneggiatore di metà film di scorsese gliel'ha prodotto lui ci fa entrare in questo mondo delle carte e ci distrugge anche questo mito cioè per chi gioca a poker e tutti i cazzi ti dice guarda ti dice sono tutte cazzate campioni di poker sono tutti indebitati fino al collo perché i soldi sono sua cioè questi pigliano gli sponsor che gli danno i soldi poi vincono due anni quindi sono ricchi poi gli sponsor vogliono indietro i due milioni di euro loro ce n'hanno uno devono chiedere il milione di prestito non vincono più un cazzo e si trovano tutta la vita a pagare due milioni tutta la vita hanno vissuto cinque anni dal re con le troie e poi fine e lui non ci vuole cascare in questa cosa ok e invece poi sembrerebbe cascarci proprio perché vuole salvare il ragazzino da quella vita domicida che vuole fare e poi mi voglio di altro sulla storia è un film impossibile quasi da descrivere ragazzi lo dovete vedere cioè questi film qui vivono in sensazione cioè vivono proprio di una regia che non esiste da altre parti Schrader fa dei movimenti di macchina limitati cerca di farci entrare nella storia attraverso quello che è il grande cinema cioè musica montaggio messa in scena recitazione dialoghi secondo me è un capolavoro non ne liscia mezzo e ci apre ci scoperti a questo vaso di Pandora con una sfida con una potenza enorme cioè Schrader non si ferma è come per Fistre Formed che attacca un certo tipo di religione lo fa non si ferma Schrader è un pazzo Schrader va a diritto cioè oltre ad essere un film veramente incredibile cioè qui nudità maschile violenze viene mostrato tutto è un film oltre ad esserci un Willem Dafoe che 20 minuti di Willem Dafoe vale tutta la tutta la riata di un qualsiasi stronzolo che esce da Hollywood cioè 20 minuti di questo film passa ad essere torturatore terrificante lì a fare l'insegnante tutto a modino se è quello che fa la presentazione che pare dotto è quella merda lì non vi sto a dire come va a finire ma diciamo la sfida finale è quasi all'ok con Rall diciamo così a ragione Gervasini che si vede alla fine è pura meraviglia quindi per me è un film talmente bello talmente importante anche per descriverci dopo 20 anni che cos'è l'America Schrader riesce a descriverci in allegoria attraverso un giocatore di carte che è stato un militare che ha pagato per quello che ha fatto ci descrive un'altra volta un'America che non sembra aver capito niente di quello che ha fatto non gliene frega un cazzo che anzi torna indietro vuoi vedere il film che ha capito insomma se no vedo tutto io e quindi se si nota infatti in questo film di Schrader la tecnologia telefono i computer sono moltissimi da parte quasi proprio perché non puoi raccontare una storia così intima con qualcosa tra le palle come un cellulare e questo lo dovrebbero capire molti registi che fanno il film e c'è il cellulare per forza guarda lo puoi anche levare a diulo tanto nessuno ci fa caso è un film se no ci dovrebbero avere tutte le mascherine ora che cazzo dici quindi quello che dico io è che ho letto di questo collezionista di carte che dovrebbe essere un film di merda reazionario fascista a favore della vendetta io penso che sia un film socialista contro la vendetta che ama le persone che cerca di far capire alla gente che non è il passato quello che conta ma il presente è quello che hai pagato per il tuo passato cioè il nostro ha fatto 15 anni di galera che cazzo va a fare di più non ha ammazzato nessuno ha fatto le torture se ne pente è pentito tutto il resto però quando gli dicono che è gordo e a giro gli risale come si dice la bile e fa e qui che cazzo perché io ho pagato e quello stronzo mi ci ha mandato o no qui è un discorso molto forte sull'America perché l'America va sempre così cioè l'America manda i suoi soldati in Afghanistan a fare la guerra in Afghanistan tanto muoiano loro l'America è talmente lontana dalle guerre che fa che non ne può avere ricordo vero se non chi l'ha fatta cioè quindi in realtà il film tende a farti intuire che nessuno si ricorda più di Guantanamo delle torture non ne frega un cazzo a nessuno perché l'America è fatta così è fatta di notizia facevano notizia quelle foto lì non perché volevano fare hanno fatto vendere più times di vanti ne potevano vendere è tutta un'industria e ripeto chi ne ha pagato le conseguenze di quelle foto chi ha fatto le foto ma chi ce l'ha mandati questo è un film che mostra la faccia dell'America e ripeto distrugge anche l'idea di questi qui che fanno poker che sono dei grandi è tutto falso per il grande Paul Schleder l'America nasconde tutte le sue magagne di fronte a uno schermo televisivo di fronte a uno spettacolo diventa tutto spettacolo e la spettacolizzazione della guerra e delle torture non fanno altro che parte dello stesso gioco che è quello del grande fratello o di altro e Schleder questo lo distrugge lo mortifica e distrugge il suo paese attaccando frontalmente non solo ripeto chi ha fatto che è facile c'è le foto chi ha fatto ma attacca completamente non solo nemmeno chi li ha addestrati ma con quella bella infatti c'è la scena vera di Rumsfeld che viene a dire da domani si fa una bella interrogatoria partiolare tutto sorriso davanti alla Miriani tutti applaudi cioè ti fa rendere conto il grande Schleder di quanto in realtà il popolo americano sia responsabile quanto i suoi governanti e se ne strafreghi il cazzo perché tanto le guerre gli ameriani non l'hanno mai subite hai voglia di dire è sempre lontano da loro la guerra quindi gli importa una bella sega ci manda la meglio gioventù loro i poveracci proletari a morire mentre i figlioli dei senatori come vediamo non hanno fatto una guerra questa è la realtà dei fatti il collezionista di carte ci racconta questo attraverso il gioco di un uomo che gioca sempre più per a un certo punto trovare in se stesso quello che non troverà mai nella vita mai perché non potrà mai trovare nella vita quello che lui vuole trovare e che troverà solo nel finale meraviglioso appunto dove la colpa deve essere pagata non troverà mai la calma la serenità non la potrà mai avere perché il senso di colpa lo distrugge guardatevi il finale e poi sapetemi di questo è un capolavoro film meraviglioso il link lo mettovi sotto non so se è uscito un DVD o no è uno di quei classici film che non dovete perdere assolutamente siamo di fronte a un'opera geniale di un regista mostruoso e di uno sceneggiatore che mai non ce n'è più impossibile non mettere questo film meraviglioso maestoso di un Ridley Scott in formissima con questo The Last 2 un film ambientato nel medioevo nel quattordicesimo secolo film di poco esaltante tratto da una storia vera l'ultimo duello medievale cavalleresco fatto di questo tipo appunto su cavalli e con lance è la storia di due scudieri che sono amici da quando sono giovani ma uno diventa il preferito del conte mentre l'altro viene sempre più messo da parte in tutto questo viene messa di mezzo una donna la donna che si sposa il nostro Maddemon ovvero Jeanne de Carogh e si sposa questa donna più per la dote che per altro mentre l'altro invece interpretato da Adam Driver incomincia a diventare sempre più importante per il conte e fa le scarpe al nostro Maddemon a livello proprio lavorativo elevando l'idea di essere il capo delle guardie del palazzo e in più a quanto pare gli dovrebbe aver stuprato pure la moglie e da lì parte appunto l'ultimo duello e la ricerca di questa giustizia divina per lo stupro effettuato alla donna di un uomo non alla donna ma la giustizia per l'uomo già lì si parte meravigliosamente con i primi tre minuti di inquadratura di questi che si vestano dal duello ma fotografia dei movimenti di macchina che già poi parte il duello col primo colpo si stacca e il film finalmente dichiara che cos'è dichiara di essere un atto in tre parti ben distinte dove si racconta la verità in ogni parte la verità per ognuno siccome la verità è sempre diversa da che parte la vede a come la racconti tranne a un certo punto dove la verità nel film di Scott vorrebbe vedercela raccontata appunto dalla macchina del cima più che dai personaggi il primo atto che noi non vediamo è la verità attraverso appunto il personaggio di Matt Damon ed è molto bello vedere come la verità è il primo atto di Damanhur la seconda verità è la verità appunto di Adam Driver e la terza è la verità della nostra più conclusione finale il film come ho detto è perfetto proprio perché secondo me al di là della ricostruzione storica costumi scenografie sono da pazzi al di là del fatto che questo è un film molto più vicino alle crociate che è un film come l'ingranditore siamo più dalle parti di due l'anti non è un caso del last duel un'altra volta torna un po' alle origini il nostro grandissimo di Ridescott e lo fa con un film come ho detto curavoseamo nell'idea del montaggio della messa in scena proprio delle tre verità suddivise diciamo ognuno per ogni racconto ma la cosa bella sono le sfumature non è che poi queste verità cambino così tanto cambiano nelle piccole accisioni nelle sfumature che rendono intanto una verità tale ed è fantastico come questo venga utilizzato particolarmente con il montaggio e la recitazione piccole sfumature e proprio di di messa in scena che mancavano magari nella ricostruzione precedente seppur non originale questa cosa perché è stata fatta molte volte però il nostro la fa con una perizia incredibile le musiche sono straordinarie e la fotografia è sempre perfetta sempre e in tutto questo ci sono degli attori che stavolta volano Ben Affleck biondo è fantastico se ritaglia una parte splendida di questo conte che non fa altro che trombare nel letto insieme ad un driver pieno di tope e Matt Damon nel ruolo di quest'uomo che nella sua parte sembra tanto buono ma che in realtà è parecchio ignorante parecchio violento e parecchio stronzo solo orgoglioso e quindi tira fuori tutta la parte di lui in realtà che sembrerebbe tanto attaccato alla moglie ma in realtà attaccato solo al suo nome e poi c'è la terza parte quella della nostra donna praticamente la nostra stuprata che fa vedere in realtà ed è molto interessante come sono davvero gli due uomini ovvero uno che non pensa altro che a se stesso o alla sua bellezza e che quindi è convinto davvero di averla stuprata per amore incredibile e l'altro invece che noi vediamo nel racconto di Matt Damon essere comunque un buonaccione invece notiamo che è semplicemente anche lui uno stronzo orgoglioso che fa tutto semplicemente per il suo onore e per sconfiggere il suo ex amato amico che ormai è diventato odiato nemico quindi è un film che in realtà parla di un'altra volta di tantissime cose parla dell'amicizia di come la giustizia venga interpretata nel momento storico in cui ci troviamo quindi è incredibile pensare che 700 anni fa nemmeno 600 anni fa quando facevi un duello del genere decideva Dio cioè se vincevi o perdevi era Dio che aveva deciso e quindi salvi tutti via libera tutti quindi è incredibile che la nostra se perde Matt Damon rischiava di essere bruciata sullo strego come sul ruogo come una strega solo perché avrebbe dovuto dire una menzogna perché il marito se perde a botte vuol dire che ha perso moralmente una cosa assurda e questo è stato l'ultimo duello giocato in questo senso a livello proprio cavalleresco e che non ha avuto processo erano anni e Scott non è che non ce lo racconta è perfetto nel non essere manicheo in realtà non è da nessuno dei personaggi ci sta raccontando semplicemente l'odissea di una donna più intelligente più bella e più vogliosa di scoprire che sa leggere che sa scrivere che sa dipingere più importante a livello sociale di tutti gli uomini che ha intorno compreso il conte e il re che sono in realtà degli ignoranti delle bestie inutili ok? e quindi questo è fantastico perché in realtà è un'altra volta un racconto che ci spiega come in un'allegoria dell'altro tempo non si è poi cambiato così tanto nei nostri tempi per le donne che continuano ad essere comunque soffocate da un macismo veramente intollerante e assurdo un macismo che qui un'altra volta il grande scolto ti fa capire da dove viene dov'è la nostra grande cultura cristiana e così tanto aperta all'umanità cazzo qui i preti sono più stronzi dei cavalieri i cavalieri sono più stronzi dei conti i conti sono più stronzi di tutti il re più cretione di tutti è un bimbettino che deve uscire dalla sorte di tutti è un ragazzino lo spietato Giulio VI mi pare era poi all'epoca quindi un pazzo che gradiva della violenza altrui ha detto questo è proprio un film che funziona perché il grande Ridley Scott ha un'epica straordinaria e il combattimento finale The Last Duel tra Dan Diver e il grande Maddemon è girato montato interpretato e messo in scena in maniera stupefacente proprio un'emozione incredibile un'epica non sai chi vince non sai chi perde rimani lì c'è quel quarto d'ora che è una meraviglia e poi vabbè tutte le scene del battaglia dimenticate di viotturatori aperti o scelte di Ralent alla gladiatore qui siamo di fronte a un realismo di quelli che lasciano basiti e le braccia le teste partono il sangue quello che scorre non c'è una goccia di computer grafica ed è proprio una ricostruzione terribile è un lavoro questi via va a parto vado 5 mesi tanto io sono forte ammazzo tutti attorno ed è chiaro quindi per cui il personaggio di Maddemon è praticamente ormai diventato completamente quasi senza sentimenti ammazza per mestiere e così come è chiaro che Adam Driver ormai sia si consideri l'uomo più intelligente più in gamma del mondo è l'unico che sa leggere un libro oltre al conte in tutta la corte e questo lo rende anche sicuro quindi di essere amabile e amato da tutte le donne e quindi questo lo rende incredibilmente sicuro per l'epoca di non aver stuprato proprio nessuno perché come dice bene appunto la madre di Maddemon che pure è una stronza cosa gli dice una donna quando fa sesso con un uomo non è mai stuprata punto cioè non sei libera è una scena terribile cioè nel senso che cazzo vuoi lui non hai capito lui è l'attendente del capo delle guardie lui tromba tutte le donne che vuole non c'è stupro anche se non vuoi cosa fai infatti è fantastico perché Adam Driver continua anche quando va via gli fa ciao amore non lo raccontare a nessuno il nostro amore cioè è convinto per il suo sistema così medievale che lei nel dire di no dicesse di sì e questo è un ribaltamento di oggi è uguale è il discorso della minigonna corta se l'è cercata cioè è solo che qui Scott naturalmente non abbandona il racconto storico assolutamente ci racconta per com'è perfetto le leggi per come sono ci racconta anche la squallidume di un certo tipo di vita quando poi ci fa vedere Parigi 1386 che sembra veramente un campo di disadattati fai merda ma Parigi ero sì 700 anni fa e pensai che ho anche qualche amico che mi fa buome tempi fossi nato in medioevo sì eri lì morto a 22 anni di peste se t'andava bene e Rita Scott ti descrive un mondo che è quello di adesso maschilista prepotente dove si risolve tutto con la violenza dove la democrazia in realtà è un falso è un falso diciamo così idolo proprio da mettere su tipo Dio noi siamo democratici quando in realtà non lo è nessuno in realtà nessun paese e la cosa più bella è che qui ti fa capire da dove nasce questa nostra cultura così alta come viene definita da questi fascisti che dicono noi siamo cultura cristiana la cultura cristiana che nel 1890 metteva a rogo una che veniva stuprata e che oltretutto se il marito non accettava lo stupro e diceva no non l'hanno stuprata lei non poteva fare altro perché la colpa non è verso la donna è verso il marito e questa è una cosa incredibile e questo è incredibile per me perché viene ribaltato anche adesso cioè voi ci fate caso tante volte quando l'uomo difende la donna che è stuprata non dice mi hanno fatto incazzare ma hanno stuprato la donna difendi l'onore in realtà difendi l'idea di aver detto qui il cazzo ce l'ho messo io non ce le mette nel tanto non te ne frega nulla della violenza subita e questo è veramente terribile e quindi cosa vi posso dire per me The Last Doer è e resta uno dei migliori film di quest'anno per messa in scena per la divisione in questi tre grandi capitoli in questi tre atti meravigliosi che per il quale per il 20% ognuno rivediamo lo stesso film con un montaggio diverso come ho detto per raccontarci comunque oltre al femminicidio oltre all'idea di come il macismo distrugga il monte oltre all'idea di come i re dovessero tutti andare a fare in culo si nota il laicismo e la voglia di democrazia totale in quel senso di Scott nel film ma soprattutto è un film che in tutto questo inserisce appunto una storia di femminicidio che non avviene per puro culo in un certo senso una storia di stupro e tutto questo che ci racconta il mondo moderno senza mai come ho detto però intaccare la forza storica del racconto perché questo è stato tratto proprio da un racconto di Eric Jager che ha riunito tutte le foglie dell'epoca per tirare fuori il più possibile la credibilità di questa storia e in più poi come è successo per Will Hunting Ben Affleck e Matt Damon d'accordo con Scott scrivono una sceneggiatura che è davvero ottima dialoghi fulminanti attori diretti da Dio e tutti Matt Damon e Dama Dama Driver Ben Affleck ma anche la nostra protagonista Jodie Comer è bravissima Harriet è bravissima sono tutti incredibili ripeto i costumi fanno paura e Scott decide di raccontare una storia con i tempi dell'epoca e quindi ripeto se uno si aspetta in The Last Duel di vederci 300 ha proprio sbagliato film è l'opposto se vi garba 300 non guardate The Last Duel se va fatto The Last Duel sarà il film del secolo come lo è per me film magnifico uno dei film più belli dell'anno se non degli ultimi vent'anni una costruzione incredibile un racconto semplice e diretto una messa in scena spaventosa e un'ottantenne che spiega a questi bimbetti com'è che si fa un'inquarratura perché in questo film non c'è un raccordo un'inquarratura un movimento di macchina che non abbia sensazione e voglia di spiegare ciò che il regista ha da dire la narrazione messa per prima la sceneggiatura messa per seconda e per terza l'estetica Riedere Scott per il sottoscritto è il maggiore esteta in vita e quindi quando va nello spazio ci fa sognare a tutti di essere astronauti quando resta sulla terra quando fa film di questo tipo le crociate o così ci racconta cosa siamo come siamo diventati e da cosa veniamo sempre con uno sguardo lucido e poetico oltre che di grandissimo grandissimo artista quindi per me questo è The Last of the Way il link è qui sotto non è imperdibile di più è uno di quei film che non vedete fa mancare nemmeno sotto tortura e adesso passiamo ai cessi ovvero le sciofeche di quest'anno e quindi vale la pena iniziare subito sono molti film orribili e anche quest'anno chiaramente come ho detto non ce li siamo fatti mancare quindi iniziamo subito questo peggio perché ha un bel po' di suoi film all'attivo chiaramente poco da dire se non che fanno tutti cacare ma vediamo in quale modo e in quale condizione partiamo così a casaccio da una delle delusioni più grosse dell'anno in un certo senso perché comunque a me i primi due Conjuring erano piaciuti certo c'era James Bond e la regia non questo va però mi erano piaciuti e mi aspettavo qualcosa da questo Conjuring 3 si è rivelato veramente un flop incredibile una merdina di quelle che raramente si vedono se i Conjuring 1 e 2 comunque cercavano di riportare diciamo così un po' di cinema della nuova Hollywood un po' di cinema fino agli anni 70 primi 80 di un certo tipo di horror che ricalca tutti i cliché di quel tipo ma avevano in James Bond un'ottima mano un'ottima scrittura qui invece in questo De Conjuring 3 ovvero De Conjuring per ordine del diavolo ci troviamo di fronte a una delle monnezze più incredibili dell'anno che segue a ruota le monnezze che Bond ha prodotto in questi anni ovvero la Lorona Denun i vari Insidius 3 e 4 tutta roba che insomma più che dimenticabile quando non cata pura come questo filmaccio che appunto ambienta i nostri nuovi al solito i nostri Warren spacciandoci tutto per una storia vera che è tratto da questa però insomma a me fa anche un po' ridere è tratto dal primo processo in cui una persona viene difesa proprio dal blomicidio che ha effettuato in quanto posseduta dal demonio quindi è la storia di 1981 dei nostri coniugi Warren Lorraine e Ed naturalmente iper cattolici aiutati dal Vaticano che insomma vediamo a inizio film i nostri sconfiggere un demone ma il nostro prima di avere un infarto il nostro Ed vede questo demone passare in un ragazzino questo ragazzino tornato a casa ammazza qualcuno non vi sto a dire proprio tutto ammazza qualcuno ma questi decidono praticamente di andare a indagare e in tribunale cercare di difendere il ragazzino proprio perché dargli omicidio colposo proprio perché è stato posseduto da un demone e quindi non era in sé quando uccideva poi di lì parte tutta una storia che arriverà a una setta satanica a una adoratrice del demone a un prete che sa tanto di esorcista in mezzo a tutto questo casino insomma non manca quello che deve mancare in un film del genere niente tensione niente paura niente originalità manca un sarto sulla sedia non è lo sa che sarta suoi nervi perché dopo 20 minuti di film dove non succede un cazzo dove si assiste praticamente inesorabilmente all'ennesima rimasticazione rimasticamento rigirio dell'esorcista di Fredkins e incomincia a poterne meno più col classico prete or cappella anche vi di profilo e basta e poi c'è proprio il problema di dover credere al 100% a quello che ci vogliono raccontare questi sembra una sopopera ormai con questi cuori non se ne pone veramente più allora al di là del fatto che i due attori ormai sembrano non essere più convinti nemmeno loro di quello che fanno perché alla fin fine sembra quasi una parodia dei due congiuring questo qui è veramente bruttissimo ragazzi c'ha un montaggio che è lentissimo riesce ma non lento per creare attenzione proprio non riesce ad avere il ritmo giusto le musiche sono sovrabbondanti e sovrautilizzate gli attori come ho detto sembrano imbambolati e sembra più l'inizio di una serie tv questa volta che un vero film perché si poteva dire di tutto ai congiuring di The One ma non che non fosse lo cinema al 100% invece qui questo filmaccio diretto da tal Michael Chavez su sceneggiatura di David Leslie Johnson McCornick è veramente un troiaio un troiaio a livelli inestimabili in un certo senso ci si fa delle risate perché è trash al limite con quel finale e mettono lì dentro c'hanno praticamente i reperti di tutto l'universo dentro questa dentro questa cantina se ci asca uno e rimbarzi e spacca un gomito o una vetrata distrugge e fa venire l'armageddon detto questo il film è in cui cavo il mente mal recitato i due poveri protagonisti Patrick Wilson e Vera Farmigara girano attorno a questa storiella è inutile che si apre poi a un certo punto a una specie di serial di legal thriller col serial killer satanista che avevamo già visto nel già il mal riuscito di Esosimo Family Rose ma poi in realtà riprende le fila dell'ennesimo esorcistico del quale ci siamo rotti tutti i coglioni nel senso che è veramente schematicizzato con questo male incredibile che è il diavolo e questo bene incredibile che è la chiesa e il Dio è tutto diviso in questa maniera e dopo un po' veramente non si riesce più a stargli dietro anche perché poi il film vuole variare deviare andare e finire su una scrittura assolutamente poco credibile il prete la figliola dell'altro che l'ha cresciuta ma poi diventata veramente siamo di fronte secondo me all'idea della distruzione della morte del cinema dell'esorcismo perché ormai siamo cresciuti siamo avanti siamo ci sono progetti magari non riuscitissimi come The Monique di Nick Plonkman che perlomeno cerca di sfare il genere per cercare di rimodellarlo in maniera quasi fantascientifica ci siamo di fronte a filmoni come Telmo ormai e come parlerò poi di Santa Maud film che ormai parlano sì della possessione ma più al contrario non tanto demoniaca ma della possessione che una religione fa del proprio pensiero trasformandoti in qualcosa di pericolosamente mostruoso e qui invece è la solita lotta fra benino e malino e ci si rompe anche parecchi i coglioni perché tanto si sa che tutto andrà a tarare la luce e vino se qualcuno ha letto qualcosa del processo sa già come pure andrà a finire il processo e in più veramente quel finale lì che con loro con le manine non si può assolutamente guardare l'orrore non può ancora essere fatto con tale manierismo senza mai un tocco di intelligenza senza mai la voglia di affrontare davvero il male che l'orrore dovrebbe procurarci senza mai dovrebbe davvero cercare anche di darci perlomeno un buon film per ordine del diavolo è stato fatto sto film non riesce mai ad ingranare mai non c'è mai il dubbio non c'è mai un cazzo in questi film in questo film c'è questa cosa proprio basciapile che non si riesce a reggere fino in fondo non ci si fa questi sembrano semplicemente shooter messi lì buttati lì per girare storielle che non fanno più paura a nessuno chi sei l'anticristo ma che ben venga l'anticristo chi sei ben miassoniti sbermide martino ma dove siete finiti qui ormai siamo di fronte veramente al niente questo manco è un horror non fa paura a nessuno che spriame James Wan incomincia a regirà film decorosi e che soprattutto smetta di produrre tale schifezze perché fra l'orone mi ha detto nun cazzi e mazzi con questo le congiure in per ordine del diavolo si è toccato veramente il fondo una monnezza di velle rarissime allora io sono uno dei pochi stronzi al mondo che ama i film di squali quasi a ripetizione ne avevamo addirittura Cruel Jones di Bruno Mattei fate un po' in che stato sommesso e i 47 metri il primo era gradevole e anche Age ma era proprio garbato l'avevo messo nel meglio dell'anno quindi come un coglione sono andato al cinema a vedere questo 47 metri Grit White poi mi sono reso conto che di 47 metri c'era la sega si intitolava solo Grit White e il 47 metri era per prendere gli all'occhi i testi di alzo per me che ci sono cascati di chignata e però una volta e se li fa ah non c'è o meno un cazzo guardiamo un po' sto film il film è così tre sono nella merda di affari c'hanno un aereo devono portare gente su e giù per l'isolotto cariano due che devono andare su quest'isolotto arrivano sull'isolotto trovano un morto gli hanno io io si riparte poi mentre ripartono via dall'isolotto vedono una barca fanno l'ammaraggio oh guarda no c'è morti anche via arriva uno squalo che gli deflagra l'aereo lo butta sott'acqua e questi rimangano su una zattera praticamente tutti insieme e poi di lì ma è il marzagro dello squalo che piano piano gira gira se ne mangerà uno dopo l'altro fino al telefiante finale è un film di merda un film veramente che è tossico c'è uno di quei classici film che ti fanno male al sangue ti fanno male al cervello un film di un'idiozia immane alla diretto se si vuol dire così in modo sconsiderato vista la lentezza visto il montaggio totalmente sbagliato vista le inettitudini degli attori da questo Martin Wilson che non riesce nemmeno a tenere l'attenzione per un decimo di secondo sono 47 metri di rompimento di cazzo l'unica cosa bianca e grossa che c'era in sala era lo schermo per il resto insomma lo squalo si vede poco quando si vede è fatto di artone che pare nemmeno all'anino malattia e inoltre la computer grafica fa schifo è la soluzione finale è una delle più deliranti che mi siano mai capitati di vedere al punto da dire che Paradise Beach quasi diventa un capolavoro diventa lo squalo di Spielberg erano belli i tempi in cui lo squalo nel suo essere così incredibilmente particolare perché un tempo film di squali film anche d'avventura avevano i loro sottotesti c'era quelli che ci trovavano ad esempio un attacco al comunismo pensate perché tutti uguali questi squali che ci rivolgono il nemico esterno quindi l'idea del fatto che chi non era americano è il diverso attaccava eppure dall'altra parte incredibilmente l'ideologia diceva che invece era un film anticonsumista anticomitalista che era il capitale che mangiava a se stesso quale sia l'idea comunque era un film che faceva anche riflettere al di là di una costruzione magnifica di una regia incredibile di Spielberg qui ormai ci troviamo 6-7 derelitti su una zattera per un'ora che chiacchiano dei cazzi loro senza che ce ne freghi un cazzo di niente perché non chiacchiano di cose importanti non sono buone a parlare e poi veramente la regia è quella di un B-movie dell'anni 80 ma dove cazzo siamo finiti questo nemmeno in un video doveva arrivare questo non doveva arrivare in nessun senso questo l'hanno girato evidentemente è arrivato col covid arrivava a lungo cosa ci hanno schioccato 47 metri davanti solo che qui ci so 47 metri non c'è una grotta non c'è buo c'è 4 stronzoli su una è open water 6.000 un altro un altro 4 imbecilli rimangono in mezzo all'acqua lo squale gira gira ne butta giù uno poi butta giù quell'altro torna su un mezzo e ritrova l'altro lo splatter praticamente assente l'attenzione se la sono dimentiata l'uniosa tesa è il giramento di coglioni dello spettatore che è teso si di pressione il giramento di cazzo e l'ansia perché sa di aver buttato via tempo e sordi guardando sta sozzeria e poi si 47 metri sono quelli di fossa in cui andrebbero seppellite tutte le copie di questo film di merda del quale ho anche parlato troppo perché qui siamo di fronte a una netta spazzatura di bella laida che non doveva vedere nemmeno la sala ma non doveva vedere nemmeno la luce niente funziona non fa paura non ha attenzione non è avventuroso non è recitato non è dialogato non è ecco diciamo che 47 metri grit white non esiste probabilmente è cancellato probabilmente manco l'ho visto probabilmente è una creazione matriziana della mia testa che mi porta a pensare di aver visto qualcosa di questo tipo perché il pensiero che esista davvero qualcuno che gira un film così e che questa roba vive addirittura al cinema è veramente perioloso fate un po' voi o merde della Marvel o DC o ste stronzate del cazzo ma mi dite un po' ma dove cazzo siamo feriti 47 metri sott'acqua probabilmente si ormai non siamo più sulla terra siamo su Atlantide evidentemente è per quello che ci garba certa robaccia mamma mia poverino De Niro io mi rendo pronto e ci avrà da pagare 64 mila mogli non lo so alimenti che cazzo ha comprato le 16 milioni di ville e ha le 76 Ferrari però questo nonno questa volta è guerra proprio se lo poteva assolutamente evitare perché dopo nonno scatenato che era la fine la monnezza è la fine di una carriera qui siamo al sottoterra di una carriera questo film firmato da Tal Tim Hill è qualcosa di inconcepibile la storia di questo nonno che praticamente ha dei problemi alle gambe è solo non c'ha la moglie ed è costretto a tornare a vivere dalla figlia e quindi prende la stanza del nipotino quindi il nipotino dichiara guerra al nonno questo in tre righe è la grandissima trama di un film che sembrerebbe scritto da un undicenne invece l'hanno scritto in quattro oltretutto questo è un film che riesce a sprecare oltre a De Niro un Christopher Walken che veramente non so perché è qui un Uma Thurman boh scivolata dentro un altro film di merda senza sapere il perché una Jane Seymour che anche lei boh venite in vacanza premia siamo dentro a uno di quei film brutti porca troia che non se ne può credere se uno sperava all'inizio che ci potesse essere all'interno di questa storia del cazzo una serie una sceneggiatura magari stiracchiata ma che parlasse delle differenze generazionali che facesse un'idea di cos'era di differenza avere un bambino di 10 anni con un uomo di 80 no e invece niente tutto questo va a puttane dopo primi 5 minuti per fare la guerriglia fra questi due a pallate a guerrigliate a scherzoni e si va sempre più nel patetismo nel patetismo più assoluto un Neniro che poverino resta cariato a pile un Christopher Walken che si dovrebbe riterasse se dovete fare questa roba vi ma tornate a casa avete una certa età avete fatto una grande carriera siete grandi artisti ma perché ridurvi a fare questa robaccia avete la possibilità di fare dei grandi film fate quelli tanto ormai soldi ce l'avete Uma Thurman dopo aver fatto il grande la casa di Jack sembra quasi che Hollywood non ce la vogliano più eppure quello era un grande film e guarda un po' il film dopo sé questo orrore nonno questa volta è guerra no questa volta è guerra da parte degli spettatori che evidentemente hanno disertato tutti la sala ed hanno pensato che il povero De Niro evidentemente fosse ormai un baccellone dell'invasione degli ultracorpi di Sigeliana memoria perché questo non può essere davvero lo stesso attore di Toro Scatenato non può essere Taxi Driver vi prego non può essere lui ridotto a interpretare uno così male male poi il problema non è nemmeno il personaggio che ha scritto col culo è quello Amen l'hanno scritto di schifo il problema è che si vede proprio che De Niro non ce la fa più cioè recita praticamente a casaccio sembra non avere più nemmeno i tempi comici e poi ripeto circondato da questo cast che è buttato dentro un cesso maleodorante perché questo è questo film questo film qui è semplicemente qualcosa di inconcepibile un film che non andava nemmeno pensato e dopo averlo pensato lo hanno fatto quindi ormai c'è e ormai di fronte diciamo al fatto acquisito non possiamo altro che rimanere basiti dal fatto che si siano spesi milioni e milioni di dollari per costruire una storia del genere che poi naturalmente finirà sempre a Tarullo e Cervino con il cazzo di Natale che dove siamo tutti belli e buoni a finale che se un ce lo mettono a Vesti Ameriani praticamente probabilmente quando arrivano a casa gli staccano le unghie le sceneggiatori non so perché cioè se sempre Natale devono essere tutti contenti alla fine ci avete rotto il cazzo questa commedia che voleva all'inizio sembrare caustica in realtà è caustica per il nostro stomaco nel senso è talmente acida che a un certo punto ti viene a gola tutto quello che hai mangiato il pranzo di Natale sì ma dell'anno prima da quanto fa ca sto film questa volta è guerra lo ripeto contro i distributori che lo hanno portato perché questa è roba che dovrebbe essere cancellata dalla storia del cinema e mai portata nelle sale e men che mai nell'on video e un'altra volta mi trovo costretto a dover mi sorbì un film che mette insieme appunto Robert De Niro Human Turman Regal Oix Feigli Laura Marano che non so ne men chi cazzo è Jane Seymour Christopher Walken per tirar fuori questa ossa V ora ditemi voi se uno veramente ne reperde tempo dietro la scelgiatura di questo Tom Hestel e Matt Ember che andrebbero entrambi denunciati secondo me al telefono azzurro per violenza su minori e maggiori perché questo film V nonna questa volta nonno magari nonna nonno questa volta è guerra è una delle cose più atroci che la produzione americana abbiano mai portato nella nostra parte e si dovrebbero un attimino di vergognare chiunque ci abbia partecipato perché siamo veramente di fronte alla fine di una serie di attori che siano Seymour che sia appunto Maturma che sia De Niro e che siano Walken che sono praticamente tutti rifiniti come per magia in questo bel sacchetto natalizio di merda il regalo è stato fatto ed è lì pronti per tutti quelli che hanno voglia di ingoniare tale schifezza ma si sa dico profili il mondo è pieno visti gli incassi stratosferici del film precedente 10 milioni di euro per una delle cose più brutte mai viste nelle sale che non si meriterebbe manco la televisione figuriamoci il cinema era me contro te e il signore essere di quella alzata lì siccome mi volevo falder male siccome al fine non c'è mai peggio abbiamo deciso di guardarsi questa orata di me contro te e due insomma e ora qui è sempre la storia di vesti due ragazzetti che sconfiggono nell'altro poi però arriva un'altra minaccia la devono andare a un mondo fatato grazie all'aiuto della ex cattiva ci rifiniscono e devono sconfiggere cattivoni ciao tutto vi 50 minuti di abodi di film di merda perché già di film non stiamo parlando in realtà sembrerebbe una web series anche di basso livello per la scrittura la recitazione questi proprio non sono buoni a fare niente se non probabilmente a mettere faccette like e sorrisini esclusivamente product placement siamo di fronte al nulla al nulla visivo all'inesistenza me contro te dovrebbe essere me cioè quelli che amano il cinema contro te quelli che lo odiano e amano questa zonzeria che questo già ma chiamarlo cinema mi pare un po' troppo è una web puntata una web serie allungata piena zeppa di sordi perché è tutto ambientato fantasy c'è tutte queste osse vide alla magia incantesime sti cazzi che non servono a un cazzo perché non è un film che risveglia minimamente l'aspetto fanciullesco dell'adulto che non vede l'ora dalla quarta testata nel muro di potersi aprire la scatola cronica e andare quindi all'ospedale potessi rioverare e smettere di vedere questo film e invece il bambino sarà rincoglionito dai discorsi di questi due che sono veramente nulli e da un'estetica completamente sbagliata e da un modo anche di gestire insomma l'educazione infantile secondo il sottoscritto veramente deleterio e quindi scazzo perdo altro tempo per dire rivesto me contro te e due ovvero il mistero della scuola incantata l'uniosa che è incantata è la testa dei vimbetti che riescono a seguire questa roba senza perdere neuroni per me questo genere di roba dovrebbe non avere spazio sul web figuriamoci nelle sale eppure un'altra volta ha incassato e quindi mi sa che mi toccherà il tre rivesto abominio ripeto me contro te due non è cinema non è roba da sala ma non è nemmeno un audiovisivo è semplicemente un incubo dal quale spero tutti prima o poi ne usciremo vivi boia che ciofecone gigantesco questo è veramente un film di merda non so perché qualcuno lo ha anche amato poi me lo farò spiegare se incontrerò questi critici perché non riesco a capire cosa ci possono trovare di buono in questo Monster Hunter di Paul W.S. Anderson che esordì bene con Resident Evil in un certo senso nonostante poi avesse già fatto The Soldier che era ottimo Punto Nino Ritorno che era un gran film al di là di Mortal Kombat e poi è diventato un video ludico di directo diciamo chiamiamolo così e tirato fuori i 6.000 film alcuni gradevano e alcuni meno questo porca puttana Monster Hunter ha un piccolo problema si sono messi a scrivere la sceneggiatura ma si sono dimentiati che ci potesse essere anche una storia dietro una sceneggiatura scritta lo stesso regista che è talmente basilare che viene quasi da piangere e da ride Mila Jogovic con i suoi soldati nel deserto tempestone di deserto si ritrova su un pianeta deserto dove ci sono mostroni e basta e qualcuno che li combatte e lei si allea insieme a questo Tony Yap per evitare che mostroni passino da una parte all'altra dell'universo e distruggono la terra e tutte queste cazzate il film poi è una sequela ignobile di ralenti di velocizzazioni movimenti su giù scavarcamenti e puttanate per una totalità di 105 minuti interminabili veramente interminabili certo Mila Jogovic è sempre in bel vedere Tony Yap ogni tanto a pirate fa bene ma questo è un film dovrebbe essere tale i mostri vandarevano sono una delusione anche se il design è proprio una delusione tutto computer non si utilizza mai un animatrone meno a pagare l'oro il ritmo è soporifero veramente si ammina sotto i piedi di una noia di velle mortali del film e poi è girato anche i piedi proprio perché ormai Anderson si mette lì riprende e non fa altro che mettere in scena una storiella veramente inutile noiosa e senza nemmeno un minimo minimo di appeal e uno come me che ama i mostroni giganti ama tutte queste cose veramente incomincia a girare i coglioni guardando questa cosa che distrugge ogni tipo di quel tipo di cinema potente divertente ma anche un minimo intelligente qui proprio siamo di fronte alla demenza pure non c'è alcuna alcuna idea niente tutto è di riporto non ci si diverte nemmeno come fosse un giochino proprio niente ormai lo stereotipo di Milojovovich su un carro armato e spara tutto ve le si vede è visto da 26 film e ripeto ci si annoia ci si annoia proprio perché non si riesce a dare una coerenza narrativa a qualcosa che sembra buttato a cazzo questi arrivano nel pianeta torna non si apisce cazzo è fatto veramente male inoltre il problema è proprio che nonostante i soldi non c'è questa volta nemmeno la tecnica ripeto perché questa volta Anderson se a me sbaglia tutto sbaglia il ritmo del montaggio sbaglia quando mettere le azioni sbaglia a non darci alcuna alcuna forza ai personaggi nemmeno ci dice chi cazzo sono praticamente arrivano lì fanno e vanno che palle con questo pianeta dove c'è mostri e solo dei guerrieri una vera ciofecona un altro film di merda di quelli che ci aspettavamo tutti noi amanti del fan horror con grande aspettativa arrivati al cinema ci siamo sentiti quasi accoltellati perché questo è veramente un troiaio in mane uno di quei film che non riesci a capire nemmeno perché esistono cioè sembra un film di serie Z a livelli fatti per la televisione anche questo a buttare via così e mangiare e vomitare invece è costato milioni e milioni fortunatamente per me ha fatto flop perché questo è un film veramente orribile uno di quei film che insomma dovrebbero fare pensare a Paul Anderson nella sua carriera e farlo ritornare un minimo ai suoi tempi gloriosi per me di punto non ritorno Soldiers o il primo residentivo dove aveva dato dimostrazione di essere un regista che poteva fare ormai secondo me questo gira ripetizione puttanate su puttanate non ha alcuna intenzione di perdere tempo ma fare solo esclusivamente soldi perché ormai è sposato come lo aveva per il città una vita ci fa film a raffia e certo questo è inconfrontato ai moschettieri forse pare quarto potere ma non resta il fatto di arrivare un film meno 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 che è mediocre quindi è un film da peggio perché non ci siamo di fronte a niente siamo di fronte a un film che annoia per tutta la sua parte siamo di fronte a un film dove anche il design delle armi a cui hanno collaborato addirittura i creatori del Gioino fanno veramente non sa di un cazzo nulla non c'è una sorpresa non c'è un colpo di scena non c'è una scena che sia legata all'altra con una perizia narrativa vera qui non si racconta un cazzo ma non si racconta di niente nemmeno di divertente è una palla mortale quattro combattimenti in uno dei 45 due coglioni che non finiscono mai personaggi abbozzati sceneggiatura veramente delirante e messa in scena da spot della BMW con gente spara mostri giganti a ralenti ci avete rotto i coglioni con il ralenti velocizzazione fotografie sparate qui un'altra volta si dimostra come tutti i soldi che gli vengono dati a qualche regista vengono buttati direttamente nel cesso mi dispiace per Paul Anderson ma qui veramente tocca tocca il fondo siamo di fronte a un film che insieme agli ultimi Resident Evil così dimostrano che questo regista qui praticamente ha mollato il suo talento nel cesso e ha deciso di chiudere e buttarlo sciacquone perché qui siamo di fronte veramente a un troiaio in mane recitato di merda senza storia senza nessun tipo di epica perché veramente si ride perché ci sono alcune battute che sembrano uscire fuori da Hot Shot 3 no veramente siamo di fronte alla pazzia uno dei classici blockbuster che era meglio se ne si restava a casa sua spero speramente che Paul Anderson si riprenda a questa impasse che ormai dura più di 20 anni e che inizia a girare qualcosa di decoroso perché ripeto se una mer talento ce l'aveva ma ha deciso di non utilizzarlo più perché tanto col talento i soldi non si fanno invece con le ripetizioni i film di merda a questo mi pare proprio di capire che in questo periodo si fanno più soldi di quanti a non pensare un bel film e a portarlo a casa quindi che cazzo voglio si fanno più di questo Monster Hunter il vero cacciatore di mostri è di morto lo spettatore che una volta che esce praticamente è allucinato non ne può le più di Verdeserto non ne può le più di Veleluci non ne può le più di Mila Jovovich e quando non ne può più di Mila Jovovich vuol dire che il film proprio è una merda che non si può guardare ecco diciamoci la verità Neil Burger quando vuole è qualcosa anche fatto ma porca puttana Vestano si ha fatto una sciofeca una delle vele sciofeche più brutte dell'universo proprio perché pedantemente e volutamente è anche quasi educativa vorrebbe essere un qualcosa di incredibilmente filosofico di altissimo invece Vesto Voyagers diretto appunto da Neil Burger con Colin Farrell e un gruppo di attori giovani tra cui la figlia di Depp il giovane di Ready Player One e altri si ritrova ad essere invece un film pieno zeppo di voglia di dire tante cose che non dice un cazzo e che è pieno di retoriche di inutilità e noia nella storia di questi che nel 2083 sono 30 ragazzini cresciuti in vitro mi pare che vengono spadati nello spazio per andare a colonizzare dentro c'è solo un adulto che è Colin Farrell che si rendono conto a un certo punto che gli danno delle droghe per levargli i sentimenti gli istinti più primordiali per non potersi ribellare a determinate cose perché poi dovranno raggiungere coi terzi e varta generazione questi pianeti sto cazzo si rinchiude tutta l'inutilità di un certo tipo di cinema fantascientifico che vorrebbe essere d'autore che vorrebbe parlare di cose altre che invece poi alla fine si riduce semplicemente a un soggettino di due righe interessante è una sceneggiatura talmente banale che non ci si può le credere Colin Farrell è l'etica col freno a mano tirata è lì che si guarda e boh non ci combina proprio un cazzo una parte assolutamente non sua gli attori giovani sarebbero anche bravi ma sono talmente sfavati che non ci si può stare poi quando ti mettono in bocca dei dialoghi del genere e una narrazione di questo tipo talmente manichea buoni da una parte cattivi da quell'altra una disgressione è assolutamente verso è un sistema al signore delle mosche che non funziona nemmeno per un secondo gli effettoni speciali sono lì che riempiono il vuoto cosmico di una sceneggiatura che non ha niente da dire di un regista che in questo caso la liscia proprio c'è tutta la pedanteria tutta la pesantezza di questo voler dire fare senza però avere veramente un'idea su cosa raccontare e su come raccontarla perché poi alla fine il cinema è questo a voglia di averci l'ideina sociale interessante se poi riesce a fare cinema di merda e qui siamo di fronte a cinema di merda sembra un firmaccio per la televisione pure vesto siamo di fronte all'ennesimo film messo insieme con un montaggio su soporifero con una musica che rompe coglioni 3 e 2 con dei personaggi che resciano talmente sopra le righe che a volte non ci si vuole credere e con una scrittura degli stessi che sembra fatta dagli zache per un qualsiasi pallotto alla spuntata ma purtroppo così non è perché non ci troviamo di fronte a un film demenziale ma sicuramente demente nella sua concezione perché non si può più vedere veramente dei personaggi regire in questo modo sullo schermo uno di quei Voyager Voyager su una sega questi vi proprio ma io non riesco a capire è proprio uno di quei classici film che non sai nemmeno come recensirli nel male perché è brutto in tutto è uno dei classici film che cerchi di andare a vedere con le migliori intenzioni sei lì fantascienza ti sembra di avere alta burger magari qualcosa potrebbe fare magari ce la fa stavolta anciafa zoppia anciampa rotola asca di sotto dar burrone e alla fin fine ci rimane in cadavere questo film è un film veramente orribile senza spessore che vuol dire di tutto e non riesce nemmeno a dire la cosa più banale del mondo vuol parlare dell'amore della morte dell'amicizia della droga dell'idea di essere della cultura o la natura cui ha vinto fra quello e quell'altro l'indipendenza essere diciamo così liberi da ogni tipo di governo instaurarne un altro nuovo tutti questi discorsi vengono fatti in due ore di puttanata che poi si risolve con uno dei finali più brutti che il genere ubano abbia mai pensato quindi per me questo è un vero ciofecone uno dei film più brutti dell'anno un Colin Farrell che rimbarza negli spigoli e tutti gli altri attori che ripeto seppur dotati in altri film qui continua a rimbarzare anche loro negli spigoli in personaggi talmente poco credibili che veramente non si riesce a capire come fanno a credersi loro all'interno del film va bene che non capiscono una sega perché non hanno vissuto sto scazzando un altro ma porca di una puttana prima ora di puro puro value movie ti addormenteresti ogni 15 minuti se onda ora dove ti incazzi ogni 15 secondi perché la sceneggiatura la messa in scena e tutto il resto fa veramente voglia di ca e ti gira il cazzo perché ti rendi conto che è tutto sprecato una fantascienza che vorrebbe essere alta e più bassa dell'asylum e una fantascienza che poteva essere comunque divertente poteva dire qualcosa se ci mettevi qualcosa che comunque l'avvicinassi un po' più al genere ci facesse un po' più creare tensione qualcosa di diverso da tutte le ruberie che ci sono in questo film da altri 6.000 film e che non riescono nemmeno per un momento ad interessare ecco qual è il problema di questo viaggiatore di questi viaggers che viaggiano viaggiano ma non arrivano da nessuna parte così come il film ha ennesima e altro troiaio di belli da dimenticare ad ogni costo qui siamo di fronte veramente a un classico film che fa girare cazzo piano zieppo di soldi piano zieppo di effetti con un bel cast eppure fa voglia di caccia qualcosa che evidentemente è andato storto uno di sicuro è quello di aver girato sta schifezza Darren Lynn Bozeman è uno che sa anche fare il suo mestiere è un mestierante che ha fatto anche qualcosa di gradevole però qui tocca dei livelli veramente di schifezza inaudita perché questo spiral che dovrebbe essere uno spin off diciamo di So e di questa saga che poi a me dopo il primo mi ha fatto ca a tutti quindi mi importa anche una sega di So questo spiral dovrebbe essere una specie di spin off e invece sembra quasi un post 7 in ritardo di 25 anni senza alcun senso nel quale viene inserito So così tanto per secondo me è così secondo me sembra una sceneggiatura abbandonata buttiamoci dentro So e così la facciamo perché la storia è quella appunto di Chris Rock che dovrebbe essere un poliziotto che praticamente incomincia a seguire determinati omicidi che sembrano rifarsi appunto a quello che faceva il nostro buon So nei film precedenti aiutato dal suo nuovo diciamo così ispettore giovanino come al solito classico coppia poliziotto più vecchio e poliziotto più giovane devono cercare insomma di trovare questa soluzione finché insomma questo nostro assassino non incomincia ad insiedarsi anche la polizia e ammazzare tutti quelli che ha intorno fino alla resa dei conti finale film veramente di merda questo ora prima di tutto va detto che Chris Rock è inadatto completamente a fare qualsiasi altra parte che non sia quella del comico televisivo è veramente inadeguato cioè non si può guardare non si riesce proprio osservare recita di un male che non ci si fa il regista oltretutto pur mettendoci un pochino di tecnica non riesce a creare una tensione nemmeno per un attimo la scena vera iniziale della lingua che lui si stacca è una delle più brutte che si siano viste al cinema lo splatter non è nemmeno così alto e poi ci hanno anche un po' rotto i coglioni si è visto 6.000 volte la soluzione l'ho scoperto dopo 15 secondi chi era il colpevole veramente è telefonato a tal punto che il TVM quasi da piange a un certo punto per la tristezza dell'inettitudine di questi personaggi che come cazzo sono scritti l'ho capito io dopo 3 minuti questi manco controllano su chi devono controllare sul serio manco controllano su chi assumono diciamo così in questa centrale di polizia e poi tutto rantola rantola nella sua ora e mezzo che sembrano praticamente 6 pomeriggi rantola 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 attorno a 3 omicidi 3 discorsi assolutamente fuori di testa sulla vita la morte e battute iniziali che vorrebbero sembrare quasi pulp in un casino incredibile cioè si butta questo Chris Rock che fa anche le sue battutine dentro una storia dove non ci combinano un cazzo si vuol dare un'idea di una polizia corrotta e non si riesce a fare nient'altro che romperci le palle per un'ora e mezzo perché il film è assolutamente senza tensione non scorre mai il ritmo è sotto i piedi ci si addormenta ogni 15 minuti si cerca di dire ti prego finisci ti prego finisci perché qui stoppe svenire la spirale la spirale gira è quella che ti entra a te nel cervello perché pensi a io questo film finirà mai è una spirale continua speriamo finisca speriamo finisca speriamo non sia finito io non un incubo alla Philip Dick ma mentre guardi il film però l'incubo non è creato dal film stesso ma dal fatto che lo stai guardando da quanto è brutto ti fa venire l'incubo e la sera dopo perché hai paura di essere sempre lì a sedere a continuare a guardare al cinema sta zozzeria senza contare che qui c'è un povero Samuel Jackson in vanza premio che io non so nemmeno perché ha accettato di fare questo sto troiaio cioè veramente insomma il Jackson è la sua forza una delle sue peggiori parti della vita se non si era chi ti ammazza al bodyguard e altra roba così in un film che vorrebbe essere serio in realtà anche lui sembra un'autoparodia è resta malissimo e il tutto è veramente condito in maniera sciagurata dalla sceneggiatura di Josh Stolberg e Peter Goldilfinger che in due non riescono a scrivere un dialogo uno che sia credibile quindi omicidi inutili storia che non va da nessuna parte irritamento totale dall'idea di appunto di aver sfruttato un'altra volta un franchise mettendoci dentro qualcosa che nel film si vede che è scritto è spinto con la forza totale di dover sfruttare per forza un brand una storiella che non starebbe in piedi nemmeno per un film di serie B dell'anni primi anni 90 da un video e che viene qui invece riproposta un qualche milione di dollari tutta piena di patinatura è l'inesima patinatura che non serve a un cazzo perché in realtà la fotografia è banale il montaggio non funziona la regia è moscia gli attori vanno tutti dove cazzo li pare gli omicidi sono visti e rivisti ed in più anche nei comportamenti tipo quello della lingua all'inizio non torna un cazzo quello che fanno nemmeno le vittime è veramente terribile questi ci mettono sei ore a capire quello che uno capisce in tre minuti sembra quasi un'autoparodia ma il problema è che non lo vorrebbe assolutamente essere e quel finale che loro si mettono insieme è ancora più orribile veramente una produzione di quelle che lasciano col cuore spaccato che fai porca puttana se il thriller americano è finito a dover rigenerare ancora so con l'ennesimo film che ci deve essere per forza l'enigmista dentro perché se no un sano mi fa andare avanti perché questo è un film talmente brutto che se ci levavi quello sembrava di vedere merci dei primi 2000 faceva voglia di canche ma mai quanto questo perché questo è veramente un film solo uno che si aspetta una cosa da so non la troverà perché poi sono tre trappoline di merda e lo splatter non è altissimo due che si vuole aspettare un woodnit un bel giallo non lo troverà perché questo film è scritto veramente col culo e si avisce dopo due minuti tutto quello che succederà terzo che voleva veramente comunque divertirsi avere qualcosa di ritmato e comunque cercare qualcosa che potesse al minimo assomigliare a un thriller horror ha sbagliato un'altra volta perché qui secondo me siamo di fronte veramente Napolotto l'ha spuntata 4 e nessuno ce l'ha detto una monnezza rara anche questo un altro cesso incredibile questo veramente un troiaio che è anche ricattatorio ripeto perché vi dice alcune cose sotto retorica che danno anche fastidio è un film anche stronzo in quello che dice e alla fin fine insomma c'è anche una moraletta è spicciola e anche un po' reazionaria per me questo è veramente un film di merda del quale tutti si dovrebbero dimenticare e nessuno dovrebbe pensare di averlo visto perché se si continua a fare thriller di questo genere si continua a guardare film di questo tipo e alla fin fine gli studio se non faranno altro che proporci roba rimasticata di merda come questa è rimasticata anche male perché resta l'hanno rimasticata vomitata ributtata giù rivomitata ributtata giù rivomitata e poi ci hanno lasciato il vomito non hanno avuto nemmeno il coraggio diciamo così di ricuscinare la pappa odiosa che ci hanno buttato fatto buttare giù per un decennio e che era già arrivato al termine e che qui cercano di rivitalizzare attraverso la monnezza della monnezza no veramente un film di merda così erano anni che non lo vedevo il peggior thriller del ventunesimo secolo allora personalmente non è che amassi nemmeno Spirit quello del 2002 di arte animato più di tanto se non per la buona disegna l'animazione è una storia discreta ma non lo amavo un gran che perlomeno però parlava di nativi americani aveva un certo sguardo che si poteva interessare visto a vent'anni di distanza forse era ancora più interessante bene ci ha pensato questo bel Spirit il ribelle di Eleni Bogan e Ennio Torzana a tirar fuori uno dei peggiori film di animazione dell'anno un troiaio in mane veramente una palla gigantesca per un film che vorrebbe essere educativo e che invece è al massimo buono per Ride Education siamo a livelli proprio basilari di cinema non c'è quasi più niente hanno voglia di animare di mettere di discutere sta storia di questo cavallo di questa ragazzina non ingrana mai ti fai due coglioni che paiono tanto la retorica è dietro l'angolo ogni secondo non si riesce a star dietro alla storia che è veramente patetica e poi il problema grosso è che quando si vuole raccontare una storia del genere ci vuole una forza nei personaggi un afflato epico un montaggio una voglia di fare animazione un pochino più adulta qui invece il tutto vorrebbe essere adulto e invece è al massimo rivolto a bambini di 3 anni anche poco svegli insomma per quanto era in un certo senso seppur non amandolo possente epico in un certo senso catartico l'altro film serio qui in realtà è tutta una storiella di Vestalachi e di Vestocavallo che si ritrovano come amici è la storiella dell'amica che se c'è un amico accanto tutto è raggiungibile le solite moraline in realtà sbagliate inutili che non raccontano la vita vera che non cercano assolutamente di essere nemmeno favolistiche questo è veramente il brutto del film non è una favola e non è nemmeno realista è il classico film paraulo budiulo che io non sopporto è il classico film di mezzo che non riesce a contentare bambini non riesce a contentare gli adulti riesce a contentare solo qualcuno che vuole guardare qualcosa che si muove sullo schermo poi tutti i soldi che hanno speso io nemmeno li vedo così bene perché seppur l'animazione fatta bene tutto il tratto non mi piace per un cazzo e mi proprio la regia la messa in scena le musica sono insopportabili secondo me è proprio un classico film di merda che riprende quel cavallo lì riprende appunto dopo vent'anni quel film perché all'epoca aveva un buon successo ma poi è diventato un super cult ci hanno fatto addirittura mi hanno detto una serie su Netflix che è cool e guarda caso dopo una serie su Netflix che mi dicono inguardabile è venuto fuori un film appunto un'altra volta inguardabile come questo spirit in ribelle che di ribelle c'ha solo praticamente il titolo perché il classico film invece stralineato super delle megaproduzioni ameriane che non dice mai un cazzo di nuovo e che quello che dice lo dice anche male e ci ha anche rotto i coglioni una bambina così insopportabile veramente non si vedeva da decenni e la sua voglia di riunirare le sue origini messicane a me mi fa veramente incazzare in questi filmetti ameriani che raccontano solo bugie ai ragazzini e questo non va assolutamente bene qui siamo di fronte all'ennesimo film diseducativo brutto malfatto scritto col culo e che oltretutto vuol mettersi anche dalla parte dei perdenti e dei deboli e tutto il resto quando in realtà poi fa puntare a questi perdenti e deboli a essere semplicemente vincenti quindi classico film di merda animazione orribile e stavolta veramente non si salva niente dall'inizio alla fine ho avuto veramente voglia che questa bimbina cascasse da cavallo e si spezzasse la schiena in due sarò stronzo io e ci risiamo con i remake che nessuno voleva e di cui nessuno sentiva il bisogno che Hollywood continua a sfornare inesorabilmente chiaramente dopo il meraviglioso Chi ha paura delle streghe di Nicola Strohi con una splendida Angelica Houston era inesorabile sul gruppone nostro che non ci arrivasse il remake e stavolta ero abbastanza così con gli occhi aperti visto che il regista è Zemeckis un regista che amo particolarmente anche se ha fatto tante cate però l'ho monografato un regista che amavo sono andato con tutto il cuore mi sono buttato sulla visione di questo le streghe pensando di trovarmi di fronte a qualcosa di interessante invece mi sono trovato di fronte a una riduzione del romanzo di Dola abbastanza fedele negli intenti ma ma ne fatti prima di tutto non siamo negli anni 80 prima di tutto il bimbo non è norvecese siamo negli anni 60 Alabama e il bimbo è di colore e fino a qui ci si può stare la storia è questa il bimbo è orfano va dalla nonna la nonna gli dice ah io c'è le streghe che ci hanno sgamato andiamo nell'albergo del mio cino dove ci lavora tutti ricchi tutto bello lui non ci sgamerà nessuno invece lì c'è il ritrovone di streghe che vogliono trasformare tutti i bambini in topi sgamano il bambino con la sotopolina trasformano un altro bambino in topo e anche lui e così insieme alla nonna che è cosa Octavia Spencer dovrà insomma dare un casino e combattere a Nathway che è la capo strega allora il film non funziona non riesce mai a far paura non riesce mai a essere cupo non riesce mai a essere gotico è troppo colorato Zemei che se l'ha completamente buttata di fuori ha girato un film proprio fatto per bambini 4 anni non ha niente di interessante gli effetti speciali sono troppo computerizzati non funzionano minimamente proprio non ce la fanno e non c'è angoscia quando le streghe si levano e diventano tutti pelate e vedi che fanno schifo con le mani divise e pare Spock cioè non si può guardare le mani così che sembra veramente Star Trek è un film che non inquieta è un film che non riesce nemmeno ad essere interessante nel suo poter essere antirazzista questa idea degli anni 60 aveva portato in Alabama non era assolutamente male e invece così è buttata a cazzo di cane solo per il servizio di un regista a questo punto Zemechis che non aveva un cazzo di niente da dire dispiace perché qui dentro c'è di mezzo Zemechis del toro Cuaron che l'hanno prodotto eppure che cazzo hanno visto eppure ripeto tutto il mondo ha detto che è un grande film e io sono diventato c'è un c'è però più una sega ma io questo film vi per due ore un'ora e quaranta volevo morire stavo dormendo ogni tre minuti ma andava giù così è diventato uno dei miei nuovi value movie io che soffro di insonnia metto vesto 40 minuti e dormi per forza non sa di un cazzo non sa di assolutamente di niente non fa paura non ha ritmo non è avventuroso è troppo impiuterizzato e ti fai due palle che sembrano veramente due omeri cioè qui le streghe un'altra volta così the witch uno spera che Zemeckis gli dia una botta di cattiveria è troppo grottesco il film è troppo giocato su delle cose banali troppa ironia troppa veramente l'ironia che giocava nel bellissimo chi ha pure delle streghe con la grande Angelica di Houston era un'ironia crudele un'ironia molto più paurosa aveva quel senso quei colori così forti il rosso e poi quei tagli invece cupissimi qui invece è tutto colorato tutto acceso è un glitter ma che cazzo è le streghe glam rock ma ci manca che spuntassi da un momento all'altro a suonare a me e Mark Bolan insieme alle streghe e Bowie sarà tutti a posto ma chi fanno paura a queste streghe nessuno ha paura delle streghe forse si chiamava chi ha paura delle streghe velo vecchio e qui nessuno ha paura delle streghe non hanno paura manco topi tra un po' non hanno paura nei miei bimbi e sono lì dentro l'unica paura che ci sa delle streghe è che ne facciano un altro o che insomma venga fuori qualcosa tipo una serie tv e che ci stressino ancora ai coglioni con un'opera che ci ha veramente frantumato c'è uno di quei film che quando guardavo la mia moglie ogni 10 minuti si è fatto ma che cazzo stanno a fare e subito dopo la voglia di rischioccare il dvd di chi ha paura delle streghe ve lo dirò è stato troppo forte e siccome a voglia di dire un remake di quello perché è il solito mezzo è il solito media quando guardi uno e guardi l'altro ti rendi conto come in 35 anni il mondo si è cambiato cioè prima davano spazio ai dialoghi davano spazio alla personalità c'erano dei movimenti di macchina interessanti cattive da Luna Park effetti speciali al computer tutti uguali il trucco manco si vede e se un film del genere manco riesce a divertirmi dovete dire a che cazzo serve a che cazzo serve un'altra volta serve a fare soldi su un'idea vecchia come il mondo ma inventatemi un film sulle streghe e i bambini in pochino nuovo ci siamo rotti i coglioni di vedere sempre il solito film sti sequel reboot rest i cazzo hanno sbranato il cazzo perché non si tranne rarissimissimi casi è sempre una ripetizione di una formula che deve essere quella che a casa vogliono vedere e quindi mi dispiace per Cuarón mi dispiace per Del Toro mi dispiace per Zemeckis mi dispiace per chi l'ha scritto che è Zemeckis che è Neabaris e Guglielmo Del Toro ma cosa avete scritto Del Toro li devono aver dato tanti dei soldi non hanno mai visto in vita sua e qui è un film fallito il fallimento proprio di artisti che io ammiro perché anche loro sbagliano si buttano addosso a un romanzo cercano di farlo molto più simile cambiano l'ambientazione mi va bene ma poi non funziona nulla perché se non c'è tensione se non c'è un po' di paura se l'avventura è addormentante se gli attori sembra che siano dentro una stanza verde che si guardano intorno senza più dove sono veramente mi sembra che il film sia andato a puttane ma a puttane di brutto qui ormai non si sa più nemmeno distinguere quando è il caso certe cose di non toccarle e questo è il caso proprio di non toccare più quel racconto è venuto bene quel film e basta e Del Toro Fai Varco Sartre 23 anni in Fai Filme dalla forma dell'acqua ci rompi il cazzo a produrre sta merda e anche te Zemeckis mi avevi fatto sta bene a Marwin e sei tornato sta zozzeria incredibile e non ci non si può tutti insieme si è Cuarone anche te Cuarone non facevi film d'autore e cazzo ti sei messo a scrivere sta monnezza io ho capito che secondo me la Warner vi deve aver pagato più di tutti i film messi insieme o forse ci avevate il contratto sta di fatto che le streghe qui in questo caso sono tutti i produttori i registi e chiunque in realtà abbia avuto intenzione di fare del male al povero spettatore che fosse piccolo o grande non c'è alcuna differenza quando si esce la visione di queste streghe l'uniosa e ti rimane negli occhi è un povero Stanley Tucci che non sa dove guardare gli attori che ripeto sono impambolati e alla fin fine ti rimane in mente di questo film la scritta The End perché almeno ti sei levato un peso l'hai finito allora l'escape room è stato un gioino proprio per la gente si divertiva a scappare dalle stanze ci hanno fatto 6.000 escape room anche via Livorno Roma ovunque c'era queste escape room passata un po' la moda però ne sono usciti i 47 di film il più famoso era quello del 2019 di Adam Robitel che incassò anche un bel po' e che era veramente un troiaio inimmaginabile questo escape room 2 troiaio ancora più immaginabile è il sequel di quella Hobo Robrio sempre diretto dallo stesso regista quindi non diretto diciamo buttato lì con una messa in scena paratelevisiva di vele tristissime e interpretato da una serie di attori uno più incapace dell'altro qui si riparte con gli unici due sopravvissuti all'altro escape room che siccome sono furbi invece di farsi cazzi loro decidono di reinserirsi dentro il gioco dell'escape room perché cercare di andare a sgamare chi sono i cattivoni ma i cattivoni naturalmente ne la sanno più di loro e decidono di fare una specie di escape room on the top cioè mettono insieme tutti i belli scappati dall'escape room per scappare dalle nuove escape room film action veramente inconcepibile uno di quei classici film che non hanno ritmo che non hanno azione che non hanno tensione non hanno niente poi oltretutto siccome si punta a un pubblico di giovinastri per non beccare neanche un dipiato qui non c'è niente nemmeno a livello di sangue non c'è un escape room che sia veramente interessante ce ne sarà due che fanno cacare al cazzo è uno di quei classici film che non si capisce perché esistono esistono forse perché la gente li vuole certo ma la gente potrebbe volere ben altro che quest'idiozia un'idiozia di un'ora e mezzo con gente che rimbarza da una parte all'altra quiz che non sarebbero possibilità di indovinare se no appunto sapendo il risultato sono veramente scritti col buco del culo in più il sesso non esiste il sangue non esiste è tutto edulcorato proprio per un pubblico di ragazzini che vorrebbe fare i salti ma che non riesce nemmeno secondo me a divertirsi con questo troiaio perché è un vero troiaio stiamo parlando qui c'è una fotografia che è completamente sbagliata non riesce mai ad essere fatta bene nel vero senso della parola per un film del genere attenzione non esiste nemmeno per un minuto proprio il nostro non sa creare niente quando dovrebbe arrivare l'olore pure ed esplodere manco esplode pure quello perché questa volta censurano tutto sembra di trovarsi di fronte a un hostel a un show fatto per i ragazzini di otto anni c'è senza nemmeno però l'idea politica né sociale di questi film qui siamo proprio di fronte al niente al niente più assoluto il classico horror thriller che non dovrebbe esistere con questi attori inevititi ai quali mettono in bocca delle battute che si dovrebbero vergognare se questo è l'horror indipendente per favore fatemi scomparire dalla terra con tutti i belli gli horror indipendenti ucciti italiani che sono costati quanto una stanza di queste escape room tutti insieme qui siamo di fronte a veramente al fine ultimo di questo giochetto speriamo non ne facciano più perché se questo escape room 2 fa stracami immagino se potrebbero fa col 3 ma siccome mi sa che non ha avuto nessun tipo di successo spero di non trovarmi di fronte un altro anno a escape room 3 perché insomma 1, 2, 3 veramente è perseverare è da essere diabolici è anche diabolico è chi ha deciso di mettere in scena questo film perché è un film veramente terribile è uno di quei classici film che spostano l'asticella verso il brutto e quindi se le persone iniziano a amare questo poi ci butti nunne e Annabelle e tutte vele puttanate l'horror che sia sovrannaturale o che sia di sopravvivenza e tutto scivola sempre più nella puttanata e scivola sempre più nella voglia di non mostrare e raccontare niente se non appunto un pochino di questa gente che si rincorre per cercare di rimanere viva dentro una trametta vista 4.750 volte almeno negli ultimi 30 anni e che risulta l'ennesimo dieci piccoli indiani del cazzo che nessuno voleva vedere in questa condizione devastante che questo regista non riesce nemmeno minimamente una volta a far tornare perché è un film proprio che non torna a cosa succede la scena iniziale alla metropolitana loro ci rifiniscano dentro ma come cazzo fai ma nemmeno se tu fossi il presidente degli Stati Uniti no veramente c'è sotto un qualcosa di talmente grosso che poi inizierate a ride a metà del film perché qui veramente siamo altro alla teoria del complotto siamo alla teoria del cazzaro proprio non se ne vuole più veramente gli sceneggiatori hanno deciso di scrivere questa cosa probabilmente in transipnotica e il regista l'ha diretto da sotto il tavolino mentre dormiva non posso credere che qualcuno abbia davvero avuto un ruolo decisivo in questo film né un direttore da fotografia né un operatore se non assolutamente i produttori che hanno detto va tiriamoci su qualche altro milione di dollari da questo cesso di idea e da questo cesso di idea che è alla base l'escape room perché diciamoci la verità è cinematografica quanto praticamente nascoreggia non si vede non si sente ma puzza parecchio ecco questo è escape room 2 veramente un insieme totale di monnezza che buttata lì potrebbe forse divertire qualche ragazzino di 13 anni che non ha mai visto un cazzo ma secondo me manco loro perché l'idiozia del film veramente è talmente elevata che non si crede mai nemmeno ad una scena ogni volta si ha l'idea l'impressione di trovarsi davanti alla truppa e la macchina da appresa perché il film poi utilizza anche i mezzi cinematografici in maniera talmente ma al destra che siamo di fronte davvero alla schifezza della schifezza veramente collezioniamo mostri questo è collezionatore di mostri un film così brutto 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 non lo vedevo da tanto tempo una noia mortale al cinema praticamente mi volevo strappare una rotola per provare sentire qualcosa di diverso dall'orrore che provavo nel guardare film orrore però che non veniva dalla narrazione e dalla storia ma dal fatto che stavo perdendo ancora tempo della mia povera vita il story cazzo è una sciagura uno dei registi peggiori che l'universo abbia creato negli ultimi 50 anni ogni cosa che tocca la distrugge tipo un drago è praticamente ha provato a far Shaft l'ammarza grato ha provato a fare i fantastici vattro ha tirato fuori roba che si dovrebbero vergognare che quella roba che ho parlato oggi tipo Shang-Chi sembra quasi al confronto è un film in i belunghi cazzo di Fritz Lang e qui un'altra volta tocca un qualcosa questa è l'annata della distruzione della mia infanzia tocca un qualcosa che era semplice e funzionale per quello ovvero Tom e Jerry che avevano già avuto un adattamento nel 1992 che faceva voglia di cacare e anche questo Tom e Jerry il film praticamente è una zotta incomprensibile perché in realtà ruota tutto attorno alla storia di questa ragazzina che viene presa per puro caso a lavorare dentro un albergo e che deve organizzare il matrimonio di due grandi ricconi Amiriano è una stare di Bollywood tutte e due insostenibili e quindi deve organizzare questo mega matrimonio fatto di cose assurde e in mezzo a tutto questo si stagliano questi due Tom e Jerry praticamente all'interno di una storia completamente sconclusionata della quale non mi frega un cazzo veramente a nessuno sto nemmeno qui nemmeno a raccontarvela se Tom e Jerry funzionavano nacquero appunto come contraltare la Disney scappò uno dalla Disney fu preso dall'MGM e li fecero fare questi Tom e Jerry che erano semplicemente sempre una fuga una fuga continua quindi non avevano una sperimentazione a livello proprio di personaggi arrivava il cane e c'era la gattina che qui chiaramente tornano disegnati pure essi al computer di merda perché poi in questo Tom e Jerry cosa si fa? si elimina il tratto e si riporta un'altra volta la computer grafica a distruggere tutto quello che era in realtà l'immaginazione di quei Tom e Jerry lì degli anni 40 e alcuni anche abbastanza razzisteri se ci ricordano insomma però era un tipo di commedia completamente slapstick così cartunesca che durava pochi minuti e dalla quale ci si divertiva a un certo punto proprio per la completa assuridità qui invece trasportandolo in un mondo normale loro che non sono in live action sono a cartone non si capisce perché gli animali sono così e rimani già stordito e la messa in scena di questo team story è al solito infantile è roba veramente da televisione di vent'anni fa non siamo di fronte a una storiella sciagurata questa vicchia deve organizzare che cerca lavoro ma poi come arriva? arriva sono io la prendono sia lavorano nell'albergone non stanno nemmeno a controllare se è davvero il foglio che ha inserito è il suo o no siamo in fronte alla follia e poi la bellezza di Tommy Jerry era il loro mutismo la loro completa e assoluta estraneazione da un mondo umano parlavano con lo sguardo sfondavano la quarta parete non avevano quasi nessuna unione con il mondo umano se non in qualche piccola inquadratura e quindi funzionavano per questo per il loro mutismo per il loro essere così quasi appunto una slapstick degli anni 20 e invece qui vengono messi in modo che ragioni non diventano amici poi nemici che tirano su cartelloni per ragionare con lei una cosa veramente delirante un film orribile non ha ritmo gli effetti speciali fanno veramente stracassimo di fronte a un film che neanche quando vuol far ridere riesce a ridere perché è talmente mal scritto che ti cascano le palle e in più tutti gli attori sono imbalvolati tutti proprio perché secondo me imbarazzati da una sceneggiatura di tal Kevin Costello che non dovrebbe più scrivere nemmeno i bigliettini da la Uri ai propri familiari da quanto fa cacca questo film siamo di fronte a un film veramente orribile non passa mai un'ora e tre quarti che finiscono 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 Tom e Jerry sono semplicemente poi alla fine un McGuffin fanno sempre solo cazzate distruggeranno chiaramente tutto con questi cazzo di elefanti al computer pure essi basta ma che senso ha è un film taramente scemo è brutto che nessuno ci vuol credere nessuno vuol credere che anche questo sia uscito è roba da pedate in faccia Tom e Jerry una sega cioè qui veramente si spera dall'inizio alla fine che arrivi qualcuno e che faccia fuori il topo e che prenda il gatto e lo voli dal terzo piano perché in quella stastoriella di questo gatto viene buttato nell'albergo per cacciare il topo che ormai è entrato nell'albergo e fa casino e lei se non al matrimonio ricasca tutto veramente ma chi ci si è messo ma come l'avete scritto un soggetto così ma cosa vi passava per la testa e cosa vi è passato per la testa rimettela ancora in mano a questo team story che ce l'aveva amici altissimi perché tutti i suoi film sono flop fanno tutti ca e questo continua a lavorare inesorabilmente un inetto dietro la macchina appresa mi dispiace ora magari sarà anche la persona più simpatia al mondo ma come regista fa veramente stracà e questo Tom e Jerry dimostra un'altra volta la sua inettitudine non c'è commedia non c'è ritmo non c'è niente sembra di trovarsi di fronte ripeto all'ennesimo film firmaccio degli anni 80 di serie Z con dentro però due miti come Tom e Jerry qui ridotti ha una cartolina spiacciata in 3D che non ha alcun senso perché non si vede nemmeno più la voglia della matita la voglia di creare qualcosa di interessante perlomeno a livello un minimo artistico qui è tutto commercio tutto commercio è pieno seppone ha trovato di product placement e non se ne pone più di questa gente che deve recitare chiaramente con green screen e qui più volte ci si scavalca perché questi non stanno nemmeno dove cazzo guardare e quando sono in scena appunto con gli animali diventa tutto un casino perché se no metti in story un sa gestì manco gli effetti speciali ennesima tristezza di film ennesimo film di merda che un'altra volta distrugge un mito come quello di Tom e Jerry che già era comunque un mito dell'infanzia ed erano molto divertenti all'epoca ripeto seppur a tratti razzisti e poi sono cambiati in maniera esponenziale insomma per concludere il classico film di merda punto Tom e Jerry vengono distrutti e ripeto già non è che fossero dei personaggi giganteschi anche nella loro nascita nonostante fossero originali e divertenti ma qui Team Story veramente dimostra un'altra volta la sua totale come ho detto inettitudine e ci porta via due personaggi che comunque avrebbero potuto dire qualcosa al cinema ma che probabilmente per il cinema comunque non sono nati e non funzionano nonostante qualche apparizione in qualche film degli anni 50 dove apparivano così questa commistione un'altra volta fra live action e cartoni non funziona assolutamente prima di tutto perché ripeto l'animazione fa stracà i nostri non si possono vedere fatti in computer grafica così come non si potevano vedere i Looney Tunes con Tom e Jerry qui si cercava quasi di fare l'inizio di una nuova saga che fortunatamente non funzionerà mai non arriverà mai perché il film ha fatto il suo grosso flop quindi la Warner con questo e con Space Jam riesce a regalarci due dei film live action misti animazione più brutti degli ultimi 50 anni complimenti perché era veramente difficile fare merda rara e farne doppia tra i film più fettenti degli ultimi 20 anni ci sono sicuramente i due G.A. Joe uno più brutto dell'altro e naturalmente poco mi aspettavo da questo reboot se quel prequel non si apisce bene insomma sulle origini appunto di Snake Eyes dei G.A. Joe e quindi si punta sulla base ninja diciamo sulla parte più fantasy della storia e la storia è quella lì il bimbettino viene salvato si salva dopo che hanno ammazzato il Subab lo ritroviamo 30 anni dopo e fa botte dentro le gabbie per questa gente vi praticamente dove sconfigge chiunque viene avvicinato a un boss della Yakuza che gli offre in cambio di uno dei suoi servizi di scoprire praticamente l'assassino del padre in modo che lavorando insomma si avvicinerà a Thomas della famiglia Arashikage a cui praticamente salva la vita e di lì poi appunto si avvicinerà a questo clan giapponese dove verrà inserito e dovrà superare delle prove poi si infilerà dentro appunto i cobra e i cazzi e i mazzi per una storiella veramente di merda una storia veramente orribile girata da regista di Divergent I.O. e di quella ciofeca che era rip dei poliziotti dall'aldilà con un Jeff Bridge irriconocibile e un Ryan Nelson impedito come quasi sempre e qui non fa di meglio questo Robert Sheff che è buono al massimo per una seconda unità perché insomma se diciamo così i soldi spesi sono miliardi e quindi la fattura del film può essere anche gradevole e il problema è proprio la storia la narrazione è assolutamente inseguibile cioè non si può far combattere dentro una gabbia fino ai 30 anni e poi diventare il più grande ninja dell'universo ovviamente di una stupidità che non si può guardare inoltre non si può tirar fuori per esempio il protagonista di The Ride solo per fare i guappi e fare le scene d'azione con lui che è bravo e se non gli giri attorno come si deve se non metti la macchina a presa dove devi metterla è veramente l'effetto John Wick anche l'effetto The Ride si perde completamente proprio perché questo è un film veramente vuoto vuoto di ogni afflato epico ci si rompe i coglioni tutto il film un'altra ennesima dimostrazione del cinema d'azione che più che d'azione è veramente in volume movie ci si trova di fronte all'ennesimo film blockbuster che sembra invece un film di serie B degli anni 90 anche per un certo tipo di estetica non se ne pone più l'unica scena che si salva forse è quella sulle macchine sull'autostrada poi il resto è spazzatura spazzatura completa siamo in fronte a dei dialoghi che non si possono ascoltare siamo di fronte a una regia che non esiste perché sto regista non ha idea di come si faccia proprio la costruzione della tensione come si costruiscono dei personaggi come la narrazione debba comunque muoversi cambiare a seconda anche di dove ci si trova di come ci si parla insomma un film che parte dall'America poi arriva in Giappone e non si muove più e una volta arrivato in Giappone diventa ammasso cioè questi lì che poi dicono cazzate grosse come come case sono 400 anni che ti amo il Giappone fuori dai guai insomma andrebbe detto Hiroshima ma chi l'ha scritto cioè fuori dai guai questi sono diventati conazisti hanno fatto la guerra a tutto il mondo hanno preso due bomba Tommy però mai le teneva fuori dai guai classico film di merda dove praticamente non si racconta niente si vuol fare azione tutto il tempo e appunto per le ennesime due ore e cinque minuti sempre film incredibilmente lunghi non si assiste altro che a duelli mazzate puttanate è una seriosità che non sta mai in piedi mai gli effetti speciali tra l'altro computerizzati fanno anche veramente e poi quest'idea appunto del nostro che va a fare queste prove che diventano così fantasy a un certo punto storidiscono anche proprio perché non hanno alcun senso proprio senso narrativo non si capisce cazzo faccia questo non si capisce perché vuole entrare lì la ricerca degli assassini del padre e tutto il resto veramente sono scuse banali da film del muto ormai sono passati cento anni che avevano utilizzato trame del genere quando si utilizza una trama così semplificata bisogna trovarci dentro dei personaggi potentissimi trovare dei caratteri forti bisogna dare al film spinta e la spinta qui non esiste mai la spinta è quella che ti dà il regista a te di fronte a un burrone ti buttare sotto quando guardi questo film perché due ore pare veramente di aver perso 15 anni della tua vita i neuroni scoppiano non vogliono più lavorare le braccia diventano sempre più molli e alla fine probabilmente smetti anche probabilmente di pensare completamente è uno di quei film che quando lo guardi sembra che il tempo si fermi non passi più ma non per la bellezza e così prima ma proprio perché ogni scena sembra identica all'altra non c'è mai un vero cambio di fotografia non c'è mai un vero cambio di ritmo il film è sempre sparato ci rompe i coglioni dall'inizio alla fine con quella musica assordante con quelle botte enormi ci hanno rotto i coglioni non si riesce più a costruire qualcosa di decoroso con questi filmoni questi blockbuster sparano soldi da tutte le parti quindi cercano di fare grandere ovunque la grandere magari arriva ma poi non serve a un cazzo perché non è né messa in scena a livello proprio di regia con grande classe perché questo vi non è un registone che gira a me tanti altri shooter e quindi si perde l'idea l'idea del regista il film non ha niente da dire a livello proprio di storia e quello che dice lo dice pure male perché insomma è un film davvero bruttissimo delirante non si può guardare non si riesce a guardare come non si guardavano gli altri due G.I. Joe sono i classici personaggi da Hasbro del cazzo che si vergognavano di chiamarle bamboli che hanno inventato la versione action figure perché sennò i ragazzini quando gli ridavi si sentivano pochi macici è veramente un film macista per una serie di pupazzetti fascisti e macisti pure altri che seguono una serie di due G.I. Joe brutti reazionari non si potevano guardare manco velli fatti col culo e diretti anche peggio e questo vi è peggio di velli forse siamo a dei livelli allucinanti di noia allucinanti di imperizia qui non si sa nemmeno dove mettere la macchina da presa è tutto fatto a cazzo di cane sembra proprio che si siano spenti cioè sembra proprio che il regista sia andato a manza premio che i quattro sceneggiatori il regista non riesco a capire come non la fanno a scrivere in metà qui ci vuole metà sceneggiatore per scrivere una cosa del genere talmente brutto e scemo che non ci si crede girato di merda e con un'ottica e quella del ninja orientale completamente sbagliata tutta americanizzata che non ha proprio senso non c'ha forza fa sembrare volvere l'immortale ambientato in Giappone come in capolavoro ma veramente l'inizio poi con la cosa è orribile orribile con questi poi da voi guardalo se non l'avete visto io non ve lo voglio sputtano magari folle a voglia di vederlo io il link vi sotto lo metto ma qui siamo di fronte veramente a roba che è agghiacciante se questo è il cinema di arti marziali americano di adesso se questo è il cinema d'azione di adesso se questo è il fantasy di adesso di USA devono rivedere qualcosa perché fa talmente cacca e secondo me è stata anche in flop gigante non lo so non sono andata a vedere a me poi degli incassi mi porta anche un po' un cazzo ma spero proprio di sì così la smettono di farci gioco tra i coglioni perché questo film è veramente delirante brutto come pochi e rompe altamente il cazzo ogni minuto che passa non c'è niente niente che si salvi Naikai Snekai se G.I.J.O le origini le origini della merda quindi teneteveli pure perché avete originato ancora altra merda con queste origini e mi pare che possano bastare tre film su G.I.J.O tre film su dei personaggini di merda dell'Asbro che non contavano un cazzo tre film che fanno voglia di K.A e questo Snekai se nonostante qualcuno dicesse no è ganso di là di su di giù butta dentro due tre cose per voler essere ganso appunto come quello di The Ride qualche scena d'azione e una confezione hyper patinata e invece poi alla fin fine ci si trova di fronte a un film che pure American Ninja sembra quasi avere più forza e voglia di dire qualcosa fate un po' voi perché questa veramente è monnezza totale due film di merda che stanno per Bruce Willis ci va a rifinire due volte e con due fantazioni horror bene bene complimenti a Bruce Willis che ha scelto proprio bene i suoi filmini il primo è veramente inguardabile abbiamo già parlato un troiaio indescrivibile è questo bridge di tal John Switz scritto da a quattro mani da Corey Large e Edward Drake che hanno fatto più danni praticamente di uno tsunami film di merda con Thomas Jane appunto Corey Smith Raquel Nichols e appunto Bruce Willis in vanza premio allora qui si sta praticamente si parla di una classe ennesima astronave che sta a farsi l'ennesimo al viaggio in stesse stellare per fuggire ad una nuestante epidemia sulla terra vanno sul nuovo pianeta Clay e il suo piccolo pisaggio sono responsabili della sicurezza degli ultimi umani sopravvissuti anche se lui era un ex capitano vabbè testecazze poi incominciano però a morire gente dentro in maniera assoluta e ci si rende conto che in realtà all'interno dell'astronave è stato portato un parassita alieno che trasforma la gente in zombie e in mostri allucinanti e di lì poi tutta la trama del film che non esiste ci sono tre cose che non vanno fatte quando si fa un fanta horror primo non si deve mai mai svelare troppo e mai mostrare tutto dopo tre minuti e il film lo fa subito secondo si devono creare dei caratteri molto credibili molto forti in pochi momenti in poche inquadrature con dei dettagli e naturalmente tutto questo non esiste terzo si deve avere una forza nella tensione nella gestione dei tempi che deve essere per forza quella si deve muovere su determinati canoni per poi spezzarli e risultare a quel punto interessante manco questo c'è quindi le tre basi non esistono se ci si mette poi una fotografia che sembra verla veramente fatta su granduato per la pubblicità del Livorno Arcio se poi ci si mette una regia che boh non ha alcun senso le scene d'azione sono girate talmente male talmente scavarcate talmente mal montate che ti entra il giramento di cazzo la colonna sonora di Tal Scott Glusgov è praticamente martirio per le orecchie ci martella il cazzo oltre che martellare troppo e rompere veramente i coglioni per come è stata mal utilizzata in un film terrificante non riesce mai a far paura ennesimo troiaio di fantascienza che mi tocca mettere nel peggio peccato perché la fantascienza l'amerebbe per dirla male ma in realtà a stavolta anche stavolta l'ho presa bene bene nel Baucigi perché il film è veramente una cata a livelli epocali mi ero anche comprato tutto contento il supporto Pritchley infiltrato Bruce Willis Tomajane c'è i mostri no i mostri li vedi te dopo aver visto il film perché ti devi per forza drogare per cercare di dimentiattolo cioè qui siamo di fronte a uno dei più classi film che l'infiltrato è lo stronzo del produttore che ha cercato di fare questo film si è infiltrato e ha fatto questa merda per farci stare tutti male Bruce Willis veramente pare in monopattino ma ando recita non sembra nemmeno i cammini siamo di fronte a uno dei film più tragicomici mai visti uno dei film più brutti di fantascienza della storia del cinema e oltretutto c'è anche il sentore di pigliarsi sul serio maledettamente Thomas Jane è bellissimo perché te lo vendono in copertina entra e esce e mora in dieci secondi i soldati non servono a un cazzo e il film è un delirio totale di scrittura messa in scena e narrazione quindi siamo di fronte assolutamente a uno dei film più brutti dell'anno un troiaio di quelli inguardabili su ogni punto di vista qui non si salva niente non si salva la recitazione non si salva un dialogo non si salva niente gli effetti speciali fanno voglia di cal il trucco degli zombie all'inizio forse dei mostri è quasi guardabile ma vorrei anche vedere visto che ci hanno spesso qualche decina di milioni di dollari buttati completamente nel cesso perché il film oltre ad aver fatto un flop incredibile nelle sale in America e essere uscito direttamente in un video da noi è veramente una delle cose più brutte che il genere umano abbia mai pensato nella sua lunga lunga e millenaria esistenza ed anche nella sua corta e centenaria esistenza cinematografica monnezza di quella veramente che fa ca anche ai bidoni della spazzatura after dopo mi aveva già ed è desolantemente strappato le palle after 2 invece mi aveva strappato la vita after 3 invece mi ha strappato il cervello e la storia è sempre vela di testa e Ardyn o me cazzo si amano si molano si pigliano si riguardano lei deve andare a Seattle per lavoro lui non si fida un granché poi torna Erbabbo rincontra l'altro scopre cose di Ardyn del suo passato le solite stronzatelle insomma solito suba e viene i vesti due stronzetti che già tre film che ci rompono i coglioni un ennesimo 50 sfumature di grigio un po' meno piccantello ma che funziona allo stesso modo insomma questo è il classico film di merda dove questi vicciano delle condizioni di litigio talmente ridiole che non ci si può credere poi via ogni tanto scenetta di sesso naturalmente abbarrocciaiata per le donnette super borghesi impellicciate assolutamente niente di realistico e questa fotografia di merda questo montaggio ripilante fanno di After 3 qualcosa che non può esistere qualcosa che invece mi dicono avrà anche il 4 e il 5 cioè veramente qui si persevera con una violenza sul cervello delle donne degli uomini assoluta perché questo è il classico film che fa male se si pensa che davvero le storie d'amore le storie devono essere questa sozzeria che lì dicano sì e poi i corpi si riuniscono e via tutto via a zero si riparte come se non si fosse detto nulla qui siamo di fronte veramente al grado zero del cinema sentimentale siamo di fronte a nessun carattere che possa essere considerato tale sono talmente scritti col culo che non sono credibili mai la fotografia fa male proprio al cervello è talmente patinata a un certo punto che pensi che arrivino porca puttana sette otto modelli di Calvin Klein in mutande a fare la pubblicità poi si pensa alla storiella la storiella fai no 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 e ti sbrani il cazzo urlando no per le altre due ore che passano di questo film inesorabile dove niente funziona la musica è di uno stressante allucinante e il tutto proprio risulta talmente abbarrocciaiato talmente brutto che nessuno riesce ad arrivare alla fine di questo troiaio perché allora after 1 come ho detto era una merda after 2 faceva stracà after 3 è cattiveria cioè cattiveria poi si pensa che faranno il 4 e 5 ma cacciavete nel cervello cioè qui siamo davvero a qualcuno interessa la storia di vestiti stronzetti borghesi che si pigliano si lasciano non si rimollano si ricano con la famigliola ve lo un po' più cattivo ve lo ve lo un po' meno siamo all'ennesima condizione di sfruttamento mentale di qualsiasi persona che riesca ad arrivare in fondo a questo film cioè arrivare in fondo a questo film è un po' come essere in cipher di Natale che nessuno ha visto essere piantati lì e ti fanno vedere un'altra realtà io quando l'ho finito di vedere con mia moglie avevamo dei sensi di colpa giganteschi solo per aver visto un film un film che non è neanche tale perché è un'ennesima parte di un'ennesima serie che in realtà sarebbe stata bene in televisione nelle serie tv on demand perché è lì casa sua la roba per questa merdaccia lì di sicuro eppure di questo dice ne fanno altri due ma è possibile trovare due altri incapaci ma in questi vicchi che stanno a recitare così è possibile trovare che questo video lo diretta a quattro mani in somboni nemmeno affana scena una non si può non si può più nascondersi dietro a una sceneggiatura di merda a una serie di libri di El Cazzo per dire abbiamo fatto il filmetto per le ragazzine ragazzini o per la gente che vuole l'ennesima e cinquanta sfumature di merda ci avete rotto i coglioni il cinema sentimentale il melò il dramma è una cosa seria fa parte della nostra vita e come tale va trattata basta da trattarla così per farci rincoglionire tutti e farci credere che questi buoni sentimenti che poi sovrastano tutto il male del mondo siano veramente la realtà storia fasulla film di merda recitato a cazzo di cane diretto peggio e con una sceneggiatura veramente delirante io non so più che cosa dirvi after 3 dopo 3 mi pare che possa anche basta ecco mi posso dirvi altro altro orrore di quest'anno veramente è un'altra volta targato Marvel seppure non MCU non ci un mini cazzo se non per il finale tirato per l'oretti il film già è il seguito e non si capisce perché lo abbiano fatto evidentemente sono l'incasso di quella merda che era Venom il primo uno dei film più brutti mai visti sulla faccia della terra hanno deciso di fare questo 2 Venom la furia di Carnegie sempre Tom Hardy sempre Michelle Williams qui entra Woody Harrelson la storia è questa il nostro Brock vive in simbiosi con Venom che vorrebbe staccare la testina alla gente invece fanno le rissatine come fosse la strana oppia che gli viene data la possibilità di andare a intervistare un mega serial killer è talmente furbo e si fa a morde il serial killer diventa Carnegie e di lì lotta totale perché il serial killer va a liberare la sua amata che aveva dei poteri dai tempi dell'anno 90 e dicino distrugge tutto un po' come Natural Ball Killers però è stavolta dei rincoglioniti diciamoci come sta la cosa e poi direi appunto il nostro che con Venom deve riuscire a sconfiggere Carnegie film di merda di quelli assoluti una sceneggiatura disarmante questi Vick l'hanno scritta fammi leggere perché ci sono messi in 26 mi pare per scrivere questa cosa io forse uno solo la sceneggiatura di questa Kelly Marcel è roba da denuncia penale Tom Hardy recita come se fosse in banza premio Woody Harrelson invece spero per lui che sia qui per salvare appunto come fa sempre lui un po' di piantagione di Mario Hano per fare qualche bella lotta contro lo stato fascista mediano che non si apisce per fare se è finito in questo film ed è il cazzo veramente non c'è niente che funzioni la regia oltretutto è di Andy Serkis che mi stava anche simpatico l'uomo che era sotto Gollum sotto King Kong l'attore di Burke and Dior e del grande John Landis che qui dà prova di non saper dirigere un emerito cazzo le scene d'azione sono confuse e talmente incasinate che non le apisce nemmeno chi la girate la fotografia fa schifo al cazzo è quella della BMW gli attori sono imbambolati Tom Hardy è praticamente la ontrofigura di se stesso sembra Tom Hardy a scato dalle scale abbia picchiato la testa tre volte abbia iniziato di nuova recita quindi una merda Michelle Williams poverina viaggia in questa assoluta idiozia totale perché qui siamo di fronte in realtà a una commedia che vorrebbe essere d'avventura vorrebbe essere cattiva e inoltre siamo di fronte a una cosa che non funziona mai abbiamo un Venom qui abbiamo un cattivo abbiamo del sangue teste che si staccano nessuno che perde mai una goccia di sangue è veramente vergognoso l'unica goccia di sangue che la perde è quel cretino di Tom Hardy quando si fa a morde da Woody Harrelson trasformandolo in carnegie e manco pensando um a morso avendo bevuto il mio sangue ha bevuto anche il simbionte Macche scritto praticamente col buco del culo diretto per telefono evidentemente ciò vado a fare Andy Serkis era con il covid era rinchiuso in casa non lo so avrò avuto qualche problemino perché qui non c'è una direzione degli attori non c'è una narrazione la storiella l'hanno scritta in un post-it e per il resto boh siamo di fronte a un film che dovrebbe parlare di cose serissime l'istruzione del mondo un casino cattivi giganteschi e lo fa attraverso risate dall'inizio alla fine che non funzionano mai perché sembra di essere praticamente in bodyguards di neri parenti roba veramente da sentircisi male qui è un film incosciente uno di quei film talmente brutti che non ci crede nessuno che possono essere usciti così eppure ha degli estimatori come si fa a stimare meno due la furia di carneggia ancora me lo chiedo perché bisogna stimare quindi l'impossibilità di saper mettere in scena una scena che sia discorosa bisogna stimare il fatto di non saper ha scritto altre mille volte che non ci combini un cazzo con una narrazione completamente sconnessa bisogna stimare un montaggio sballato e stimare soprattutto un'ora e ventotto di film che sembrano quindici giorni perché non ti passa veramente mai le battutine fra i due sono insostenibili e il film dimostra un'altra volta che questo tipo di cinema si è ridotto così è ridotto a batterute è ridotto a voler cercare di stemperare una cosa come quella del supereroe attraverso l'ironia non si può fare così a cazzo di cane bisogna essere James Gunn o qualcun altro che riesce ad avere in sé un'idea insomma di cosa sia comunque un cinema che abbia delle idee oltre a degli effetti speciali che in questo caso tra l'altro sembrano di un brutto film anni 90 chi ha detto che la battaglia finale fra Carnage e Venom è meravigliosa evidentemente non ha mai visto in vita sua un film un film uno che abbiano delle battaglie veramente decenti perché questo è girata di merda è plastifiata il computer si mangia tutto ed alla fine la furia non è quella di Carnage ma è quella dello spettatore che vorrebbe i soldi indietro se è andata dal cinema o vorrebbe un'altra volta che furiosamente si smettesse di fare questo cinema di merda per dare spazio a del cinema che come al solito visto poi questi tempi non riesce minimamente a avere spazio nelle sale per dare spazio a 400 miliardi di sale a sta spazzatura che tutti dicono ma magari in cassa e ci vedo ce la fate buttaggiù a tutti i costi pubblicità ogni 30 azioni tutte le sale d'Italia dove vai vai lo trovi la gente ci va e lo vede sarebbe anche il caso che la gente iniziasse a ripensare un po' con la sua testa e vedesse un po' i film che ha voglia di vedere e non quelli che deve vedere per poterne parlare con gli amici se no sembra una merda e questo è Venom la furia di Carnage non credo che nessuno davvero che ami il cinema possa dire che questo sia un buon film se lo dice evidentemente non ama la settima arte ma ama qualcos'altro che è simile un audiovisivo nel quale insomma passano avanti e indietro dei personaggi bidimensionali attraverso una storia delirante senza un aggancio interessante e che ricorda in un certo senso Natural Born Killers nei nostri due del povero Riverstone che qui però sono ridotti a due rincoglioniti con un Woody Harrelson con un parrocchino inguardabile e quell'altra di olore che resta sempre urlando come se fosse presente in crisi di nebbi non se ne pone più di questa merda perché questa è Venom 2 la furia di Carnage è la mia la furia di Frusciante cioè basta fate meno di questi film perché non se ne pone davvero più ormai ormai si è capito che incassano ormai si è capito che è quello che la gente vuole ma anche voi che li fate questi film insomma visto che la gente vuole questa roba datela un po' più di qualità perché se no alla fine siamo tutti morti non solo la sala altro Bruce Willis altra merda quest'anno come avevo detto questo è un altro film di fantascienza azione che vorrebbe essere orrorifico e un'altra volta una zozzeria il film in questione è Cosmic Scene veramente una delle cose più brutte che il genere umano abbia mai creato un'altra volta quest'anno di maledette brutterie se ne è viste tantissime e questo è terrificante stranamente non è andato al cinema o chissà perché questo un'altra volta quest'anno il Covid ci ha fatto volo per questo ci ha evitato la visione di questo film di merda dove Bruce Willis interpreta praticamente questo generale ex generale nazista io lo definirei tale perché ha sterminato un pianeta buttandoci una bomba e però tutti dicono che comunque è grande eroe cosa succede? c'è da sterminare un altro pianeta e quindi lo fanno ridiventare generale e gli fanno vai vai sterminare un altro pianeta anzi ma questi vi perché qui c'è gli umani che diventano zombie non ci si avisce più un cazzo una trama talmente sconclusionata e riviola che secondo me nessuno di quelli che l'ha scritta in realtà si è ricordato di averla scritta perché evidentemente ubriati i fradici la sera prima o drogati fino al limite per poter aver scritto una cosa del genere e averla anche prodotta il regista tal Edward Drake poi riesce ad ammazzare tutto non c'è una scena d'azione che funziona Frank Grillo rimbalza da un set a un altro cercando di capire dove si trova Bruce Willis ormai è monofacciale e credo che pensi ancora di essere in briccio l'infiltrato l'altro film di merda quest'anno che sono praticamente speculare due film che parlano più o meno della stessa cosa che fanno stracacare solo che qui non si capisce come un generale sia stato praticamente ridotto ad essere un nulla e poi il film è veramente terribile oltre a essere orribile proprio come effetti speciali azioni girate di merda recitato da schifo è uno di quei classici film fascisti reazionari qui siamo di fronte a un film che dichiara con una bomba che distrugge tutto va tutto a posto siamo salvi oddio è terrificante e il fatto che il film in realtà non condanne minimamente questo stronzo che era Bruce Willis per aver sterminato un pianeta ma che anzi l'idea del buono è che li dica sterminane più non altro è proprio l'idea classica del classio film fascista di merda girato oltretutto di merda perché è chiaro quando ci sa una sostanza di questo tipo ma chi è che ricerca la forma siamo di fronte talmente a un'idiozia che non ci si può credere un film che non c'è mai ironia che si piglia talmente sul serio e che ci vuole davvero far credere che la soluzione a tutti i mali del mondo è una bella bomba buttata fa scoppiare tutto ve ne ci sa davanti questa è la moralina di un film di merda di quelli che non si dovrebbero nemmeno proprio nominare Cosmic Scene il peccato cosmico è quello di aver mai pensato a scrivere questa roba qui che ripeto però i sceneggiatori evidentemente dalla botte ci avevano non si riordano ad aver scritto perché qui siamo di fronte a un film che non è nemmeno tale io a un certo punto ho pensato cazzo ma dove li hanno mesi 30 milioni di dollari qui dentro gli effetti speciali fanno schifo al cazzo e la computer grafica è usata maldestramente come in un film di Emmerich dell'anni 90 gli attori sembrano tutti imbambolati Frank Grillo poveraccio usa bella espressione lì ormai da 73 film non gli tagliano la pelle non gli levano la barba nemmeno se la ammazzano Bruce Willis ripeto è pensionato via è un viaggio premio probabilmente dove l'hanno girato l'hanno dato e tre settimane di stanza a 5 stelle lui ha fatto azzi sua e poi nel tempo libero si è buttato sul set il set di un film evidentemente diretto probabilmente sotto ipnosi da regista perché anche lui credo e spero non si ricordi di aver mai portato al mondo qualcosa di così orribile perché di questo si tratta uno dei film anche questo più brutti che mi sia mai capitato di vedere questo annata oltre a averci regalato comunque dei grandissimi film ci ha regalato della roba veramente della sporcizia della quale boh non so neanche più cosa dire perché poi è una ripetizione continua quando un film del genere è montato sconclusionatamente quando gli effetti fanno ca quando i dialoghi che vengono detti sembrano quelli usciti veramente da un film demenziale cioè qui siamo di fronte questo sarebbe stato grande ma chiamateli zacker dateli in mano questo soggetto ci tirano fuori una sceneggiatura ci fanno un hot shot 3 da paura qui questo è un film talmente scemo e demenziale che già di suo sì lo fai girare da uno che si sa fare di commedie cambia il montaggio cambia il vostro nella recitazione ridi ridi di più di partenza il problema è che il film non è così quindi un far ridere mai dopo 20 minuti ti gira il cazzo dopo un'ora avresti voglia di spaccare tutto dopo un'ora e mezzo speri che arrivi qualsiasi cosa qualsiasi alieno qualsiasi mostro che ti divori o che ti cancelli la memoria perché io il pensiero che il mio cervello abbia dato un piccolo spazio di memoria a sta ciofeca mi fa ancora sentire peggio che avere all'interno appunto un baccellone questi sono proprio film che ti fanno venire voglia di dire basta io ho la fantascienza d'azione non la guardo più ed è un vero peccato perché io questo genere è forse quello che amo di più insieme all'horror e ogni volta tranne i gravissimi casi che ho messo nel meglio cazzo sta fantascienza diventa pedante rompi coglioni non ce la fa spaccano tutto fanno effetti di merda ormai siamo ridotti al fatto di dire prendi quattro stronzo li buttali su un pianeta e farli sparare tutto dove le cammina tanto che cazzo se ne frega alla fine poi ci butti una bomba sopra e dai anche la bella moralina che con la violenza e con una bella bomba si risolve il tutto questo è quella merda di Cosmic Sim ripeto il peccato cosmico è il fatto che questo film esista Wonder Woman 1984 è una pezzentata di quelle che non si possono guardare che fanno sembrare la serie tv quella con Linda Carter un capolavoro della cinematografia se già il primo Wonder Woman diretto sempre da Patty Jenkins come questo faceva voglia di cacca con questo siamo proprio al delirio ambientato nel 1900 va bene ambientato nel 1984 appunto Wonder Woman 1984 la storia di vista Wonder Woman che ormai è lavorato a museo facciamola breve trovano delle pietre insomma lei salva un casino di gente e quindi della furtiva di vesti tira fuori della roba trova questa pietra la pietra della russurrezione lei quindi dice a questa pietra voglio che Steve Carter torni quindi il suo amato Steve Carter che era morto nel primo Chris Pine torna nel corpo di un altro lei è tanto bella e felice però in questo perde i poteri perché la sua assistente invece ha pregato di diventare come appunto Diana Lee e non si rende conto che essendo Wonder Woman apria poteri anche lei poi arriva dell'altro Max che diventa ancora più cattivo poi alla fine la nostra diventa Cavaliere dello Zotearo dei poveri spacca tutto questo è un grandissima trama di questo film è un film inguardabile gli anni 80 sono ridotti a una citazione dietro l'altra di proprio cazzate vere di grosse puttanate che nessuno riesce veramente a concepire i dialoghi sono da sitcom veramente degli anni 70 è talmente triste che questa qui non capisca un cazzo così cioè Wonder Woman non capisce una sega e ci vuole un'ora e mezzo per capire le cose poi perché quest'altro Chris Pine torna all'amore lei perde poteri un casino non ci si capisce un cazzo una trama talmente confusa all'interno di un soggetto così scemo ma perché? senza contare che gli effetti speciali fanno ca e la confezione è quella classica ormai di questi filmoni di tutta iper patinata tutta la pubblicità da spottone ma che alla fine però non ha alcuna forza narrativa non ha alcuna forza visiva sono tutti uguali tutti precisi non si riesce a distinguere più un cazzo di film dall'altro ma poi questo Chris Pine la storiella d'amore veramente di una tristezza una noia incredibile la sceneggiatura a sei mani è da roba da avergognarsi cioè in tre per scrivere questa roba veramente si scriveva ieri fiocchi in due minuti in un pomeriggio e poi incredibile cioè riescono a farti venire sul cazzo anche Gal Gadot che pure è buona ma dopo 20 minuti ti stucca pure lei non ne puoi più di quelle inquadrature del cazzo sul suo viso storto e ripeto Gal Gadot ha tre espressioni e sono sempre le stesse spaventata irritata stralunata però porca puttana veramente fate meglio magari gli effetti speciali cioè quel finale non l'hai vestita moderna il cavaliere d'Osriaco che c'ha l'armatura della strafigura addosso è inconcepibile una delle cose più brutte quando vola per aria che se si hanno mai viste fa sembrare il volo del superman di Richard Donner di 50 anni fa come una cosa d'avanguardia è orribile è un film talmente scemo che nessuno ci crede è montato di merda è girato meno spot è recitato in coma perché la gente è in coma cioè veramente sembra che l'abbiano risvegliato si non nel 1984 ma dalla loro dormienza totale cioè sembrano tutti la bella addormentata nel bosco perché questi non capiscono poi un cazzo cioè sono dei personaggi scritti che non arrivano a concepire le cose più semplici del mondo e qui boh e un'altra volta casca l'asino perché costruire un film su Wonder Woman negli anni 80 semplicemente per riportare un'altra volta chi era negli anni 80 come mia guarda sta monnezza però il problema è che negli anni 80 il film non riesce neanche a ricreare la tensione Russia non riesce a creare nemmeno l'atmosfera diciamo così individualista così edonista che c'era frega un cazzo cioè qui è tutto ricreato da due giochini di merda da una scrittina del cazzo da quattro macchine rifatte cioè ragazzi questi sono centinaia di milioni di dollari buttati al cazzo è brutto in tutto è brutto in tutto qui c'è scritto ricco di azione spettacolo e coraggio senti il coraggio è quello del critico e dello spettatore quando ha finito di rivedere il film a doverlo anche recensire a doverlo anche mettere peggio mi pare anche tempo perso è talmente brutto che non riesco nemmeno a capire perché ne sto a parlare della sua bruttezza fa talmente cacchio ho perso anche troppo tempo Wind ma si rimaneva nell'84 Wonder Woman e non ci rompevano più coglioni un era meglio no e invece ce l'hanno portata fino al 2021 2022 perché dio io continuare a fare film così di merda a ripetizione chiaro per l'incasso ma un tempo cazzo si pensava un minimo anche a creare qualcosa che rimanesse voglio proprio vedere fra vent'anni chi cazzo si rionda di questo Wonder Woman 1984 che sono passati in anno da quando è uscito se lo sono già dimentiati tutti ora questo poi è fantastico questo il suo amamore fa buonasera ora ci sono in quella scena fantastica a mezzo alla piazza non servo più scappi via non c'è più gira l'angolo e scompare io non ho mai visto una scena così scema e delirante lo avreste trovato forse a 5000 lire 3000 lire dentro a cestoni dell'autogrill questa è casa sua Wonder Woman 1984 era meglio se ci rimanevo va detto perché qui siamo di fronte alla pura schifezza che non deve più esistere se fate i cine fumetti fateli bene perché ormai state a pensare solo alla quantità e la quantità elimina la qualità perché ormai pensate solo all'incasso ma gli incassi tanto fino o poi finiranno e vi ritroverete con un pugno di mosca in mano anzi con un pugno di Wonder Woman in mano parliamoci chiaro io sono uno di quelli che i cine panettoni al 99,9% mi hanno sempre fatto ca sia come concezione che come cinema in se stesso già chiamiamolo così nei riparenti però secondo me qualche cosina aveva toccato in qualcosa aveva al limite un mimo divertito e poi esce questo in vacanza su Marte che riunisce Boldi e De Sica dopo amici come prima in un cine panettone terrifiante veramente terrifiante una cosa così brutta non la vedevo da tanto tempo in questa storiella di merda dove troviamo Cristian De Sica al solito che ha fatto le ore alla moglie è scappato su Marte e si sta sposando con un'altra famiglia che viene raggiunto da Eufiglio e dalla fidanzata di Eufiglio che gli dicono babbo babbo un tom m'ha incontrato non ti si vede mai fatti vede fatti vede mentre Faccus tutto questo Boldi va a rifinire succede in casino e praticamente questo ragazzino il figlio diventa Boldi in vecchia e di lì poi tutte le gag dovrebbero mettere di mezzo anche la madre che lo viene a cercare e di lì insomma tutta l'ambientazione marziana siamo di fronte a uno dei film più brutti che la storia dell'universo abbia mai concepito si ruzzavo quando facevo i video 12-13 anni fa ne fai fra il primo poi li mandano su Marte Boldi e De Sica ce l'hanno mandati per davvero ci sono degli effetti speciali che vi assicuro nel 1985-86 il Vic-20 della Commodore funzionava molto meglio effetti speciali per i quali mi sarei vergognato anche solo di averli fatti non per chi li ha fatti poverini ma per chi ha deciso che andavano bene ecco gli attori sono incapaci e incompetenti come lo sono sempre stati voglio dire De Sica e Boldi sono due che a me non mi hanno mai fatto ride e nemmeno che mai in questo stato qui allora De Sica praticamente non si riconosce non fa più ride le solite battute in Romano Grezze di 30 anni fa ormai ci hanno veramente presato il cazzo Boldi a fare l'ennesimo cucciolo bimbino rincoglionito nel corpo di un uomo non è buono non è in grado in più il tempo mi dispiace è passato anche per lui e tutti i caratteristi intorno sono il terrone sono il male il male che ci casca a d'oro ma questo qui non è nemmeno un film siamo di fronte insieme a me contro te due a roba che in Italia ci sarebbe anche solo vergognare di farla vedere all'estero insomma per non far impaurire le persone cioè qui siamo di fronte all'ignobile scelta di riunire due buttarli su Marte e farli voler fare un film che potrebbe essere ambientato a pane struzzo vicino a Pisa ma si sta scherzando questo è un film talmente brutto ma brutto 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 cioè siamo di fronte veramente a una cosa inconcepibile se uno soffre di stitichezza bastano 15 secondi di inizio di titoli di testa di questo film per poter andare al bagno per quattro mesi senza aver prende pasticco e avere problemi siamo di fronte veramente al nulla al vuoto cosmico che è appunto il cosmo nel quale i nostri dovrebbero pur volare con quegli effetti speciali che fanno schifo al cazzo ma forse sono gli effetti speciali nemmeno l'asylum se li vergogna sì ma è proprio il film che non ci siamo non si ride mai si ride a tratti per la pena e quando un film fa pena è tristezza ed è comico vuol dire che siamo proprio alla fine siamo di fronte a un film che io non credo che nemmeno chiunque abbia amato mai un cinepanettone riesca a buttare giù non si ride mezza volta non c'è i tempi proprio la regia è spenta nei riparenti sembra ormai andato veramente per un'altra strada non sa nemmeno quello che gira il montaggio non esiste le gag sono se le vogliamo chiamare così sono tutte sul piscio la merda che cazzo tutte scatologiche ci hanno rotto i coglioni qui un'altra volta si ritorna a ridere per cose che ne facevano ridere nemmeno quando avevi quattro anni cioè veramente siamo di fronte al nulla il Marte ma perché si deve toccare anche la fantascienza insomma in conclusione siamo di fronte veramente alla tristezza alla fine alla schifezza al collezionatore di mostri anche una schifezza tale non si poteva veramente guardare c'è la povera Milena Vukic che andava servita almeno l'è un pochino meno un pochino meglio nel magma di assoluti incapaci totali che non so come avevano fatto a pensaggi da un film del genere dove Boldi non riesce a beccare quasi più un tempo comico De Sica è in ritardo e si capisce anche che i due sembrerebbero quasi non ricordarsi manco il copione boh un film che se vogliamo definirlo così è già un complimento per me è semplicemente una cosa che boh qualcuno ha fatto uscire nel cinema perché evidentemente c'era spazio siamo di fronte alla fine anche del cinepanettone se già il cinepanettone era la fine della commedia l'italiana era il seppellimento di un certo tipo di voglia di criticare l'italiano medio con questo in vacanza su Marte siamo alla fine anche del cinepanettone c'è veramente la fine della fine fuori da ogni logica veramente di buon gusto e anche diciamo così monetaria perché non credo che questo film abbia incassato più di tanto o almeno lo spero perché così almeno la fanno finita questo è probabilmente uno dei film più brutti che abbia mai visto in tutta la mia vita e è sicuramente il film più brutto dell'anno una cosa così è inconcepibile io veramente mi vergognerei anche solo ad averlo pensato ora davvero qualcuno sentiva il bisogno della Zack Snyder Justice League forse sì visto che mondo ha sparato che è un capolavoro e invece frusciante spara che questa zozzeria è una delle cose più brutte noiose pompose malfatte veramente volgari tamarre stupide mal scritte mal recitate che abbia mai visto questo Zack Snyder il Justice League sono 232 minuti di rompimento ma di cazzo di quello che ti taglia in due cazzo veramente la Latrobi in Gristol cioè qui siamo a livello della gioventù psichica è un film terrificante io già facevo il Justice League a livello di due ore e mezzo vi ci hanno aggiunto un pardone di pomposità siccome il povero di là Josh Whedon aveva un po' alleggerito il tutto o meno male perché non se ne voleva più qui invece Zack Snyder con il suo tocco lieve con quella sua leggerezza con quel suo classico tocco Nouvelle Vaggiano quasi con quella sua voglia alla John Woo con quel suo sistema così imponente alla Carpent di raccontare e narrare storie molto interessanti ci fa puppare 4 ore di rompimento di coglioni e Cyborg e Aquaman e Flash e Batman e Wonder Woman che ci hanno i super problemi e dei quali a noi non ce ne frega un super cazzo in più ci aggiunge 55.000 attivi se prima c'era Steppenwolf in quell'altro buttiamoci le sad buttiamoci anche ma cazzo siamo al coglionazzo di torno Darkseid ma buttiamoceli tutti che cazzo ne frega diciamo che qui hanno accumulato per poi in realtà in 4 ore raccontare la solita storiella di merda 4 ore 3 ore 25 di gente si smusa per poi dire oh svegliamo Superman ammazza tutti e Superman ammazza tutti questo è il film cioè la storia è questi 4 stronzi si devono unì 5 stronzi per cercare di salvare il mondo ma sono arrivati e Superman culosi la tristezza la tristezza di un film che inizia con una delle scene a ralenti più fetenti e un Superman che mora e che si siano mai viste tutte le volte in cui Bruce Wayne parla con una vocione da Batman viene veramente da ride ogni 15 secondi non dice una battuta che non sembra scritta praticamente a cazzo di ane solo per fare il figura le classiche battute da marre che devi dire con lo sguardo si torvo che manco Shaq Norris Wonder Woman poveracce vale come per Wonder Woman Gal Gadot è buona Mellaya ma è lì che Gironz la coscia di fuori su un set senza sapere nemmeno quello che dice perché il suo personaggio è delirante per come è scritto di merda Flash non conta un cazzo come non contava un cazzo d'altra parte vi provano a far due cosine di più ma è un supereroe di merda come Cyborg Forza Cyborg hanno dato spessore spessore di ossa cioè raccontare delle storie aggiungere mezz'ora per ogni supereroe e quindi dire che hai dato spessore non vuol dire un cazzo se in quella mezz'ora scrivi la merda gli hai dato cosa? gli hai dato ancora meno spessore ci hai rotto ancora di più i coglioni quel cattivo pare Thanos 2 cioè ma ve la siete proprio andate a cercare e Zack Snyder dimostra un'altra volta che sia un incompetente con tutti quei miliardi non riesce mai a beccar un combattimento giusto io non credo di aver mai visto un film dove c'è un'ora di ralenti come questo cazzo di film in questo film ogni 3 minuti ce ne è 10 secondi 20 di ralenti 3 minuti 10 di ralenti 10 di ralenti velocitazioni a cazzo di cane non si dà nemmeno il senso la profondità di campo è data da una serie di effetti speciali enormi ha una monocramia il film è mostruoso sia giorno o notte tutti sposti le 6-7 è tutto uguale lui dovrebbe fare solo animazione l'ho detto Gaul era un buon film perché non ha le regole del cinema e quindi uno nell'animazione ha anche le ralenti lo scavalcamento l'accetta molto di più ma qui porca puttana non si può girare gli scontri come male in questo modo non c'è proprio nessuna plasticità nessuna epicità la osa epica del film è che finisce anche questo dopo 4 ore veramente sembra di avere altro qui io voglio avere un premio cioè chiunque riesce a portare a casa questo Jack Justice League Zack Snyder mi deve portare a casa una cena da 6-700 euro a testa ma si sta scherzando ma questo è martirio cioè per me è stata una crudeltà la crudeltà più terribile del mondo una fotografia che porca puttana dopo mezz'ora fa io senti a tratti mi stai a bruciare le retini a tratti mi vedo un cazzo ma come cazzo l'hai fatta sta fotografia una narrazione di una lentezza abissale e quando un film è di supereroi è lento ma non perché ci dice cose così importanti e fa così dei silenzi da doverci far riflettere è lento semplicemente perché il montaggio fa schifo i dialoghi sono della roba da sigilate nel muso gli attori sempre restino in tranza ma dove cazzo ma questo Just Egg League è una delle cose più brutte che il genere umano abbia mai fatto è doppiato da quella merda di Arma of the Dead che non ci metto perché non è uscito in Blu-ray né nulla non doveva andare al cinema ma ma e anche lì vai Zack Snyder ha fatto una doppietta roba da vomito ma questo Just Egg League porca di una puttana sono quattro ore ma quattro ore di un'angoscia incredibile quando arrivi alla fine veramente ti pare che hai fatto il cammino di Santiago ma guarda non è secchiuso non è secchiuso un cazzo l'ho guardato due porte più aperto io sì per cercare se questo Just Egg League veramente per il pubblico di oggi è un capolavoro la prassi è che i capolavori di oggi sono merda non ho altro da dire allora capiamoci per il sottoscritto nemmeno Space Jam sorta di chi ha incastrato Roger Rabbit dei poveri era niente di che perlomeno però aveva in sé ancora un po' di voglia di raccontarci cos'era le Unitoons la loro pazzia in un certo senso poi arrivò Giudante con le Unitoons back in action e mise tutti a tacere a livello tecnico perché c'è alcune scene del film che sono alcune scene del film che sono assolutamente meravigliose nonostante poi dopo aver intervistato Giudante mi ha detto che è il film che lo ha fatto allontanare definitivamente da Hollywood proprio perché non poteva fare il cazzo che voleva detto questo chi si aspettava che 20 anni dopo quasi dall'uscita del primo Space Jam uscisse questo Space Jam New Legends una delle cate più grosse degli ultimi 50 anni in film assolutamente deprorevole sia per quello che racconta e per come lo racconta il primo c'era Michael Jordan qui troviamo Lebron James che insomma è in litigio col figlio perché vorrebbe che il figlio diventasse un grande atleta invece il figlio è un creatore di videogiochi vorrebbe fare questo di mestiere insomma cosa succede un giorno vengono invitati alla Warner per parlare di determinate cose lui va lì col figlio un algoritmo li invita praticamente a far parte del loro mondo e tutto il resto loro si incazzano ma maltrattano questo algoritmo l'algoritmo per vendicarsi li rapisce li porta tutti dentro questo Warner verso chiamamolo così dove si trovano tutti le cose create dalla Warner e mettono su una partita trappala canestro fra appunto la squadra di Lebron e quella del nostro cattivissimo algoritmo che però praticamente emette padre contro figlio senza far capire al figlio insomma che c'è qualcosa di losco sotto e che chi perderà riceverà una grossa lezione negativa una brutta cosa veramente e di lì parte tutta la trametta di questo film con il nostro Lebron che trova Bugs Bunny e che lo deve portare a cercare tutti gli altri e formare la squadra il film è veramente una merda cioè una merda atroce non c'è nemmeno la regia e la regia di questo Malcolm D. Lee è assolutamente inconcepibile Lebron James non ha idea nemmeno dove guarda cioè veramente recita di un male che non si può guardare compreso il bambino la storiella è scritta su due righe e non riesce mai 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 a garbare uno di quei film proprio che io credo faccia schifo soprattutto ha chiamato il primo Space Jam in un certo senso non c'è nemmeno niente di quella leggerezza le citazioni qui non sono più sfacciatamente divertenti a tratti come nel primo qui ormai la Warner utilizza tutti i suoi diciamo così franchise e quindi vediamo Mad Max Fury Road vediamo Barry Lyndon ci troviamo i Gremlins di mezzo un casino veramente un troiaio di effetti speciali incredibili e poi si tocca l'intoccabile cioè quando si trasforma le onitunza a pura cartoneria a puro nulla trasfondandoli in CGI e diventano qualcosa di inguardabile sono veramente una parte inessenziale del film ed è incredibile quando dovrebbero stare in realtà alla base di una strada del genere perché sono loro l'attrazione invece quell'attrazione di Vince Lebron James il discorsino e ognuno fa nella vita quello che sa fare non deve per forza fare quello che gli impongono i genitori la solita moralina di merda per un film veramente orribile recitato da schifo montato peggio e che ha in quella partita di palaccanestro qualcosa di inguardabile e se il giochino che aveva inventato il suo figliolo era quello faceva veramente cava ragione su paffa li fa di mortone il giocatore di basket perché detto fra un e te quel gioco fa cazzo solo al pensiero poi è il classico film che non succede in cazzo un altro film che non succede ne merita di minchia di nulla dove i personaggi guardano nel vuoto circondati da green screen dove non esiste sceneggiatura che anzi dovrebbe anche essere la base di un film del genere perché insomma un regista si dovrebbe far ispirare da qualcosa che è stato scritto scrivere qualcosa che ispiri la sua visione il suo modo di essere diciamo così artistico in un certo senso come aveva fatto Zemeckis perché è incastrato Roger Rabbit che portava avanti comunque un'idea anche sperimentale qui di sperimentare non c'è più nulla invece è semplicemente vattro figurine spiacciate che non sembrano più nemmeno i Looney Toons sembrano veramente la parodia degli stessi la tristezza un film che mi ha messo veramente proprio l'angoscia mi ha distrutto il mito dell'infanzia per me i Looney Toons non sono questi quattro scemi che stanno in panchina fatti al computer in 3D i Looney Toons sono cattivi sono stronzi sono completamente folli fa proprio la completa distruzione della logica del mondo normale perché loro vivono nel loro mondo Looney Toons quindi bot non moriranno mai non succederà mai niente qui viene massacrata nel trasformarli come animaletti qualsiasi o mostriciattoli qualsiasi non c'è assolutamente la forza anarchia di Looney Toons non c'è assolutamente la forza del cinema perché qui siamo di fronte a uno dei film più brutti degli ultimi 40 anni una sciofeca abissale le moraline sono scontate e veramente ritrite il finale è da denuncia penale e il film è diretto in modo completamente sconclusionato e senza contare che poi insomma anche tutto avere il casino tutte le eccitazioni si riempiono gli occhi e rompono il cazzo del cervello non se ne puole veramente più trovate un'idea originale perché questi sequel fanno uno più schifo dell'altro è così mi dispiace è così hanno distrutto le Looney Toons hanno levato ogni tipo di divertimento dalle Looney Toons e dalla loro follia hanno levato anche ogni tipo di poesia del loro modo di essere così di vintage essere così in un certo senso scorretti ecco in questo film l'unica cosa scorretta che è è quella che fanno ai poveri spettatori è costato una marea gli effetti speciali fanno pure schifo quelli ma allora insomma quando un film del genere fa schifo come è scritto come è recitato gli effetti fanno pure ca e inoltre anche la fusione fra umani e diciamo live action e animazione fa stracan confronto a quella di Looney Toons pare più vecchia a livella di Looney Toons ma dove cazzo siamo finiti tra altre nuove leggende queste vie sono diventate le vecchie leggende ormai ci hanno fatto passare la voglia anche riguarda i Looney Toons qui la Warner la cassata di brutta hanno fatto un sequel che era in cantiere da 20 anni ed ecco cosa sono riusciti a tirare fuori monnezza di velle rare una schifezza totale uno di quei film che andrebbero assolutamente cancellati dalla storia del cinema fanno veramente male non le fate vedere ai vostri figlioli perché cresceranno con l'idea dell'Uni Toons che non è quella giusta oltretutto insomma il film è di una noia mortale anche perché un'altra volta vogliono arrivare alle due ore per raccontare una storiella che sarebbe stata buona forse in sette minuti di un cortometraggio e ripeto un cortometraggio senza Looney Toons perché qui io non ne vedo ombra anche se qualcuno dice che ci sono sto parlando del niente rimandato per colpa del covid per più di un anno poi uscito nelle sale direttamente on demand è un ennesimo capitolo della MCU del Marvel Cinematic Universe e questo capitolo è dedicato a Black Widow e Black Widow mi aspettavo un film brutto ma non mi aspettavo davvero sta zozzeria incredibile considerando il fatto che Black Widow mi dicono che su pagina è uno dei personaggi più interessanti della Marvel e invece al cinema si ritrova essere uno dei personaggi più deboli e sconclusionati e mal scritti di tutta la saga considerando che in Avengers mi pare Endgame come si chiamava e stiattava di brutto questo è un film chiaramente ambientato prima quindi è un film ambientato subito dopo Civil War quindi già ci si incassina perché se uno non ha visto almeno 46 film al solito non ci apisce una sega comunque qui praticamente si narrano le origini della nostra vedova nera e una sua vendetta verso chi l'ha creata tale perché la storia è questa più o meno lei insieme alla sorellina con una famiglia fittizia negli anni 90 è in America come spia inserita all'interno appunto dell'America stessa dalla Russia però ormai post comunista non si capisce bene perché a un certo punto devono fare una rocambolesca fuga a Cuba e comunque vabbè da tutto questo si dividono la famiglia e le nostre vengono malcapitatamente messe di mezzo da tal dottor Dreykov interpretato benissimo questo Sid solo l'unico da Ray Winston e che insomma sadicamente riesce a creare queste assassine appunto dentro questa fantomatica stanza rossa e le nostre due fuggiasche Natasha e Elena che è la sorellina della piccola che poi si rincontrano dal grande combatteranno il tutto e i cattivoni in questo film veramente di merda film veramente fatto con lo stampino film di belli fatti a ripetizione non c'è una scena che non faccia ridere al di là del fatto che il film sembra ricalcare altre 15 007 e buttarli tutti insieme al di là del fatto che i personaggi femminili fatti dalla Marvel evidentemente non sono in grado Capitan Marvel già era una cata questo Vedova Nera è orribile già non si capisce il motivo di fare un film su un personaggio che è abbondantemente morto e non tornerà mai nella saga probabilmente per agganciarci la ragazzina che forse diventerà la nuova Vedova Nera visto gli orribili post credit che ormai ci hanno anche rotto i coglioni ma il film è una sequela di cazzate un film che potrebbe essere serissimo sfruttamento delle donne violenza atti nel mondo di questi cazzi e questi mazzi alla fine risultano solo 154 scene d'azione iperpompate uguali a altri 6.000 e dialoghetti da terza elementare battutine e commedie che non starebbero bene nemmeno una sitcom degli anni 80 e recitazione talmente sopra le righe e talmente stupida che non ci si vuole credere ripeto evidentemente essendosi tutti dimenticati di lei in Endgame dove piangevano tutti Iron Man e nessuno cava Vedova Nera evidentemente alla Marvel si sono resi conto di aver lasciato un buchetto un lieve buchetto con Endgame hanno fatto tanti live bui che ogni film deve risolvere i bui di verfirmeli comunque in questo film non si risolve niente perché il film è di una noia mortale cioè le battutine fra le due sono inquietanti quando lei fa è la caduta da supereroe dovresti far ridere con questa roba è roba che ormai è vecchia di 40 anni e la sceneggiatura è derilante cioè la sceneggiatura è un insieme di 64 detto 007 è un franchise allucinante non torna un cazzo poi non tornano i rapporti non tornano le cose tra l'altro la regia di questa Kate Shoreland è veramente modesta siamo lì mestiere senza nessuna presa di posizione proprio a livello narrativo classio film con queste due che spaccano tutto sì la voglia femminista però col culo bello nel latex insomma siamo un po' di fronte al classio film fatto di merda cioè il classio film è costato 150 milioni di dollari poteva costare 300 mila dollari e essere fatto dalla Zailum perché le risate sono quelle non torna niente i discorsi sono assurdi ripeto il fatto che a metà anni 90 vestivano a Cuba a Cuba cazzo c'entra Cuba con l'amici dei russi dopo la caduta del mur ma come le state scrivendo perché poi i russi sono così cattivi tutti e stronzoli ma poi perché il capitano Ameri è rimasto tale e invece quando è cascato il comunismo il capitano comunista perché l'hanno fatto diventare un coglione perché è ingalerato perché tutto perché non veramente un film scritto col buco del culo diretto in maniera assolutamente inetta montaggio musica che ti sfonda le orecchie strafottente rompe coglioni quando poi parte una canzone manco la finisce parte esclusivamente per fatti capire ubellino la canzone e via il solito utilizzo assolutamente negativo della conora sonora e il solito assolutamente negativo della regia scavalcamenti di ampo movimenti sbagliati non per spezzare determinate regole ma per fa prima per fa veloce per essere tutto ganso tutto figura effetti speciali quando sono al computer si vedano a un chilometro e il film naviga nel mare del rompimento di coglioni un rompimento di coglioni che naviga sempre di più e ogni volta che guardi la ghigna di Scarlett Johansson ci ha scritto in faccia per favore fatemi finire sto cazzo di film perché è una merda l'hanno capito anche i muri la sceneggiatura è sciagurata come ho detto è scritta da questo Eric Pearson che probabilmente non ha mai visto un film in vita sua di spionaggio perché o li ha visti tutti e li copia tutti oppure ha scritto qualcosa convinto di scrivere qualcosa che fosse originale in realtà si tratta di pura monnezza monnezza con la Marvel gli altri si vola alto è veramente quest'anno ora va detto anche che insomma e forse più in là si potranno riprendere ma questo Black Widow fa capire che la fase 4 14 quella che è è veramente monnezza cioè qui siamo di fronte a un film che nessuno voleva che l'interesse è zero e che sono andati a vedere solo i fanatici della Marvel perché è un film veramente inetto cioè un film che non funziona in niente l'azione è cacciarona e pare anni 90 di serie B le battute sono da sitcom come ho detto degli anni 70 il modo in cui recitano le nostre sembra paradossalmente quasi parodico se non ci si crede che questo sia un film che sia costato tutti quei soldi dove cazzo li avete buttati è talmente scemo che nessuno riesce a credere una parola di quello che viene detto e poi è così serio così cupo a un certo punto si incubisce vuole parlare di cose altissime attraverso però una narrazione che è quella simile a Topolino ma dove si sta andando e qui siamo di fronte veramente alla distruzione totale anche del pensiero del cinema supereroistico questo non è un film supereroista questo è un film di merda sui supereroi che non hanno nemmeno tanti superpoteri che rompono anche parecchi i coglioni perché è un film pedante oltretutto retorico con le moraline butta via Raquel Weiss buttano via gli attori come nulla forse così in parti veramente ignobili il buonismo poi che c'è sotto di base alla fine è stucchevole cazzo come 4 kg di melassa buttate giù a forza e si riesce un'altra volta a capire perché questi film hanno successo storiella ridotta al minimo personaggi che fanno le cose che tutti vogliono che facciano battute del cazzo solo scene d'azione una dietro l'altra dopo 3 minuti di dialoghi di merda e finale chiaramente che deve rimandare in sospesa a qualcos'altro e che porterà allo spettatore poveraccio ignaro o non a dover subire un altro film per capire che cazzo succederà di nuovo a questa vedova nera non se ne pone veramente più insomma poi questo attivo incestuoso accresce ste ragazze io veramente una storia delirante non sta in piedi così non so com'era sul fumetto ma qui fa veramente voglia di cazzo siamo di fronte a uno dei peggiori film della marvel con capitar marvel e tutto questi non sanno trattare i personaggi femminili non esiste cercano di dargli un certo tipo di femminilità femminismo attraverso questo ma poi riducono a figurine a tettone di fuori a culiritti e alla fine quindi il discorso si ribalta e si riesce a capire che a nessuno gliene frega un cazzo del film di black widow ma a tutti interessa l'MCU e quindi famo sto film attacchiamolo a quello buttiamoci due tre rimandi del cazzo per far tornare quello di prima e siamo tutti felici tutti tranne me che sarei uno spettatore che vorrebbe vedere un film super eroistico perlomeno decoroso qui siamo a livelli di intelligenza più o meno di 85 che era quello di Alien 3 non si arriva a un livello di intelligenza adeguato di scrittura per poter essere visto da chiunque sopra i 12 anni e poi alla fine è veramente un film fallito sono i classici film di merda sembra un film per la televisione sembra un film fatto con gli spazi pubblicitari apposta sembra proprio che a questo punto ormai il franchise conti molto più di ogni singolo film a nessuno ne frega un cazzo del singolo film vogliono tutti l'universo a me questo universo mi ha parecchio rotto i coglioni e questa vedova nera è più o meno letale quanto una vedova nera che mi monta sul collo vera e che mi punge cioè veramente la morte del cinema allora la Disney sta sfornando una merda dietro l'altra e mi dispiace dopo Luca non ce l'ho messo nel peggio perché tanto ho fatto la mini recensione l'avete vista in 30.000 ma avete già rotto il cazzo in 40.000 più di velli l'hanno vista perché avete detto che era un grande film e per me Luca è un troiaio totale dove non si parla di niente e si vende solo la Vespa a Piaggio detto questo passiamo a un altro film non avrei voluto metterci in realtà perché era uscito non c'era sull'anno Mario ma avendolo visto un mesetto fa essendomi rimasto così nel cervello perché una delle cose più brutte del mondo era impossibile non mettere fra i flop fra i troiai fra l'immanè ci siamo e questo è in canto 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 e sarebbe il caso appunto quello che dovrebbero fare i protagonisti disegnati animati di questo film di merda smettela di antà perché non se ne puole più di un'ora e 45 cantano un'ora e un quarto e è Disney si sa ma le anzoni fanno voglia di cacare il doppiaggio è terrificante e in più della storiella di questa famiglia Madrigal che hanno tutti che scappati dai cattivoni in Colombia che hanno tutti questi poteri ognuno ce la supporta su cazzi di poteri invece la nostra protagonista la piccina a sto potere un l'ha avuto e quindi racconta i poteri di quell'altro è canterina ma è tanto felice di non avere poteri detto questo poi si scoprirà che in realtà il suo potere è quello più forte di tutti ovvero di salvare la magia e sti cazzi tutto questo per due ore di nulla non succede di un emerito cazzo in questo film i personaggi sono praticamente bignami dell'idiozia c'è la classia Fiona Bona che però poi non vuole essere Fiona Bona ma vorrebbe essere alternativa c'è la classia Fiettina che sembra che un conti incazzo un po' invece salva l'universo c'è la classia vecchia che sembra tanto cattiva ma che in realtà poi è buona merpane ci sono i classici genitori che sembrano tanto non caccare la figliola poi tanto la caccheranno fino alla fine in un luogo e serie totale di luoghi comuni siamo di fronte assolutamente alla melassa che se te la strizzano in bocca praticamente ti asca tutti i denti in 15 secondi perché siamo in un film dove se vogliamo fare un film musicarello tipo Vestoria allora bisogna fare la principessa e il ranocchio bisogna fare delle musiche interessanti non fare sta stronzala con tutte queste musiche sudameriane scritte a cazzo di cane col solito giro di do in più le anzoncine di spiegazione sono orribili in più i personaggi fanno voglia di ca e quindi non mi si venga a dire che però è fatto bene è costato 150 milioni di dollari bm a d anche se è animata a passo 2 vorrei anche vedere che è animato bene vorrei anche vedere che ci hanno speso vaini per i fondali però c'è un piccolo problema per il sottoscritto questo film non ha alcuna anima quei fondali potranno essere quanto cazzo li pare curati ma non sono assolutamente niente sono il vuoto cosmico perché se non ci metti una storia intelligente dei personaggi che ci prendono ma ci ricicli l'ennesima storiella della vimbettina con l'occhialoni che nessuno vuole ma che poi vogliano tutti perché alla fine la salvatrice ci hai anche sbranato il cazzo Disney con i tuoi buoni sentimentini di merda tutti bravi tutti belli non c'è un cattivo in questo cazzo di film non c'è un cattivo quando si diceva un tempo perché più i cattivi funzionano meglio è si diceva oh sì ormai il cattivo praticamente non c'è il cattivo è se stesso è il film che è cattivo perché è un film veramente odioso ogni tre minuti antano e quando antano veramente avresti voglia di invadere la Polonia ti senti Wagner nell'orecchio perché hai proprio voglia e a un certo punto cerchi di rientrare in te stesso e dice via giù l'hanno fatto per i bimbi e poi dopo ripensi tre sioni ho capito ma i bimbi vanno trattati come degli idioti solo perché sono bambini e quindi gli va dato questa pappa scodellata del cazzo qui diretta in maniera così ignobile non si riconosce più niente ormai la Disney è talmente piatta che non ma dove sono finiti i tempi della Pixar di Up di Wall-E ma dove cazzo è finita la Disney di Raperonzo ma anche la Principe Serranocchio se si può parlare di livelli più veloci ma dove è finito Zotopolis ma dove cazzo sono che quest'anno ci è toccato Luca e Incanto ma qui siamo di fronte veramente alla monnezza della spazzatura non me ne frega un cazzo se è fatto bene a livello tecnico perché personalmente poi oltretutto com'è il design di questi personaggi mi fa onco al cazzo sembra di vedere oceani ancora più brutte già un mera garbato velo però perlomeno si guardava e a un certo punto vorresti cambiare mondo vorresti essere sparato su un Marte pur di non doverti subì questo supplizio perché Incanto un cazzo Canti anche di morto tanto e Canti di merda e ci hai anche rotto i coglioni smettila di cantà Incanto appunto il titolo era perfetto un livornese sa fai in canta hai smesso bravo perché perché non sei buona un cazzo Jared Bush Castro Smith Brian Howard regista che io dico regista ma siete pure in tre in tre a dirigere sta roba ma io in tre porca di una troia per cosa poi cosa cazzo c'era di così difficile da dicere è un film di merda ambientato tutto una nasa che si screpo la ragione nandela del cazzo veramente uno dei film Disney più brutti di tutti i tempi porca troia insieme a Luca fanno coppietta due film veramente orribili ma questo è incanto tocca dei livelli che sono tragicomici cioè a un certo punto non ti rendi conto se davvero fanno sul serio o ti pigliano per il culo non ci credi al ventesimo minuto incominci a pensare che qualcuno ti abbia fatto una macumba e che tu stia dormendo un incubo veramente terrificante meno male sta a sonare il telefono così è la volta buona che finisco di dire che incanto è un film di merda altro cesso invedibile di quest'anno è l'ennesimo capitolo di una delle saghe più brutte che la storia del cinema d'azione abbia mai inventato eppure una delle più remunerative piene zeppe di sordi per chi le ha prodotte piene zeppe di successo per chi le ha interpretate e piene zeppe invece di merda per chi ama il cinema perché se il primo Fast and Furious di vent'anni fa e Coda era semplicemente una specie di remake non dichiarato del Point Break di Catherine Bigelow sulle macchine fatto a cazzo di anet amarrissimo e poi piano piano siamo andati sempre a buttarla più di fuori il regista di questo ennesimo nono capitolo se non si conta anche le hobby show siamo a 10 di Fast and Furious il solito Justin Lin shooter di modesto livello che ha girato già altri 4 o 5 dei film di questa saga inguardabile quindi dicevo siamo arrivati a questo nono via e questo nono è una merda incredibile io avevo detto per scherzo qualche anno fa che prima o poi arriveranno sullo spazio vestiò le macchine e questo film mi ha praticamente fatto diventare una specie di Cassandra visto che nella scena più brutta dell'anno più delirante e stupida dell'universo due in macchina con un missile vengono sparati nello spazio a distruggere in satelliti con i quali ci passano addirittura attraverso e manco muoiano e in tutto questo c'è la storiella del solito Torello lì Toretto Torello che si era messo in campagna a vive con Michelle Rodriguez e il bimbino viene richiamato invece a dover dagli amici a fare una lotta comune nella quale rincontrerà il fratello che forse è cattivo forse no non ha capito al quinto minuto cos'è il successo vero John Cena torna Charlize Theron torna il cinese che sembrava morto in un vecchio Fast and Furious torna anche il cinema di merda con questo film Fast and Furious 9 9 mi pare che siano abbastanza 9 9 sono tanti 9 sono veramente quindi 20 anni che ci perseguita questa cosa che ai suoi ammiratori nessun problema ma questo veramente è un film indecifrabile scritto col buco del culo recitato malissimo montato malissimo le scene d'azione tutto computerizzato quando vogliono fare le scene in macchina vera diventano talmente fuori e sopra le righe che non sono mai credibili ed è un film che tutti dicono è un fumettone pigliano come tale ma non è che fumettone devono farca per forza non è che questi devono recitare come gronchi ad ogni costo cioè Fast and Furious 9 ma un bi basta cioè qui veramente veloce e furioso divento io divento lo spettatore alla visione di questa puttanata di più di due ore dove ripeto ormai le macchine volano negli spazi per distruggere satelliti dove tornano cattivi i buoni si rigirano le trame e non ci si capisce più una sega uno di quei classici film del cazzo che è buono esclusivamente per gli ameriani hanno malizzati ormai io credo che nemmeno gli amanti della saga di Fast and Furious si riescono più a sopportare questa cosa perché questo Fast and Furious 9 è veramente la fine del cinema d'azione americano non c'è alcuna ironia l'ironia che ci vogliono stioccare dentro è talmente di grana grossa che in realtà risulta l'opposto risulta appesantire ancora di più una sceneggiatura delirante una sceneggiatura talmente scema che si scrive in due righe e che poi però va a dividirla effetti speciali arrotta di holla miliardi spesi per puttanate per un film che non dice niente niente di più se non in solito la famiglia la famiglia con questo modo anche similmafioso di questa famiglia rompi coglioni che ha sto toretto torello come un Vin Diesel che un tempo era un attore e che adesso è la parodia di se stesso così come è la parodia di se stesso Fast and Furious 9 del quale ripeto se il primo era un accettabile filmetto d'azione che copiava in tutto e per tutto buttando dal surf alle macchine e point break ormai siamo veramente alla fantascienza a livella più brutta fetente che si sia mai visto questo è un film dell'asylum solo che ci hanno spesso i miliardi nient'altro da dire qui siamo in fronte al trash non voluto alla spazzatura al cinema che non dovrebbe più esistere d'azione per far capire insomma la gente che un certo tipo di azione non è questa l'azione deve avere fondamenti sulla società deve avere fondamenti su dei grandi personaggi ben scritti deve avere un'epica deve avere una catarsi non deve avere semplicemente gente grossa a due metri che fa a cazzotti o corre in macchina a cazzodiane arrivando ripeto nello spazio a salvare la gente spaccando oddio mi viene proprio come si fa di un'oseg genere senza sentirsi sceme con una macchina con un missile sulla schiena sono arrivati a distruggere un satellite in questo film no altro potrebbe bastare Fast and Furious 9 si e boh gli attori sono sempre belli la storia è sempre bella questi devono salvare l'universo non si apisce bene perché ormai anche Fast and Furious sembra diventato un film di supereroi solo che questi manco c'hanno superpoteri sono semplicemente super test di azzo e non capiscono un cazzo né uno né l'altro perché tutti i colpi di scena sono talmente telefonati che questi in scena non riescono a indovinarne manco mezzo quindi pamamia uno di quei film è veramente definire l'ispazzatura è davvero poco non riesco bene a capire se la Disney di punto preso di sua intenzione o per follia riesca a distruggere tutti i cattivi più grandi anzi delle sue storie dei suoi film di animazione dopo aver massacrato in due film malefica con Angelina Jolie due film uno più orribile dell'altro hanno pensato bene di distruggere un mito un mito della mia infanzia tra l'altro uno dei cattivi più belli della storia del cinema secondo me che era appunto Crudelia De Mon e tirano fuori questo filmaccio Crudelia che qualcuno ha anche avuto il coraggio di dire che è un film bello ora se questo è un film bello lo sono anch'io come film niente male e allora la storia è quella di avere questa bambina Estelia che viene chiamata Crudelia dalla mamma perché è particolarmente schizzata a metà capelli bianchi cosa succede? un giorno la mamma muore per un incidente la nostra va a rifinire per la strada scappa e va a rifinire per la strada incontra questi due ragazzini ladri ci cresce insieme e poi troviamo la nostra teenager che appunto fa un furto fa un casino e per un motivo che non vi sto a spiegare insomma viene assunta in un atelier dove incontra questa baronessa interpretata da Emma Thompson e poi di tutto il casino verrà fuori fino a scoprire 6416 corpi di scena uno meno credibile dell'altro ha un filmaccio veramente questo vi è girato dal ritmo da spot televisivo con movimenti assolutamente inutili da un regista che aveva dimostrato di avere un bel talento con Tonya e che qui invece dimostra assolutamente di essere al servizio della Disney e di non avere niente di quello che aveva di interessante la sua regia così realista così slavata di Tonya qui tutto è un tono da spot da videoclip poi il problema sta alla base insomma questa Crudelia è l'ennesima ragazzina è un po' fricco un po' disturbato ma comunque buona alla fin fine e qui si non si capisce è un sequel è un prequel è un reboot è una voglia di ridisegnare qualcuno per non renderlo così odioso cioè la bellezza di Crudelia Demon è che era una dononone di due metri cattivissima che odiava gli animali e basta cioè tutto lì e qui non basta davvero la scenetta iniziale coedalmata non basta veramente il post credit qui siamo di fronte a un film che in realtà non diverte proprio nessuno se non forse qualche ragazzina cioè Emma Stone sarà anche bella e brava ma in questo film proprio non si capisce ma non si capisce la scrittura cioè questa Emma Thompson questa lì è la donna più cattiva del mondo è talmente cattiva che non è possibile è veramente a gamba tesa una sceneggiatura del genere non ci si può fare in più per cercare di far simpatia buttano dentro un po' di Swing in London anni 60 ci buttano dentro un po' di musica che garba un po' a tutti e soprattutto un po' di punk per cercare di fare diventare la nostra una ribelle freak più o meno che una cattiva e questo non interessava a nessuno cioè quindi non interessava a nessuno se canta Wannabe Your Dog proprio non me ne può fregare di meno e così come si sentono Ramones Rolling Stone pezzi messi lì per due minuti dieci secondi proprio per cercare di agguantare diciamo una voglia anche in un certo senso Edgar Wright di messa in scena e per portare la nostra più vicino a un personaggio diciamo pazzo ma buono e questo non torna minimamente assolutamente nemmeno nel film cioè il suo personaggio è caricato a pile veramente caricato a pile poi ripeto la trama è veramente congeniata con dei colpi di scena che non si reggono in piedi e nel mezzo c'è tutta questa gente Emma Thompson Emma Stone Joel Frye Paul Walter Hauser Emily Beckham Mark Strong tutti buttati lì perché questa sceneggiatura veramente è delirante questi due vissi sono messi a metterla insieme sono per i leggo Dana Fox e Tony McNamara ma non sono riusciti nemmeno a tirare fuori una storia decorosa per un film come ho detto girato a cazzo di cane da questo Craig Gillespie che sembrava poter avere una mano ma qui invece gira come se fosse la prima parte di una serie tv non c'è profondità dei personaggi è veramente una cagata incredibile cioè non si può non si può veramente cercare di dare ritmo con un montaggio frenetico a qualcosa che non dovrebbe essere frenetico non c'è forza in questi personaggi non c'è assolutamente nessuna scrittura irrita porca puttana irrita veramente il suo volere essere falso alternativo a un film mostrato 100 milioni della Disney va veramente surcazzo cioè qui siamo dalle parti dell'orribile Le streghe di Zeme che sono un altro fallimento totale nel cercare di voler fare qualcosa di cattivo in realtà si sfiora sempre il buonismo retorico e qui veramente siamo al limite al limite i dialoghi sono insopportabili le musice come ho detto sono messe lì apposta per garbare non perché hanno un senso narrativo ed è fastidiosissimo e tutti i personaggi restano a mare direttamente sopra le righe non si capisce perché è Mastone buona com'è nessun perché non si poteva tingere mezzi capelli bianchi non si capisce proprio cioè qual è il problema di mezzi capelli ormai è veramente una stupidaggine e poi come nessuno riesce a non capire che sono le stesse persone e Stella diciamo e Cruella me la chiamano via cioè è veramente un film delirante uno dei film più brutti dell'anno una noia mortale una noia veramente mortale ci mancava a un certo punto iniziassero a spararsi a ralenti e c'era veramente tutto nonostante poi ci sia anche dell'azione che nessuno assolutamente voleva come commedia non funziona non si ride mai la noia è sovrana e oltretutto si sente veramente la presa di culo verso chi amava quel personaggio e la presa di culo veramente gigantesca verso tutto il proprio pubblico cioè qui siamo di fronte a una furteria dice che ci sarà anche un sequel ma me ne tocco le palle questo film speriamo di no è eternamente brutto talmente mal scritto talmente sciatto che non ci si può credere i soldi vengono fuori solo nella patinatura della messa in scena la fotografia è come quella di altre mille serie tv il modo di girare di questo Gillespi sembra spento non ha niente a che vedere con quel sistema potente che aveva usato Antonia Emma Stone pare che non abbia mai imparato a recità è tutta mossette ghignettine cazzate e il film alla fine si srotola 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 una serie di cazzate una serie di coglionate una serie di cattiveri che poi alla fine non ci si crede veramente più proprio perché non si sta al passo coi tempi in questo film non si riesce a capire che ormai i cattivi possono rimanere anche tali descriverci come tali non per forza ormai tutti i cattivi devono averci un problema ed essere di fricca essere diventati cattivi per qualcosa questa psicanalisi del cattivo c'è anche un prodotto i coglioni erano belli così per com'erano i cattivi Disney punto questo cercare di raccontare la scuoiatrice di Dalma da come è diventata tale attraverso un personaggio che sembrerebbe non poter mai scuoiare niente è veramente assurdo quindi l'ispirazione al romanzo della carica di 101 l'ispirazione anche al film crolla completamente non c'è niente di quel personaggio niente di niente nonostante poi alla fine Mr. Roger inizia a cantare Crudelia de Mon non ci siamo proprio uno dei film più brutti dell'anno una delle illusioni coscienti proprio perché la Disney ormai non ne becca praticamente più una le liscia tutte e questa l'ha presa proprio di ghignata perché un personaggio come Crudelia de Mon è un personaggio fantastico proprio per la sua crudeltà proprio per la sua follia qui riduce anche due ladruncoli a due personcine buone ora ci siamo veramente abbastanza rotti coglioni di questo disfacimento di personaggi meravigliosi stati creati per essere poi distrutti io non so come si faccia veramente a dire di amare una cosa di questo tipo siamo di fronte a un film talmente scemo che non ci si crede le creazioni tra l'altro di vestiti di questa sono anche bruttarelle non c'è nemmeno fantasia nelle creazioni sono creazioni viste riviste mille volte ed è un film che fa praticamente di un personaggio cattivo un personaggio positivo ma positivo in troppo e quindi alla fine il nostro personaggio che doveva essere al limite un po' bipolare al limite un po' dicotodemicamente non diviso così tra bene e male in realtà sotto la patina di un certo tipo di cattivismo che gli vanno da questa è buona come una pasta e il film non torna proprio un cazzo poi oltre al fatto del tradimento del personaggio avessero fatto una storia decorosa pare una storiella veramente di serie Z sembra il diavolo a veste prada mescolata Eva con altri 5.000 altri 600 film anche un po' se vogliamo addirittura di personaggio alla Harley Quinn volendo dentro che siamo veramente ormai al disfacimento totale la Disney sta distruggendo se stesso e noi c'è anche abbastanza rotti i coglioni crudele è sim ma la Disney a continuare a proporci merda di questo tipo anno dopo anno sarebbe anche l'ora di farla finita boiale e meno male la gente si aspettava sta fase nuova della Marvel è iniziata veramente di merda fra Black Widow questo Shang-Chi The Eternals l'ora di Eternals e l'ora di Eternals andranno nel peggio del prossimo anno e verranno fatti in qualche Patreon di qui a poco perché me li hanno chiesti ma intanto visto che ci rientrava in quest'anno è impossibile non mettere fra i pregiori il film dell'anno questo orribile Shang-Chi e la leggenda di Dieci Annelli è intenacata incredibile e allora mi aspettavo per così perché mi aspettavo magari un film di arti marziali cupo intelligente magari che riportasse molto all'Oriente invece ma che niente questo film Macho Vì è scritto da tali Daniel Cretton Dave Callan e Andrew Lam sei mani per scrivere una sceneggiatura e stavano un blocchettino sì in un post-it la storia di questo Shang-Chi sto bimbetto che è praticamente figlio del mandarino diciamo così che è un millenario guerriero che una volta ha incontrata la madre appunto di Shang-Chi che era il guerriero anche stessa che lo sconfigge si mettono insieme tutto bello tutto buono finché un giorno non arrivano ammazzano la magia allora il nostro fa diventare il guerriero il bambino che ha fatto una cosa terribile scappa e quindi lo ritroviamo da ragazzo vent'anni dopo da adulto diciamo così che però non ha voglia di fare un cazzo stanziamo la sua amica e fa il parcheggiatore e ne è felice e già qui tutta questa parte di commedia è di una tristezza in mano e poi cosa succede? succede che il nostro praticamente viene reinserito in un grande casino perché ci sono della gente che vuole praticamente portare via questo medaglione che è uguale all'altro che ha sua sorella che lui ha lasciato ai tempi al villaggino dietro tutto questo chiaramente c'è il cattivo padre ovvero Tony Leung poveraccio che qui in Valenza Prem da In The Mood For Love a Shang-Chi veramente siamo passati dalle stelle alle stalle ma è qui siamo proprio di fronte a un film che non funziona mai le scene d'azione di botte sono vecchie di 30-35 anni le girava meglio sui arc con una mano solo sono veramente buttati lì da questo regista Dustin Daniel Cretton che appunto è anche uno degli sceneggiatori che mamma mia dimostra assolutamente di non avere idea di cosa sia blepica di non avere idea di cosa sia un film che debba avere una certa potenza una certa voglia di raccontare qualcosa un'altra volta si tenta di riportare tutto sull'ironia di fare il cinema alla gun un certo ciclo di cinema divertente di quel tipo ma se non si riesce a creare quell'alchimia che il nostro James riesce a mettere dolcezza nei personaggi follia anarchia visiva splatter e invece poi si va alla ricerca del buonismo a tutti i costi questo è quello che esce fuori un film dove si picchiano si ammazzano si deflagrano non c'è una goccia di sangue un film dove non c'è una parolaccia praticamente un film terribile terribile sotto tutti i punti di vista una scrittura delirante e poi vanno appaiono personaggi veramente delle MCU buttati a cazzo di anime Wong che fa botte dentro una specie di 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 quando incontrano il mandarino che era interpretato e c'è povero Ben Kingsley qui tutti i decollegamenti non hanno niente a che vedere con la storia che si annacqua in questo mare ormai di di puttanate che la Marvel ci butta dentro è impossibile seguire questo film un'altra volta se uno non l'ha visto non capisce due tre cose non capisce l'andamento dei personaggi il finale il doppio finale il triplo finale ci hanno anche brasato i coglioni non si riesce vede un film dall'inizio alla fine e in più questo film è proprio brutto, madonna come è scritto male ci sono dei dialoghi che sono da rimanerci male per quanto sono idioti, senza contare che il montaggio è proprio sbagliato, le scene d'azione non hanno plasticità, non hanno forza non c'è alcuna voglia di coreografare in maniera diversa da quella che non sono altri 6.740 film di Kung Fu che abbiamo già visto negli anni 70 e rifarli adesso in quel modo lì con 6.000 usi di computer grafica è veramente un colpo al cuore per il sottoscritto perché questo non è un vero film di arti marziali come film di supereroi fa schifo perché questo supereroi non sa di un cazzo, questi anelli poi ne arrivano in fondo, poi questa lotta fra quel cattivo sempre più cattivo e poi arrivare buono ancora più buono il finale infinisce mai, c'è 7 un battimento, i 7 finali di fila hanno veramente rotto i coglioni, più il rapporto con la sorella è veramente buttato a cazzo di cane ma un minimo, un minimo cazzo di grazia nella scrittura di Vestiosevi, niente proprio scritto, come ho detto, su un post-it diretto per telefono recitato, mamma mia il protagonista che ha una faccia che in se può guardare e poi ripeto, è uno di quei classici film che durano due ore, un quarto e dei quali praticamente si picchiano un'ora e mezzo e nel restante del tempo dicono puttanate o cose serissime quindi è un film che scontra un'altra volta questa cosa, se non sapete scrivere una commedia che abbia all'interno però del nero, abbia all'interno delle idee interessanti per poi diventare seriosa, non lo fate non sono riuscito a fare nient'altro che riprendere uno grosso che fa a botte tutto il film e dice puttanate che vuol fare il parcheggiatore che è un sogno meraviglioso tutto il bene di fare il parcheggiatore però che sia un sogno veramente mi pare un pochino troppo e poi c'è proprio questa logica di questa falsa amicizia che poi amicizia il fratello la sorella che la lo rovina di Azzotti in quella scena terrifiante quando si incontrano è veramente poi quella cosa e lei diventa il capo alla fine è un film talmente scemo e talmente brutto che nemmeno chi l'ha fatto se non ci credeva è talmente idiota proprio che a un certo punto fai ma 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 perché perché fanno determinate azioni dentro questo cazzo di film perché succede questo perché succede quell'altro un insieme di ruberie di tutti i film di chi abbia mai visto fantasy codraghi e non veramente una bruttura inconcepibile inconcepibile ma come cazzo si fa a buttare via 200 milioni di dollari in una zozzeria del genere qui siamo in fronte a un film che non è assolutamente difendibile sotto nessun punto di vista la fotografia è praticamente quella di uno spot senza alcun cambio senso proprio sembra fatta tutta in post in post produzione non sembra nemmeno che il direttore della fotografia sia esistito sul set il montaggio mi ha detto è tutto sconclusionato su me fa proprio che riporta indietro il cinema d'azione non si riesce a capire perché questo tipo di montaggio debba essere così esasperato ecco perché non fate combattere un po' di più ormai dopo John Wick e altri film si era capito che Hong Kong già da 40 anni facevano sì e invece siamo ritornati a montare anche il peggio cazzotto riuscendo anche a scavercare una volta su tre poi gli effetti speciali sono troppo computerizzati rompano veramente i coglioni il cattivo non esiste praticamente perché sono due gente non sanno di un cazzo Tony Leung fa veramente tristezza a vedercelo cioè Tony Leung mi ha fatto venire male al cuore ve l'ho ridotto con la faccia non sa nemmeno dove guarda lui poverino e poi tutta la scena iniziana anche quando fa botte alla moglie è brutta come se ne sono viste poco non c'è afflato sentimentale non c'è voglia veramente di crudeltà delle arti marziali dove è il sangue dove sono gli ossi rotte senza ossa rotte l'arte marziale quando è seria così salvano il mondo di storia bisogna che porti a casa anche le conseguenze della stessa un videogioco malfatto un troiaio inguardabile senza avere nessuna appeal per nessuno se non per i fan della Marvel che forse hanno schifato anche loro sto coso perché è veramente inguardabile cioè non ti passa più una noia mortale siamo qui di fronte a sto pappone che vuole essere divertente ma invece irrita che vuole essere ed azione e invece annoia che vuole fare le arti marziali e invece hai voglia che quello che si stanno dando cazzotti si rompano le gambe volendo tutti di sotto compresi i protagonisti perché sono talmente antipatici che non ci si può credere e poi ripeto tutti quelli innesti con Ben Kisley il mandarino si è roba è roba secondo me sottoscritto secondo me da vergognarsi proprio anche solo averla pensata non solo averla messa in scena ma ormai si sa è così l'MCU sta sfornando una merda dietro l'altra solo per cercare di andare dietro appunto a questo universo che piano piano si sta sgretolando perché questi non ne beccano una e ogni film devono cercare di risolvere una situazione del film prima qui l'unione se l'hanno risorto probabilmente sono i conti in banca si è andato abbastanza bene non lo so so che i cinesi si sono più rincazzati e un po' posso anche capire perché e che non l'hanno proiettato sto film che resta un film di merda quindi ben cinesi che non si sono persi nulla invece hanno ci ha toccato tenessi vesto di tre mesi nel cinema perché la gente voleva vedere solo questo che è veramente un troiaio lo ho riperto un troiaio infinito dove ci si rompe le palle dalla mattina alla sera e con un protagonista con una faccia del genere non si può girare manco uno spot del ramen per favore a questo non ha assolutamente la faccia arfisio gigante ma non è buona un cazzo non sa recitare in questo film forse non è colpa sua è diretto in maniera talmente a cala cazzo di cane e li fanno dire talmente stronzate che probabilmente neanche se fosse stato Marlon Brando sarebbe riuscito a tirar fuori qualcosa da questo personaggio così l'orfio insomma in conclusione funziona proprio un cazzo di questo film si vuole far passare la modernità del nostro il macchino le scarpe da tennis in confronto al misticismo all'epicità delle dinastie cinesi e tutto il resto invece quello che alla fine sembra proprio di venire fuori è che è un film pieno di produce placement che è un film che non è un cazzo da dire che è un film che hanno buttato lì nel mezzo per fare un supereroe tanto a caso boh perché questo Vicky cazzo se lo fregava forse gli servirà nella struttura futura di questo Marvel Cinematic Universe forse non ci ho capito un cazzo perché mi hanno detto seguì anche le serie tv io non ci sto capendo più una sega so solo che se il film è scritto così serie tv o no chi abbia seguito o non abbia seguito è scritto veramente di merda se il film è diretto sì chi abbia seguito o non abbia seguito è diretto veramente di merda è recitato di merda e non c'è una stilla dell'epica dell'avventura e della forza nemmeno dei film un po' più ironici di questo tipo siamo lontani da qualunque cosa mescoli acutamente e ardentemente con forza la commedia l'avventura il fantastico e ci porta in un altro mondo insomma di quelli che ci fanno sognare qui invece ci porta in un altro mondo ma è un incubo un incubo incredibile dal quale si esce fortunatamente dopo due ore e un quarto che sembrano però tre settimane a voi cercate di guardare sto film per me una volta è bastata ci sto alla larga è veramente una cozzaglia di scene messa una dietro l'altra con dei dialoghi non senza che sarebbero stati buoni forse in un film dei fratelli Marx ma quindi bella gente questo meglio e peggio è finito e messo un bel po' di roba nel meglio un pochino meno nel peggio spero che possiate prendere spunto dal meglio per poter guardare dei bei film e spero vi possiate divertire con il peggio quindi cosa vi posso dire di più naturalmente l'anno è riniziato io sono sempre qui da video non mi inviamo a 185 finché si dura e dire di più il meglio e il peggio è il video che aspettate più di tutti dopo di questo farò una mini monografia questo mese perché dopo aver fatto il meglio e il peggio cercherò di utilizzare cercherò di omaggiare uno dei registi che amo di più di animazione che purtroppo è morto pochi più che quarantenni ovvero il grande Satoshi Kon farò una piccola monografia su di lui poi il mese dopo evidentemente andrò su War Car Wai perché ho voglia di fare tante belle monografie orientali visto che non mi riesce più di fare un frusciante in oriente butto le monografie sull'oriente così poi la gente non le guarda e si incazza con me detto questo insomma il video eccolo vi è finito spero vi siate divertiti come mi sono divertito io a girarlo naturalmente questo video non sarebbe minimamente esistito senza l'aiuto un po' di Fabrizio e di altri amici e tutto il resto ma non sarebbe assolutamente esistito senza mia moglie che mi spronasse a farlo e insomma e a darmi una mano anche a ricordarmi i film e le ose perché non mi scordo tutto e quindi se non ci fosse stato l'aiuto di lei a darmi dietro probabilmente questo video non sarebbe mai esistito quindi un abbraccio gigante a tutti quelli che mi vogliono bene che mi vengono a trovare qui a Livorno e quindi vi aspetto un abbraccio gigante anche a tutti quelli che mi vogliono male perché tanto più parlate di me più la gente mi viene a seguire quindi a me di voi me ne può fregare meno di un cazzo detto questo quindi un abbraccione enorme a mia moglie Eleonora un abbraccio a tutti quelli che mi vengono a trovare torneranno tutti i giorni le mini recensioni su Patreon poi consigli musicali consigli del mese chiaramente e tutto quello insomma che esiste sul mio canale YouTube seguitemi su Facebook su Instagram e se tutto va bene fra qualche mese forse dovrò approdare per forza su Twitch vediamo un po' come andrà il negozio un abbraccio anche al mio socio Filippo al Braschi e insomma aspettando cattivo sangue in tutte le sale d'Italia si spera ok quindi un abbraccio di nuovo a tutti quelli che mi vogliono bene e a quelli che mi vogliono bene da Federico Frusciante via Magenta 85 è tutto il meglio e il peggio ve l'ho donato ora a voi scoppiabelo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti